il trono di spade primo libro delle cronache del ghiaccio e del fuoco un gioco di troni se vi piace quest'opera il modo in cui la leggo mi invito a mettere mi piace commentare condividere il video e seguirmi sui miei canali social tra cui spotify instagram e spreaker se volete contattarmi per un lavoro su commissione trovate i link utili in descrizione un grazie speciale agli abbonati che mi sostengono ogni mese con un piccolo contributo e mi permettono di andare avanti grazie buon ascolto in una terra fuori dal mondo dove l'estati e gli inverni possono durare intera generazioni sta per esplodere un immane conflitto sul trono di spade nel sud caldo e opulento siede robert baratheon l'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa togliendolo all'ultimo folle re della dinastia targaryen i signori dei draghi ma il suo potere è ora minacciato all'estremo nord la barriera una muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e soprattutto dagli estranei sembra vacillare si dice che gli estranei siano scomparsi da secoli ma se è vero chi sono allora quegli esseri con gli occhi così naturalmente azzurri e gelidi nascosti tra le ombre delle foreste che rubano la vita o il senno a chi ha la mala sorte di incontrarli la fine della lunga estate è vicina l'inverno sta arrivando e non durerà poco solo un nuovo prodigio potrà squarciare le tenebre intrighi e rivalità guerre e omicidi amori e tradimenti presagi e magie si intrecciano nel primo volume della saga de le cronache del ghiaccio e del fuoco definita da marion zimmer bradley la più bella epopea che io abbia mai letto il trono di spade di george martin il grande inverno libro primo delle cronache del ghiaccio e del fuoco letto dall'avido alchimista prologo le tenebre stavano avanzando meglio rientrare gared osservò i boschi attorno a loro farsi più oscuri i brutti sono morti da quando hai paura dei morti c'era l'accenno di un sorriso sui lineamenti di sir wayman royce gared non raccolse era un uomo in età oltre i 50 e di nobili ne aveva visti andare e venire molti ciò che è morto resta morto disse e noi non dovremmo averci niente a che fare che prova abbiamo che sono realmente morti chiese royce a bassa voce will li ha visti come prova a me basta will sapeva che prima o dopo l'avrebbero trascinato nella discussione aveva sperato che accadesse dopo piuttosto che prima mia madre diceva che i morti non parlano si intromise davvero will la rispose royce è la stessa cosa che mi diceva la mia balia mai credere a quello che si sente vicino alle tette di una donna è sempre da imparare perfino dai morti la foresta piena d'ombre rimandò a echi della voce di sir wayman troppi echi troppo forti e definiti ci aspetta una lunga cavalcata insiste garred otto giorni forse nove e sta calando la notte cala ogni giorno quasi sempre a quest'ora sir wayman alzò uno sguardo privo di interesse al cielo che imbruniva qualche problema con il buio garred will vide le labbra di garred stringersi e la rabbia repressa a stento invadere i suoi occhi visibili sotto lo spesso cappuccio nero del mantello garred aveva passato 40 anni nei guardiani della notte la maggior parte della sua vita di ragazzo tutta la sua vita di uomo e non era abituato a essere preso con leggerezza ma questa volta nel vecchio guerriero c'era qualcosa di più dell'orgoglio ferito una tensione nervosa che arrivava pericolosamente vicino alla paura will la percepiva la sentiva forse perché lui stesso aveva paura era di guarnigione sulla barriera da quattro anni la prima volta che l'avevano mandato sull'altro lato tutte le antiche, sinistre storie gli erano tornate alla mente come una valanga aveva sentito le viscere attorcigliarsi e il sangue andare in acqua in seguito ne aveva riso era un veterano adesso con centinaia di pattugliamenti alle spalle per lui non c'erano più terrori in agguato nella sterminata estensione verde scuro che quelli del sud chiamavano la foresta stregata o perlomeno non c'erano stati terrori fino a quella notte c'era qualcosa di diverso quella notte qualcosa che gli mandava brividi gelidi lungo la schiena le tenebre la loro densità erano fuori da nove giorni e avevano cavalcato prima verso nord poi verso nord est poi di nuovo verso nord seguendo da vicino le tracce di una banda di bruti e allontanandosi sempre più dalla barriera ogni giorno era stato peggiore del precedente e quel giorno era peggiore di tutti il vento gelido che soffiava da settentrione faceva oscillare e frusciare gli alberi della foresta come se fossero dotati di una loro vita interna per l'intera giornata Will non era stato in grado di scacciare la sensazione di essere osservato da occhi implacabili paralizzanti carichi di odio anche Gared aveva avuto la stessa sensazione e adesso Will aveva un'unica idea in mente tornare al più presto dietro la sicurezza della barriera ma non era un'idea da condividere con il comandante specialmente con un comandante come quello Sir Wayman Royce era il più giovane rampollo di un'antica casata con fin troppi eredi era bello diciotto anni occhi grigi asciutto come la lama di un coltello in sella al suo mastodontico destriero nero torreggiava su Will e Gared che montavano cavalli di taglia ben più piccola indossava stivali di cuoio nero pantaloni di lana nera guanti di camuscio nero tunica nera gilet di pelle nera il tutto ricoperto da un ampio giaccone di lucida stoffa borchiata nera anch'essa aveva prestato giuramento come confratello dei guardiani della notte solamente sei mesi prima ma non si poteva certo dire che non si fosse preparato per la sua nuova vocazione e per i doveri che lo aspettavano perlomeno quanto all'abbigliamento il tocco finale il mantello era la degna corona dell'intero addobbo pelliccia d'armellino nero spessa e soffice come un peccato di lussuria deve averli fatti fuori tutti lui quegli animaletti aveva commentato acidamente Gared mentre si faceva un bicchiere di vino quando ancora erano alla guarnigione di persona uno a uno con una bella tirata di collo il nostro prode guerriero gli altri guardiani seduti attorno al tavolo ci si erano fatti sopra una risata non era facile prendere ordini da qualcuno oggetto di sghignazzate da osteria mentre tremava di freddo in sella al cavallo Will non poteva fare a meno di pensarci l'opinione di Gared non doveva essere molto diversa il lord comandante Mormont ci aveva ordinato di trovare le loro tracce e noi le abbiamo trovate disse Gared sono morti non ci daranno altri fastidi abbiamo un duro cammino di ritorno non mi va come si sta mettendo il tempo se comincia a nevicare rientrare diventerà un'impresa e la neve è ancora poca cosa ti sei mai trovato in una tempesta di ghiaccio mio signore il giovane nobile parve non udirlo continuò a studiare le ombri incombenti con quel suo modo di fare a metà strada fra il distratto e l'annuiato Will era uscito di pattuglia con Sir Weimar abbastanza volte da aver capito che era meglio non disturbarlo quando faceva così e sia Will disse il giovane ripetimi quanto hai visto tutti i dettagli senza dimenticare niente prima di entrare nei guardiani della notte Will era stato cacciatore in realtà bracconiere le guardie a cavallo di Lord Jason Malister l'avevano colto nei boschi patronali attorno a Sigurd mentre con le mani insanguinate scogliava un cerbiatto anche quello di Malister la scelta era stata semplice o indossare gli abiti neri dei guardiani o ritrovarsi con una mano mozzata nessuno era in grado di muoversi in silenzio nei boschi come lui talento che la confraternita in nero non aveva tardato a scoprire il loro accampamento è due miglia più avanti disse Will oltre la cima di quella collina mi sono avvicinato più che ho potuto erano in otto tra uomini e donne niente bambini o almeno io non ne ho visti avevano costruito un rifugio a ridosso delle rocce la neve l'aveva coperto quasi tutto ma era ancora distinguibile il fuoco non era acceso i ceppi erano lì pronti però nessun movimento sono rimasto a guardare per parecchio nessuno può giacere immobile nella neve così a lungo nessuno che sia ancora in vita sangue ne hai visto? ecco no ammise Will armi? alcune spade qualche arco uno degli uomini aveva un'ascia roba pesante rozza di ferro scuro era a terra accanto a lui vicino alla sua mano destra hai preso nota della posizione dei corpi Will alzò le spalle una coppia seduta presso una roccia e il resto a terra come se fossero morti oppure addormentati suggerì Royce morti insiste Will una delle donne era su un albero parzialmente nascosta dai rami di guardia ebbe un debole sorriso sono stato ben attento a non farmi vedere non riuscì a reprimere un tremito nell'avvicinarmi però ho notato che nemmeno lei si muoveva hai freddo? chiese Royce un poco mormorò Will è il vento mio signore il giovane cavaliere in sella al destriero nero che si agitava inquieto si voltò verso il guerriero anziano della pattuglia alle loro spalle le fogne irrigidite dal gelo continuavano a frusciare Sir Waymar chiese in tono colloquiale sistemandosi l'ampia cappa d'ermellino secondo te Gared che cosa ha ucciso quegli uomini? sarà stato il freddo la voce di Gared non era priva di una sfumatura ironica un inverno quando ero ragazzo ho visto uomini congelati e non ho visti anche l'inverno precedente tutti parlano di manti di neve spessi 40 piedi del vento glaciale che soffia da nord ma è il freddo il vero nemico ti scivola addosso più subdolo di Will cominci a tremare a battere i denti a pestare i piedi a terra a sognare un buon vino caldo speziato e falò che ardono è il freddo che brucia nulla scotta come il freddo ma non dura molto perché una volta che è dentro di te cominci a riempirti finché non ti rimane più la forza per combatterlo ti siedi ti addormenti molto più facile dicono che quando si avvicina alla fine non senti più niente diventi debole intontito tutto comincia a svanire è come l'impressione di sprofondare in un oceano di latte tiepido pieno di una grande pace quale eloquenza Garred rilevò Sir Weimar mai me la sarei aspettata da te io l'ho avuto dentro di me il freddo signore Garred abbassò lo spesso cappuccio del mantello scoprendo due moncherini deformi al posto delle orecchie Sir Weimar non distolse lo sguardo due orecchie tre dita dei piedi il mignolo della mano sinistra e a me è andata bene mio fratello finì congelato durante il turno di guardia stava ancora sorridendo Sir Weimar si strinse nelle spalle dovresti andare in giro più coperto Garred lo folgorò con lo sguardo la rabbia trasformò le cicatrici attorno alle sue orecchie laddove maestro Eamon era stato costretto a tagliare le parti congelate in rossi sentieri di fiamma vedremo quanto ti coprirai tu signore quando verrà l'inverno Garred si incurvò nuovamente sulla sella cupo e taciturno se Garred dice che è il freddo cominciò Will hai fatto guardia la settimana passata Will si mio signore non passava settimana senza che si ritrovasse in almeno una dozzina di maledetti turni cos'altro aveva in mente quello spocchioso damerino e com'era la barriera umida Will corrugò la fronte ora intuiva dove voleva arrivare Sir Weimar quei brutti non potevano congelare non se la barriera era umida non faceva abbastanza freddo Roy Sanui proprio così abbiamo avuto alcune lievi gelate la settimana scorsa più qualche spruzzata di neve qua e là ma certamente non un freddo tale da uccidere otto uomini adulti uomini vestiti di cuoio e pelli i quali lasciate che ve lo ricordi avevano a disposizione un rifugio ed erano in grado di accendere fuochi il giovane cavaliere ebbe un sorriso di superiorità guidaci Will voglio vedere io stesso quei corpi non c'era altro da fare se non obbedire l'ordine era stato dato e il giuramento li costringeva all'obbedienza Will passò in testa il suo mal ridotto morello che avanzava cauto nel sottobosco la notte prima era caduta altra neve e sotto l'ingannevole strato bianco c'erano pietre radici affossamenti tutte insidie nascoste per chiunque non fosse stato sul chi vive Sir Waymore veniva dietro di lui le froge del grande destriero nero che si dilatavano con impazienza quel cavallo da guerra era inadatto alle esplorazioni nella foresta ma chi avrebbe osato farglielo notare Gared restò di retroguardia mugugnando tra sé il crepuscolo si face più cupo il cielo privo di nudi assunse una sfumatura viola profondo simile al colore di una vecchia contusione da quella tinta scivolò nel nero le stelle fecero la loro comparsa sorse la mezzaluna Will fu grato per quelle luci lontane possiamo andare più in fretta di così disse Sir Waymore quando la luna fu alta ne sono certo non con quel cavallo ribatté Will a meno che mio signore la paura la paura lo stava rendendo insolente non voglia essere tua ad aprire la strada Sir Waymore non si degnò di rispondere da qualche parte nel buio pesto della foresta un lupo ululò Will fece fermare il cavallo vicino a un antico tronco contorto dal tempo e smontò perché ti fermi chiese Waymore meglio proseguire a piedi mio signore il loro campo è appena dietro questa cresta Royce si arrestò pensieroso in volto lo sguardo che esplorava lontano il vento freddo sussurrava tra gli alberi la sua cappa d'armellino si gonfiò come un'entità vivente qualcosa non va disse Gared a voce bassissima davvero? il giovane cavaliere gli rivolse un sorriso beffardo non senti ribatte Gared ascolta le tenebre Will sentiva quattro anni nei guardiani della notte eppure non aveva mai avuto tanta paura cosa c'era là intorno? vento alberi che si scuotono o lupo quale di questi suoni ti turba Gared? il vecchio guerriero non rispose Royce smontò con eleganza e legò le redini del destriero a un ramo basso a debita distanza dagli altri cavalli poi sfoderò la spada lunga le pietre preziose incastonate nell'elsa scintillarono i raggi della luna scivolarono sull'acciaio della lama era una splendida arma forgiata al castello della sua nobile famiglia e a giudicare dell'aspetto da poco tempo Will aveva i suoi dubbi che fosse mai stata usata in combattimento gli alberi sono molto fitti avvertì Will la spada potrebbe impacciarti nei movimenti mio signore meglio il pugnale se e quando avrò bisogno di un consiglio Will sarò io a chiedertelo ribatte il giovane Garrett tu rimani qui gli guardi ai cavalli ci serve un fuoco Garrett smontò a sua volta penserò io ad accenderlo che sciocchezze vai dicendo vecchio in questa foresta ci sono nemici un fuoco è l'ultima cosa che ci serve esistono nemici che le fiamme terranno lontani Garrett non mollò orsi metalupi e e altre cose le labbra di Sir Waymar divennero una fessura niente fuoco ordinò il cappuccio teneva in ombra gli occhi di Garrett ma a Will non sfuggì il lampo di ostilità che scintillò in essi mentre il vecchio guerriero fissava il giovane per un attimo arrivò a temere che Garrett mettesse mano alla spada quella spada era poco elegante brutta da guardare con l'impugnatura sbiadita dal sudore e il taglio scheggiato da tanti duri scontri ma se Garrett l'avesse effettivamente sfoderata Will non avrebbe scommesso mezzo soldo bucato sul collo di Sir Waymar Garrett alla fine abbassò gli occhi niente fuoco si arrese a denti stretti Roy si interpretò la risposta come sottomissione e gli voltò le spalle vai avanti tu ordinò a Will Will si fece strada nel fitto sotto bosco e cominciò a risalire il pendio dalla bassa altura tornando a dirigersi verso il punto di osservazione che aveva trovato dietro un albero sentinella sotto il fine manto di neve il terreno era fangoso e molle cosparso di radici affioranti e di pietre un terreno sul quale era fin troppo facile cadere Will non faceva alcun rumore nel salire ma dietro di sé continuava a udire i fruscii della foresta provocati dal passaggio del giovane nobile che lo seguiva il debole tintinnare metallico del fodero della sua spada imprecazioni soffocate ogni volta che gli aspri rami più bassi andavano a impigliarsi in quella lama troppo lucida troppo lunga e in quella splendida cappa di armellino il grande albero sentinella sorgeva quasi sulla sommità dell'altura esattamente dove Will sapeva che sarebbe stato con le ramificazioni inferiori a neppure un piede d'altezza dal suolo Will strisciò sotto di esse ventre nella neve e nel fango osservando la radura sottostante vuota il suo cuore perse qualche battito per un lungo momento non osò neppure respirare il chiarore della luna illuminava la radura le ceneri del fuoco spento da tempo e il rifugio parzialmente coperto dalla neve le rocce incombenti lo stretto torrente semicongelato ogni cosa era come Will l'aveva vista qualche ora prima solo che adesso erano svaniti tutti quanti nessuna traccia dei corpi dei onnipotenti qualcuno alle sue spalle una lama tagliò alcuni rami Sir Weymar fu a sua volta sulla sommità della collina rimase immobile accanto all'albero sentinella la lunga spada lungo il pugno il manto dermellino che si gonfiava per un'improvvisa raffica di vento freddo era una sagoma nobile quasi imponente stagliata contro la luce delle stelle una sagoma ben visibile mortalmente esposta a terra la voce di Will era un sibilo qualcosa non va guarda laggiù Will Royce non si mosse limitandosi a osservare la radura deserta e lasciandosi sfuggire una risata i tuoi morti hanno deciso di spostare l'accampamento da qualche altra parte Will sentì la voce che gli si strozzava in gola andò alla ricerca di parole che forse nemmeno esistevano non era possibile i suoi occhi tornarono sull'accampamento abbandonato avanti e indietro si formarono sull'ascia la colossale di penne da combattimento giaceva ancora dove lui l'aveva vista immota un'arma così poderosa in piedi Will ordinò Sir Weimar non c'è nessuno qui e non voglio che tu ti nasconda dietro un cespuglio Will obbedì con riluttanza Sir Weimar lo guardò dritto in faccia senza nascondere la propria aperta disapprovazione non ho alcuna intenzione di far ritorno al castello nero portando con me un fallimento alla mia prima uscita di pattuglia noi troveremo questi uomini gettò uno sguardo attorno sull'albero forza Will sali cerca di individuare un altro fuoco uno sguardo attorno Will tornò a girarsi senza parlare discutere non avrebbe avuto alcun senso il vento soffiava più forti quasi a volerlo tagliare in due raggiunse l'albero sentinella e cominciò ad arrampicarsi tra i rami di legno grigiastro in breve le sue mani furono viscide di resina venne inghiottito dal labirinto di snodi contorti di aghi vegetali la paura tornò a riempirgli le viscere come un pasto pesante da digerire sussurrò una preghiera agli dèi senza nome dei boschi estrasse il coltello dal fodero e serrò la lama tra i denti per avere entrambe le mani libere e continuare la scalata in qualche modo il sapore del metallo gelido riuscì a dargli conforto sotto di lui la voce del giovane esclamò chi va là una voce improvvisamente piena di incertezza nel dare l'intimazione will interruppe la faticosa salita rimase immobile ad ascoltare e a osservare o la foresta rispondere a ser weimar il fruscio del fogliame il gorgogliare dell'acqua gerida del torrente il richiamo lontano di un gufo gli stranei non emettevano alcun suono will percepì un movimento con la coda dell'occhio palide ombre nel bosco girò il volto will percepì un movimento girò il volto e colse una sagoma bianca nelle tenebre svanì in un soffio i rami dell'albero sentinella si agitarono nel vento strisciando gli uni contro gli altri come dita schelettriche will aprì la bocca per lanciare un avvertimento ma la voce gli si congelò in gola forse si era sbagliato forse era stato solamente un uccello notturno un riflesso sulla neve uno scherzo del chiaro di luna in fondo che cosa esattamente credeva di aver visto will dove sei chiamò chiamò sir waymark rivolto verso l'alto riesci riesci a vedere niente roy si ruotava lentamente su se stesso di colpo guardingo la spada in pugno anche lui doveva averli sentiti nello stesso modo in cui li aveva sentiti will sentire certo ma niente da vedere will rispondi perché fa così freddo faceva freddo un freddo improvviso innaturale fermando will si aggrappò con maggior forza alla biforcazione la faccia premuta contro il tronco dell'albero sentinella il sentore dolciastro appiccicoso della resina sulla guancia dalle tenebre della foresta emerse un'ombra che andò a fermarsi di fronte da Sir Waymer una sagoma alta scavata dura come vecchie ossa la pelle livida che pareva dall'abastro ogni volta che si muoveva la sua armatura sembrava cambiare colore un momento appariva candida come neve appena caduta il momento dopo era nera come una caverna il tutto andava a mescolarsi a compenetrarsi con lo sfondo grigio verde degli alberi in un sinistro caleidoscopio che mutava a ogni passo simile ai raggi della luna sulle acque agitate Will udisse Royce esalare un lungo sibilo non avvicinarti oltre intimò il giovane la voce incrinata come quella di un ragazzino spaventato si gettò dietro le spalle le falde della cappa ternellino liberando le braccia e preparandosi al duello entrambe le mani strette attorno all'impugnatura della spada il vento aveva cessato di soffiare l'aria era di ghiaccio l'estraneo continuò ad avanzare senza rumore nella destra aveva una lunga spada diversa da qualsiasi altra Will avesse mai visto nessun metallo noto all'uomo era stato usato per forgiare quella lama no nessun metallo infatti la lama era di cristallo pareva un'entità vivente talmente sottile da svanire quando la si guardava di taglio emanava a una luminescenza azzurra un alone spettrale che si faceva indistinto ai bordi e Will sapeva che quei bordi erano più affilati di quelli di qualsiasi rasoio vuoi danzare? Sir Royce affrontò l'avversario con coraggio allora danza con me sollevò la spada alta sopra la testa pronto al duello le sue mani tremavano forse per il peso dell'arma o forse per il freddo eppure in quell'istante Will non ebbe dubbi Sir Royce aveva cessato di essere un ragazzo ed era diventato un uomo un vero guerriero dei guardiani della notte l'estraneo si fermò Will vide i suoi occhi erano azzurri di un azzurro molto più profondo e intenso di qualunque occhio umano un azzurro in grado di ustionare come il morso del ghiaccio gli occhi si soffermarono sulla lama della spada levata sui freddi riflessi che la luce della luna traeva dall'acciaio per un breve istante Will osò dare spazio alla speranza nuove ombre emersero dalle ombre prima due poi tre poi quattro cinque Sir Waymar doveva aver percepito il freddo che arrivò assieme ad esse ma non le vide non le udì Will avrebbe dovuto gridare l'allarme avvertire il suo signore era quello il suo dovere anche a costo della vita tremò si afferrò al tronco dell'albero sentinella e rimase in silenzio la pallida spada di cristallo si mosse fendendo l'aria della notte Sir Waymar la intercettò con la sua spada d'acciaio non ci fu alcun impatto di metalli quando le lame cozzarono solo una vibrazione acutissima simile al lamento d'agonia di chissà quale animale appena percettibile da orecchio umano Sir Waymar bloccò un secondo fendente un terzo e poi arretrò di un passo un altro vortice di colpi lo costrinse ad arretrare ancora di più alla sua destra alla sua sinistra dietro di lui tutto attorno a lui le ombre continuavano a osservare ombre pazienti e silenziose senza volto quasi senza forma definibile nelle loro armature mimetiche caleidoscopiche contro le più profonde ombre della foresta continuarono a osservare nessuna di esse dava il benché minimo cenno di voler interferire le spade tornarono a incrociarsi a cozzare l'una contro l'altra un fendente dopo l'altro un affondo dopo l'altro una parata dopo l'altra fino a quando Will non fu costretto a coprirsi le orecchie quel sibilo angosciante generato dall'urto delle lame non voleva più sentire non voleva più udire il respiro di Sir Weimar si fece pesante per la fatica il suo fiato condensava in ritmiche nuvole bianche nel chiaro di luna la sua lama era coperta di ghiaccio quella dell'estraneo continuava a scintillare di luminescenza azzurra e alla fine Sir Weimar fu lento troppo lento la pallida lama di cristallo arrivò a mordere la cotta di maglia di ferro sotto il suo braccio il giovane urlò di dolore sangue gocciolò sugli snodi della maglia metallica sangue che fumava nell'aria glaciale e sembrò rosso fuoco liquido quando cadde sulla neve Sir Weimar tastò il punto in cui era stato colpito quando ritirò la mano le dita del suo guanto di camoscio erano fradice Estraneo disse qualcosa in un linguaggio sconosciuto a Weimar la voce che pareva lo spezzarsi della crosta di un lago congelato mentre pronunciava parole di ignota derisione Sir Weimar ritrovò il proprio furore Perre Roberts gridò andò all'attacco con un urlo rabbioso la lunga spada incrostata di ghiaccio impugnata a due mani un attacco trasversale carico di tutta la sua forza la parata dell'estraneo fu un movimento pigro quasi annoiato all'impatto l'acciaio della lama di Sir Weimar andò in mille pezzi una specie di urlo si riverberò per la foresta la miriade di frammenti metallici che erano stati una lama splendidamente forgiata volò a disperdersi chissà dove come una manciata di inutili schegge Roy scadde in ginocchio gridando gli occhi coperti dalle mani altro sangue glieluscellava tra le dita le ombre avanzarono tutte assieme come rispondendo a qualche segnale e si chiusero su di lui in un silenzio da incubo le loro spade si sollevarono poi calarono e calarono e calarono nient'altro che un freddo mattatoio le pallide lame di cristallo fecero a brandelli la maglia di ferro come se fosse stata di seta di nuovo Will chiuse gli occhi sotto di sé continuò a udire parole incomprensibili e risate taglienti accominate come stallattiti più tardi molto più tardi trovò la forza di guardare la cima dell'altura era vuota rimase nascosto sull'albero terrorizzato al punto che non osava respirare mentre la luna percorreva il proprio cammino attraverso il cielo nero alla fine con i muscoli intorpiditi e le dita intirezzite dal freddo si decise a scendere Royce giaceva nella neve faccia di sotto un braccio disteso di lato la spessa pelliccia di armellino era squarciata in una dozzina di punti povero corpo non di un uomo ma di un ragazzo adesso si vedeva bene a qualche passo di distanza c'era quanto restava della sua spada la punta ridotta a un moncone frastagliato simile a un albero colpito in pieno dalla folgore Will si inginocchiò gettò attorno se un'occhiata a guardinga e quindi afferrò la spada così spezzata sarebbe stata la prova necessaria Gared avrebbe capito e se non avesse capito lui Lord Mormont il vecchio orso o maestro Aemon di certo non avrebbero avuto dubbi Gared era ancora là assieme ai cavalli doveva andarsene di lì subito Will si raddrizzò Sir Royce si alzò in piedi sovrastandolo i suoi abiti eleganti erano ridotti a stracci insanguinati il volto era devastato nell'occhio sinistro era conficcata una scheggia della sua spada distrutta l'occhio destro era spalancato la pupilla era accesa da una fiamma di luce azzurra in grado di vedere le dita di colpo inerti di Will lasciarono cadere la spada spezzata chiuse gli occhi e cominciò a pregare mani lunghe affusolate eleganti salirono ad accarezzargli il viso poi si strinsero attorno alla sua gola erano coperte del più soffice camuscio e appiccicose di sangue ma al tocco erano gelite come ghiaccio capitolo 1 Bran era stata un'alba chiara e fredda la limpidezza dell'aria quasi un annuncio che l'estate stava finendo si mossero a sorgere del sole venti uomini in tutto per andare a una decapitazione Bran era tra loro pieno di nervosismo per l'ecitazione dell'evento era il nono anno d'estate il settimo della sua vita ed era la prima volta che veniva ritenuto abbastanza grande da cavalcare con il lord suo padre e con i suoi fratelli abbastanza forte da vedere il volto della giustizia del re il condannato era stato portato in un piccolo forte tra le colline Rob riteneva si trattasse di un bruto uno dei molti che avevano giurato fedeltà con la propria spada a Mance Raider il re oltre la barriera al solo pensiero Bran sentiva accapponarsi la pelle ricordava bene le inquietanti storie della vecchia Nan i bruti erano uomini malvagi raccontava stringevano patti con i giganti e con i mangiatori di cadaveri venivano a rapire le bambine nel cuore della notte e bevevano il sangue umano da corna svuotate di animale e durante la lunga notte le donne giacevano con gli estranei generando creature spaventose solo parzialmente umane all'uomo che trovarono al front legato mani e piedi all'esterno del bastione in attesa della giustizia del re era un vecchio tutto pelle e ossa non più alto di Rob aveva perduto entrambe le orecchie e un dito a causa del gelo vestiva di nero come un confratello dei guardiani della notte ma la sua pelliccia era stracciata e lurida nella fredda aria del mattino il fiato degli uomini andò a condensare assieme a quello dei cavalli in nubi frastagliate il lord suo padre diede ordine di tagliare le corde e di trascinare il condannato di fronte a loro Rob e John si tenevano eretti sulle selle Bran sul piccolo pony era in mezzo a loro e si sforzava di apparire più adulto dei suoi sette anni di fingere di aver già visto tutto quello che c'era da vedere un debole vento soffiava attraverso il portone del fortino su tutti loro sventolavano il vessillo degli Stark di grande inverno un metalupo grigio lanciato in corsa attraverso una bianca pianura di ghiaccio il padre di Bran restò solennemente in sella al proprio cavallo i lunghi capelli castani che ondeggiavano nel vento i fili argentei nella fitta barba tagliata corta lo facevano apparire più vecchio dei suoi 35 anni quel giorno i suoi occhi grigi erano velati di una sfumatura di cupa durezza era una persona molto diversa dall'uomo che amava passare le sere accanto al fuoco parlando con calma dell'età degli eroi e dei figli della foresta quel giorno il suo non era il volto del padre intuì Bran ma quello di Lord Eddard Stark di grande inverno vennero poste domande e vennero date risposte in quel freddo mattino ma in seguito Bran non riuscì a ricordare molto di quanto era stato detto alla fine suo padre diede un ordine due armati della sua guardia trascinarono il vecchio dagli abiti stracciati fino a un ceppo al centro della piazza e lo costrinsero ad abbassare il capo contro il duro legno nero Lord Eddard Stark smontò da cavallo Theon Greyjoy il suo protetto gli porse la spada la lama era larga quanto la mano di un uomo e perfino più alta di Rob Ghiaccio si chiamava quella spada d'acciaio di Valiria forgiata con gli incantesimi scura come il fumo nulla manteneva il filo come l'acciaio di Valiria Lord Eddard si sfilò i guanti e li porse a Jory Cassel il comandante della sua guardia personale poi impugnò ghiaccio con entrambe le mani il nome di Robert della casa Baratheon formulò primo del suo nome re degli Andali e dei Royar e dei primi uomini lord dei sette regni e protettore del reame io Eddard della casa Stark lord di grande inverno e protettore del nord ti condanno a morte sollevò la spada alta contro il cielo Jon Snow fratello bastardo di Bran gli si accostò tieni le redini ben strette sussurrò e non distogliere lo sguardo se lo farà il nostro padre lo saprà Bran serrò le briglie con forza e non distorse lo sguardo tuo padre sferrò un unico colpo preciso definitivo sangue zampillò sulla neve rosso come il vino dell'estate un cavallo arretrò bruscamente e il suo cavaliere tirò il morso per impedire che imbizzarrisse Bran rimase a fissare il sangue come ipnotizzato il manto nevoso tutto attorno al ceppo lo beve in fretta diventando sempre più purpureo la testa del condannato staccata di netto dal corpo rimbalzò alla base del ceppo e rotolò fino ai piedi di Theon Greyjoy Theon aveva 19 anni era asciutto e scuro di carnagione erano ben poche le cose che non trovava divertenti scoppiò in una risata appoggiò un piede contro la testa mozzata e le diede una spinta mandandola a rotolare lontano idiota John aveva parlato a voce bassa perché Theon non potesse udirlo mise una mano sulla spada di Bran che sollevò gli occhi verso di lui sei stato bravo gli disse con solennità di anni John ne aveva 14 e aveva già visto all'opera molte volte la giustizia del re il vento aveva cessato di soffiare e nel cielo il sole splendeva alto eppure durante la lunga cavalcata per rientrare a grande inverno il freddo pareva essere aumentato Bran rimase assieme ai fratelli molto più avanti del gruppo principale il piccolo pony che faticava a tenere il passo con i cavalli più grossi il disertore è morto con coraggio commentò Rob era un ragazzo grande e grosso e diventava più grande e più grosso ogni giorno che passava aveva la pelle chiara i capelli scuri e gli occhi azzurri tipici dei talli di Delta delle Acque la casa nobile dalla quale proveniva sua madre quello perlomeno non gli mancava non era coraggio si oppose quietamente a Jon Snow era paura è di quella che è morto è di quella che era pieno il suo sguardo Stark gli occhi di Jon erano di un grigio talmente scuro da apparire neri occhi ai quali non sfuggiva niente aveva pressoché la medesima età di Rob ma le analogie tra di loro si fermavano a questo Jon era tanto snello quanto Rob era muscoloso scuro di carnagione quanto l'altro era chiaro elegante e rapido quanto il fratellastro era massiccio e solido sono stati gli estranei a rubargli lo sguardo insiste Rob è stata una buona morte chi arriva al ponte per primo? forza! esclamò Jon spronando subito il cavallo Rob colto di sorpresa imprecò e si lanciò all'inseguimento gallopparono una briglia sciolta lungo la pista Rob che rideva e sfidava il fratello Jon silenzioso e attento gli zoccoli dei loro cavalli sollevavano fontane di neve Bran non fece neppure il tentativo di seguirli il suo pony non ce l'avrebbe mai fatta anche lui ricordava lo sguardo del condannato e in quel momento non riusciva a pensare ad altro le risate di Rob svanirono in distanza e i boschi furono nuovamente silenziosi era talmente immerso nei propri pensieri che non si rese conto che il resto del gruppo l'aveva raggiunto finché suo padre non arrivò a cavalcare accanto a lui tutto bene Bran? la sua voce non era priva di gentilezza sì padre Bran alzò lo sguardo in sella all'imponente destriero da guerra avvolto in cuoio e pellicce suo padre inconveva su di lui come un gigante Rob dice che quell'uomo è morto con coraggio Jon invece dice che è morto pieno di paura e tu che cosa dici? Bran ci pensò sopra è possibile che un uomo che ha paura possa essere anche coraggioso? possibile? Bran quella è l'unica situazione in cui si fa strada il coraggio gli rispose suo padre tu sai perché l'ho fatto? era un brutto rispose Bran portano via le donne e le vendono agli estranei la vecchia Nanti ha di nuovo raccontato le sue storie sorrise Lord Stark in realtà quell'uomo era un disertore aveva abbandonato i guardiani della notte nessuno è più pericoloso di un disertore nel momento stesso in cui voltano le spalle al loro dovere questi uomini sono consapevoli che se saranno catturati la loro vita non avrà alcun valore per questo non si tirano indietro di fronte al crimine neppure al più atroce ma tu non mi hai capito Bran non ti ho chiesto perché quell'uomo doveva morire ma perché dovevo essere io a ucciderlo una domanda per la quale Bran non aveva risposta re Robert ha un boia disse in tono incerto ce l'ha è vero confermò suo padre nello stesso modo in cui prima di lui anche i re della casa Targaryen avevano un boia la nostra tradizione però è ancora quella antica nelle vene degli Stark scorre il sangue dei primi uomini e noi Stark crediamo ancora che chi pronuncia la sentenza debba essere anche colui che cala la spada l'uomo che toglie la vita a un altro uomo ha il dovere di guardarlo negli occhi e di ascoltare le sue ultime parole se il giustiziere non riesce ad affrontare questo allora forse il condannato non merita la morte un giorno Bran tu sarai l'alfiere di Rob avrai un castello tuo che comanderai nel nome di tuo fratello e del tuo re avrai su di te anche il fardello della giustizia dal quale non dovrai trarre alcun godimento ma al quale non dovrai neppure sottrarti un sovrano che si nasconde dietro a un boia fa in fretta a dimenticare che cos'è la morte padre! Bran! John era improvvisamente apparso sulla sommità della collina di fronte a loro agitava un braccio gridando venite! fate presto! venite a vedere cosa ha trovato Rob! un momento dopo era svanito Jory Cassell spronò il cavallo portandosi al fianco di Eddard e di Bran guai mio signore senza alcun dubbio ribattei il lord forza vediamo in quale altro impiccio sono andati a cacciarsi i miei figli passò al trotto Jory, Bran e gli altri lo seguirono trovarono Rob sulla riva del fiume a nord del ponte John ancora in sella accanto a lui le nevi della tarda estate erano cadute abbondanti durante l'ultima luna Rob affondava nel manto candido fino alle ginocchia il cappuccio abbassato la luce del sole che si rifletteva sui suoi capelli stringeva qualcosa tra le braccia scambiando con John commenti eccitati i cavalieri avanzarono cauti tra i cumuli bianchi alla ricerca di appoggi solidi sul terreno ineguale nascosto dalla neve Jory Cassell e Theon Greyjoy furono i primi a raggiungere i due ragazzi Greyjoy era nel pieno di un'altra delle sue risate ironiche ma si interruppe con un'imprecazione spaventata oh per gli dei un attimo dopo lottava per controllare il cavallo cercando allo stesso tempo di estrarre la spada Jory aveva già sguainato la propria il cavallo che arretrava per la paura Rob allontanati non può farti niente Jory Rob alzò lo sguardo da ciò che stringeva tra le braccia e concluse è morta Bran era divorato dalla curiosità avrebbe voluto spronare il pony a sangue ma suo padre impose loro di smontare vicino al ponte e di continuare a piedi Bran saltò giù e si mise a correre quando arrivò dall'altra parte anche John, Jory e Theon erano scesi da cavallo in nome dei sette inferi stava dicendo Greyjoy che diavolo è quella cosa? una lupa gli rispose Rob vorrei dire un abominio ma non vedi quant'è grossa? Bran il cuore che martellava si aprì la strada tra la neve che gli arrivava alla vita portandosi vicino al fratello c'era un'enorme forma scura semisepolta nella neve chiazzata di sangue cristallizzata nella morte incrostazioni di ghiaccio si erano rapprese nella mal ridotta pelliccia grigia un debole odore di decomposizione aleggiava sulla neve simile al profumo di una bella donna Bran ebbe la fugace visione degli occhi spenti della creatura pieni di vermi di fauci irte e di zanne giallastre ma a mandargli un brivido gerido lungo la schiena furono le dimensioni dell'animale la lupa era più grossa del suo pony due volte il più grosso dei cani da caccia di suo padre abominio commentò John tranquillamente niente affatto è una metalupa e tutti i metalupi sono molto più grossi dei lupi normali sono 200 anni che non si vede un metalupo a sud della barriera disse Theon Greyjoy se ne vede uno adesso rispose John Bran distolse lo sguardo dal mostro che giaceva nella neve e fu a quel punto che si rese conto del fagotto tra le braccia di Rob nell'avvicinarsi non poté trattenere un grido di delizia il cucciolo gli occhi ancora chiusi era una specie di palla di pelo grigio trusciava il piccolo muso contro il petto di Rob che continuava a cullarlo cercando latte inesistente fra gli strati di cuoio ed emettendo temi lamenti tristi timoroso Bran allungò una mano coraggio lo esortò Rob toccalo Bran azzardò una leggera carezza e immediatamente ritirò la mano prendi John inaspettatamente gli mise un secondo cucciolo tra le braccia ce ne sono cinque Bran sedette nella neve e strinse la creatura contro il viso un contatto soffice caldo metalupi che raggiungono il reame dopo così tanto tempo Hallen, Mastro Stalier, Mugugno scuotendo il capo la cosa non mi piace è un presagio disse Jory Cassel è solo un animale morto Jory Lord Stark camminò lentamente attorno al corpo gli stivali che scricchiolavano sulla neve ma perfino lui appariva turbato sappiamo perché è morta le è rimasto qualcosa in gola Rob era lieto di aver trovato una risposta anche prima che suo padre ponesse la domanda guardala appena sotto la mandibola Lord Stark mise un ginocchio nella neve frugando con la mano sotto il muso dell'animale diede uno strappo secco e sollevò ciò che aveva trovato in modo che tutti potessero vedere il rostro mutilato di un unicorno la punta spezzata frantumata ancora imbrattata di sangue sul gruppo dei cavalieri scese il silenzio i loro sguardi rimasero fissi sul rostro nessuno osò aprire bocca Bran percepì la loro paura anche se non ne capì la causa suo padre gettò via il moncone di corno e si ripulì le mani nella neve mi sorprende che sia sopravvissuta abbastanza da partorire la sua voce riuscì a spezzare il silenzio che continuava a gravare su tutti forse non c'è riuscita disse Giori ho sentito certe storie sui metalupi forse era già morta quando i cuccioli sono venuti alla luce nati dalla morte intervenne un altro degli armati la peggiore delle sorti non ha importanza disse Mastro Howland saranno morti comunque tra non molto Bran emise un soffocato gemito di angoscia prima sarà meglio sarà Fion Greyjoy sguainò la spada dammi quell'animale Bran tra le sue braccia la bestiola si agitò e si lamentò come se si rendesse conto della minaccia no! lo sfidò Bran fieramente è mio questo animale metti via la spada Greyjoy era stato Rob a parlare la voce determinata e imperiosa come quella del padre come quella del signore che un giorno sarebbe stato noi terremo questi cuccioli di metalupo non puoi ragazzo era Arwin figlio di Howland ucciderli è un atto di misericordia si associò Howland Bran guardò verso suo padre alla ricerca di appoggio ma ciò che ottenne fu una cupa inarcata di sopracciglia Howland dice il vero figlio meglio una morte rapida che una lenta dura agonia di fame e freddo no! gli occhi gli si riempirono di lacrime guardò altrove non voleva che suo padre lo vedesse piangere la settimana scorsa la lupa rossa di Ser Rodrik ha figliato di nuovo continuò Rob con ostinazione poca roba solo due cuccioli sono sopravvissuti avrà abbastanza latte anche per questi gli farà pezzi nel momento in cui le si attaccheranno ai capezzoli Lord Stark era Jon Snow ed era strano sentirlo rivolgersi al padre in modo tanto formale Bran lo guardò come se fosse la loro ultima speranza ci sono cinque cuccioli tre maschi e due femmine e con questo Jon? tu hai cinque nobili figli continuò Jon tre maschi due femmine il metalupo è il simbolo della casa Stark i tuoi figli erano destinati ad avere questi cuccioli mio signore l'espressione di Lord Stark mutò Bran se ne accorse immediatamente gli altri uomini si scambiarono occhiate significative in quel momento tutto l'amore di Bran Jon si riversò sul fratellastro pur avendo solo sette anni vide con chiarezza la logica di Jon il conto era risultato esatto perché Jon si era tenuto fuori aveva incluso le due ragazze e perfino Rickon il più piccolo ma non il bastardo chiamato Snow non se stesso perché nel nord per decreto reale Snow era il nome che veniva assegnato a chi non era stato abbastanza fortunato da nascere con un nome che gli appartenesse anche il loro padre aveva capito e tu Jon disse lentamente tu non lo vuoi un cucciolo il metalupo corre sul vessillo di casa Stark rispose Jon io non sono uno Stark padre Lord Stark studiò con attenzione il figlio Rob venne a inserirsi nel nuovo silenzio calato tra loro mi occuperò io stesso del mio cucciolo padre promise userò un panno imbevuto di latte caldo e lo farò succhiare da quello anch'io fece eco Bran facile a dirsi molto meno a farsi lo sguardo di Eddard Stark passò da uno all'altro dei suoi figli legittimi non permetterò che sprechiate il tempo della servitù voi volete i cuccioli voi ve ne occuperete sono stato chiaro Bran annuì con forza il cucciolo di metalupo si agitò nella sua stretta la calda lingua ruvida che gli leccava la faccia e a voi spetterà anche addestrarli continuò Lord Stark a voi il mastro del canile non avrà nulla a che fare con questi mostri ve lo garantisco e che gli dèi vi aiutino se li trascurerete se li tormenterete se li maltratterete non sono cani a cui dare un biscotto e poi allungare un calcio un metalupo può staccare di netto il braccio a un uomo con la stessa facilità con la quale un cane ucciderebbe un ratto siete certi di quello che volete fare? sì padre disse Bran sì confermò Rob i cuccioli potrebbero morire comunque a dispetto dei vostri sforzi non moriranno affermò Rob non lo permetteremo e sia teneteli Jory Desmond raccogliete gli altri due cuccioli è tempo di rientrare a grande inverno fu solo dopo che furono rimontati in sella ed ebbero ripreso la strada verso il castello che Bran si concesse di gustare il sapore seducente della vittoria tenne il cucciolo al riparo degli indumenti di cuoio al caldo contro il petto al sicuro per la lunga cavalcata e cominciò a domandarsi come l'avrebbe chiamato inaspettatamente a metà del ponte Jon venne a cavalcare alla testa del gruppo che c'è Jon? chiese Lord Stark non senti? Bran udiva il vento nella foresta lo scalpitio degli zoccoli sulle assi del ponte il lamento affamato del suo cucciolo ma Jon udiva qualcos'altro là disse fece girare il cavallo e tornò indietro al galoppo lungo il ponte i cavalieri lo osservarono mentre si fermava nel punto in cui giaceva la metalupa e si inginocchiava nella neve in breve era di nuovo accanto a Lord sorridente doveva essersi allontanato dagli altri dichiarò o forse era stato allontanato disse Lord Stark il suo sguardo si soffermò sul sesto cucciolo la cui pelliccia al confronto di quella grigia degli altri era interamente bianca un cucciolo i cui occhi erano aperti vigili mentre quelli degli altri erano ancora ciechi fu questo a colpire Bran un albino Theon Greyjoy trovava il tutto assai umoristico questo qui morirà ancora prima degli altri ti sbagli Greyjoy Jon guardò il protetto del padre con uno sguardo impassibile raggelante questo appartiene a me è un po' più e un po' più il lavoro che le persone kathleen kathleen non aveva mai amato quel parco degli dei veniva da casa talli nel profondo sud di delta delle acque sulla forca rossa del tridente là il parco degli dei era un giardino pieno d'aria e di luce rosse sequoie proiettavano le loro ombre su ruscelli mormoranti uccelli cantavano da nidi invisibili l'aria era intrisa dei profumi dei fiori idee di grande inverno abitavano un diverso tipo di parco un luogo primordiale invaso dall'oscurità atmosfera sapeva di lichene morente di cose che si decompongono tre acri di bosco ancestrale attorno ai quali era sorta la cupa struttura del maniero tre acri di alberi che non venivano toccati da diecimila anni querce e alberi ferro sembravano più vecchi del tempo stesso i loro neri tronchi ammucchiati gli uno contro gli altri osali e incominate sentinelle immobili armate di aghi di un verde della sfumatura quasi metallica le cui ramificazioni più alte andavano a intrecciarsi in una cupola tenebrosa il terreno era un alto labirinto fatto di radici sporgenti distorte aggrovigliate come tentacoli sotterranei quel parco era un luogo di silenzi profondi di ombre impenetrabili abitato da dei senza nome ma catelyn sapeva che avrebbe trovato lì suo marito ogni volta che toglieva la vita a un uomo lord eddard stark veniva a rifugiarsi nella pace del parco degli dei di grande inverno catelyn era stata assegnata con i sette unguenti ed era andata sposa nell'arcobaleno di luci che riempivano le radure di delta delle acque apparteneva al credo così come prima di lei vi erano appartenuti suo padre suo nonno e il padre di suo nonno gli dei di catelyn avevano un nome e i loro volti erano familiari quanto i volti dei suoi genitori il loro culto aveva aspetti sfumati una fiaccola su un sepolcro l'odore dell'incenso un etta edro di cristalli pulsante di luce voci che si univano in coro anche casatalli aveva il proprio parco degli dei tutte le grandi case ce l'avevano ma non era altro che un luogo in cui passeggiare o leggere alla luce del sole il credo rimaneva confinato nei templi in questo ned le era venuto incontro le aveva eretto un piccolo altare sul quale catelyn poteva pregare i sette volti del suo dio ma nelle vene degli star che continuava a scorrere il sangue dei primi uomini e i loro dei erano quelli antichi e misteriosi dei grandi alberi gli stessi della razza scomparsa dei figli della foresta nel centro del parco un vecchio albero diga incombeva su un laghetto dalle acque nere gelide l'albero del cuore lo chiamava ned la sua corteccia era bianca come le ossa di un teschio le sue foglie rosso scuro erano simili a mille mani grondanti di sangue un volto era stato scolpito nel legno del grande albero i lineamenti tirati e malinconici gli unici scavati in profondità arrossati dalla resina stranamente guardinghi erano antichi quegli occhi addirittura più antichi di grande inverno se le leggende avevano qualche fondamento quegli occhi avevano visto brandon il costruttore posare alla prima pietra e poi avevano osservato le mura di granito del castello innalzarsi attorno ad essa le leggende dicevano anche che erano stati i figli della foresta a scolpire le facce negli alberi era accaduto all'alba del tempo molto prima che i primi uomini attraversassero il mare stretto nel sud gli ultimi alberi diga erano stati abbattuti o bruciati oltre mille anni prima continuavano a esistere solamente sull'isola dei volti dove gli uomini verdi manifestavano la loro veglia silenziosa qui a grande inverno era tutto diverso nel nord ogni castello aveva il proprio parco degli dei ogni parco degli dei aveva il proprio albero del cuore e ogni albero del cuore aveva il proprio volto scolpito nel legno kathleen trovò suo marito dietro l'albero diga seduto su una pietra coperta di muschio sulle sue ginocchia giaceva ghiaccio la spada lunga delle esecuzioni edard stark ned come lo chiamava lei ne stava ripulendo la lama incrostata di sangue secco nelle acque dello stagno nere come la notte uno strato di humus vecchio di millenni ammantava il terreno del parco attutendo il suono dell'avvicinarsi di kathleen eppure gli occhi rossi scavati nel legno parevano seguirla ad ogni passo ned kathleen alzò lo sguardo su di lei la sua voce lontana e formale dove sono i figli era la domanda che sempre le poneva e nelle cucine si accapigliano sui nomi da dare ai cuccioli di metalupo allargò le falde del mantello sul suolo del bosco e sedette sul bordo dello stagno voltando le spalle all'albero dica gli occhi scavati nel legno continuavano a osservarla lei fece del suo meglio per ignorarli arian è già innamorata salsa incuriosita e ben disposta ma ricon non è del tutto convinto ha paura un po convenne kathleen ha solo tre anni dovrà imparare ad affrontare le sue paure ned corrugò la fronte non avrà tre anni per sempre l'inverno sta arrivando lo so perfino dopo tanti anni ogni volta che udiva quelle parole kathleen rabbrividiva il motto degli stark ogni nobile casa aveva il proprio motto motti di famiglia punti di riferimento invocazione di speranza frasi che parlavano di onore e gloria promettevano lealtà e verità giuravano fede e coraggio gli stark erano diversi l'inverno sta arrivando questo era il loro motto strana gente quegli uomini del nord per l'ennesima volta kathleen non poteva evitare di pensarlo è stata una buona morte va riconosciuto a quell'uomo ned continuò a far scorrere un panno di pelle oleata lungo la spada ridando alla lama la sua oscura lucentezza non stato contento di bran anche tu ne saresti stata orgogliosa sono sempre orgogliosa di bran rispose kathleen lo sguardo di lei rimase sulla spada riuscì a definire le quasi impercettibili scanalature del cuore dell'acciaio nei punti in cui il metallo era stato ripiegato su se stesso centinaia di volte durante la forgiatura kathleen non amava le spade tuttavia ghiaccio possedeva una sua innegabile bellezza era stata forgiata a valyria appena prima che il disastro si abbattesse sull'antica fortezza all'epoca in cui i mastri armaioli lavoravano non solo con la fiamma e il ma anche con gli incantesimi ghiaccio esisteva da 400 anni e ancora oggi il suo taglio era letale come il giorno in cui era stata messa dal fuoco il nome le veniva da un'epoca ancora più antica era un retaggio dell'età degli eroi quando gli stark erano re del nord è il quarto quest'anno continuò occupamente ned disgraziato era come pazzo qualcosa qualcosa gli ha messo dentro un terrore così profondo che le mie parole non sono state neppure in grado di raggiungerlo respirò a fondo benjen mi scrive che la confraternita dei guardiani della notte è scesa al di sotto dei mille uomini e non solo a causa delle diserzioni perdono gente anche durante i pattugliamenti i bruti chi altri ned sullevò ghiaccio esaminando l'allineamento della lama le cose non faranno che peggiorare verrà il giorno in cui sarò costretto a chiamare raccolta i vessilli di guerra e ad andare a nord in modo da chiudere i conti con questo cosiddetto re oltre la barriera una volta per tutte oltre la barriera la sola idea fece correre i brividi glaciali lungo la schiena di caitlin a ned questo non sfuggì da mans raider non abbiamo nulla da temere ci sono cose peggiori di mans raider oltre la barriera caitlin si voltò verso l'albero diga verso il volto nel legno palido gli occhi piangenti rossa resina quel volto che vedeva udiva sentiva quell'entità in grado di concepire pensieri eterni andiamo caitlin il sorriso di ned era pieno di calore non dirmi che anche tu come branti sei messa a dare retta alle storie della vecchia nan gli estranei sono morti finiti quanto sono finiti i figli della foresta sono morti ormai da 8.000 anni secondo maestro lui non sono nemmeno mai esistiti nessuno li ha mai visti davvero fino a questa mattina nessuno aveva mai visto neppure un metalupo gli ricordò caitlin lo sapevo il sorriso di ned non si scompose mai mettersi a discutere con un talli fece scivolare ghiaccio nel fodero so che non sei venuta qui per raccontarmi le favole della buonanotte so quanto poco ti trovi a tuo agio tra questi vecchi alberi che cosa ti turba mia signora c'è una triste notizia caitlin gli prese la mano non volevo darti altri pensieri finché non ti fossi liberato da quel che hai già mi dispiace amore non c'era alcun modo per non rendere il colpo meno duro caitlin glielo disse senza giri di parole john harry ne è morto i loro sguardi si incontrarono caitlin sapeva quanto duramente lui sarebbe stato colpito e vide quanto duramente lui venne colpito da ragazzo edard stark era cresciuto al nido dell'aquila l'altro grande regno del sud lord harry che non aveva figli era diventato come un secondo padre sia per lui sia per robert baratheon quando eris secondo targaryen il re folle aveva voluto le loro teste piuttosto che abbandonare coloro che aveva giurato di proteggere il lord del nido dell'aquila aveva scelto di hissare i vessilli di rivolta poi 15 anni prima il secondo padre di edard stark era diventato per lui un nuovo fratello il giorno del loro matrimonio i due erano stati fianco a fianco nel sacrario di delta delle acque per sposare due sorelle le figlie di lord hostertalli john una parte di ned non voleva crederci ma questa notizia è certa c'è il sigilo del re è una lettera vergata nella caligrafia di robert l'ho conservata perché anche tu possa leggerla dice che lord harry se n'è andato in fretta neppure il gran maestro paesele è stato in grado di fare niente gli ha dato una tazza di latte di papavero in modo da allenire le sue sofferenze c'è qualche conforto in questo credo i lineamenti di edard erano scavati dal dolore ma il suo primo pensiero fu per cedlin tua sorella e il figlio di john come stanno il messaggio dice soltanto che stanno bene che sono ritornati al nido dell'aquila rispose cedlin avrei preferito che fossero andati a delta delle acque il nido dell'aquila è remoto e solitario è sempre stato il posto di john ma è quello di lei il ricordo del marito rimarrà in ciascuna di quelle pietre so come è fatta mia sorella so quanto sia importante per lei il conforto della sua famiglia e dei suoi amici ma tuo zio non si trova anche lui nella valle di arren john l'aveva nominato cavaliere della porta insanguinata se non vado errato bryden farà quello che può per lei e per il bambino disse cedlin il che significa molto ma ma non tutto vada lei incitò ned con urgenza porta i nostri figli con te fa che i corridoi di questo castello sulla montagna si riempiano di suoni e di risate quel ragazzo ha bisogno di avere intorno altri ragazzi elisa non dovrebbe affrontare questa perdita da sola vorrei che fosse possibile cedlin scosse il capo c'è dell'altro nella lettera ned che altro il re sta venendo a grande inverno per vedere te passò del tempo prima che edard stark comprendesse appieno il senso di quelle parole nei suoi occhi l'ombra che li aveva oscurati si fece meno cupa robert sta venendo qui cedlin a noi un sorriso riuscì finalmente a illuminare l'oppressione di ned lei avrebbe voluto condividere la sua gioia ma non riusciva a dimenticare quanto aveva udito nel cortile del castello una meta lupa trovata morta nella neve con un frammento di rostro di unicorno conficcato in gola di la pancia aggrovigliarsi dentro di lei come un serpente ma pur di fronte a tutto questo riuscì comunque a sorridere all'uomo che amava un uomo che rifiutava di credere ai presagi ero sicura che ti avrebbe fatto piacere gli disse lo facciamo sapere anche a tuo fratello la barriera certamente approvò ned benjen vorrà esserci dirò a maestro luyin di inviare il suo miglior corvo messaggero edard si alzò aiutandola ad alzarsi con lui maledizione quanti anni saranno passati e questo è tutto il preavviso che ci manda in quanti sono credo almeno un centinaio di cavalieri più i loro scudieri più una cinquantina di armati vengono anche sersi e i ragazzi questo costringerà robert a viaggiare più lentamente meglio per noi avremo più tempo per prepararci vengono anche i fratelli della regina aggiunse kathleen l'espressione di ned si contrasse l'idea non gli piaceva affatto tra lui e la famiglia della regina non correva esattamente buon sangue e kathleen lo sapeva i lannister di castelgranito avevano aspettato fino all'ultimo momento prima di alla causa del re in modo da essere assolutamente certi sul vincitore edard stark non li aveva mai perdonati per questo e va bene concluse il pedaggio per avere robert con noi a un'infestazione di lannister lo pagheremo sembra che si stia portando dietro mezza corte doveva il re va alla corte non sarà male vedere i suoi ragazzi l'ultima volta che l'ho visto il piccolo stava ancora succhiando latte quanti anni avrà adesso kathleen cinque il principe thomas ha sette anni disse kathleen la stessa età di bran ned ti prego sta attento a quel che dirai che ci piace o no la signora di lannister rimane la nostra regina e si dice che ogni anno che pazzo lo faccia pesare sempre di più daremo una festa ned strinse la mano di lei nella propria certo che daremo una festa con musica e canzoni e robert vorrà andare a caccia manderò iori a sud lungo la strada del re per incontrarlo e scortarlo fino a qui per gli dèi per gli dèi come faremo a sfamare tutta quella gente e tu mi dici che già in movimento ma maledizione a lui e alla sua bellaccia di re daneris questa è bellezza allo stato puro suo fratello sollevò la stoffa in modo che lei potesse esaminarla avanti toccala senti come stata tessuta daniel la toccò era talmente liscia da dare l'impressione di scorrere tra le sue dita come acqua non le riuscì di ricordare di aver mai indossato qualcosa di altrettanto delicato ma è mia allontanò la mano intimorita è davvero mia un dono di magistro illirio le rispose suo fratello con un sorriso miseris era un giovane scarno le mani in costante movimento lo sguardo perennemente febbrile negli occhi viola pallido quella sera era di ottimo umore è di un colore che farà risaltare il viola dei tuoi occhi riprese e poi ci sarà l'oro perché indosserai molti gioielli di tutti i tipi qualcos'altro che illirio ha promesso dovrai apparire come una principessa una principessa daniel aveva dimenticato cosa significasse forse non l'aveva mai saputo perché ci fa tutti questi regali chiese cosa sta cercando di ottenere da noi erano vissuti nella casa del magistro per buona metà dell'anno mangiando il suo cibo riveriti dai servitori danni aveva 13 anni unità sufficiente per capire che lì nella città libera di pentos c'era quasi sempre un prezzo da pagare per regali così impegnativi illirio è tutt'altro che uno sciocco rispose viseris sa che non dimenticherò chi mi è stato amico una volta che avrò riavuto il mio trono veneris non rispose magistro illirio era un mercante di spezie pietre preziose reliquie di drago più svariate altre cose molto meno gradevoli gli diceva che avesse amici in tutte e nove le città libere e oltre fino a vaes dothrak e alle terre misteriose affacciate sul mare di giada si diceva anche che non aveva mai avuto un amico che non fosse allegramente pronto a vendere se il prezzo era giusto danni ascoltava le voci della strada e sapeva quello che c'era da sapere così come sapeva che era molto meglio non fare troppe domande a suo fratello soprattutto quando era tanto preso dai suoi sogni la sua ira poteva esplodere come un vulcano risvegliare il drago era questo il modo in cui lui definiva il proprio furore il lirio manderà delle schiave a farti il bagno viseris tornò a riappendere l'abito accanto alla porta fai in modo di toglierti bene di dosso il puzzo delle stalle di cavalli cal drogo ne possiede mille e ti posso assicurare che è una cavalcatura ben diversa a quella che vorrà questa notte ispezionò danni con un'occhiata critica continui a stare curva mettiti dritta le tirò indietro le spalle voglio che vedano che hai le forme di una donna adesso le sue dita scivolarono sui seni acerbi di lei pollice indice si strinsero attorno ad un capezzolo non deludermi questa notte danni non ti piacerebbero le conseguenze tu non vuoi risvegliare il drago o sbaglio le sue dita strinsero e torsero crudelmente attraverso la tunica spessa di lei o sbaglio no sbagli la voce di daenerys era appena audibile bene suo fratello sorrise di nuovo e le le acque della baia erano inquiete daenerys rimase a guardarli dalla finestra suo fratello se n'era andato lasciando la sola le squadrate torri di mattoni di pentos erano sagome nere contro il sole del tramonto danni poteva udire il canto dei preti rossi che accendevano i fuochi per la notte le grida dei bambini che giocavano al di là del muro della villa di illirio per un momento desiderò essere là fuori con loro a piedi nudi senza fiato vestita di stracci desiderò di non avere né passato né futuro ma più di ogni altra cosa desiderò di non essere costretta ad andare a quella festa nel palazzo di caldrogo da qualche parte oltre il crepuscolo al di là del mare stretto si stendeva una terra fertile fatta di colline verdi di pianure piene di fiori di grandi fiumi una terra nella quale monoliti di pietra scura si innalzavano tra splendide montagne di roccia color acciaio e cavalieri in armatura si lanciavano in battaglia al seguito di vessilli dei loro signori i dothraki la chiamavano raesh andali terra degli andali nelle città libere invece parlavano di westeros o di regni del tramonto lo fratello usava un nome molto più semplice la nostra terra parole che per lui erano come una preghiera e se le avesse pronunciate un numero sufficiente di volte gli dèi alla fine le avrebbero esaudito la nostra terra per diritto di sangue che ci è stata portata via col tradimento ma ancora nostra per sempre nostra si commette un grave errore a rubare al drago perché il drago ricorda forse era vero forse il drago ricordava danni invece non ricordava non aveva mai visto la terra che suo fratello diceva appartenesse a loro il regno al di là del mare stretto quei luoghi dei quali lui parlava castel granito e il nido dell'aquila alto giardino e la valle di arryn dorn e l'isola dei volti per lei erano solamente parole viseris aveva otto anni quando erano stati costretti a fuggire da prodo del re ritirandosi di fronte all'avanzata degli eserciti dell'usurpatore a quel tempo daenerys non era nient'altro che una fiammella di vita nel ventre di sua madre eppure suo fratello le aveva parlato tanto spesso di quel tempo che esistevano momenti in cui danni cercava di immaginare di vedere la fuga notturna fino alla roccia del drago la luce della luna che scivolava sulle vele nere della nave suo fratello regar che combatteva l'usurpatore nelle acque del tridente arrossate dal sangue e moriva nel nome della donna che amava il saccheggio di approdo del re da parte dei lord lannister e stark i cani dell'usurpatore li chiamava viseris la principessa elia di dorne che invocava misericordia l'erede di regar che le veniva strappato dal seno e ucciso davanti ai suoi occhi le orbite vuote dei lucidi teschi degli ultimi draghi nella sana del trono sguardi ciechi che osservavano all'opera lo sterminatore di re testimoni silenziosi mentre la lama in una spada d'oro squarciava la gola del re suo padre daenerys era nata alla roccia del drago nove lune dopo tutto questo nel corso di un uragano estivo talmente violento da spaccare quasi l'isola in due dicevano che fosse stata una tempesta spaventosa la flotta targaryen era quasi distrutta ancora alla fonda enormi blocchi di pietra erano piombati nelle acque ribollenti del mare stretto sua madre era morta nel darla la luce e per questo suo fratello non l'aveva mai perdonata non riusciva a ricordare neppure la roccia del drago erano fuggiti di nuovo appena prima che il fratello dell'usurpatore prendesse il mare con la sua nuova flotta a quel punto la roccia del drago antica residenza della casa targaryen era tutto quanto rimaneva dei sette regni che un tempo a essa erano appartenuti nemmeno questo era però destinato a durare la guarnigione aveva deciso di vendere entrambi i bambini all'usurpatore ma una notte sir william darry e quattro uomini fidati si erano introdotti negli appartamenti reali e li avevano portati via assieme alla balia alzando le vere nel cuore della notte e dirigendosi verso la sicurezza della remota costa bravosiana sir william era il solo di cui daenerys conservasse un vago ricordo una montagna d'uomo capelli e barba grigi mezzo cieco che aveva continuato a gridare ordini perfino dal letto di morte i suoi servi vivevano nel terrore di lui ma con daenerys era sempre stato gentile addirittura delicato la chiamava piccola principessa qualche volta mia signora le sue mani erano soffici come cuoio vecchio ma non poteva lasciare il letto il sentore della malattia era con lui giorno e notte un odore pungente dolciastro e viscido era il tempo in cui vivevano a bravos nella grande casa dal portale dipinto di rosso danny aveva una stanza tutta sua con un albero di limoni appena fuori dalla finestra quando sir william era morto i servi avevano rubato il poco denaro rimasto ai due ragazzi e li avevano gettati in strada danny ricordava di aver pianto quando i battenti del portale rosso si erano chiusi per sempre dietro di loro così erano cominciati i loro vagabondaggi da bravos a mir da mir a tiros a cor a volantis a lis senza mai fermarsi nello stesso posto per troppo tempo suo fratello non lo permetteva i sicari dell'usurpatore continuavano a incalzarli diceva anche se danny non aveva mai visto nessuno all'inizio magistri governatori e principi mercanti si erano dichiarati onorati di poter ospitare gli ultimi targaryen nella loro casa di averli alla loro tavola ma con il passare degli anni con l'usurpatore che continuava a sedere sul trono di spade le porte si erano via via chiuse e la loro esistenza si era fatta dura molto tempo prima erano stati costretti a vendere i pochi resti del tesoro del loro regno perduto e ormai perfino i denari ottenuti dalla corona della regina loro madre erano finiti il re mendicante così veniva chiamato suo fratello nei vicoli luridi e nelle taverne maleodoranti di pentos daenerys non voleva sapere in quale modo chiamavano lei un giorno sarà di nuovo tutto nostro dolce sorella le mani di miseris tremavano ogni volta che le faceva quella fatidica promessa i gioielli e le sete la roccia del drago e approdo del re il trono di spade e i sette regni tutto quello che c'è stato preso noi torneremo a possederlo miseris non aspettava altro non vedeva altro non voleva altro tutto quello che daenerys voleva invece era la grande casa dal portale rosso con l'albero di limoni fuori dalla finestra e quell'infanzia che non aveva mai conosciuto alle sue spalle ci fu un discreto bussare alla porta daenerys arretrò dalla finestra e si voltò dicendo potete entrare le serve di lirio entrarono si inchinarono e si misero al lavoro erano schiave un regalo di uno dei molti amici dottrachi del magistro non avrebbero dovuto essere schiavi nella città libera di pentos ma loro lo erano comunque la donna anziana piccola e grigia come un topolino non apriva mai bocca in compenso la ragazza giovane non smetteva mai di chiacchierare mentre lavorava era una puledra di 16 anni capelli biondi occhi azzurri la favorita di lirio riempirono la vasca con l'acqua calda che avevano portato dalle cucine e in essa versarono oli profumati la ragazza spilò la tunica di cotone grezzo dalla testa di danni e l'aiutò a scivolare nell'abbraccio liquido l'acqua era quasi bollente ma danni non batte ciglio non emise neppure un lamento il calore le piaceva la faceva sentire pulita inoltre secondo suo fratello nulla poteva essere troppo caldo per un targaryen la nostra è la casa del drago ribadiva viseris c'è il fuoco nel nostro sangue sempre in silenzio la schiava anziana lavò i lunghi capelli argente di daenerys sciogliendone i nodi la giovane le lavò i piedi continuando a ripeterle quanto fosse fortunata drogo è talmente ricco che i suoi schiavi indossano collari d'oro ci sono centomila cavalieri nel suo calasar e il suo palazzo a vaes dothrack a duecento stanze tutte con porte d'argento massiccio e c'era di più molto di più che uomo attraente era il cal così alto di statura così fiero nell'aspetto che cavaliere ineguagliabile che guerriero indomabile che arciere formidabile veneris non diceva nulla aveva sempre pensato che nel momento in cui avesse raggiunto l'età giusta avrebbe sposato viseris per secoli da quando egon il conquistatore aveva preso in sposa la propria sorella la casa targaryen aveva perpetuato se stessa attraverso l'incesto matrimoniale tra fratello e sorella la purezza della discendenza doveva essere mantenuta incontaminata le aveva ripetuto viseris mille e mille volte il loro era il sangue dei re il sangue dorato dell'antica valeria il sangue del drago e come i draghi non si accoppiavano con le bestie inferiori così i targaryen non si mescolavano con gli uomini inferiori però adesso viseris aveva deciso di vendere la sua unica sorella la sua unica sposa possibile a uno straniero a un barbaro una volta che fu pulita le schiave l'aiutarono a uscire dalla vasca e la asciugarono la giovane le spazzolò i capelli finché non furono risplendenti come argento liquefatto la donna anziana la profumò con l'essenza penetrante dei fiori delle pianure dei dotracchi sui polsi dietro le orecchie sulle punte dei seni e infine in mezzo alle gambe la vestirono con l'abito inviato da magistro illirio e le calarono sul viso il velo di seta color purpura scuro celando il viola intenso dei suoi occhi la schiava giovane le infilò sandali dorati ai piccoli piedi la schiava anziana le sistemò la tiara sui capelli e le fece scivolare attorno ai polsi braccialetti d'oro incrostati diametiste ultimo venne il collare un pesante ornamento d'oro massiccio intarsiato con antichi geroglifici di valyria la schiava giovane senza fiato ammirò il lavoro finito adesso sì che è davvero un bell'aspetto principessa daenerys studiò la propria immagine riflessa nello specchio della cornice d'argento ennesimo sensibile tocco del previdentissimo magistro illirio una principessa certo ma la ragazza che non la smetteva mai di chiacchierare aveva detto anche altre cose i collari d'oro indossati dagli schiavi di caldrogo la sterminata ricchezza di caldrogo così sterminata da poter comprare qualsiasi cosa un gelo improvviso le percorse le membra increspando la pelle delle sue braccia nude viseris sagoma più scura nelle ombre fresche l'aspettava nel vestibolo al piano terreno sedeva sul bordo della fontana una mano che tracciava percorsi nell'acqua si alzò nel vederla avvicinarsi ferma lì ordinò e cominciò a esaminarla con occhio critico va bene girati se hai un aspetto regale magistro illirio fece il suo ingresso da una porta ad arco per la mole che aveva si muoveva con sorprendente leggerezza a ogni passo rotoli di adipe tremolavano sotto gli ampi abiti di seta dai colori sgargianti aveva anelli d'oro tempestati di pietre preziose a ogni dito uno schiavo gli aveva intriso di un unguento la bionda barba biforcuta fino a farla luccicare come se anch'essa fosse stata fatta d'oro possa in questo splendido giorno il signore della luce far scendere su di te benedizioni senza fine principessa daenerys il magistro le prese la mano e si inchinò leggermente fu la più leggiadra delle mosse aveva denti giallastri tutti storti dietro la cortina di pelo della sua barba dorata tua sorella è una visione vostra grazia disse a viseris un'autentica visione drogo ne sarà rapito è troppo magra sintenziò a viseris a labbra serrate i suoi capelli che avevano la medesima sfumatura di biondo argento di quelli della sorella erano strettamente raccolti dietro al capo e fermati in una crocchia da un osso di drago era un'acconciatura severa che faceva risaltare i lineamenti squadrati scavati del suo volto appoggiò la destra sull'elsa della spada che il lirio gli aveva prestato per l'occasione e chiese sei certo che a drogo piacciono le donne così giovani la ragazza ha già avuto il suo primo mestru non era la prima volta che il lirio lo faceva presente all'ultimo targaryen è in età sufficiente per il cal ma guardala quei capelli biondo argento quegli occhi viola è puro antico sangue di valyria nessun dubbio in merito nessun dubbio la nobile figlia del vecchio re la sorella del nuovo re non potrà non incantare il cal la nostra principessa finalmente il lirio lasciò andare la sua mano e daenerys si rese conto che stava tremando impercettibilmente auguriamocelo viseris continuava a nutrire i suoi dubbi questi selvaggi delle pianure hanno gusti infami ragazzi cavalli capre certo certo convenne il lirio questo però a cal drogo sarà opportuno non dirlo mi prendi forse per uno stupido un lampo di ira balenò negli occhi viola di viseris al contrario ti prendo per un re il magistro si esibì in un altro inchino i re non hanno la prudenza di alcuni mortali ti prego di accettare le mie scuse se ti ho arrecato offesa senza attendere la sua risposta il lirio si girò e batte le mani per far venire i portantini le strade di pentos erano immerse in una cupa tenebra due servi li precedevano illuminando il percorso con lanterne a olio istoriate dai vetri azzurro chiaro sulla loro scia una dozzina di uomini muscolosi trasportavano l'elaborato palanchino di lirio i lunghi pali orizzontali in appoggio sulle spalle dietro alle tende spesse della cabina l'aria era calda satura di traspirazione il magistro si era inondato di profumi penetranti ma danni percepì comunque il lezzo che emanava dalla sua carne flaccida viseris stravaccato accanto a lei sui cuscini non lo notò la sua mente era lontana chissà dove sul mare stretto le sue dita tormentavano l'elsa della spada ma danni sapeva che suo fratello non aveva mai realmente maneggiato una lama non avremo bisogno dell'accompagnamento di tutto il suo calasar disse viseris diecimila uomini diecimila cavalieri dottrachi urlanti saranno più che sufficienti a fare sì che io possa rivoltare i sette regni come un guanto tutto il reame si solleverà in nome del vero re tyrell redwin danni grayjoy nessuno di loro tollererà l'usurpatore più di quanto non lo tolleri io la gente di dorne non vede l'ora di vendicare la morte della principessa elia e dei suoi figli e anche il popolino sarà con noi anche il popolino inneggerà al vero re lanciò a illirio uno sguardo carico d'ansia d'incertezza non è forse così sono pur sempre le tue genti e continueranno ad amarti ribatte il magistro mellifluo dovunque nel reame gli uomini segretamente sollevano le coppe augurandoti buona salute e le donne tessono vessilli con l'immagine del drago tenendoli nascosti in attesa del tuo ritorno dal mare le sue spalle appesantite dal grasso si sollevarono o almeno questo è quanto mi riferiscono le mie spie da neri non aveva spie non aveva alcun modo di sapere che cosa pensava o faceva la gente sull'altra sponda del mare stretto di una sola cosa era certa non si fidava delle parole suadenti di illirio non si fidava per nulla di illirio al contrario di suo fratello il quale beveva ogni sillaba del magistro annuendo compiaciuto ucciderò l'usurpatore di mia mano promise viseris che non aveva mai ucciso nessuno nello stesso modo in cui lui ha ucciso mio fratello regar e anche gemi lannister lo sterminatore di re per quello che ha usato fare a mio padre la più perfetta giustizia a vostra grazia la più perfetta giustizia a vostra grazia approvò il magistro a daenerys non sfuggì il sorriso infido che increspò le labbra carnose di illirio viseris neppure se ne accorse annui nuovamente si rilassò contro i cuscini e guardò dalla finestra della cabina nel buio dani sapeva che per l'ennesima volta suo fratello stava combattendo la battaglia del tridente il palazzo di cal drogo sorgeva sulla riva della baia era un complesso di nove torri connesse da alte muraglie di mattoni sulle quali si arrampicavano tentacoli di edera pallida stando a illirio erano stati i magistri di pentos a donarlo al cal le città libere erano sempre molto generose con i cavalieri delle pianure naturalmente non lo facciamo perché teniamo questi barbari aveva spiegato illirio con uno dei suoi sorrisi e il signore della luce farebbe sì che le mure della nostra città reggessero all'assalto anche di un milione di dothraki così dicono i preti rossi al tempo stesso visto che la loro amicizia ha un costo tanto basso perché correre rischi il palanchino venne fermato al portale d'ingresso una delle guardie scostò rudemente le tende aveva la pelle olivastra e scuri occhi a mandorla caratteristiche somatiche dei dothraki ma non c'era traccia di barba o baffi sulla sua faccia in testa portava la calotta di bronzo munita dai rostri degli eunuchi il suo sguardo freddo esaminò gli occupanti della cabina magistro illirio gli borbottò rabbiosamente qualcosa nell'aspra lingua dothraki la guardia rispose nello stesso modo e poi fece cenno di passare la destra di viseris era rimasta per tutto il tempo serrata attorno all'elsa della spada presa in prestito notò danni né le sfuggì l'espressione di suo fratello piena della medesima paura che lei si sentiva dentro il palanchino sussultò mentre avanzava verso il palazzo piseris si concesse un mugugno insolente eunuco molti uomini influenti saranno presenti alle celebrazioni di questa notte il tono di magistro illirio era sua dente come il miele e questi uomini hanno dei nemici il cal deve proteggere i propri ospiti voi in primo luogo vostra grazia non può esserci dubbio alcuno che l'usurpatore sarebbe generoso con chi gli portasse la tua testa molto generoso sì sottolineò viseris cupamente ha già tentato di averla la mia testa questo posso garantirtelo illirio le sue lame mercenarie hanno seguito mia sorella e me ovunque io sono l'ultimo dei draghi e finché rimarrò in vita l'usurpatore non potrà dormire sonni tranquilli il palanchino tornò a rallentare fino a fermarsi le tende vennero di nuovo scostate uno schiavo offrì la mano aiutando deneris a scendere il suo collare lei notò era di comune bronzo suo fratello la seguì la mano sempre stretta sull'elsa della spada per far smontare magistro illirio di schiavi ce ne vollero due entrambi robusti l'aria era pesante all'interno del palazzo satura di una mescolanza di odori e di spezie cannella limone dolce ginepro vennero scordati attraverso l'ingresso le cui pareti erano coperte da un grande mosaico di vetro colorato che rafficurava il disastro di valiria lanterne a petrolio di ferro nero appese alle pareti diffondevano una luminescenza giallastra un eunuco in attesa sotto un'arcata di pietra scolpita a foglie attorcigliate annunciò il loro arrivo su altezza viseris della casa targaryen terzo del suo nome aveva una voce delicata dai toni acuti re degli andali e dei roinar e dei primi uomini signore dei sette regni e protettore del reame sua sorella daenerys nata dalla tempesta principessa della roccia del drago il loro onorevole ospite illirio mopatis magistro della città libera di pentos superarono leunuco ed entrarono in un cortile circondato da colonne e avvolto anch'esso da tentacoli di quell'è della pallida e mescolarono con gli altri ospiti sotto la luce della luna che dipingeva sfumature argente sulle foglie di pietra dei capitelli la maggior parte dei presenti erano signori dothraki uomini grandi e grossi dalla pelle color rame scuro con anelli d'ottone attorno ai baffoni spioventi i capelli neri come l'inchiostro in trisidolio e acconciati in cascate di trecce piene di campanelli ma tra loro c'erano anche guerrieri e fabbricanti di spade di pentos mir e tiros c'era un prete rosso addirittura più grasso di illirio e poi uomini con i capelli lunghi del porto di iben e lord provenienti dalle isole dell'estate dalla pelle nera come ebano daenerys li guardava con una mescolanza di meraviglia e di timore all'improvviso ebbe paura in mezzo a quell'orda caleidoscopica lei era l'unica donna quei tre là pisbigliò illirio sono i cavalieri del sangue di drogo vicino alla colonna c'è cal moro assieme al figlio rogoro l'ultimo con la barba verde è il fratello del signore di tirios e l'uomo dietro di lui è ser jorah mormont mormont fu quell'ultimo nome a scuotere daenerys un cavaliere sicuro un altro sorriso separò la barba dorata di illirio e con tanto di investitura dei sette unguenti da parte del sommo septon in persona che ci fa qui chiese daenerys in un soffio l'usurpatore voleva la sua testa spiegò illirio un qualche affronto da poco mormont aveva venduto alcuni cacciatori di frodo della città di tiros come schiavi invece di consegnarli ai guardiani della notte una legge assurda un uomo dovrebbe essere libero di disporre delle proprie risorse come meglio gli aggrada o no prima che questa serata si concluda di sé viseris parlerò con ser jorah mormont daenerys non poté evitare di osservare il cavaliere con una certa curiosità era un uomo in età decisamente oltre i 40 con un incipiente calvizie ma ancora forte e in ottima forma fisica al posto di seta e cotone vestiva lana e cuoio la sua tunica verde scuro era ricamata con l'immagine di un orso in piedi sulle zampe posteriori danni stava ancora osservando quello strano uomo che veniva dalla patria che non aveva mai conosciuto quando la mano umidicia di illirio si posò sulla sua spalla nuda da questa parte dolce principessa le sussurrò il magistro ecco il cal danni provò l'impulso di scappare di corsa a nascondersi ma non poté farlo suo fratello la stava guardando e se lei l'avesse deluso avrebbe risvegliato il drago piena d'ansia si voltò a osservare l'uomo che viseris sperava l'avrebbe chiesta in sposa prima che la notte avesse ceduto il passo al giorno la giovane schiava chiacchierona non si era sbagliata cal drogo superava di tutta la testa il più alto degli uomini in quel cortile e al tempo stesso si muoveva con estrema leggerezza il passo sinuoso come quello della pantera di cristallo nella collezione a casa di illirio era più giovane di quanto daenerys avesse immaginato meno di trent'anni la sua pelle aveva il colore di rame lucidato i folti baffi erano raccolti da anelli d'oro e di bronzo devo andare a compiere il mio atto di sottomissione disse illirio aspettate qui sarò io a condurlo fino a voi la mano di viseris si chiuse attorno al braccio di lei in una morsa dolorosa mentre il magistro si faceva strada in direzione del cal guarda bene la sua treccia dolce sorella un'unica treccia satura di oli raccoglieva i capelli di cal drogo neri come la notte più profonda a ogni movimento i campanelli attaccati a essa tintinnavano in modo vagamente minaccioso era incredibilmente lunga gli scendeva lungo tutta la schiena fino alla parte superiore delle cosce quando ondotrachi viene sconfitto in duello le spiegò viseris deve tagliarsi la treccia in segno di disonore in modo che tutto il mondo possa essere testimone della sua vergogna cal drogo non ha mai perduto un duello cal drogo è come una reincarnazione di egon signore dei draghi e tu diventerai la sua regina daneris studiò cal drogo il suo volto aveva lineamenti scolpiti crudeli e occhi gelidi neri come onice quando il drago si risvegliava suo fratello a volte le faceva male le faceva paura ma quella paura non era nulla in confronto al terrore primordiale che le instillava il torreggiante guerriero stagliato contro i viticci di edera pallida non voglio essere la sua regina disse quasi senza rendersene conto con una voce sottile sottile viseris ti prego ti prego non voglio portami a casa casa adesso la voce del re mendicante era piena di furore a stento represso e dov'è la nostra casa dolce sorella ce l'hanno portata via la nostra casa la trascinò sotto un androne assediato dalle ombre lontano dagli sguardi di tutti le sue dita scavarono nella pelle di lei allora dov'è la nostra casa per lui casa era prodo del re e la roccia del drago e tutto quel grande reame andato perduto per deneris non era nient'altro che le loro stanze nel palazzo di lirio di certo non una vera casa eppure era tutto quello che avevano ma questo suo fratello non poteva non voleva sentirlo lì per lui non esisteva nessuna casa viseris aumentò la stretta voleva una risposta da lei e la voleva subito non lo so dov'è la voce di daenerys si spezzò i suoi occhi si riempirono di lacrime io invece lo so sibilò suo fratello a casa ci andremo con un esercito dolce sorella l'esercito di cal drogo ecco come ci andremo e se per fare sì che io lo tenga tu dovrai sposarlo e dormire con lui tu lo farai le sorrise se per far sì che io lo tenga il suo intero calasar vorrà fotterti tu ti farai il fottere dolce sorella da tutti i suoi 40.000 uomini e anche da tutti i loro cavalli se necessario invece si grata che sarà solamente drogo a fotterti chissà col tempo potresti addirittura cominciare a fartelo piacere adesso asciugati gli occhi il lirio lo sta portando qui e cal drogo non deve vederti piangere daenerys si girò era vero magistro il lirio tutto sorgisi e salamelecchi stava guidando cal drogo verso di loro con il dorso della mano dani si tolse dalle palpebre e lacrime che non sarebbero mai cadute sorridi le disse nervosamente viseris la mano che tornava all'elsa della spada e stai retta fagli vedere che hai le tette e gli dèi sanno quante poche tette hai daenerys sorrise e rimase eretta capitolo 4 edward un fiume in piena fatto d'oro argento e acciaio si riversò attraverso il portale del castello 300 uomini a cavallo in una tonante colonna cavalieri e alfieri e vassalli e soldati di ventura sopra di loro nell'aria fredda sventolavano i vessilli dai colori azzurri e dorati il cervo incoronato emblema della casa baratheon capeggiava su tutti essi edward stark conosceva quasi tutti quei cavalieri ecco serge e milanister capelli biondi scintillanti come oro lavorato ecco sandor cligane con il volto sfigurato da una spaventosa ustione il giovane alto accanto a lui non poteva essere altri che il principe ereditario e il piccolo uomo deforme dietro tutti loro era di certo tyrion lannister il folletto eppure l'uomo gigantesco che cavalcava in testa alla colonna affiancato da due cavalieri con le cappe bianche della guardia reale a ned sembrò uno sconosciuto o almeno tale gli parve finché non smontò di sella per chiuderlo in un abbraccio da spezzare le ossa ned non vedevo l'ora di godermelo questo tuo dannato ceffo congelato il re lo studiò da capo a piedi e scoppiò in una risata e non sei affatto cambiato edard stark avrebbe voluto poter dire lo stesso 15 anni prima quando avevano combattuto fianco a fianco alla conquista del trono il signore di capo tempesta era il sogno di qualsiasi principessa giovane aitante accuratamente rasato dal suo metro e 90 di muscoli ben scolpiti torreggiava sulla maggior parte degli uomini del suo esercito quando indossava l'elmo munito di corna di cervo della sua nobile casa diventava un vero e proprio gigante anche la sua forza era quella di un gigante la sua arma da combattimento era una monumentale mazza ferrata che ned riusciva a sollevare a stento in quei giorni l'odore del cuoio e del sangue permeava lord robert baratheon come un profumo adesso era vero profumo quello che emanava da lui e il suo ventre sfidava la sua statura erano passati nove anni dalla rivolta di baylong regioi quando i vessilli del cervo e del metalupo si erano nuovamente uniti per porre fine agli oltraggi dell'uomo che aveva voluto autoproclamarsi re delle isole di ferro nove anni dalla notte in cui erano rimasti fianco a fianco nella fortezza conquistata da greyjoy era stata quella l'ultima volta che ned aveva visto il re edard aveva preso theon il primogenito dei ribelle come suo ostaggio e protetto ed era ritornato a grande inverno da allora robert aveva messo su almeno 50 chili una fisarmonica di menti tutt'altro che il regale era nascosta a stento da un'imponente barba nera dura come metallo ma nulla avrebbe potuto nascondere il ventre prominente e le scure borse sotto gli occhi in ogni caso robert era il suo re adesso non più soltanto il suo amico e da re ned l'avrebbe trattato maestà si limitò a dire grande inverno ti appartiene gli altri cavalieri stavano smontando e gli stallieri venivano a occuparsi dei loro animali cersei lannister la regina moglie di robert entrò nel castello a piedi accompagnata dai figli più piccoli fu costretta a farlo perché il carro sul quale era arrivata la famiglia reale un mastodonte a due piani tirato da 40 cavalli massicci fatto di quercia rinforzata d'acciaio era troppo largo per poter passare dal portale ned si inchinò nella neve per baciare l'anello della regina mentre robert abbracciava caitlin con il calore che si ha verso una sorella che non si vede da molto tempo poi i bambini di entrambe le famiglie vennero presentati gli uni agli altri e quindi reciprocamente approvati come voleva l'etichetta completato il protocollo robert non volle perdere altro tempo conduci mi alla cripta edard disse voglio presentare i miei rispetti ned apprezzò il gesto e si fece portare una lanterna dopo tanto tempo robert continuava a ricordarsi di lei tra loro non furono necessarie altre parole ma la regina cominciò a protestare erano in viaggio dall'alba erano stanchi infreddoliti e affamati non sarebbe stato male darsi per prima cosa una rinfrescata i defunti potevano aspettare per cui non disse altro robert la folgorò con un'occhiata e il suo fratello gemello jamie la prese per un braccio e la portò via scesero assieme nel sepolcro di grande inverno edard e questo re che stentava a riconoscere i gradini di pietra della scala a spirale erano stretti ned andò giù per primo reggendo la lanterna cominciavo a pensare che non ci saremmo mai arrivati a grande inverno si lamentò robert durante la discesa giù nel sud a sentire come la gente parla dei sette regni uno finisce col dimenticare che la tua parte è grande quanto le altre sei messe assieme confido comunque che il viaggio sia stato di tuo gradimento maestà eccome no sbuffò robert paludi foreste e pianure e che ci fosse una locanda decente a nord dell'incollatura mai vista tanta terra vuota ma dov'è la tua gente ned probabilmente sono troppo timidi per farsi vedere ned continuò a scendere respirando l'alito gelido che saliva dalle viscere della terra i re sono una visione rara qui al nord io dico che si sono nascosti sotto la neve robert si puntellò con una mano contro le pietre della parete curva sotto la neve ned ti rendi conto nevicate di fine estate non sono nulla di insolito spero che non ti abbiano creato problemi dovrebbero essere comunque state lievi che se le portino gli estranei alla dannazione le tue nevicate lievi imprecò robert mi viene freddo solo a pensare a cosa deve essere questo posto durante l'inverno l'inverno è duro ammise ned ma gli star che lo affronteranno come lo affrontiamo da sempre ed devi venire al sud devi goderti un'ultima boccata di estate prima che se ne vada ad alto giardino ci sono campi di rose in fiore che si stendono fino all'orizzonte e oltre la frutta è talmente matura che ti si scioglie in bocca meloni pesche prugne non esiste roba più dolce sentirai te ne ho portate un po perfino a capo tempesta con quel vento che soffia dalla baia fa talmente caldo da riuscire a muoversi a stento e dovresti vedere le città fiori da tutte le parti mercati stracolmi di cibo i vini dell'estate così a buon prezzo e così buoni che ti sbronzi solamente a respirarli tutti quanti sono ubriachi grassi e ricchi robert rise e si diede una sonora pacca sulla pancia per non parlare delle ragazze ned ci fu un lampo negli occhi del re quando fa caldo le donne perdono tutto il loro pudore te lo dico io se si mettono a nuotare nude nel fiume persino sotto le mure della fortezza rossa in strada fa troppo caldo per mettere l'ano a pellice così se ne vanno in giro con certe gonne corte di seta se hanno soldi di cotone se non ne hanno ma non fa nessuna differenza quando sudano e la stoffa gli si appiccica alla pelle come se addosso non portassero niente robert baratheon rise di nuovo era sempre stato un uomo di colossali appetiti pronto a immergersi nei piaceri della vita una cosa che nessuno avrebbe mai potuto dire di edard stark al tempo stesso per quegli appetiti per quei piaceri il re stava pagando un duro prezzo aveva il fiato grosso quando arrivarono alla base della scala e alla luce della lanterna il suo volto era congestionato maestà disse ned rispettosamente con un ampio movimento circolare proiettò la luce della lanterna nell'oscurità che invadeva il sepolcro ombre si spostarono e si riallensarono luci purpure scivolarono sulle pietre del pavimento definendo una lunga doppia teoria di pilastri di granito che veniva progressivamente inghiottita dalle tenebre morti erano immobili sui troni di pietra addossate alle pareti fra i pilastri la schiena appoggiata alla tomba che conteneva i loro resti lei è verso il fondo riprese edard cino a lord mio padre e brandon avanzò per primo tra i pilastri robert lo seguì in silenzio rabbrividendo nel gelo del sottosuolo il gelo dominava la sotto i loro passi risuonavano contro le pietre del pavimento rimbalzavano sulla volta del sepolcro che ospitava i defunti della casa stark ai piedi dei signori di grande inverno stavano accucciati grossi metalupi i volti scolpiti nelle pietre che sigillavano le tombe li osservavano passare con occhi privi di luce che scrutavano in eterne tenebre nell'alone luminoso in movimento quelle figure di granito parevano agitarsi sui scranni protendersi verso i vivi secondo l'antica tradizione una spada lunga di ferro era posata di traverso sulle ginocchia di ognuno di essi per consentire loro di tenere gli spiriti della vendetta imprigionati nelle cripte la ruggine aveva divorato la lama più antica lasciando solamente poche tracce rossastre là dove il metallo era rimasto in appoggio sulla pietra ned si chiese se questo poteva significare che ora gli spettri erano liberi di vagare nel castello ma non volle crederci i primi lord di grande inverno erano stati uomini duri e aspri come la terra sulla quale avevano dominato nei secoli che avevano preceduto l'arrivo dei signori dei draghi dall'altra parte dell'oceano quei lord avevano respinto qualsiasi alleanza erano stati i re del nord ned si fermò sollevando la lanterna più oltre la grande cripta continuava a sprofondare nelle viscere della terra perdendosi nelle tenebre c'erano altre tombe in quelle tenebre vuote e aperte nere crisali di pietra in attesa di ricevere i morti a venire in attesa di lui edard stark e dei suoi figli e un'altra cosa cui ned non volle pensare è qui che riposa lei disse silenziosamente robert annui si inginocchiò chinò il capo c'erano tre tombe una accanto all'altra lord ricard stark padre di ned aveva un volto allungato austero lo scultore l'aveva conosciuto bene sedeva con quieta dignità le dita di pietra strette attorno all'impugnatura della spada nella sua esistenza però tutte le spade avevano tradito nei due sepoltri più piccoli ai lati giacevano i suoi due figli brandon era morto a vent'anni strangolato per ordine di eris targaryen il re folle appena pochi giorni prima delle nozze con catelyn talli di delta delle acque suo padre era stato costretto a veder morire il vero erede degli stark il primo genito l'uomo nato per regnare lianna aveva solamente 16 anni una donna bambina di prodigiosa bellezza edard l'aveva amata con tutta la sua anima robert l'aveva amata al di là dello spirito era stata la sua promessa sposa re robert esitò sempre genuflesso era più bella molto più bella di così il suo sguardo rimase sui lineamenti di pietra di lianna come se in qualche modo potesse farla tornare in vita alla fine si alzò in un movimento reso goffo dal troppo peso maledizione ned dovevi proprio metterla in un posto come questo la memoria del dolore passato rendeva aspra la sua voce meritava di meglio di questo pozzo buio era una stark di grande inverno è qui che deve riposare rispose ned con semplicità dovrebbe essere sulla cima di una collina sotto un albero di frutta sopra il sole e le nubi dovrebbe poter sentire la carezza della pioggia ero con lei quando se n'è andata gli ricordò ned voleva tornare a casa per riposare accanto a brandon e al nostro padre a volte nella notte poteva ancora udirla prometti lo aveva implorato mentre giaceva in quella stanza satura dell'odore delle rose e del sangue e prometterlo ned la febbre le aveva portato via le forze la sua voce era stata poco più di un sussurro ma quando lui le aveva dato la sua parola la paura era svanita dagli occhi di sua sorella ned ricordava solo poche altre cose il modo in cui gli aveva sorriso per l'ultima volta le dita di lei che abbandonavano le sue lasciando cadere petali disseccati anneriti il resto era una penombra indefinita l'avevano trovato più tardi paralizzato delle terre lacustri e aveva sciolti dall'abbraccio ned non aveva alcun ricordo di questo le porterò dei fiori credeva di aver detto a reed lo farò ogni volta che potrò leanna amava i fiori la mano di re robert sfiorò il volto di pietra le sue dita percorsero lineamenti con dolcezza come se fossero stati quelli di una donna in vita ho giurato di uccidere regar per quello che li ha fatto l'hai ucciso ricordò ned soltanto una volta robert era ancora pieno di veleno si erano affrontati al guado del tridente mentre la battaglia infuriava tutto attorno da un lato robert baratheon mazza da combattimento ed elmo dalle grandi corna di cervo dall'altro regar targaryen il principe dall'armatura nera sulla placca pettorale c'era il drago a tre teste emblema della sua casa disseminato di rubini che ai raggi del sole dei loro destrieri mentre i due cavalli andavano all'attacco giravano uno attorno all'altro si scontravano con furia cieca era stata la mazza afferrata di robert a dare il colpo conclusivo sfondando il drago di rubini e il torace di esso quando edard era arrivato sulla scena del duello il cadavere di regar giaceva nella corrente e soldati dei due eserciti frugavano nell'acqua alla ricerca dei rubini divelti della sua armatura ogni notte lo uccido di nuovo confessò robert mille morti diecimila morti sono niente al confronto di quello che meritava non c'è nulla che ned potesse dire meglio rientrare maestà suggerì dopo una lunga pausa tua moglie ti starà aspettando mia moglie che gli estranei se la portino alla dannazione robert continuava a essere pieno di amarezza ma cominciò comunque a muoversi con passo pesante e un'altra cosa ned se la sento ancora una volta la farsa del maestà ti stacco la testa e la infilo su una picca tu e io siamo ben altro non ho dimenticato cosa siamo robert fu il turno del re di non trovare niente da dire dimmi di john harry riprese ned ho mai visto un uomo arrivare alla fine per malattia tanto rapidamente robert scosse il capo per il compleanno di mio figlio avevamo dato un torneo a vedere john quel giorno avresti detto che sarebbe vissuto per sempre due settimane dopo era morto la malattia lo ha come bruciato dentro si fermò accanto a un pilastro vicino alla tomba di un altro stark svanito da molto tempo lo amavo quel vecchio tutti e due lo amavamo ned fece una pausa caitlin è preoccupata per sua sorella lisa come sta affrontando il lutto in verità non bene la bocca di robert si strinse credo che la perdita di john l'abbia fatta diventare matta ha preso il bambino l'ha riportato a nido dell'aquila contro la mia volontà avevo sperato di darlo in adozione a tywin lannister a castel granito john non aveva né fratelli né altri figli cosa ci si aspettava che facessi che non lasciassi far crescere dalle donne lord tywin lannister piuttosto che mettere un bambino qualsiasi bambino tra le sue grinfie ned stark l'avrebbe buttato in una fossa piena di serpenti ma questo al re non lo disse esistevano certe antiche ferite che non si erano mai completamente rimarginate bastava una parola sbagliata per riaprirle e farle sanguinare di nuovo quella donna ha perso suo marito disse cautamente forse ora teme di perdere anche il figlio e il ragazzo è molto giovane sei anni malaticcio e lord di nido dell'aquila poi idee ne abbiano pietà esclamò il re lord tywin non ha mai avuto un protetto e i lannister sono una grande casa nobile lisa avrebbe dovuto dichiararsi onorata per una simile prospettiva invece non ha voluto nemmeno sentirne parlare se n'è andata nel mezzo della notte senza nemmeno dire una parola a nessuno cerci cerci era furiosa respirò a fondo come se non bastasse il bambino porta il mio stesso nome lo sapevi questo robert harren ho giurato di proteggerlo ma mi dici come faccio a proteggerlo se una madre me lo porta via lo prenderò come mio protetto se lo desideri disse ned lisa non dovrebbe avere problemi lei e caitlin erano molto legate anche lei potrebbe stare qui se lo volesse un'offerta generosa caro amico rispose il re peccato che arrivi troppo tardi lord tywin ha dato già il suo consenso mandare il bambino da un'altra parte significherebbe recargli un grave affronto ho molto più a cuore la sorte di mio nipote dell'orgoglio dei lannister dichiarò a ned freddamente perché non dormi con un lannister la risata di re robert si ripercosse sul soffitto avvolta e risuonò fra le trombe i suoi denti scintillavano in mezzo all'enorme barba nera ned sei sempre così serio gli mise sulle spalle un braccio massiccio avevo pensato di lasciare passare qualche giorno prima di parlarti ma ora mi rendo conto che non c'è nessun bisogno di aspettare vieni si avviarono di nuovo tra i pilastri il braccio del re sempre sulle spalle di eddard i ciechi occhi di pietra degli stark sembravano seguirli passo passo non dirmi che non ti sei domandato per quale ragione dopo tutto questo tempo ho finalmente deciso di venire a grande inverno ned aveva delle ipotesi ma preferì non esprimerle ma per il piacere della mia compagnia disse scherzoso perché altro e poi c'è la barriera è necessario che tu la veda maestà che ne visiti i fortini che parli con gli uomini che la sorvegliano guardiani della notte sono l'ombra di ciò che erano un tempo mio fratello benjen dice senza alcun dubbio sentirò presto molto presto tutto quello che c'è da sentire sulla barriera da tuo fratello benjen taglio a corto robert la barriera sta da sta da da quanto 8 mila anni non credo che andrà da nessuna parte nei prossimi giorni ho altre preoccupazioni ben più pesanti questi sono tempi difficili devo avere uomini validi attorno a me ned uomini come john harren era lord del nido dell'aquila protettore dell'est e primo cavaliere del re impiazzarlo sarà tutt'altro che facile suo figlio inizio ned suo figlio gli succederà nel nido dell'aquila e in tutti i suoi proventi lo interruppe bruscamente robert adesso però basta parlarne ned colto di sorpresa si fermò di colpo e si girò fissando il suo re parlò senza mezzi termini gli harren sono sempre stati i protettori dell'est robert un titolo che viene assieme al dominio sul nido dell'aquila se quando sarà in età può darsi che gli venga restituito ho tutto quest'anno per pensarci è anche tutto il prossimo un bambino di sei anni non è un condottiero di armate in tempo di pace quel titolo è semplicemente onoreficenza lascia che il bambino lo conservi per suo padre se non per lui quantomeno lo devi a john per i servigi che ti ha reso quei servigi erano un preciso dovere di john nei confronti del suo sovrano il re cominciava a irritarsi il suo braccio si allontanò dalle spalle di eddard non sono ingrato ned tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro ma il figlio non è il padre è un bambino non può tenere l'oriente dei sette regni il tono di robert si ammorbidì non voglio discutere con te non continuiamo a parlare di questo c'è c'è dell'altro prese eddard per un comito è di te che ho bisogno ned sono i tuoi comandi questa parole che doveva dire e che disse pur essendo pieno di timori su ciò che stava per arrivare sempre gli anni che tu e io abbiamo trascorso assieme al nido dell'aquila robert parve averlo udito a stento per gli idee quelli sì che furono anni buoni validi pa ned ti voglio di nuovo al mio fianco ti voglio con me ad approdo del re non qua su all'ultimo dannato confine del mondo e non sei utile a nessuno scrutò nel buio che li circondava e per un attimo i suoi lineamenti ebbero l'espressione malinconica degli stark te lo giuro ned se conquistare un trono è duro è nulla in confronto a quello che ti arriva addosso quando ci stai seduto sopra le leggi sono una noia i conti con le case del regno è addirittura peggio e poi la gente sembra senza fine sto seduto su quello stramaledetto sedile di ferro sentire le loro lamentele fino a quando il cervello mi va in acqua e il culo a fuoco non ce n'è uno che non voglia qualcosa denaro terre giustizia le menzogne che raccontano i miei nobili le mie nobili donne non sono di certo meglio sono circondato da odulatori e da imbecelli roba da farti uscire di senno ned una metà non ha il coraggio di dirmi la verità l'altra metà non sa nemmeno dove si trovi certe notti penso che forse sarebbe stato meglio averla perduta la battaglia del tridente beh non proprio mi rendo conto disse ned a bassa voce lo so robert riportò lo sguardo su di lui penso che tu ti renda conto e e penso penso anche che nessun altro si renda conto mio caro vecchio amico gli sorrise lord edward stark voglio farti primo cavaliere del re ned mise un ginocchio a terra di fronte a lui l'offerta non lo sorprese robert non poteva avere nessun'altra ragione per fare tutta quella strada fino a grande inverno il primo cavaliere del re era il secondo uomo più potente dei sette regni parlava in luogo del re guidava gli eserciti del re redigeva le leggi del re arrivava addirittura a sedere lui stesso sul trono di spade dispensando la giustizia del re quando questi era assente ammalato o altrimenti occupato ciò che robert gli stava offrendo erano una responsabilità e un potere vasti quanto il reame stesso ma erano anche l'ultima delle responsabilità l'ultima dei poteri che avrebbe mai voluto non sono degno di un simile onore maestà rispose ned se avessi voluto farti un onore ti avrei permesso di rifiutare disse robert il mio progetto è ben altro avere te che mandi avanti il regno mentre io vado avanti a mangiare bere fottere e condurre una splendida vita di dissolutezze fino alla mia prematura di partita sorrise beffardo e si diede un'altra pacca sullo stomaco e poi lo sai quello che dicono in merito al re al suo primo cavaliere no ciò che il re sogna recitò ned il primo cavaliere costruisce versione dei nobili una servetta che mi feci qualche tempo fa mi diede quella dei bassi fondi il re si abboffa mentre il primo cavaliere si becca la merda robert gettò indietro la testa e scoppiò in una tonante risata suscitando echi delle tenebre del sepolcro i ciechi occhi di pietra degli spettri di grande inverno parevano osservare con lo stile disapprovazione alla fine la risata cessò edard era sempre con un ginocchio a terra lo sguardo alzato sul suo re maledizione ned potresti perlomeno sforzarti di stare al gioco con un sorriso sbottò robert c'è un vecchio detto qui nel nord dicono che durante l'inverno fa così freddo e la risata di un uomo gli si congela in gola soffocandolo fino alla morte rispose ned in tono piatto forse è per questo che gli stark non brillano per il loro senso dell'umorismo ah e allora viene al sud con me ti insegnerò io come si fa a ridere di nuovo promisa il re mi hai aiutato a prendere il dannato trono ora ti chiedo di aiutarmi a restarci sopra ned siamo destinati a regnare assieme tu ed io se liana fosse vissuta saremmo diventati fratelli un legame di sangue oltre che di affetto ebbene non è troppo tardi io ho un figlio tu hai una figlia il mio joffrey e la tua sansa faranno un'unica casa delle nostre due come liana e io avremmo fatto tanto tempo fa questa offerta sorprese invece edard stark sansa ha soltanto undici anni robert fece un gesto impaziente un'età sufficiente per essere quantomeno promessa sposa per per il matrimonio potremo aspettare qualche anno il re sorrise ora alzati e rispondi di sì maledetto te nulla mi renderebbe più felice maestà ned esitò un onore così grande e del tutto inaspettato posso avere qualche tempo per pensarci devo dirlo a mia moglie ma sì ma sì dillo pure a caitlin dormici pure sopra se davvero ci tieni il re allungò una mano facendo alzare ned con impeto ma cerca di non farmi aspettare troppo a lungo la pazienza non è la mia maggiore virtù per un lungo momento edard stark sentì alleggiare attorno a sé dentro di sé un pericolo spaventoso il suo posto era il nord tornò con lo sguardo alle figure di pietra che parevano assediarlo da tutti i lati respirò all'aria gelida del sepolcro i morti lo stavano osservando i morti lo stavano ascoltando lui lo sapeva lo sentiva e l'inverno sta arrivando capitolo 5 john c'erano volte non molte ma c'erano in cui john snow era felice di essere un bastardo prese al volo una caraffa e si riempì di nuovo la coppa fino all'orlo questa era proprio una di quelle volte tornò a sedersi sulla panca assieme agli altri giovani signorotti di campagna e beve il gusto del vino dell'estate dolce carico dell'aroma della frutta gli si diffuse in bocca portandogli il sorriso sulle labbra nella grande sala di castello di grande inverno l'atmosfera era caliginosa per il fumo satura dell'odore della carne arrostita e del pane appena sfornato le alte pareti di pietra grigia erano adornate di standardi un caleidoscopio di bianco azzurro e oro il metalupo degli stark il leone dei lannister il cervo incoronato dei baratheon un menestrello cantava una ballata accompagnandosi all'arpa ma verso il fondo della sala dove si trovava john la sua voce giungeva a malapena sopraffatto dal crepitare dei fuochi dalla cocofonia di piatti e coppe che sbattevano dal brusio di centinaia di conversazioni alimentate dal troppo vino la festa in onore del re andava avanti da quattro ore i fratelli e le sorelle di john erano seduti assieme ai rampolli reali appena al di sotto della piattaforma sopraelevata sulla quale lord e lady stark intrattenevano il re e la regina per l'occasione il lord e suo padre avrebbe senza dubbio lasciato bere un bicchiere di vino a ciascuno dei ragazzi ma non più di uno laggiù sulle panche nessuno avrebbe impedito a john snow di bere quanto avesse voluto john si stava rendendo conto anche di qualcos'altro la sua sete era quella di un adulto il che faceva la chiassosa delizia del giovane branco che lo circondava lo incitavano lo invogliavano gli riempivano la coppa non appena lui la svuotava a john piaceva stare assieme a loro si godevano le loro storie di duelli seduzioni e cacce era certo che quei compagni fossero di molto più stimolanti dei rampolli reali la sua curiosità verso i visitatori si era esaurita al momento del loro ingresso nella sala del banchetto il corteo gli era sfilato tanto vicino da poterlo toccare e lui aveva dato una lunga occhiata a ognuno dei componenti per primo era venuto il lord suo padre che scortava la regina cersei lannister era effettivamente la bellezza che tutti gli uomini dicevano che fosse una tiara di pietre preziose tratteneva i suoi lunghi capelli biondi gli smeraldi in un perfetto accostamento cromatico con il verde dei suoi occhi suo padre le aveva dato il braccio nel salire i pochi gradini della piattaforma e l'aveva fatto accomodare ma la regina non l'aveva neppure degnato di uno sguardo john snow aveva soltanto 14 anni ma era perfettamente in grado di vedere che cosa traspirava dal sorriso di quella donna poi era stata la volta del re con lady stark al braccio per john il re era stato una profonda delusione suo padre ne parlava spesso l'invincibile robert baratheon il demone della battaglia del tridente il letale guerriero dei sette regni gigante tra i principi tutto ciò che john vide fu un uomo obeso dalla camminata pencolante la faccia arrossata madida di sudore sotto tutta quella barba dopo i genitori erano arrivati i figli il piccolo ricon aveva aperto il gruppo affondando la lunga sfilata con tutta la dignità di un bambino di tre anni john era stato costretto a dirgli di andare avanti quando si era fermato vicino a lui per sorridergli dietro veniva rob che indossava una tunica di lana grigia bordata di bianco i colori degli stark aveva al braccio la principessa mirsella un giunco di ragazzina di nemmeno otto anni con una cascata di riccioli dorati raccolta in una reticella addornata di gioielli mentre avanzava tra i tavoli a john non era sfuggito lo sguardo timido che la bambina allungava a rob e il timido sorriso che gli riservava john aveva deciso che mirsella era decisamente insipida probabilmente anche stupida a giudicare dal suo sorriso da un orecchio all'altro rob doveva trovarsi a mille miglia da pensieri simili le sue sorellastre scortavano i principi reali ad aria nove anni era toccato il grassottello thommen i cui capelli biondo cenere erano addirittura più lunghi di quelli di lei sansa due anni più di aria era con il principe ereditario joffrey baratheon dodici anni più giovane di rob e di john ma anche più alto di entrambi la qualcosa a john non era piaciuta affatto il principe joffrey aveva i capelli biondi di sua sorella e gli occhi verdi di sua madre una spessa coda di riccioli biondi gli scendeva al di sotto della gorgera d'oro fino all'alto collo di velluto nel camminargli a fianco sansa appariva radiosa ma a john non erano piaciute le labbra carnose per certi versi femmine del principe e gli era piaciuta ancora meno l'occhiata di annoiata con discendenza che aveva lanciato alla sala di grande inverno era stato molto più interessato dal gruppo che seguiva i fratelli della regina i lannister di castelgranito il leone e il folletto ed era impossibile non capire chi fosse cosa ser jamie lannister fratello gemello della regina cersei era alto e dorato con scintillanti occhi verdi e un sorriso affilato come una lama di valyria indossava seta porpora alti stivali neri un'ampia cappa di satin nero il leone della sua nobile casa ricamato in oro sul petto del suo farsetto era raffigurato in un ruggito carico di sfida di minaccia il leone di lannister così veniva chiamato ser jamie nelle sane del regno alle sue spalle si sussurrava un altro appellativo assai diverso sterminatore di re eppure john non era riuscito a distogliere lo sguardo da quell'uomo un pensiero aveva preso forma nella sua mente è questo l'aspetto che dovrebbe avere un re e poi semi nascosto dal fratello aveva visto l'altro lannister tyrion il più giovane della covata di lord tywin e di gran lunga il più brutto tutti i doni estetici che gli dèi avevano concesso a cersei e a le avevano negati a tyrion il folletto un nano alto la metà del fratello che arrancava per tenere il passo su gambe arcuate deformi la sua testa sproporzionatamente grossa in confronto al resto del corpo ospitava una faccia dai lineamenti brutali rincagnati quasi tenuta in ombra da un'arcata sopraccigliare sporgente aveva occhi dai colori diversi uno nero e l'altro verde le iridi asimmetriche semi nascoste da un ciuffo di capelli talmente biondo da apparire bianchi john l'aveva fissato come ipnotizzato ultimi dei lord a fare il loro ingresso erano stati benjen stark dei guardiani della notte e il giovane fion greyjoy il protetto di suo padre nel superarlo benjen aveva rivolto a john un sorriso pieno di calore per contro tion l'aveva smaccatamente ignorato nulla di nuovo una volta che tutti quanti furono seduti si era passati al brindisi di rigore ai reciproci ringraziamenti e finalmente il festino aveva avuto inizio era stato a quel punto che john aveva cominciato a darci dentro con il vino e non aveva ancora smesso sotto il tavolo qualcosa si strusciò contro le sue gambe john vide due occhi rossi ardenti ancora fame chiese al centro del tavolo era rimasto mezzo pollo marinato al miele john allungò una mano per strapparne una coscia poi ci rifensò conficcò il pugnale nel volatile e lo lasciò cadere a terra tutto intero tra le proprie gambe in un silenzio sinistro selvaggio spettro il metalupo albino iniziò a divorarlo ai suoi fratelli e sorelle non era stato premesso portare i loro lupi al banchetto ma quel lato della sala era zeppo di animali e nessuno si era sognato di dire niente a john in merito al suo cucciolo un altro aspetto della fortuna di essere un bastardo gli occhi bruciavano e se li sfregò con forza maledicendo il fumo mandò giù un'altra sorsata di vino e osservò il metalupo che continuava a fare a pezzi il pollo parecchi cani incrociavano fra i tavoli tallonando le serve che trasportavano il cibo uno di loro una cagna nera dagli occhi giallastri percepì l'aroma del pollo si fermò e andò a infilarsi sotto la panca per prenderne un pezzo john osservò il confronto la cagna emise un basso ringhio e si avvicinò a spettro che sollevò il muso e la fissò con quei suoi occhi fiammeggianti la cagna nera abbaiò una sola volta lanciando una sfida era grossa almeno il triplo di lui ma spettro non si scompose si limitò ad aprire le fauci e a scoprire le zanne di curve la cagna si irrigidì abbaiò una seconda volta e poi fece la mossa giusta si ritirò con la coda fra le gambe lanciando un ultimo ringhio per salvare l'orgoglio spettro tornò a dedicarsi alla sua preda john soghignò si protese sotto il tavolo e scompigliò la pelliccia bianca il metalupo lo guardò gli diede un piccolo colpo con il naso alla mano e riprese a mangiare per cui questo è uno dei metalupi dei quali ho sentito parlare john alzò lo sguardo sorridendo suo zio benjen stark gli arruffò i capelli pressoché nello stesso modo in cui lui aveva arruffato il pelo del cucciolo si chiama spettro uno degli altri signorotti seduti al tavolo interruppe l'aneddoto che stava raccontando e si spostò per fare un posto al fratello del suo lord benjen scavalcò la panca con le lunghe gambe e prese la coppa da mano di john vino dell'estate rilevò dopo un sorso niente di più dolce quante te ne sei già scolate di queste john john sorrise senza rispondere proprio come temevo rise ben in ogni caso credo di essere stato anche più giovane di te la prima volta che mi sono sbronzato da un vassoio accanto a loro prelevò una grossa cipolla arrostita gocciolante salsa speziata e la addentò facendola scricchiolare tra i denti benjen stark era un uomo dai lineamenti marcati asciutto come uno sperone basaltico ma c'era sempre un accenno di allegria nei suoi occhi azzurro acciaio vestiva interamente di nero secondo la tradizione della confraternita dei guardiani della notte per l'occasione aveva scelto spesso velluto alti stivali e una larga cintura dalla fibria d'argento come unico ornamento portava attorno al collo parecchi giri di collana anch'essa d'argento continuò a osservare spettro e a mordere la cipolla un lupo molto quieto osservò è diverso dagli altri rispose john non fa il minimo rumore per questo l'ho chiamato spettro e anche perché è bianco gli altri sono bruni grigi o neri ci sono ancora molti metalupi oltre la barriera uscendo di pattuglia li sentiamo muoversi nella foresta benjen stark lanciò a john uno sguardo penetrante dimmi una cosa john di solito non mangia lo stesso tavolo di tuoi fratelli il più delle volte il tono di john rimase incolore ma questa sera lady stark ha ritenuto che far sedere con loro un bastardo avrebbe potuto recare affronto alla famiglia reale ma non capisco benjen gentò un'occhiata al di sopra della spalla verso il tavolo sulla piattaforma all'estremità più lontana della sala mio fratello non ha esattamente l'aria di uno che si sta divertendo anche john l'aveva notato un bastardo era costretto a notare le cose a intuire le verità che si celavano dietro gli sguardi suo padre era stato perfetto in ognuna delle cortesie di rito ma c'era in lui una rigidezza che john non aveva visto spesso lord edard stark parlava poco i suoi occhi cupi fermi sulla prospettiva della sala guardavano ma senza vedere nulla a due posti da lui il re non aveva fatto che bere senza sosta per tutta la serata dietro la spessa barba nera la sua faccia larga era accesa dei fumi del vino troppi brindisi troppe risate sguaiate troppi assalti all'arma bianca a ogni portata accanto a lui la regina appariva distante e remota come una scultura di ghiaccio anche la regina è arrabbiata disse john a voce bassa calma questo pomeriggio mio padre ha portato il re a visitare la cripta ma la regina non voleva che ci andasse c'è ben poco che ti sfugge vero john benjen scrutò attentamente il ragazzo valutandolo sulla barriera c'è bisogno di uomini come te john senti l'orgoglio crescere roba è un lanciere più bravo di me ma io lo batto con la spada e mastro allen dice che so cavalcare meglio di chiunque altro al castello risultati notevoli zio quando farai ritorno alla barriera portami con te disse john con impeto papà mi permetterà di andare se sarai tu a chiederglielo so che lo farà lo sguardo attento di benjen rimase fisso nel suo la barriera è un posto duro per un ragazzo john sono quasi un adulto ormai protestò john al mio prossimo compleanno avrò 15 anni e mastro luin dice che i bastardi crescono più in fretta degli altri ragazzi questo è abbastanza vero c'era una strana piega all'angolo della bocca di benjen afferrò la coppa di john la riempì versando da una caraffa che era stata appena portata al tavolo e beve con calma dare un targaryen aveva solo 14 anni quando conquistò dorna insistè john il giovane drago era uno dei suoi miti conquista durata una sola estate gli ricordò suo zio il tuo re il ragazzino perse 10.000 uomini nell'assalto e altri 50.000 cercando di respingere il contrattacco qualcuno avrebbe dovuto dirgli che la guerra non è un gioco beve un altro sorso di vino inoltre aggiunse asciugandosi le labbra daron targaryen morì a 18 anni o forse ti sei dimenticato di quella parte della storia non mi sono dimenticato di niente esclamò john tutto quel vino l'aveva reso spaccone si raddrizzò sulla panca mettendocela tutta per apparire più alto voglio voglio servire nei guardiani della notte zio ben era una cosa a cui aveva pensato a lungo e intensamente durante troppe notte insonni mentre i suoi fratelli dormivano attorno a lui un giorno rob avrebbe ereditato grande inverno e quale protettore del nord avrebbe cavalcato alla testa di grandi eserciti bran e ricon come suoi alfieri avrebbero governato fortezze nel suo nome e sue sorelle aria essenza sarebbero andate spose agli eredi di nobili grandi case si sarebbero spostati al sud diventando signore di splendidi castelli ma quali speranze poteva nutrire un bastardo quale sarebbe stato il suo posto nel mondo john tu non hai la minima idea di che cosa stai chiedendo quella dei guardiani della notte è una confraternità alla quale si presta il solenne giuramento non abbiamo famiglia nessuno di noi sarà mai padre la nostra moglie è il dovere la nostra amante è l'onore anche un bastardo sa cos'è l'onore dichiarò john e io sono pronto a prestare quel giuramento sei un ragazzo di 14 anni obiettò a benjen non sei ancora un uomo e fino a quando non saprai cos'è una donna non puoi capire a cosa rinunceresti non mi importa replicò john con fuga potrebbe importarti se sapessi cosa significa ribatté benjen se realmente ti rendessi conto di qual è il prezzo di quel giuramento forse figliolo resti molto meno incline a pagarlo john sentì la rabbia montargli dentro non sono il tuo figliolo un peccato benjen stark gli mise una mano sulla spalla torna da me dopo aver messo al mondo tua volta un po di bastardi vedremo allora se sarai della stessa idea io non metterò mai al mondo dei bastardi john adesso tremava per l'ira mai l'ultima parola gli viene fuori in un sibilo come un soffio velenoso su quel tavolo pieno di risate e di vino scese il silenzio gli occhi di tutti si puntarono su di lui john sentì le lacrime aprirsi la strada tra le palpebre in qualche modo si alzò in piedi credo che sia opportuno che mi ritiri disse con gli ultimi frammenti di dignità girò su se stesso e schizzò via prima che potessero vedere che stava piangendo ma il vino gli era andato alla testa molto più di quanto non si fosse reso conto barcollò per ritrovare l'equilibrio finendo malamente addosso a una delle serve la caraffa di vino che la ragazza trasportava le sfuggì di mano disintegrandosi a terra in una sonora esplosione liquida alla quale fece seguito a una ancora più sonora esplosione di risate john sentì lacrime roventi scendergli lungo le guance qualcuno cercò di aiutarlo a tenersi in piedi lui si divincolò dalla presa e corse verso la porta la vista offuscata la testa in fiamme spettro gli tenne dietro e uscì assieme a lui nella notte tutto era immobile là fuori tutto era vuoto un'unica solitaria sentinella stava immobile sul camminamento più alto della muraglia interna una nera figura avvolta nella cappa per proteggersi dal freddo da solo nel buio e nel gelo raccolto su se stesso l'uomo appariva intirizzito e annoiato a morte eppure da come si sentiva in quel momento john snow avrebbe preso il suo posto senza pensarci un attimo tutto attorno la fortezza era deserta e tenebrosa molto tempo prima john aveva visto un castello abbandonato un luogo desolato battuto dal vento la memoria di chi l'aveva abitato perduta nelle pietre inerti quella notte grande inverno era sinistramente simile all'antica rovina la musica e risate del banchetto continuavano a riversarsi da una finestra aperta alle sue spalle erano gli ultimi suoni che avrebbe voluto udire asciugò le lacrime con la manica della tunica inferocito con se stesso per averle versate quindi si girò per andarsene ehi ragazzo john si voltò verso la sorgente della voce tyrion lannister folletto trasformatosi in doccione era seduto sul cornicione al di sopra del portale che conduceva nella grande sala quel tuo animale proseguì il nano con una smorfia è un lupo un metalupo si chiama spettro john osservò l'ometto e tutta la sua rabbia tutta la sua disperazione svanirono come foschia schiacciata da un vento improvviso che ci fai lassù perché non sei alla festa troppo caldo troppo frastuono e troppo vino che di sicuro manderei giù ho imparato da un pezzo che fare una bella vomitata addosso al proprio fratello non è un gesto annoverato fra le buone maniere quel tuo metalupo posso dargli un'occhiata più da vicino john ebbe un'esitazione alla fine annui cautamente scendi tu o porto una scala io alla malora la scala il piccolo uomo saltò nel vuoto letteralmente john soffocò un'esclamazione all'idea di cosa stava per accadere poi rimase a bocca aperta nell'osservare tyrion lannister avvolgersi a palla a mezz'aria toccare terra su entrambe le mani e infine saltare all'indietro atterrando sulle gambe spettro improvvisamente guardingo arretrò le mie scuse il nano rise dandosi una teatrale spolverata ci direbbe che abbia fatto paura al tuo lupo non gli hai fatto paura john si inginocchiò spettro vieni qui da bravo ecco così ai suoi comandi il cucciolo di lupo tornò avanzare spingendo il muso contro il viso di john ma continuando a tenere d'occhio tyrion lannister e quando il folletto allungò una mano per accarezzarlo spettro indietraggio nuovamente scoprendo le zanne in un ringhio silenzioso spettro seduto comandò john così fermo guardò il nano adesso puoi toccarlo non si muoverà finché non glielo dirò io l'ho addestrato in questo modo vedo commentò tyrion arruffò la pelliccia bianca di spettro fra le orecchie e disse simpatico questo lupo se non ci fossi io ti aprirebbe la gola affermò john non era ancora successo niente di simile ma avrebbe potuto in tal caso è meglio che non ti allontani troppo il nano inclinò la testa di lato i suoi occhi asimmetrici studiavano john sono tyrion lannister lo so john rimase in piedi era nettamente più alto del folletto il che lo fece sentire stranamente a disagio sei il bastardo di ned stark giusto john sentì il gelo tornare dentro di lui strinse le labbra rimanendo in silenzio ti ho offeso chiese tyrion mi dispiace ma i nani non sono obbligati ad avere tatto dopo la pletora di imbecilli con mantello con la quale sono stato costretto ad avere a che fare mi sono guadagnato il diritto di vestire in modo schifoso e di dire qualsiasi cosa fetente che mi passi per la testa fece una smorfia tu però sei il bastardo lord edar stark è mio padre ammise john rigidamente si vede tyrion studiò i suoi lineamenti in te c'è molto più dell'uomo del nord di quanto non ce ne sia nei tuoi fratelli fratellastri corresse john le parole del folletto gli avevano fatto piacere ma cercò di non darlo a vedere allora lascia che ti dia qualche consiglio bastardo riprese tyrion lannister mai mai dimenticare chi sei perché di certo il mondo non lo dimenticherà trasforma chi sei nella tua forza così non potrai mai essere la tua debolezza fanne un'arma e non potrà mai essere usata contro di te john snow non era in vena di stare a sentire consigli da nessuno tu che ne sai di cosa significa essere un bastardo agli occhi dei loro padri tutti i nani sono dei bastardi ma tu rimani un lannister sangue del loro sangue davvero il folletto ebbe un'espressione sardonica non esitare ragazzo vai pure a dirlo all'ordine mio padre mia madre morì nel darmi alla luce per cui lui non ha mai potuto esserne del tutto certo io non so nemmeno chi sia mia madre disse john una donna d'eccezione senza alcun dubbio la maggior parte di loro lo sono tirion gli allargì un sorriso di solidarietà ricorda una sola cosa ragazzo tutti i nani potranno anche essere dei bastardi ma non è affatto necessario che tutti i bastardi debbano essere dei nani detto questo il folletto girò sui tacchi e fischiettando arancò verso il portale per tornare alla festa quando aprì la porta la luce proveniente da dentro proiettò la sua ombra sull'intera lunghezza del cortile del castello e per un momento tyrion lannister fu più torreggiante del re dei sette regni caitlin tra tutti gli ambienti della prima fortezza di grande inverno i quartieri privati di caitlin erano decisamente i più caldi era raro che venisse acceso il fuoco il castello era costruito su un sistema di sorgenti calde sotterranee le cui acque ribollenti simili a flussi sanguigni di un corpo gigantesco risalivano lungo le intercapedini delle mura la temperatura di quelle acque teneva il gelo lontano dalle stanze riempiva la tiepida umidità di giardini racchiusi nel vetro impediva alla terra di congelare durante l'estate tutto questo appariva poca cosa durante l'inverno faceva la differenza fra la vita e la morte la sala da bagno di caitlin era perennemente torrida piena di vapori le pareti calde al tatto quel calore le faceva tornare alla mente delta delle acque i giorni passati al sole assieme a lisa e ad edmore per eddard quel calore rappresentava un problema gli stark erano gente fatta per il freddo le ripeteva in continuazione al che lei rideva rispondendo che forse brandon il costruttore aveva eretto il castello nel posto sbagliato così quando ebbero finito seguendo il medesimo rituale silenzioso compiuto mille volte ned si staccò dal corpo di lei si alzò dal letto e andò ad aprire le pesanti tende una per una spalancò le strette finestre lasciando che l'aria fredda della notte invadesse la stanza caitlin rimase a osservarlo tirandosi le coperte di pelliccia fino al mento immobile di fronte alle tenebre il vento del nord che si avvolgeva intorno a lui nudo e a mani vuote il signore di grande inverno appariva in qualche modo più piccolo quasi vulnerabile molto simile all'adolescente al quale 15 anni prima era andata in sposa nel tempio di delta delle acque ned aveva fatto l'amore con lei in modo urgente quasi disperato caitlin sentiva la schiena e le braccia ancora indolenzite dalla passione di lui una cosa che non le dispiaceva affatto sentiva anche il suo seme dentro di sé pregò che si sviluppasse erano passati tre anni dalla nascita di ricon lei non era troppo vecchia poteva ancora dargli un altro figlio rifiuterò ned si girò verso di lei una luce cupa nello sguardo la voce satura di dubbi non puoi caitlin si rizzò a sedere sul letto non devi il mio posto il mio dovere sono qui nel nord non ho alcun desiderio di diventare il primo cavaliere di robert lui questo non lo capirà è re adesso e i re non sono come gli altri uomini se rifiuti di servirlo si domanderà perché presto o tardi comincerà a sospettare che tu possa essere contro di lui non ti rendi conto del pericolo nel quale rischi di mettere tutti noi robert non farà mai male a nessuno dei miei né a me ned scosse il capo rifiutando di accettare una cosa del genere lui e io eravamo più che fratelli vuole bene nel momento in cui gli dirò di no si metterà a urlare a bestemmiare a fare il diavolo nel giro di una settimana ci faremo sopra una risata io lo conosco caitlin tu conosci un uomo che non esiste più questo rete è del tutto estraneo caitlin ricordò la metalupa morta nella neve nel frammento di rostro di unicorno inchiodato alla gola doveva fare in modo che ned capisse che vedesse per un re mio signore l'orgoglio è tutto robert ha fatto molta strada per vederti per offrirti questo grande onore non puoi ributtarglielo in faccia questo grande onore ned ebbe una risata piena di amarezza ai suoi occhi lo è e ai tuoi lo è anche ai miei rispose caitlin con rabbia come poteva ned non vedere ha offerto suo figlio e matrimonio a nostra figlia in quale altro modo definiresti un gesto del genere un giorno sansa sarà regina dei sette regni i suoi figli domineranno la barriera del grande nord alle montagne di dorn qual è il problema di fronte a tutto questo per gli dèi caitlin sansa solamente 11 anni e joffrey non so joffrey l'erede del trono di spade completò lei al posto suo inoltre io avevo solo 12 anni quando mio padre mi promise a tuo fratello brandon brandon la bocca di edward assunse una piega amara lui saprebbe cosa fare adesso lo sapeva sempre tutto doveva andare a brandon tu grande inverno ogni cosa a brandon non a me lui era nato per essere primo cavaliere del re e padre di regine non io non ho mai chiesto di portare il bastone del comando non l'hai chiesto è vero riconobbe caitlin tuttavia la realtà rimane e non si può cambiarla brandon è morto e tu hai il bastone del comando e ora tocca a te tenerlo in pugno che ti piaccia o no ned tornò a girarsi voltando le spalle e scrutò di nuovo nelle tenebre forse osservava la luna e le stelle o forse le sentinelle sulle mura caitlin si intenerì vedendo la sua pena l'aveva sposata in luogo di brandon esattamente come voleva la tradizione ma quel fantasma non aveva mai cessato di incombere su di loro assieme all'altro fantasma quello della donna il cui nome si era sempre rifiutato di rivelare la donna che gli aveva dato john il figlio bastardo caitlin stava per alzarsi e andargli vicino quando qualcuno bussò alla porta in modo perentorio inaspettato ned si girò la fronte è gruttata che c'è mio signore era la voce di desmond maestro lui viene qui chiede urgente udienza gli hai detto che ho dato ordine di non essere disturbato sì mio signore il maestro insiste e va bene fallo entrare ned raggiunse il guardaroba e indossò una vestaglia pesante caitlin si rese improvvisamente conto di quanto freddo fosse entrato nella stanza rimase a sedere sul letto ma tornò a tirarsi le pellicce fino al mento forse sarebbe bene chiudere le finestre suggerì ned anui con aria assente maestro lewin era un ometto grigio molto avanti negli anni dagli occhi mobilissimi attenti vigili ai quali non sfuggiva nulla indossava una veste lunga e ampia di lana grigia bordata di pelliccia bianca i colori degli stark era un indumento dalle maniche ampie con tasche interne altrettanto ampie da quelle maniche da quelle tasche lewin faceva entrare e uscire senza sosta libri messaggi strani manufatti e giocattoli per bambini caitlin continuava a chiedersi come riuscisse a muovere le braccia mio signore il maestro attese che la porta si fosse chiusa alle sue spalle prima di proseguire perdonami se disturbo il tuo riposo è stato lasciato un messaggio ti è stato lasciato ned appariva irritato da chi è venuto qualcuno a cavallo non sono stato avvertito nessuno a cavallo mio signore si tratta di una scatola di legno lavorato che è stata depositata sul tavolo del mio osservatorio mentre sonnecchiavo i miei servitori non hanno visto nessuno ma ritengo sia stata portata da qualcuno presente al banchetto del re non abbiamo altri visitatori venuti dal sud una scatola di legno chiese caitlin cosa conteneva un'ottima lente nuova per il mio osservatorio dal tipo di lavorazione direi che è stata fatta a mir gli ottici di mir non hanno uguali certo che no maestro lui sbuffò ned e questa ottima lente di mir cosa avrebbe a che fare con me lord stark non aveva molta tolleranza per questo genere di cose caitlin lo sapeva fin troppo bene mi sono posto la medesima domanda rispose lewin chiaramente dietro all'oggetto in sé doveva esserci ben di più sotto la coltre di calde pesanti pellicce caitlin ebbe un brivido improvviso una lente è uno strumento che serve a vedere con maggiore chiarezza senza alcun dubbio maestro lewin passò un dito sul simbolo del suo ordine culturale la pesante catena che portava al collo sotto la tonaca ciascuna maglia forgiata in un metallo diverso e di nuovo caitlin percepì quel brivido glaciale che cosa qualcuno vorrebbe che noi vedessimo con maggior chiarezza un'altra domanda che mi sono posto anch'io da una manica maestro lewin fece apparire una carta strettamente arrotolata c'era questo messaggio nascosto in un doppio fondo della scatola di legno che conteneva la lente ma non è destinato ai miei occhi ned protese la mano dammelo allora temo mio signore lewin non si mosse che non siano neppure i tuoi gli occhi ai quali è destinato è per quelli di lady caitlin e per i suoi solamente posso avvicinarmi caitlin a noi non fidandosi di aprire bocca il maestro collocò il documento sul tavolo accanto al letto il sigillo era un piccolo grumo di ceralacca blu lewin si inchinò e fece per ritirarsi rimani la voce di ned era tesa il suo sguardo si spostò su caitlin mia signora tu stai rapprevidendo e cosa c'è ho paura caitlin allungò una mano e afferrò la lettera con dite a tremanti le pellicce scivolarono giù lasciando esposta la sua nudità nella cera lacca blu era impresso il simbolo della nobile casa harin il falcone contro la luna piena è di mia sorella lisa caitlin guardò il marito e so che non saranno buone notizie c'è dolore in questo messaggio molto dolore posso percepirlo l'espressione di lui si invece ancora più occupa aprilo caitlin spezzò il sigillo i suoi occhi volarono sulle parole che a tutta prima parvero non avere alcun senso poi ricordò lisa non ha voluto correre rischi quando eravamo bambine avevamo un nostro linguaggio privato lei ed io sei ancora in grado di capirlo sì che cosa dice forse è opportuno che io mi ritiri suggerì di nuovo maestro lewin no lo fermò caitlin avremo bisogno del tuo consiglio si liberò dalle pellicce e si alzò l'aria era gelida contro la sua pelle nuda mentre attraversava la stanza maestro lewin distolse lo sguardo ned stentava a credere ai propri occhi ma che fai accendo il fuoco caitlin si infilò una camicia da notte e si inginocchiò sulle pietre gelide del caminetto maestro lewin cominciò ned potresti maestro lewin ha portato alla luce tutti i miei figli non interruppe caitlin i falsi pudori sono del tutto fuori luogo infilò il messaggio tra gli alari e lo coprì con i ceppi più grossi ned attraversò la stanza la raggiunse la ferrò per un braccio e la fece alzare in piedi mia signora parlami il suo volto era a brevissima distanza da quello di lei che cosa c'è in quel messaggio caitlin si rigidì nella sua stretta un avvertimento se abbiamo orecchie per udirlo disse in un soffio lo sguardo di ned frugò il suo va avanti lisa dice che lord harry ne è stato assassinato assassinato la stretta di eddard stark aumentò ancora di più da chi da chi dai lannister rispose caitlin dalla regina dei onnipotenti ned la lasciò andare c'erano segni rozzo scuro sulla pelle di lei la sorella è acceccata dal dolore per la perdita di jon non sa quello che dice lo sa perfettamente invece lisa è un impulsiva è vero ma questo messaggio è pianificato troppo attentamente celato troppo abilmente lei era concia che se fosse accaduto nelle mani sbagliate avrebbe significato morte certa per correre un simile rischio i suoi devono essere stati ben più che semplici sospetti caitlin guardò dritto negli occhi suo marito a questo punto veramente non abbiamo più scelta tu devi diventare il primo cavaliere del re ned tu devi andare con robert al sud e scoprire la verità la verità dici eddard stark è raggiunto a una conclusione radicalmente diversa a caitlin bastò un attimo per rendersene conto sulle verità che conosco si trovano qui il sud è un covo di serpenti del quale ho tutte le intenzioni di tenermi lontano mio signore lui tornò a tormentare la catena che portava al collo la quale nel tempo aveva indurito la pelle soffice della sua gola grande il potere del primo cavaliere può scoprire il segreto della morte di lord arryn far sì che i suoi assassini vengano portati di fronte alla giustizia del re e qualora ipotesi peggiori dovessero rivelarsi fondate proteggere lady arryn e suo figlio ned girò per la stanza uno sguardo disperato caitlin sapeva cosa provava in quel momento ma non poteva andare da lui e prenderlo tra le braccia non ancora prima era necessario arrivare alla vittoria per i suoi figli i loro figli mi hai detto che robert è più di un fratello per te dimmi ned abbandoneresti tuo fratello fra gli artigli dei lannister che gli estranei vi portino alla dannazione te lui e i lannister imprecò occupamente ned volto loro le spalle e andò nuovamente alla finestra caitlin rimase in silenzio anche lui intacque attesero quietamente che eddard stark desse l'addio alla propria casa alla propria terra quando tornò a girarsi verso di loro la sua voce era avventata di stanchezza di malinconia molto tempo fa anche mio padre andò al sud rispondendo alla chiamata di un re qualcosa luccicava fra le sue palpebre non fece mai più ritorno un tempo diverso rilevò lewin è un re diverso veramente osservò ned cupo sedette su una sedia accanto al caminetto caitlin tu rimarrai qui a grande inverno quelle parole furono come una stalla tide di ghiaccio conficcata nel cuore no disse in un soffio e adesso di nuovo aveva paura sarebbe stata quindi questa la sua condanna non vedere mai più il volto del suo uomo non sentire mai più le sue braccia che la stringevano rimarrai al grande inverno nessuna ritirata nessun compromesso caitlin lo sapeva governerà il nord al mio posto mentre io mando avanti gli affari con robert dovrà sempre esserci uno star che grande inverno roba 14 anni presto sarà un uomo deve imparare a governare io non sarò al suo fianco fallo partecipare ai concili del castello preparalo per quando verrà il suo momento l'aiuto degli dei mormorò maestro lewin non sarà questo il caso per molti anni ancora maestro lewin continuò ned la fiducia che ho in te è la medesima che ho nel sangue del mio sangue da mia moglie la tua saggezza nelle cose grandi come in quelle piccole e insegna mio figlio ciò che deve imparare perché inverno sta arrivando maestro lewin anui gravemente ci fu un altro lungo silenzio prima che caitlin trovasse il coraggio di porre la domanda che la scavava dentro più di qualsiasi altra che faremo degli altri nostri figli ned si alzò e andò ad abbracciarla i loro volti vicinissimi ricon è molto piccolo disse gentilmente resterà qui con te rob gli altri verranno con me non puoi caitlin faticò a tenere ferma la voce non possiamo esatto non possiamo dobbiamo rispose lui così come sans deve sposare joffrey baratheon questo punto è cruciale i lannister non dovranno nutrire il minimo sospetto in merito alla nostra devozione al trono ed è tempo che aria conosca le raffinatezze dalle corti del sud tra non molti anni anche lei sarà in età di matrimonio al sud sans sarebbe stata splendente caitlin non aveva dubbi in merito e lo sapeva il cielo se aria aveva bisogno di raffinarsi e il profondo di sé lasciò andare con riluttanza le sue figlie ma non bran mai bran va bene ned in nome dell'amore che mi porti lascia anche bran qui a grande inverno ha soltanto sette anni io ne avevo otto quando mio padre mi mandò in adozione al nido dell'aquila rispose ned se rodrick mi dice che tra robe il principe joffrey non corre buon sangue il che è male brana è in grado di rimediare a quell'ostilità è un bambino dolce sempre allegro cui è facile voler bene che cresca tra i giovani principi e diventi il loro amico così come io divenni amico di robert la nostra casa ne uscirà rafforzata aveva ragione e caitlin lo sapeva bene ma ciò non rese il colpo meno doloroso da sopportare li avrebbe perduti tutti e quattro dunque ned e due ragazze il suo dolce bran solamente rob e il piccolo ricon sarebbero rimasti cominciava già a sentire il vuoto della solitudine grande inverno era un luogo enorme sconfinato tienilo almeno lontano dalle mura della fortezza rossa disse caitlin facendosi coraggio lo sai quanto piace a bran fare le scalate ti ringrazio mia signora ned baciò le sue lacrime prima che potessero cadere so quanto tutto questo sia duro mio signore intervenne maestro lewin cosa decidi per john snow alludire il nome del ragazzo ned sentì caitlin irrigidirsi tra le sue braccia il lira montare dentro di lei distinto al retro molti uomini avevano figli bastardi una consapevolezza che accompagnava caitlin fin dalla più tenera età così non era stata una sorpresa per lei proprio nel primo anno del suo matrimonio scoprire che ned era padre di un bastardo avuto da chissà quale giovane donna incontrata in una delle sue molte campagne militari ned era un uomo nel pieno delle sue forze e dopo tutto avevano trascorso un intero anno lontani l'uno dall'altra lui a combattere nel sud lei al sicuro tra le mura del castello di suo padre a delta delle acque quel tempo i suoi pensieri appartenevano molto più a rob il piccolo attaccato al suo seno che a quel marito che conosceva a malapena all'epoca aveva pensato che serveva tanto bisogno di solazzarsi tra una battaglia e un assedio facesse pure ebbene edard stark l'aveva fatto e visto che il suo seme aveva attecchito era suo dovere assumersi le responsabilità della nuova vita che aveva generato caitlin aveva messo nel conto anche questo ma edard stark aveva fatto ben di più gli stark non erano come tutti gli altri uomini ned aveva portato il bastardo a casa con sé l'aveva chiamato figlio non ne aveva fatto segreto in nessuna landa del nord e quando finalmente le guerre ebbero fine e caitlin tornò a grande inverno john snow e la sua balia erano là ad aspettarla da un pezzo quella ferita non si era mai rimarginata ned aveva rifiutato di rivelare chi fosse la madre nemmeno un accenno ma non esistono segreti in un castello e caitlin ricordava le chiacchiere delle servette le quali riportavano altre chiacchiere raccontate loro dai mariti tornati dalla guerra gli sbigli sussurri parlavano di ser arthur dane la spada dell'alba il più letale dei sette cavalieri della guardia di eris targaryen il re folle parlavano di come il loro giovane lord edard stark l'aveva decapitato in duello e soprattutto di quanto era accaduto dopo edard stark che riportava la spada di ser arthur alla sua giovane sorella che aspettava nel castello delle stelle al tramonto sulle rive del mare dell'estate lady ashara dane alta bellissima pelle dall'abastro magnetici occhi viola c'era voluto molto tempo prima che caitlin trovasse il coraggio di chiedere ma alla fine l'aveva trovato una notte nel loro talamo aveva voluto sapere da suo marito la verità e in tutti i loro anni come marito e moglie quella rimaneva la sola volta in cui caitlin aveva avuto paura di ned mai mai chiedermi di john la sua voce era stata fredda come il ghiaccio affilata come il vento che soffiava da oltre la barriera john è il sangue del mio sangue questa è la sola cosa che ti sarà dato conoscere e adesso mi dirai dove hai udito quel nome mia signora caitlin aveva giurato di obbedire poi gliel'aveva detto dopo quella notte i sussuri del castello cessarono la fortezza di grande inverno il nome di lady ashara dane non venne mai più pronunciato chiunque fosse stata la madre di john ned doveva averla amata profondamente nulla di quanto caitlin aveva detto pregato implorato minacciato era mai stato sufficiente a convincerlo ad allontanare il ragazzo ed era l'unica cosa che non gli aveva mai perdonato aveva imparato ad amare il marito con tutta l'anima ma non era stata mai in grado di trovare la forza di amare anche john sarebbe arrivata a tollerare l'esistenza di cento bastardi purché fossero lontani dai suoi occhi john snow invece ce l'aveva sempre davanti non solo più cresceva più assomigliava a ned al di là e oltre qualsiasi altro figlio legittimo che lei gli aveva dato e ciò aveva tenuto la ferita non solo aperta ma perennemente sanguinante caitlin disse john deve andarsene lui e rob si vogliono bene ribatte ned io pensavo non può stare qui lo interruppe caitlin è figlio tuo non mio non lo voglio qui una verità cruda lei lo sapeva molto bene ma pur sempre la verità ned non avrebbe favorito il ragazzo in nessun modo lasciandolo a grande inverno tu sai che non posso portarlo al sud con me lo sguardo di ned era pieno d'angoscia non ci sarà alcun posto per lui a corte ragazzo con il nome dei bastardi questo diranno di lui sarà bollato per sempre il cuore di caitlin rimase impenetrabile al mutuo appello negli occhi del marito dicono che il tuo caro amico robert di bastardi ne ha fatti almeno una dozzina ma nessuno di loro si è mai visto a corte tu o no ned ha pensato la donna lannister evitare che questo accadesse stai mettendoti al suo stesso livello caitlin stesso esercizio di crudeltà john è solamente un ragazzo in lui il furore stava montando stava per dire di più di peggio potrebbe essere una soluzione mio signore fu maestro luin a intervenire quietamente qualche giorno fa tuo fratello benjen è venuto da me per parlarmi di john sembra che il ragazzo aspiri a indossare il nero ned non riusciva a crederci john john ha chiesto di entrare nei guardiani della notte caitlin non disse nulla lasciò che ned facesse da solo i conti con il problema in quel momento qualsiasi cosa lei avesse detto sarebbe stata sbagliata ma se avesse potuto avrebbe baciato il buon maestro lee su due piedi era la soluzione perfetta benjen stark era un confratello dell'ordine in nero e avrebbe trattato john come un figlio il figlio che non aveva mai avuto né mai avrebbe potuto avere col tempo anche john avrebbe prestato giuramento e non sarebbero mai esistiti figli suoi che un giorno avrebbero potuto reclamare diritti su grande inverno contro i nipoti di caitlin servire sulla barriera mio signore disse maestro luin è un grande onore nei guardiani della notte perfino un bastardo può raggiungere i più alti ranghi riflette ned alla sua voce rimaneva piena di dubbio però john è ancora talmente giovane chiedere di compiere una scelta simile a un uomo adulto è un conto ma un ragazzo di 14 anni un duro sacrificio concordò maestro luin a questi sono tempi duri mio signore e la sua strada non sarà meno cruda della tua o di quella della tua lady questo spinse caitlin a pensare nuovamente ai tre figli che stava per perdere la spinse a compiere uno sforzo ancora più grande per rimanere in silenzio ned si voltò nuovamente verso la finestra il viso greve pensieroso e sia concluse alla fine con un sospiro girandosi immaginò sia la soluzione migliore parlerò a ben e quanto a john chiese maestro luin quando verrà il momento ci sono molti preparativi da fare prima che tutto sia pronto per la partenza desidero che john trascorra questi pochi giorni che rimangano in modo lieto l'estate è prossima alla fine così come l'infanzia quando il tempo verrà sarò io stesso a dirglielo capitolo 7 aria tutti storti i punti del suo ricamo erano un disastro di nuovo aria li osservò con occhio critico corrugando la fronte lanciò un'occhiata a sansa circondata dalle altre ragazze il richiamo di sua sorella era splendido lo dicevano tutti i suoi ricami sono deliziosi quanto lei aveva detto una volta septa mordain alla lady loro madre sansa alle mani così precise delicate lady caitlin aveva chiesto anche di aria al che la septa aveva fatto una smorfia aria la delicatezza di un fabbro ferraio aria girò lo sguardo sulla stanza timorosa che septa mordain potesse averle letto nel pensiero timore infondato la tutrice delle signore d'alto rango del castello di grande inverno non le stava prestando alcuna attenzione la septa tutti i sorrisi e ammirazione sedeva accanto alla principessa mirsella non le capitava spesso di avere il privilegio di istruire una principessa reale nelle arti femminili aveva detto quando la regina aveva accompagnato mirsella nella sala del ricamo aria pensò che anche i punti di mirsella erano un po storti ma giudicare da come septa mordain stava tubando non pareva proprio esaminò nuovamente il proprio lavoro alla ricerca di qualche trucco per salvargli il salvabile niente da fare emise un gran sospiro e abbassò l'ago guardò sua sorella con aria depressa sansa chiacchierava allegramente allineando altri perfetti deliziosi punti beth cassel la figlioletta di ser roderick era seduta ai suoi piedi e beveva qualsiasi cosa lei dicesse jean pool stava protesa in avanti e bisbigliava all'orecchio di che cosa state parlando chiese aria di punto in bianco jean le lanciò un'occhiata sorpresa poi ridacchiò sansa apparve imbarazzata beth arossì ma nessuna di loro le rispose allora insiste aria me lo dite o no jean si assicurò che septa mordain non stesse ascoltando mirsella disse qualcosa proprio in quel momento e la septa rise con tutte le signorine stavamo parlando del principe la voce di sansa era morbida come un bacio il principe certo joffrey baratheon erede al trono di spade quello alto e bello aria non aveva dubbi in merito al banchetto sansa gli era stata seduta accanto mentre aria aveva avuto il piacere della compagnia dell'altro quello bassotto e grassottello ovvio no a joffrey tua sorella piace jean era tutta orgogliosa come se il merito fosse suo era la figlia dell'attendente di grande inverno e la migliore amica di sansa gli ha detto che la trova bellissima la sposerà un giorno la piccola beth aveva un'espressione sognante le braccia strette attorno al corpo e sansa sarà la regina di tutto il reame sansa ebbe la buona grazia di arrossire e lo fece in modo molto carino faceva pressoché ogni cosa in modo molto carino all'idea aria ingoiò una boccata di acido risentimento beth non dovresti inventarti storie simili sansa scompigliò i capelli della ragazzina addolcendo la durezza della frase poi spostò lo sguardo su aria tu cosa pensi del principe joff sorellina è molto galante non trovi john dice che a guardarlo sembra una ragazza povero john sansa allineò un'altra serie di punti è geloso perché è bastardo john è nostro fratello aria aveva parlato a voce decisamente troppo alta e le sue parole echeggiarono contro le pareti di quella stanza nella torre rompendo la quiete del pomeriggio septa mordain sollevò lo sguardo aveva un viso ossuto occhi acuti una bocca dalle labbra sottili che sembrava fatta apposta per i rimproveri aveva la fronte aggrottata qual è l'argomento signorine fratellastro corresse sansa con voce soffice affilata sorridendo a tutto beneficio della septa aria io parlavamo di quanto siamo liete di avere la principessa con noi quest'oggi un grande onore per tutti noi senza alcun dubbio approvò la septa al complimento la principessa mirsella ebbe un sorriso incerto aria per quale motivo non stai ricamando septa mordain si alzò in un fruscio di sottane fin troppo inamidate e si diresse verso di lei mostrami tuoi punti aria avrebbe voluto urlare sansa sempre lei e quel suo dannato modo di richiamare l'attenzione della septa ecco qui aria non ebbe altra scelta se non presentare il proprio capolavoro aria 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 la bocca priva di labbra della septa si arcuò proprio non ci siamo la stavano guardando tutte quante era insopportabile sansa era troppo bene educata per sorridere alla mortificazione della sorella però aveva julienne pool per farlo al posto suo perfino la principessa mirsella era dispiaciuta per lei aria sentì gli occhi riempirsi di lacrime si alzò di scatto dalla sedia e schizzò verso la porta aria torna subito qui le strillò dietro la septa mordain non un altro passo la lei di tua madre sarà informata di un simile comportamento e di fronte alla nostra principessa reale per giunta tu svergogni ciascuna di noi sulla soglia aria si fermò e si voltò mordendosi le labbra le lacrime che le correvano lungo le guance in qualche modo riuscì a fare un piccolo inchino a mirsella mia signora con il tuo permesso disse la principessa sbatté le palpebre incerta sul da farsi lo sguardo che cercava aiuto dalle altre ragazze dimmi aria intervenne septa mordain tutt'altro che incerta dov'è che penseresti di andare aria le elargì uno sguardo di fuoco afferrare un cavallo rispose con voce delicata come si addice a una signorina di rango e assaporò una piccola vendetta nel vedere lo stupore invadere la faccia della septa poi roteò su se stessa e si precipitò giù per la scala di pietra veloce come il vento non era giusto ecco a sansa era stato dato tutto aria era arrivata due anni dopo e forse a quel punto non era rimasto niente da dare a nessun altro spesso era così che lei percepiva le cose tra loro sansa sapeva ricamare danzare e cantare sapeva scrivere poesie e vestirsi sapeva suonare l'arpa e perfino le campane tubolari sansa era bella e quello era davvero il peggio aveva ereditato i raffinati zigomi alti di sua madre e i folti capelli corvini dei talli aria invece aveva preso dal lord suo padre i suoi capelli erano di un castano privo di splendore il suo volto era allungato e austero jm paul un tempo la chiamava aria faccia da cavallo innitriva ogni volta che la vedeva arrivare la ragione era invidiosa del fatto che esistesse almeno una cosa che aria sapeva fare meglio di sua sorella andare a cavallo quello più l'ammirazione della casa con i numeri sansa proprio non andava d'accordo se effettivamente avesse sposato il principe joffri aria poteva solo augurarsi che l'erede dei barati non disponesse di un bravo attendente nimeria la stava aspettando alla base della torre nella garitta e saltò in piedi nell'attimo stesso in cui la vide apparire lei sorrise il cucciolo di metalup le voleva bene contro tutti e contro tutto erano inseparabili nimeria dormiva con lei accovacciata ai piedi del suo letto sua madre gliel'aveva tassativamente proibito ma aria sarebbe stata ben contenta di portare la metalupa anche al ricamo e poi si sarebbe visto con chi septa mordain si sarebbe lamentata slegò il guinsaglio mentre nimeria le leccava la mano aveva occhi gialli che scintillavano come monete d'oro ogni volta che intercettavano i raggi del sole aria aveva voluto darle il nome della regina guerriera della roin che aveva guidato il proprio popolo attraverso il mare stretto era stato uno scandalo storico nessuna donna dei sette regni aveva mai violato il mondo delle imprese maschili sansa come si addice a una vera futura principessa aveva chiamato la propria metalupa lady aria fece una smorfia abbracciando la sua lupacchiotta nimeria le lecò le orecchie e rise septa mordain doveva aver già messo la lady sua madre sull'avviso se fosse tornata in camera sua l'avrebbero trovata subito ad aria non poteva importare di meno che la trovassero oppure no aveva un'idea i ragazzi stavano facendo allenamento alla spada nel cortile del castello e lei non vedeva l'ora di godersi suo fratello rob che mandava il galante principe joffrey a sedere sulle proprie reali natiche dai sussurrò a nimeria poi si raddrizzò e partì di corsa con la metalupa che la tallonava c'era una finestra nel ponte coperto che collegava la prima fortezza con l'armeria da là si dominava tutto il cortile ed era là che aria e nimeria stavano andando ci arrivarono sudate e senza fiato trovando già qualcuno comodamente seduto sul davanzale una gamba ripiegata fino a sostenere il mento con il ginocchio john snow era completamente assorbito dall'azione che aveva luogo più sotto e si accorse del loro arrivo solo quando spettro si alzò per andare a incontrarle nimeria continuò ad avanzare ma con più cautela spettro già nettamente più grosso degli altri cuccioli l'annusò le diede un piccolo colpo all'orecchio con il muso e tornò ad accovacciarsi beh sorellina john le lanciò uno sguardo perplesso non dovresti essere alla pratica di ricamo aria gli mostrò la lingua sono loro che voglio vedere far pratica dal cortile quasi a risponderle loro fecero salire una cacofonia di tonfi e imprecazioni lui le sorrise allora accomodati aria si so sul davanzale sistemandosi accanto a lui ma fu delusa era il turno dei bambini bran sembrava un materasso ambulante tanto era coperto di imbottiture quanto al principe thommen già bassotto e grassottello di suo aveva l'aspetto di una palla sotto lo sguardo attento di ser rodrick cassel il maestro d'armi corporatura formidabile baffoni bianchi altrettanto formidabili i due bambini mulinavano spade di legno anch'esse imbottite una dozzina di spettatori tra uomini e ragazzi vociavano incoraggiamenti roba era quello che sbraitava più di tutti accanto a lui aria riconobbe theon greyjoy sul volto la sua solita espressione disprezzante ironia la piovra dorata simbolo della sua nobile casa sulla spessa tunica nera al centro dell'improvvisata arena i contendenti avevano il fiato grosso chiaramente se le stavano dando da parecchio un minimo più faticoso del ricamo rilevò john un minimo più divertente del ricamo replicò aria lui soghignò allungò una mano e le arruffò i capelli aria arrossi si erano sempre voluti bene john e lei anche lui aveva i lineamenti duri dell'oro del loro padre e tra i figli stark erano i soli rob sansa bran perfino il piccolo ricon avevano i volti sorridenti e i capelli neri fiammeggianti dei talli di delta delle acque la piccola aria aveva avuto il timore di essere a sua volta bastarda così era andata a confidare a john le sue paure ma era stato john stesso a fugarle perché non sei anche tu giù nel cortile gli chiese aria perché ai bastardi non è permesso danneggiare i giovani principi john ebbe un mezzo sorriso dietro ogni livido di un addestramento alla spada deve esserci una mano di sangue nobile ad aria questo non piacque affatto anche se avrebbe dovuto saperlo ecco un'altra cosa ingiusta della vita era la seconda volta che ci pensava nella stessa giornata io me la caverei bene quanto bran disse osservando il fratellino andare all'attacco di tommen lui ha sette anni e io nove sei troppo magra john la studiò con la saggezza di chi di anni ne ha 14 dubito molto che riusciresti anche solamente a sollevarla una spada le tastò i muscoli del braccio e quanto a maneggiarla sorellina scordatelo aria ritirò il braccio di scatto e lo folgorò con un'occhiata john le arruffò di nuovo i capelli poi tutti e due tornarono a seguire la tensione tra bran e tommen lo vedi il principe joffrey le chiese john aria non l'aveva visto subito guardando con più attenzione lo notò verso il fondo del cortile all'ombra del grande muro di pietra era circondato da uomini che lei non riconobbe giovani signori con le livree dei lannister e dei baratheon estranei tutti quanti tra loro c'erano uomini più in età cavalieri quasi certamente guarda gli stemmi sulla casacca di addestramento accennò john uno scudo elaborato ornava la tunica imbottita del principe un ricamo di eccezionale bellezza nessun dubbio in merito sullo scudo erano accostati due stemmi divisi a metà in verticale da un lato il cervo incoronato della casa reale dall'altro il leone dei lannister gente orgogliosa i lannister rilevò john si potrebbe pensare che lo stemma della corona basti invece no il principe sta rendendo alla casata di sua madre il medesimo onore che rende a quella del re anche la donna importante protestò aria certo che lo è forse sorellina dovresti seguire l'esempio anche tu e accoppiare gli stemmi dei talli e degli stark nel tuo blasone un lupo con un pesce in bocca aria rise a sua volta che stupidata e poi se una ragazza non è permesso combattere a che le serve una casacca di addestramento una ragazza può avere l'addestramento ma non le spade john si strinse nelle spalle un bastardo non può avere le spade ma non l'addestramento alle regole non le ho fatte io sorellina da sotto venne un grido principe thommen finito nella polvere cercava di rialzarsi ma senza molto successo tutta l'imbottitura che aveva addosso lo faceva sembrare una tartaruga rovesciata sul dorso brani incombeva su di lui la spada di legno elevata pronto a colpirlo di nuovo nel momento in cui si fosse rimesso in piedi i uomini tutto attorno cominciarono a ridere basta così tuonò ser rodrick offrendo la mano al principe e aiutandolo a sollevarsi ben combattuta you donis aiutateli a togliersi l'armatura si guardò attorno principe joffrey rob un altro assalto rob già sudato da un precedente duello non se lo fece ripetere con piacere rispose accettando a sua volta l'offerta di ser rodrick joffrey avanzò nella luce del sole i suoi capelli parvero oro liquefatto sul suo viso l'espressione perennemente annoiata non mutò questa è roba da bambini ser rodrick tion greyjoy se ne uscì con un'improvvisa risata voi siete bambini disse con derisione lo sarà rob un bambino joffrey non si scompose io sono un principe e trovo quanto mai tedioso bacchettare gli stark con una spada di legno di bacchettare joff ne hai prese molte più di quante ne hai date lo rimbeccò rob o forse hai paura terrore joffrey lo guardò con supponenza sei tanto più vecchio di me rob alcuni degli uomini lannister risero john la fronte aggrottata rimase a osservare la scena un vero stronzetto quel joffrey disse ad aria ser rodrick si diede una pensosa arricciata di baffi quindi che cosa suggerisci principe acciaio e acciaio sia approvò subito rob l'idea è tua troppo pericoloso il maestro d'armi mise una mano sulla spada del giovane stark per farlo stare calmo vi permetterò spade da torneo senza affilatura joffrey non rispose ma fu qualcun altro a rispondere per lui un uomo che aria non aveva mai visto un cavaliere alto dai capelli scuri il volto solcato da cicatrici d'austione questo è il tuo principe il cavaliere avanzò fino a mettersi davanti a joffrey chi sei tu per dire al tuo principe che deve avere una spada senza punta io sono il maestro d'armi di grande inverno rispose ser rodrick e ti suggerisco clegane di non dimenticarlo e chi è a destri grande inverno maestro d'armi volle sapere l'uomo dal volto bruciato muscoloso come un toro donne forse a destro cavalieri ribatte ser rodrick e combatteranno con l'acciaio soltanto quando saranno pronti quando avranno l'età per farlo l'uomo sfregiato si rivolse a rob quanti anni hai ragazzo quattordici ne avevo dodici quando uccisi un uomo per la prima volta e puoi stare certo che non fu con una spada spuntata rob riboliva il sangue nelle vene aria se accorse subito era stato ferito nell'orgoglio si girò di scarto verso il maestro d'armi esclamando furibondo lasciami avere l'acciaio posso batterlo battilo con una spada da torneo replicò ser rodrick il removibile allora torna da me quando sarai un po più vecchio stark joffrey rise in faccia a rob sempre che tu non sia diventato troppo vecchio gli uomini lannister risero le imprecazioni inferocite di rob riecheggiarono per tutto il cortile aria si coprì la bocca con la mano stentando a credere che suo fratello fosse capace di un linguaggio simile fion greyjoy fu rapido nell'afferrare rob per un braccio impedendogli di saltare addosso al principe ereditario ser rodrick si diede un'altra arricciata di baffi questa volta con rabbia forza tommen andiamo joffrey finse di sbadigliare rivolgendosi al fratello più giovane l'ora della ricreazione è finita lasciamo che questi bambini continuino a giocherellare per conto loro altre risate da parte dei lannister e altre bestemmie da parte di rob sotto i baffoni candidi la faccia di ser rodrick era incendiata dall'ira fion greyjoy continuava a tenere rob in una presa d'acciaio fino a quando i principi e il loro manipolo non furono a distanza di sicurezza john li osservò andarsene e aria osservò john il suo volto era immobile cristallizzato come la superficie della pozza d'acqua oscura nel cuore del parco degli dèi alla fine salto giù dal davanzale della finestra lo spettacolo è finito disse si chinò a grattare spettro dietro le orecchie e il metalupo si alzò per strofinarsi contro di lui e adesso sorellina disse ad aria sarà meglio che tu corra nella tua stanza septa mordain sarà di sicuro in agguato più a lungo ti nascondi più duro sarà il castigo ti faranno ricamare per tutto l'inverno e al disgelo di primavera potremmo trovarti ridotta a un ghiacciolo con l'ago ancora stretto tra le dita dure come la roccia io lo odio ricamo aria non era affatto divertita non è giusto niente è giusto aria john le scompigliò un'ultima volta i capelli e si avviò tra le zone d'ombra del ponte coperto spettro che scivolava silenziosamente alle sue spalle nimeria cominciò a seguirli poi vedendo che aria non si era mossa si fermò e tornò indietro con riluttanza aria andò nella direzione opposta era l'ultima cosa che avrebbe voluto fare perché da quella parte l'aspettava qualcosa di peggio molto peggio di quanto john aveva prospettato non c'era solamente septa mordain ad aspettarla nella sua stanza c'erano septa mordain e sua madre bran i cacciatori partirono al sorgere del sole per il banchetto di quella sera il re voleva il cinghiale il principe joffrey cavalcava a fianco del padre pertanto venne deciso che anche rob avrebbe partecipato alla caccia zio benjen jory cassel theon greyjoy sir roderick e perfino il fratello della regina quello strano omino chiamato il folletto erano andati a loro volta in fondo quella sarebbe stata l'ultima caccia nel nord al mattino del giorno dopo tutti quanti si sarebbero messi in viaggio per il sud bran era rimasto al castello assieme a john alle ragazze e a ricon ma ricon era un bambino piccolo le ragazze erano ragazze e john e il suo lupo bianco non si trovavano da nessuna parte non che bran l'avesse poi cercato con tanto impegno pensava che fosse arrabbiato con lui anzi in quei giorni john sembrava arrabbiato con tutti e bran non sapeva il perché john sarebbe andato alla barriera con lo zio benjen per diventare guardiano della notte il che era quasi lo stesso che andare a sud assieme al re a rimanere a casa sarebbe stato soltanto rob non john erano giorni che bran non stava nella pelle in attesa della partenza avrebbe percorso la strada del re a cavallo non un pony ma un vero cavallo suo padre sarebbe diventato primo cavaliere e tutti loro sarebbero vissuti nel rosso castello ad approdo del re che era stato costruito dai signori dei draghi la vecchia nanna diceva che quel posto era abitato dai fantasmi che cose spaventose erano avvenute nelle sue segrete e che le sue pareti erano adornate con teste di drago solamente a pensarci bran sentiva un brivido lungo la schiena eppure non aveva paura come avrebbe potuto ci sarebbe stato suo padre con lui e poi il re con tutti i suoi cavalieri e spadaccini un giorno anche bran sarebbe stato cavaliere membro della guardia reale secondo la vecchia nanna erano le spade più formidabili del regno sette erano soltanto insette portavano armature bianche non avevano moglie né figli e vivevano per un unico scopo vegliare sul re bran conosceva tutte le storie tutte le leggende che li riguardavano i loro nomi erano musica per le sue orecchie serwin dallo scudo a specchio ser riam redwin il principe aemon cavaliere del drago i gemelli ser eric e ser arric morti uno sulla lama dell'altra centinaia di anni prima quando il fratello aveva combattuto contro la sorella in una guerra che i trovatori chiamavano la danza dei draghi e poi gerald hightower il toro bianco e ser arthur dane la spada dell'alba e infine ser barrystan il valoroso due di loro erano venuti al nord assieme al re robert e bran li aveva osservati pieno di stupefatta ammirazione senza rivolger loro la parola ser boros blount era calvo e aveva la faccia spigolosa ser meryn trent aveva occhi infossati e una barba del colore della ruggine ser jamie lannister invece aveva davvero l'aspetto di uno dei cavalieri di cui parlavano le leggende e anche lui faceva parte della guardia reale rob però diceva che ser jamie aveva assassinato il re precedente il vecchio re folle disonorando così l'armatura bianca il più grande cavaliere ancora vivente restava ser barrystan selmy barrystan il valoroso comandante della guardia suo padre gli aveva promesso che una volta raggiunta a prodo del re avrebbe incontrato ser barrystan di persona bran aveva contato i giorni facendo delle tacche nel suo muro speciale del castello impaziente di partire per vedere quel mondo che fino ad allora aveva solo sognato e cominciare una vita che riusciva a immaginare solo remotamente ma adesso che il suo ultimo giorno a grande inverno era arrivato si sentiva come sperduto grande inverno era l'unica casa che avesse mai conosciuto suo padre gli aveva detto di fare oggi i suoi addi e Bran ci aveva provato dopo che i cacciatori si erano allontanati si era girato per la prima fortezza assieme al suo metalupo deciso a salutare coloro che si sarebbero lasciato alle spalle la vecchia Nan Gage il cuoco Mikken nella sua fucina da fabbro Hodor il ragazzo delle stalle Hodor che sorrideva sempre si prendeva cura del suo pony non diceva mai niente a eccezione della parola Hodor e anche l'uomo della serra che gli dava dei mirtilli quando andava a fargli visita dire addio a tutti loro certo ma non aveva funzionato come previsto Bran aveva cominciato con l'andare alle stalle a vedere il suo pony solo che non era più il suo pony perché stava per ricevere un vero cavallo di colpo Bran avrebbe voluto mettersi in un angolo a piangere era scappato via prima che Hodor e gli altri stalieri vedessero i suoi occhi pieni di lacrime quello era stato il principio e anche la fine dei suoi addi aveva passato il resto della mattinata tra gli enormi alberi secolari del parco degli dei cercando di insegnare al suo metalupo a riportargli il bastone ma nemmeno quello aveva funzionato il cucciolo era molto più intelligente di qualsiasi altro mastino del canile di suo padre e Bran era pronto a giurare che era in grado di capire qualsiasi cosa lui gli diceva non aveva però il benché minimo interesse a correre dietro a un pezzo di legno non gli aveva ancora dato un nome Rob aveva chiamato il suo vento grigio in quanto correva come il vento la metalupa di Sans era Lady Arya aveva scelto il nome di una qualche strega guerriera delle leggende il piccolo Rikon aveva chiamato il suo cagnaccio e Bran riteneva che fosse un nome parecchio stupido da dare a un metalupo quello di John l'albino sempre silenzioso era Spettro Bran avrebbe voluto trovarlo prima lui quel nome anche se il suo metalupo non era bianco negli ultimi tempi aveva tentato centinaia di nomi ma nessuno andava bene alla fine stanco dell'inutile giochetto del lancio del bastone decise di andare a scalare con tutto quello che era successo erano settimane che non saliva sulla torre spezzata e quella sarebbe stata quasi certamente la sua ultima possibilità corse attraverso la verde profonda penombra del parco degli dèi prese la strada più lunga per non passare vicino allo stagno nel centro ed evitare così l'albero del cuore aveva sempre avuto paura di quell'albero gli alberi non dovrebbero avere gli occhi di questo Bran era convinto e non dovrebbero avere nemmeno foglie che sembrano mani coperte di sangue il suo lupo senza nome lo tallonava tu rimani qui gli ordinò quando raggiunsero la base dell'albero sentinella che cresceva vicino all'armeria a terra così fermo lì adesso il lupo obbedì Bran lo grattò dietro le orecchie poi si girò spiccò un salto afferrò un ramo basso e si zò a forza di braccia continuò a salire agilmente un ramo dopo l'altro una biforcazione dopo l'altra era quasi a metà dell'altezza dell'albero quando il metalupo senza nome si alzò improvvisamente in piedi ed emise un lungo ululato Bran guardò in basso gli occhi gialli del lupo di nuovo silenzioso lo fissavano e Bran sentì un inquietante brivido gelido percorrergli la schiena riprese a salire e il metalupo ululò di nuovo zitto gli gridò seduto e fai il bravo sei peggio della mamma niente da fare gli ululati lo inseguirono per tutta la scalata finché non saltò sul tetto dell'armeria scomparendo dalla vista i tetti di grande inverno erano la sua seconda casa sua madre diceva sempre che aveva imparato a scalare ancora prima di imparare a camminare Bran non ricordava quando esattamente aveva cominciato a camminare ma non ricordava nemmeno quando aveva cominciato a scalare di conseguenza sua madre doveva avere ragione ai suoi occhi la prima fortezza di grande inverno era un labirinto di pietra grigia muraglie torri cortili tunnel che si dilatavano in ogni direzione nelle parti più antiche del castello le sale e i camminamenti salivano e scendevano al punto che risultava impossibile capire a quale piano ci si trovava nei corsi dei secoli il maniero era cresciuto su se stesso dentro se stesso simile a un mostruoso albero fatto di roccia questo gli aveva detto una volta maestro Luwin un mostruoso albero con rami contorti massicci attorcigliati e con radici che sprofondavano dentro le vicere della terra Bran conosceva quel labirinto e quando ne emergeva quando arrivava fino quasi al cielo gli bastava un solo sguardo per avere l'intera vastità del grande inverno al proprio cospetto gli piaceva quell'immensità gli piaceva non avere nient'altro che gli uccelli sopra di sé e l'intera vita quotidiana del castello sotto di sé poteva restare appolaiato per ore sugli antichi doccioni di pietra e rosi dalle tempeste in eterna allerta sulla prima fortezza e assieme a loro vedeva tutto gli uomini nel cortile al lavoro con il legno e con il ferro i cuochi nella serra che preparavano le verdure per il pranzo i cani inquieti che correvano senza sosta avanti e indietro nei canili le ragazze che chiacchieravano al lavatoio questo lo faceva sentire signore e padrone del castello con una profondità che mai suo fratello Rob avrebbe conosciuto gli permetteva di conoscere anche tutti i segreti del castello chi l'aveva edificato non si era dato pena di livellare il suolo c'erano colline e valli nascoste all'interno delle mura della prima fortezza e c'era un ponte coperto che dal quarto piano della torre campanaria raggiungeva il secondo piano dell'uccelleria Bran sapeva che quel ponte esisteva e sapeva come penetrare nel perimetro interno dalla porta sud bisognava scalare tre piani percorrere uno stretto tunnel scavato nella pietra che correva tutto attorno a grande inverno e infine sbucava al piano terreno presso la porta nord sotto l'ombra minacciosa di decine e decine di metri di muraglia nemmeno maestro Lewin poteva saperlo questo Bran era convinto sua madre era terrorizzata aveva incubi su Bran che cadeva da chissà quale muro andando a stracellarsi al suolo lui le aveva detto che non sarebbe accaduto ma lei non gli credeva in nessun modo una volta l'aveva costretto a prometterle che non si sarebbe più mosso da terra ed era riuscito a mantenere la promessa per quasi un mese diventando però più malinconico e più scalpitante ogni giorno che passava alla fine non aveva più resistito mentre i suoi fratelli dormivano era sgattaiolato dalla finestra nel cuore della notte il giorno seguente tormentato dalla colpa aveva confessato il suo crimine a Lord Eddard l'aveva confinato nel parco degli dèi perché facesse ammenda aveva addirittura fatto mettere guardie tutto attorno per essere certo che Bran vi trascorresse la notte a riflettere sulla sua disobbedienza alla mattina di Bran non c'era traccia sembrava svanito inghiottito dalle ombre l'avevano trovato profondamente addormentato tra le biforcazioni più alte del più alto albero sentinella del parco tu non sei mio figlio una volta che gli ebbero riportato Bran di fronte per quanto infuriato suo padre non aveva potuto fare a meno di scoppiare a ridere tu sei uno scogliattolo e sia fa lo scogliattolo vuoi scalare? e scala cerca almeno di non farti vedere da tua madre Bran aveva fatto del suo meglio ma non pensava di essere riuscito ad abbindolarla sul serio e Lady Kathleen visto che suo padre non l'avrebbe fermato aveva stretto altre alleanze la vecchia nanna gli aveva raccontato la storia di un ragazzino molto cattivo colpito dal fulmine per essere salito troppo in alto dopodiché i corvi erano scesi a beccargli gli occhi ma a Bran quella storiella non aveva fatto grande effetto la cima della torre spezzata dove lui era il solo ingrato di arrivare era piena di nidi di corvi e a volte si riempiva le tasche di chicchi di grano e i corvi venivano a mangiargli lì in mano nessuno di loro aveva mai manifestato la benché minima intenzione di voler beccare i suoi occhi fallita la dialettica si era passati alle vie di fatto per mostrargli che cosa sarebbe successo se fosse caduto maestro Lewin aveva costruito un bambino di creta gli aveva messo addosso i vestiti del Bran vero e l'aveva lanciato il pupazzo nel cortile dalla cima del muro nord era stato divertente vederlo andare in frantumi ma anche quel tentativo aveva fatto fiasco però io non sono fatto di creta aveva dichiarato Bran guardando maestro Lewin e poi io non cado a quel punto era cominciata la caccia all'uomo con le guardie della prima fortezza che gli correvano dietro ogni qual volta lo vedevano sui tetti e cercavano di farlo scendere quello era stato lo spasso migliore di tutti era come giocare a rimpiattino con i suoi fratelli con la differenza che qui era Bran a vincere sempre quanto a scalare muri nessuna delle guardie era brava nemmeno la metà di Bran neanche Jory Cassel e in ogni caso la maggior parte delle volte nemmeno lo vedevano perché la gente non guarda mai in alto questa era un'altra delle cose che gli piacevano delle sue scalate era pressoché invisibile ma anche le sensazioni gli piacevano i sarsi pietra dopo pietra le dita delle mani e dei piedi che cercano frugano trovano gli anfratti più nascosti più reconditi saliva sempre a piedi nudi era come avere quattro mani invece di due tornato a terra assaporava l'indolenzimento acuto dei muscoli tesi fino allo spasimo amava il sapore dell'aria lassù dolce e fredda come le pesche d'inverno gli piacevano gli uccelli i corvi della torre spezzata i piccoli usignoli che facevano il nido delle crepe dei muri poteva vederla o poteva averla mai vista Bran li conosceva tutti ma più di ogni altra cosa a Bran piaceva raggiungere luoghi che nessun altro poteva raggiungere vedere la grigia immensità della prima fortezza come nessun altro poteva vederla o poteva averla mai vista questo trasformava l'intero castello nel suo giardino segreto il suo posto preferito rimaneva però la torre spezzata in un tempo ormai lontanissimo era stata una torre di guardia la più alta di grande inverno poi molti secoli addietro una folgore ne aveva colpito la cima incendiandola e tutto il terzo superiore della struttura era collassato su se stesso crollando verso l'interno la torre non era più stata ricostruita suo padre a volte mandava i cacciatori di ratti alla base del rudere per eliminare le tane che si moltiplicavano tra i mucchi di pietre cadute dall'alto e le cataste di travi distrutte a eccezione di Bran e dei corvi però nessuno osava neppure tentare di raggiungere la sommità Bran conosceva due strade per arrivarci la parete esterna ma le pietre erano instabili la calce che le aveva tenute assieme ridotta in polvere da chissà quanto tempo e a Bran non piaceva caricare tutto il proprio peso su quei vecchi sassi pericolanti con l'altra strada la migliore si partiva dal parco degli dei e si raggiungeva la sommità dell'aldoro sentinella di là bisognava attraversare l'armeria e il corpo di guardia saltando di tetto in tetto a piedi nudi evitando di farsi sentire dai soldati a quel punto si arrivava al lato cieco della prima fortezza la parte più antica del castello un tozzo maniero cilindrico che appariva più alto di quanto non fosse in realtà ormai lo abitavano solo topi e ragni ma le sue vecchie pietre erano ottimi punti d'appoggio per continuare la scalata di là si poteva comodamente salire fino a dove i doccioni si affiacciavano sul vuoto quindi una presa dopo l'altra un doccione dopo l'altro si conquistava il fronte nord della fortezza era il punto in cui le due strutture quasi si toccavano ad allungarsi ma ad allungarsi veramente non era difficile passare sulla parete della torre spezzata l'ultimo tratto era un'ascesa verticale sulle pietre annerite dal tempo su e su e su fino alla vetta dove i corvi sarebbero venuti a vedere se c'era grano da beccare Bran volteggiò sui doccioni orecchie zanne ciechi occhi di pietra non avevano segreti per lui nulla avrebbe dovuto avere segreti per lui eccetto le voci ne fu così sorpreso che per poco non perse la presa la prima fortezza era deserta sempre deserta non mi piace diceva una donna e le sue parole provenivano dall'ultima finestra di una fila appena sotto di lui dovresti essere tu il primo cavaliere non Stark per gli dèi no replicò un uomo con tono pigro annoiato è un onore del quale faccio volentieri a meno fin troppo lavoro va di pari passo con quel cosiddetto onore Bran rimase aggrappato ad ascoltare e di colpo per la prima volta ebbe paura di andare avanti loro avrebbero potuto vedere i suoi piedi se avesse proseguito volteggiando verso il doccione seguente ma non ti rendi conto di quale pericolo corriamo riprese la donna Robert ama quell'uomo come un fratello i suoi fratelli quelli veri Robert li digerisce a stento non che io lo biasmi per questo Stannis farebbe venire un'occlusione intestinale a un morto evitami le battute di spirito Stannis e Renly sono una cosa Eddard Stark è tutto un altro discorso a Stark Robert darà ascolto che siano dannati tutti e due avrei dovuto insistere che nominasse te ma ero certa che Stark lo avrebbe rifiutato possiamo ancora considerarci fortunati disse l'uomo la scelta del re avrebbe potuto ricadere su uno dei suoi fratelli o addirittura su dito corto che gli dei ci assistano datemi mille nemici onorevoli piuttosto che un solo nemico ambizioso e dormirò a sogni più tranquilli suo padre era di lui che quelle persone stavano parlando Bran voleva udire di più avvicinarsi di poco di pochissimo ma se avesse volteggiato davanti alla finestra fino al docione avrebbero di certo visto dobbiamo tenerlo d'occhio disse la donna e molto e molto attentamente preferisco tenere ad occhio te l'uomo pareva ancora più annoiato adesso torna qui lord eddard non è mai stato realmente interessato a niente che accada a sud dell'incollatura insiste la donna mai fino a ora vuole mettersi contro di noi sanne certo per quale altra ragione avrebbe deciso di lasciare il suo trono qui nel nord per cento e una ragioni a partire da quelle buffonate altisonanti chiamate dovere onore e via blaterando forse edard stark vuole il suo nome scolpito in grande nel libro della storia oppure vuole stare lontano dalla moglie o forse vuole entrambe le cose o magari chissà per una volta in vita sua vuole stare un po' al caldo sua moglie è la sorella di lisa arryn c'è quasi da meravigliarsi che lisa non sia qui a darci il benvenuto con le sue accuse bran abbassò lo sguardo c'era uno stretto cornicione largo appena qualche centimetro subito sotto la finestra si abbassò protendendosi verso di esso era troppo lontano non ci sarebbe mai arrivato ti stai scaldando troppo disse l'uomo e lisa non è che una pecora spaventata quella pecora spaventata divideva il letto con john harryn se avesse saputo qualcosa puoi star certa che sarebbe andata da robert ben prima di scappare da proto del re dopo che lui aveva già consentito di far adottare quella gelatina di suo figlio a castel granito non penso proprio sapeva perfettamente che la vita del ragazzo sarebbe stata il pegno del suo silenzio e adesso che lui è al sicuro nel nido dell'aquila lisa potrebbe rialzare la cresta madri l'uomo pronunciò la parola come se fosse stata un insulto infiammante mi sono fatto l'idea che partorire vi gioca brutti scherzi alla testa siete pazze tutte quante la sua risata aveva un suono sgradevole ma che la rialzi pure la cresta a Lady Arryn qualsiasi cosa sa o crede di sapere non ha le prove ci fu una pausa Onea ti illudi davvero che il re avrebbe bisogno di prove? incalzò la donna non mi ama tu lo sai io lo so e dimmi dolce sorella di chi pensi che sia la colpa Bran studiò il cornicione era troppo stretto per atterrarci sopra ma se fosse riuscito ad aggrapparsi a qualcosa e quindi tirarsi su solo che una manovra del genere avrebbe fatto rumore e attirato l'attenzione dei due verso la finestra non capiva bene che cosa stava ascoltando ma era certo che i due non supponevano che lui o qualcun altro ascoltasse tu sei cieco come Robert disse la donna se intendi dire che lui e io vediamo la medesima cosa allora hai ragione ribatte l'uomo e vediamo un uomo che sceglierebbe la morte piuttosto che tradire il proprio re ne ha già tradito uno dire o te ne sei scordato per caso non nego che sia leale nei confronti di Robert è fin troppo ovvio ma che cosa accadrà quando Robert sarà morto e Geoffrey salirà al trono e quanto prima ciò avverrà tanto più tutti noi saremo in una posizione di maggiore sicurezza ogni giorno che passa mio marito diventa sempre più impaziente e con Stark al suo fianco sarà anche peggio è ancora innamorato di sua sorella ti rendi conto del cadavere di quella insipida sedicenne quanto tempo pensi che passerà prima che mi metta da parte per una nuova liana Bran sentì d'improvviso la morsa di una paura senza nome desiderò con tutto se stesso tornare indietro e cercare i suoi fratelli ma per dire loro che cosa doveva andare più vicino doveva vedere chi stava parlando cerca di pensare meno al futuro e più ai piaceri che hai a portata di mano sospirò l'uomo smettila esclamò la donna Bran udì lo schiocco secco di uno schiaffo improvviso carne su carne l'uomo rise di nuovo Bran si protese verso l'alto si arrampicò sul doccione avanzò a carponi sul tetto era la via più facile raggiunse il doccione successivo quello appena sopra la finestra dalla quale uscivano le voci tutto questo sta diventando estremamente tedioso sorella disse l'uomo vieni qui e chiudi la bocca Bran serrò le gambe attorno alla gola del doccione intrecciò i piedi e roteò rimanendo appeso a testa in giù nel vuoto lentamente cautamente allungò il collo verso la finestra il mondo visto al contrario era strano c'era un cortile direttamente sotto di lui le pietre ancora bagnate per la neve disciolta guardò dentro la stanza un uomo e una donna stavano come lottando erano nudi l'uomo gli voltava le spalle la sua schiena impediva a Bran di vedere in viso la donna che l'uomo spingeva contro il muro poi vennero i rumori suoni molli umidi Bran capì si stavano baciando continuò a guardare con occhi sbarrati terrorizzato il fiato mozzo l'uomo spinse una mano tra le gambe di lei dovette farle male perché la donna cominciò a gemere in modo basso gutturale fermati gli disse fermati ti prego continuò a dirgli di fermarsi ma non lo respinse e la sua voce era debole incerta le dita di lei affondarono nei capelli dell'uomo si attorcigliarono nei riccioli biondi abbassarono il volto di lui tra i seni e Bran vide il suo viso occhi chiusi bocca aperta che continuava a gemere capelli biondi che danzavano ritmicamente avanti e indietro seguendo il movimento dei due corpi uniti era la regina Cersei Lannister forse Bran fece un rumore perché gli occhi della donna si aprirono di scatto videro parvero conficcarsi nel volto di Bran la regina urlò poi tutto accade in un vortice Cersei spinse violentemente l'uomo lontano da sé continuando a urlare a indicare Bran cercò di risalire si inarcò comprimendo i muscoli dell'addome fino a farsi male le braccia protese verso il doccione ma si mosse troppo in fretta le sue dita incontrarono la liscia pietra del doccione e scivolarono su di essa per far presa nel panico le sue gambe cedettero e cadde per un istante Bran ebbe le vertigeni sentì l'amaro sapore del fiele in gola mentre volava oltre la finestra protese la mano sinistra che annaspò nel nulla incontrò uno stretto cornicione e lo perse ma la mano destra riuscì ad afferrarlo Bran oscillò e andò a sbattere con violenza contro il muro l'impatto gli fece uscire tutta l'aria dal petto rimase a penzolare nel vuoto aggrappato con una sola mano ansimante dalla finestra sopra di lui si affacciarono dei volti la regina e ora Bran riconobbe anche l'uomo che era con lei pareva l'immagine di lei riflessa in uno specchio ci ha visti disse la regina spaventata così pare confermò l'uomo le dita di Bran cominciarono a perdere la presa afferrò il cornicione con l'altra mano le unghie conficcate nella roccia impenetrabile prendi la mia mano disse l'uomo allungandosi verso di lui prima che tu cada Bran gli afferrò il braccio strinse con tutte le sue forze l'uomo lo sollevò fino al cornicione ma che cosa fai si bilò alla regina l'uomo la ignorò era incredibilmente forte sistemò Bran in piedi sul davanzale della finestra quanti anni hai ragazzino sette Bran tremava di sollievo si rese conto che le sue dita affondavano ancora nel braccio dell'uomo e lentamente lasciò la presa amore amore l'uomo spostò lo sguardo sulla regina la voce carica di improvvisa repulsione quali atti si compiono in tuo nome e spinse Bran nel vuoto Bran precipitò urlando nell'aria gelida non c'era più nulla a cui aggrapparsi il cortile salì verso di lui a velocità accecante lontano in qualche punto remoto un lupo ululava nel cielo sopra la torre spezzata i corvi volavano in cerchio aspettando chicchi di grano Tyrion da qualche parte nel labirinto di pietra della prima fortezza un lupo ululò il lugubre verso rimase sospeso sopra il castello come un nero vessillo di morte Tyrion Lannister solevò gli occhi dal libro che stava leggendo la biblioteca di grande inverno era calda e accogliente non riuscì comunque a reprimere un brivido qualcosa nell'ululato dei lupi trascinava un uomo lontano dalla propria dimensione per proiettarlo nelle foreste tenebrose della mente a correre nudo alla testa del branco il metalupo ululò di nuovo Tyrion richiuse di schianto il pesante volume rilegato in cuoio era un poderoso trattato vecchio di un secolo scritto da un dotto maestro in merito al mutamento nel ciclo delle stagioni la fiamma nella lanterna da lettura tremolava l'olio ormai finito mentre il chiarore dell'alba cominciava a filtrare dalle alte finestre il folletto coprì uno sbadiglio col dorso della mano era rimasto a leggere tutta la notte nulla di nuovo Tyrion Lannister e il son non erano mai stati in buoni rapporti nello scivolare giù dallo sgabello sentì le gambe irrigidite indolenzite se le massaggiò cercando di riattivare la circolazione soppicando vistosamente si avviò verso il tavolo dove il septum bibliotecario dormiva alla grande la guancia abbandonata sulle pagine del libro rimasto aperto di fronte a lui una biografia del gran maestro Ethelmur il migliore dei sonniferi Coyle disse Tyrion in un soffio il giovane sussultò ammiccando più volte nel momento improvviso il cristallo del suo ordine culturale che portava appeso alla grossa catena d'argento dondolò bruscamente da una parte all'altra del collo vado a fare colazione riprese Tyrion occupati tu di rimettere a posto i volumi sii cauto con i rotoli valeriani la pregamena è molto secca macchine da guerra di Aernidon è rarissimo la vostra è l'unica copia completa che io abbia mai visto Child ancora intontito dal sonno lo guardò stralunato pazientemente Tyrion gli ripeté le istruzioni gli diede un paio di colpetti sulla spalla e lo lasciò al suo lavoro fuori l'aria del mattino era fredda Tyrion ne ispirò una lunga boccata e iniziò la difficile discesa lungo la ripida scala di pietra che si abitava lungo la parete esterna della torre della biblioteca impresa né facile né rapida quanto i gradini erano ripidi e stretti tanto le sue gambe erano corte e contorte il sole non illuminava ancora le mura di grande inverno ma nel cortile gli uomini stavano già lavorando sodo ce ne mette a morire il ragazzino la voce erroca di Sandor Clegane il mastino parve rimbalzare contro la torre sarebbe meglio che se ne andasse più in fretta Tyrion gettò un'occhiata verso il basso il mastino era di fronte al giovane Geoffrey signorotti del clan Lannister si accalcavano intorno a loro quantomeno mora in silenzio ribatte il principe e quel suo lupo a fare tutto il chiasso la notte scorsa non mi è riuscito neanche di chiudere occhio l'ombra di Clegane si allungò sulla terra compatta del cortile mentre uno scudiero gli poneva in capo l'elmo nero se lo desideri principe disse attraverso la celata aperta posso far tacere io la creatura lo scudiero collocò la spada lunga da combattimento nella mano guantata di metallo Clegane la impugnò baciandola e assestò a un paio difendenti da saggio nell'aria gelida dietro di lui il cortile riecheggiava del clangore di lame contro lame un mastino che uccide un lupo l'idea divertì il principe grande inverno è talmente infestato da lupi che gli Stark nemmeno sacrogerebbero che ne manca uno dissento nipotino caro Tyrion saltò gli ultimi gradini e arrivò nel cortile gli Stark sanno contare fino a sei a differenza di certi principi di mia conoscenza Geoffrey ebbe quantomeno la buona grazia di arrossire incassando la stoccata una voce dal nulla Clegane sbirciò dal proprio elmo guardando in tutte le direzioni spiriti dell'aria il principe rise rideva sempre quando la sua guardia del corpo si esibiva in quella farsa alla quale Tyrion aveva fatto l'abitudine quaggiù disse infatti il mastino abbassò lo sguardo fingendo di vedere il folletto solo in quel momento oh il piccolo lord Tyrion le mie scuse e io che nemmeno ti avevo visto oggi Clegane non sono in vena di insolenze poi Tyrion si rivolse all'ipote Geoffrey hai aspettato anche troppo a fare visita al lord Eddard e alla sua lady per presentare loro la tua solidarietà la mia solidarietà Geoffrey apparve petulante come solamente un principe ereditario sa esserlo cosa se ne farebbero niente di niente ma ci si aspetta che tu ti comporti in tal senso la tua assenza è stata notata il ragazzino Stark non è nulla per me e io non ho la minima intenzione di farla donnicciola Tyrion Lannister lo raggiunse e lo schiaffeggiò in piena faccia duramente la guancia di Geoffrey si infiammò di un'altra parola una sola esclamò Tyrion e ti servo il doppio lo dirò alla mamma si infuriò Geoffrey Tyrion lo schiaffeggiò di nuovo adesso il principe ereditario ne aveva due di guancia in fiamme ecco bravo tu dillo alla mamma riprese Tyrion prima però ti presenterai all'ordere di Stark e cadrai in ginocchio davanti a loro gli dirai quanto sei dispiaciuto che le tue preghiere sono con loro e con il piccolo Brandon e infine che possono considerarti al loro servizio per qualunque cosa tu possa fare in quest'ora disperata sia per loro sia per il loro figlioletto una qualche parte di quanto ho detto non ti è chiara il ragazzo parve sul punto di mettersi a piangere invece riuscì ad annuire debolmente poi si girò di scatto e corse via tenendosi la guancia Tyrion lo guardò scappare un'ombra venne a incombere su di lui Sandor Clegane gli torreggiava sopra come una scogliera il metallo nero opaco della sua armatura pareva risucchiare la luce del sole la celata che aveva la forma di un muso di mastino ringhiante assetato di sangue era abbassata Tyrion aveva sempre ritenuto che fosse comunque un notevole miglioramento rispetto alla faccia mostruosamente sfigurata dal fuoco di Clegane il principe si ricorderà di questo giorno piccolo lord lo avvertì il mastino e la sua risata distorta dall'elm risuonò come un basso gorgoglio ci conto ma nel caso se lo scordasse fai il bravo cagnolino Clegane rinfrescagli tu la memoria Tyrion si gettò uno sguardo attorno hai idea di dove sia mio fratello? la colazione con la regina oh bene Tyrion si congedò con un cenno del capo e si avviò fischiettando alla massima velocità che le sue gambette gli consentivano Sandor Clegane aveva inevitabilmente un carattere da mastino Tyrion sapeva che il primo che l'avesse affrontato alla spada si sarebbe amaramente pentito di averlo fatto nei quartieri degli ospiti di grande inverno l'atmosfera era cupa Jaime sedeva con Cersei e i bambini al tavolo di una prima colazione priva di calore e di allegria le conversazioni erano appena sussurrate il re dorme ancora? Tyrion si lasciò cadere su una sedia ignorando il fatto di non essere stato invitato il re non è nemmeno andato a dormire gli rispose sua sorella guardandolo con l'espressione di disgusto neppure troppo belato che Tyrion ricordava fin dai primordi della sua memoria e con Lord Eddard il loro dolore l'ha colpiti dritto al cuore proprio un cuore grande il nostro Robert si intromise Jaime con un sorriso pigro erano ben poche le cose che Jaime Lannister prendeva sul serio Tyrion lo sapeva bene eppure durante i terribili interminabili anni della sua infanzia era stato l'unico a dimostrare nei suoi confronti una sia pure infinitesima misura di affetto di rispetto per questo Tyrion era disposto a perdonare tutto il fratello o quasi tutto pane disse al servo che gli si avvicinò più due di quei piccoli pesci e un boccale della vostra buona birra scura per aiutarli ad andare giù anche della pancetta affumicata e fatela arrostire finché non è ben croccante l'uomo fece un breve inchino e si ritirò Tyrion tornò a girarsi verso i suoi fratelli gemelli quella mattina apparivano davvero calati nella parte entrambi avevano scelto il verde accuratamente in tinta con il verde dei loro occhi entrambi si erano acconciati i riccioli biondi nello stesso modo e ornamenti d'oro simili scintillavano i loro polsi alle dita e al collo per l'ennesima volta Tyrion si domandò come sarebbe stato avere un gemello e per l'ennesima volta si rispose che era meglio non saperlo incontrare ogni giorno la propria immagine riflessa nello specchio era già un'impresa titanica di per sé stessa due di lui no troppo spaventoso tio chiese il principe Tommen hai notizie di Bran la scorsa notte mi sono fermato alla sua stanza nessun cambiamento secondo maestro lui ha un ha un buon segno io non voglio che Brandon muoia la voce di Tommen era piena di incertezza di timore era un bambino delicato molto diverso da suo fratello Joffrey quanto a diversità comunque Jaime e Tyrion non prendevano lezioni da nessuno anche Lord Eddard aveva un fratellino chiamato Brandon riflettei Jaime uno degli ostaggi uccisi dai Targaryen nome sfortunato non sfortunato fino a quel punto forse disse Tyrion il servo gli portò la colazione e lui staccò un pezzo di pane nero e se lo mise in bocca che intendi dire? Cersei lo studiava con aria guardinga ma semplicemente che Tommen potrebbe non andare deluso Tyrion le allergì un sorriso ironico fece un brindisi e mandò giù una sorsata di birra il maestro pensa che Brandon potrebbe sopravvivere Mircella si lasciò sfuggire un gemito di sollievo e Tommen sorrise nervosamente ma non erano loro che Tyrion stava osservando ci fu uno sguardo tra Cersei e Jaime durò meno di un secondo ma abbastanza per non sfuggire il folletto una cosa simile non sarebbe misericordiosa gli occhi di sua sorella tornarono ad abbassarsi sul tavolo questi dei del nord sono crudeli a prolungare la sofferenza del bambino che cosa ha detto di preciso maestro Luin? domandò Jaime Tyrion sgranocchò un pezzo di pancetta affumicata con aria pensosa maestro Luin pensa che se il bambino doveva morire disse alla fine sarebbe già morto sono passati oltre quattro giorni dalla caduta senza che si sia verificato alcun cambiamento ma Bran potrebbe tornare a stare bene Zio era la piccola Mircella che aveva ereditato la bellezza della madre ma non il suo carattere la sua schiena è spezzata piccola mia Tyrion scosse il capo anche le sue gambe sono spezzate lo tengono in vita con acqua e miele altrimenti morirebbe di fame se si sveglierà sarà forse in grado di ricominciare a mangiare cibo vero ma ma quanto a camminare mai più se si sveglierà ripete Cersei è davvero probabile solo gli dei lo sanno Tyrion masticò un boccone di pane e il maestro può solo sperare passò a un'altra fetta di pancetta giurerei che è quel suo lupo senza nome a tenerlo in vita sta sotto la sua finestra giorno e notte a ululare ogni volta che lo scaccia non ritorna il maestro mi ha detto che a un certo punto quando avevano chiuso la finestra per ridurre per ridurre il rumore e il bambino stava diventando sempre più debole nel momento in cui l'hanno riaperta il suo cuore ha ripreso a battere più forte c'è qualcosa di inquietante in quegli animali la regina rabbrividì sono contro natura non permetterò che neppure uno di loro venga con noi dal sud sarà duro impedirlo sorella obiettò Jaime seguono le due ragazze Stark dappertutto Tyrion attaccò il pesce voi partirete presto quindi mai abbastanza la fronte di Cersei si aggrottò come sarebbe a dire voi e tu per gli dei non dirmi che rimani in questo posto Benjen Stark sta per tornare ai guardiani della notte portando con sé il figlio bastardo di suo fratello Tyrion si strinse nelle spalle pensavo di andare con loro vedere questa barriera della quale abbiamo sentito parlare così tanto che succede fratellino sorrise Jaime vuoi metterti anche tu quei vestiti neri io fare voto di castità Tyrion rise le puttane sarebbero in lutto da Dorne a Castelgranito no voglio solamente mettermi in piedi in cima alla barriera e farmi una bella pisciata dall'ultimo confine del mondo non permetto che i bambini siano esposti a un simile linguaggio da fogna Cersei si alzò di scatto Tommen Mircella andiamo la regina se ne andò indignata strascico e cuccioli al rimorchio Jaime Lannister studiò il fratello con quei suoi freddi occhi verdi Stark non la consentirà mai a lasciare grande inverno con i figli in bilico tra la vita e la morte Robert gli comanderà di farlo Stark lo farà ribattete Elyon e Robert gli comanderà di farlo in ogni caso non c'è nulla che Lord Eddard possa fare per il suo piccolo potrebbe porre fine ai suoi tormenti dichiarò Jaime se al suo posto ci fosse il mio di figlio io lo farei sarebbe un atto di misericordia ti suggerisco di tenere per te il tuo concetto di misericordia fratello caro ribatté Tyrion Lord Stark non lo apprezzerebbe anche se il bambino dovesse sopravvivere sarebbe uno storpio peggio sarebbe un essere grottesco una morte rapida e pulita è la soluzione migliore Tyrion alzò le spalle accentuando la loro deformità restando in temi di esseri grotteschi disse mi permetto di non essere d'accordo la morte è spaventosamente definitiva mentre la vita beh quante strade inesplorate eccolo di nuovo il piccolo perverso folletto gli sorrise Jaime come sempre ammise Tyrion io spero invece che il bambino viva sarebbe molto interessante scoprire se ha qualcosa da dire il sorriso di suo fratello si incurvò in una smorfia acida Tyrion mio dolce fratello e adesso c'era una nota tenebrosa nella sua voce a volte mi domando da che parte stai Tyrion aveva la bocca piena di pane nero e pesce andò giù tutto con una sorsata di birra scura Jaime di letto fratellino tu mi ferisci il sogginio che riservò a Jaime Lannister parve snudarsi dalle zanne di un metalupo dovresti sapere quanto io amo la nostra famiglia John salì lentamente ai gradini di pietra cercando di non pensare che poteva essere l'ultima volta Spettro lo seguiva silenzioso come sempre fuori refoli di neve porticavano su portali del castello e il grande cortile era un ribollire di rumori e di caos ma dentro le spesse mura di pietra tutto era immobile tiepido silente fin troppo immobile e silente per John raggiunse il pianerottolo più in alto e si fermò per un lungo momento aveva paura sentì il muso di Spettro spingere contro la sua mano e il contatto gli diede coraggio si raddrizzò ed entrò un'ombra era seduta accanto al letto era là da molto tempo giorno e notte Lady Stark non si era mai allontanata dal capezzale di Bran nemmeno per un istante si era fatta portare il cibo pitali per espletare le proprie funzioni corporali un piccolo duro pagliericcio sul quale dormire ma i sussurri del castello dicevano che non aveva dormito molto su quel pagliericcio aveva nutrito lei stessa il bambino con la mistura di erbe miele ed acqua che teneva accesa la flebile fiamma della sua vita non aveva mai lasciato la stanza per questo John si era tenuto lontano ma ora il tempo era finito rimase immobile sulla soglia timoroso di parlare ancora più timoroso di andare avanti la finestra era aperta fuori un lupo senza nome urulò spettro lo udì e alzò il muso Lady Stark si girò verso di lui e per alcuni attimi parve non riconoscerlo ma alla fine strinse le palpebre cosa sei venuto a fare qui la sua voce era piatta priva di qualsiasi emozione a vedere Bran a dirgli addio gliel'hai detto non ci fu nessun cambiamento nella voce di Caitlyn i suoi lunghi capelli neri erano opachi aggrovigliati nell'arco di una sola notte pareva invecchiata di vent'anni adesso vattene una parte di John voleva farlo voleva scappare a gambe levate ma l'altra parte sapeva che se l'avesse fatto forse non avrebbe mai più rivisto Bran fece un cauto passo in avanti ti prego mormorò ti ho detto di andare via qualcosa di raggelante si mosse negli occhi di lei non ti vogliamo qui in un'altra circostanza quelle parole gli avrebbero messo le ali ai piedi portando lacrime ai suoi occhi in questa circostanza l'unico risultato che ottennero fu di farlo infuriare presto sarebbe diventato un confratello dei guardiani della notte e avrebbe affrontato pericoli ben più letali di Caitlyn Tully Stark Bran è mio fratello disse preferisci che ti faccia buttare fuori dalle guardie chiamale pure le tue guardie John accettò la sfida non mi impediranno di vedere mio fratello nemmeno tu me lo impedirai attraversò la stanza lasciando il letto come muraglia tra loro guardò suo fratello Caitlyn teneva tra le sue una mano di Bran pareva un artiglio l'essere che gioceva in quel letto non era il Bran che John conosceva la carne sembrava svanita la pelle si tendeva sulle ossa simili a bastoni di legno sotto la coperta si indovinavano forme contorte che John trovò quasi irrepellenti le gambe gli occhi erano sprofondati nelle orbite spalancati sul volto completamente ciechi era come se la caduta avesse raggrinzito Brandon Stark all'interno di quanto restava del suo corpo pareva una foglia secca che il primo colpo di vento avrebbe trascinato via verso la tomba eppure dentro quella gabbia fragile di costole spezzate continuava a esistere il respiro il torace si sollevava si abbassava tornava a sollevarsi Bran sussurrò John perdonami se non sono venuto da te prima io avevo paura lacrime gli scesero sulle guance ma non gliene importò nulla ti prego fratello non morire ti prego tutti noi aspettiamo che tu ti risvegli Rob e ragazze e io tutti noi Lady Stark osservava senza dire una parola John interpretò il suo silenzio come un segno di accettazione là fuori il metalupo urulò di nuovo il metalupo al quale Bran non aveva affatto in tempo a dare un nome io adesso devo andare Bran proseguì zio Benjen mi aspetta vado a nord alla barriera dobbiamo partire oggi prima che arrivino le grandi nevi ricordò quanto Bran fosse stato eccitato all'idea del viaggio ed un tratto abbandonare suo fratello in quello stato fu molto più di quanto fosse in grado di sopportare si asciugò le lacrime si protese in avanti e baciò leggermente Bran sulle labbra non volevo che lui andasse al sud disse Lady Stark in un soffio volevo che rimanesse qui con me John le rivolse uno sguardo cauto lei non lo stava guardando gli stava parlando però era come se lui non fosse nemmeno nella stanza ho pregato tanto che non andasse continuò Caitlyn in quel tono distante era il mio bimbo speciale andata all'altare ho pregato sette volte i sette volti degli dei perché Ned cambiasse idea e lo lasciasse qui con me a volte gli dei esaudiscono le preghiere John non sapeva cosa dire non è stata colpa tua azzardò dopo un silenzio imbarazzato fu quel punto che gli occhi di lei trovarono i suoi quando parlò la sua voce era un fiume di veleno non so che farmene della tua assoluzione bastardo John abbassò lo sguardo Caitlyn continuava a stringere la mano di Bran tra le sue dita che parevano le ossa di un corvo addio fratello la voce di lei lo raggiunse sulla soglia John non aveva intenzione di fermarsi ma non l'aveva mai chiamato per nome perciò si girò Caitlyn lo guardava dritto in faccia come se lo vedesse per la prima volta cosa c'è Lady Stark avresti dovuto essere tu a schiantarti su quelle pietre al posto di Bran poi Caitlyn tornò a girarsi verso il figlio e scoppiò in un pianto disperato tutto il suo essere scosso dai singhiozzi mai prima di allora John l'aveva vista piangere e per lui quella fino al cortile fu una lunghissima discesa fuori il caos e il rumore continuavano carri che venivano caricati uomini che gridavano cavalli fatti uscire dalle stalle completi di sella e di redini stava nevicando fiocchi impalpabili come cenere tutti erano ansiosi di partire Rob si trovava nel bel mezzo di quel bailame urlando ordini assieme agli altri ufficiali di casa Stark sembrava essersi fatto uomo d'improvviso come se la caduta di Bran e il crollo di sua madre l'avessero reso più forte al suo fianco c'era vento grigio zio Benjen ti sta cercando dappertutto disse a John voleva partire un'ora fa lo so John osservò il caos tutto attorno a loro andare via è molto più duro di quanto pensavo anche per me sapere che te ne vai il calore del corpo di Rob stava facendo sciogliere la neve che gli era caduta sui capelli l'hai visto? John annui non fidandosi a parlare perché temeva di lasciar cadere altre lacrime non morirà dichiarò Rob so che non morirà voi Stark siete duri da far fuori convenne John la sua voce suonò piatta stanca l'addio a Bran l'aveva come prosciugato dentro Rob percepì che qualcosa non andava mia madre lei è stata John andò alla ricerca delle parole adatte molto gentile bene Rob apparve sollevato la prossima volta che ci rivedremo sarai uno degli uomini in nero è sempre stato il mio colore preferito John riuscì a rispondere al suo sorriso quanto tempo pensi che passerà non molto Rob attirò a sé il fratello e lo abbracciò con fierezza addio snow addio a te stark prenditi cura di Bran lo farò si sciolsero dall'abbraccio e si scambiarono un'occhiata imbarazzata si è benjen mi ha detto di dirti di andare subito alle stalle gli comunicò Rob alla fine rompendo il silenzio nel caso ti avessi visto mi manca ancora un saluto rispose John allora non ti ho visto replicò Rob John lo lasciò in piedi nella neve circondato da carri cavalli e lupi non gli ci volle molto per arrivare all'armeria prelevò ciò per cui era venuto e continuò lungo il ponte coperto che portava alla prima fortezza aria era nella sua stanza e riempiva un lucido baule di legno ferro ben più grosso di lei nimeria la aiutava tutto quello che aria doveva fare era indicare la metalupa trotterellava attraverso la stanza afferrava tra le zanne un mucchietto di seta e glielo portava ma nell'attimo in cui captò l'odore di spettro sedette sulle zampe posteriori ed emise un guaito nel vedere john aria saltò in piedi e volò a gettargli le braccia magroline attorno al collo temevo te ne fossi andato il respiro le si spezzò in gola e non mi lasciano andare fuori per gli addi che altro hai combinato john era divertito niente davvero aria si staccò da lui e fece una smorfia era tutto pronto e impacchettato accennò al colossale baule pieno solamente per un terzo e hai vestiti sparsi dappertutto nella stanza ma septa mordain dice che devo ricominciare da capo le mie cose non erano piegate come si deve mi dice una vera signora del sud non scaraventa dentro il baule i suoi abiti come se fossero stracci vecchi mi dice ed è davvero questo che avevi fatto sorellina tanto finirà tutto stropicciato comunque protestò aria che differenza fa come piegata la roba un'altra cosa che non credo septa mordain apprezzi disse john è l'aiuto di nimeria la metalupa lo osservò in silenzio e con gli occhi d'oro scuro meglio così riprese john perché ho qui qualcos'altro che devi portarti dietro ed è meglio che sia impacchettato con molta attenzione il viso di aria si illuminò un regalo una specie chiudi la porta sul chi vive tutta eccitata al tempo stesso aria si protese a dare un'occhiata nel corridoio nimeria aria questo non è un giocattolo aria lentamente john estrasse la lama in modo che lei vedesse la sfumatura azzurra di puro acciaio sta attenta a non tagliarti è affilata come un rasoio alle ragazze non servono rasoi scherzò lei ad alcune si sorrise john le gambe della septa le mai guardate aria ridacchiò alla battuta ma il suo sguardo non si staccò mai dalla spada è così sottile proprio come te confermò john l'ho fatto fare da mastro micchian apposta i bravos usano spade come questa a pentos mir e nelle altre città libere un uomo non lo decapita ma a usarla nel modo giusto con la rapidità giusta lo puoi riempire di brutti buchi io ce l'ho la rapidità ma dovrai fare pratica tutti i giorni john le mise l'elsa in mano le mostrò come impugnarla e fece un passo indietro come la senti? ti piace il suo bilanciamento? direi di sì prima lezione infilzarli sempre di punta aria gli diede un colpo con il piatto della lama lo so con quale parte colpirli dichiarò ma immediatamente dopo fu piena di dubbi septa mordem me la porterà via per portartela via dovrà sapere che ce l'hai ma john con chi potrò fare pratica? troverai qualcuno l'assicurò lui la prodo del re è una vera città mille volte più vasta di grande inverno fino al momento in cui non troverai un compagno di lama osserva gli addestramenti nel cortile della fortezza rossa poi corri va a cavallo diventa forte ma qualsiasi cosa tu faccia aria conosceva quel gioco privato tra loro due lei e john continuarono in coro non dirlo a sansa john le scompigliò i capelli mi mancherai sorellina improvvisamente l'irriducibile aria parve sul punto di mettersi a piangere vorrei che tu venissi con noi strade diverse a volte conducono allo stesso castello chi può sapere ora john si sentiva meglio non avrebbe permesso la tristezza di aggredirlo di nuovo devo andare adesso se faccio aspettare a zio bengere un altro po passerò il mio primo anno sulla barriera a svuotare pitali aria corse da lui per l'ultimo abbraccio calma sorellina prima metti giù la spada lei la mise da parte quasi con vergogna poi lo tempestò di piccoli baci quando fu giunto sulla porta si voltò verso di lei per l'ultima volta e la vide con la spada in pugno che se la bilanciava nella mano oh a momenti dimenticavo le disse tutte le grandi spade hanno un nome come il ghiaccio convenne aria studiando la sua lama e questa ce l'ha un nome john dimmelo john non le indovini fece lui con un sorriso ironico qual è la tua cosa preferita aria apparve perplessa ma non durò che un batter d'occhi perché era rapida molto rapida dissero in coro anche questo ago il ricordo dell'ultima risata insieme riscaldò john snow per tutta la lunga cavalcata verso il settentrione daenerys daenerys targaryen andò sposa a cal drogo nella pianura all'esterno delle mura della città libera di pentos così voleva l'antico credo dei dothraki ogni evento rilevante della vita di un uomo doveva accadere al cospetto del cielo andò sposa piena di terrore circondata da splendore barbarico drogo aveva chiamato a raccolta il suo intero calasar e loro erano apparsi 40.000 guerrieri dothraki con i loro 40.000 cavalli più un numero incalcolabile di donne bambini e schiavi avevano allestito un immane campo appena fuori dalle mura della città erigendo palazzi di giunchi mangiando tutto il mangiabile e facendo correre brividi gelidi lungo la schiena dei bravi cittadini di pentos la cui paura era andata crescendo di giorno in giorno i miei colleghi magistri e io abbiamo fatto raddoppiare la guardia cittadina l'informò magistro illirio ingozzandosi di ana tra il miele e di peperoni piccanti marinati erano nella residenza di drogo per l'occasione il cal era andato a unirsi al suo calasar concedendo a Daenerys e a suo fratello di rimanere nel maniero fino alle nozze è meglio che la principessa Daenerys si sposi in fretta prima che metà della ricchezza di pentos finisca nelle tasche di mercenari e bravosiani commentò Sergio Ramormont la notte in cui Deni era stata barattata al cal il cavaliere esiliato aveva messo la propria spada al servizio di Viserys che aveva accettato l'offerta con entusiasmo da allora Mormont era stato il loro inseparabile compagno magistro illirio ridacchiò dietro la barba biforcuta per conto l'espressione del re mendicante rimaso seria quel barbaro può averla anche domani se vuole Viserys scoccò un'occhiata a sua sorella lei distorse lo sguardo basta che paghi il dovuto fidati di me principe è tutto fatto illirio agitò la mano in un gesto languido che fece scintillare i troppi anelli sulle sue dita grassocce il khal ti ha promesso la corona e tu la corona avrai si ma quando quando il khal deciderà beh prima cosa prenderà la fanciulla una volta che saranno marito e moglie dovrà compiere il viaggio rituale e presentarla alle anziane del dosh khalin nella città sacra di vaes dothrak e solamente dopo tutto questo forse pagherà il suo prezzo ma lo farà solo se i presagi dothraki saranno in favore della guerra io te feco sui presagi dothraki viserys era divorato dall'impazienza l'usurpatore continua a sedere sul trono di mio padre quanto tempo ancora dovrò aspettare hai aspettato tutta la vita mio giovane re illirio si strinse vistosamente nelle spalle che sarà mai aspettare qualche altro mese o qualche altro anno ti suggerisco anch'io di essere paziente mio signore ser giora che aveva viaggiato fino a vaes dothrak concordò con un cenno del capo i dothraki mantengono la parola data ma agiscono secondo la loro scala del tempo un uomo di rango inferiore a lui può presentarsi al cal e chiedergli di favorirlo ma non deve mai avere la presunzione di esigere qualcosa da lui attento a quella lingua mormont si infuriò viseris o te la farò strappare io non sono affatto un uomo di rango inferiore io sono il legittimo sovrano dei sette regni il drago non chiede di essere favorito rispettosamente ser gior abbassò lo sguardo il lirio sorrise in modo enigmatico strappò un'ala all'anatra e andò all'assalto della carne tenera olio denso e miele gli gocciolavano sulla barba danni si limitò a osservare il fratello restando in silenzio i draghi sono finiti fu solo un pensiero nella sua mente che non assunse mai forma di parole ma quella notte un drago venne da lei Viserys la stava picchiando le faceva male Daenerys era nuda intorpidita dalla paura cercava di allontanarsi da lui ma il suo corpo sembrava goffo e sgraziato e rifiutava di obbedirle lui la colpì di nuovo dani barcollò cadde hai risvegliato il drago Viserys la prese a calci senza smettere di urlare le cosce di lei erano viscide di sangue hai risvegliato il drago hai risvegliato il drago gemendo dani chiuse gli occhi quasi rispondendo al suo gemito qualcosa si mosse con un rumore terribile come di membrane che si squarciano dall'interno verso l'esterno come di un immenso fuoco divorante daenerys aprì gli occhi miseris era svanito tutto attorno a lei rugivano immense colonne di fiamme e al centro delle stesse fiamme c'era il drago lentamente la testa del rettile ruotò verso di lei gli occhi ardenti come metallo liquefatto si fissarono nei suoi daenerys balzò a sedere sul letto tremando il corpo fradicio di sudore non aveva mai provato un simile terrore non fino al giorno delle sue nozze la cerimonia ebbe inizio al sorgere del sole e proseguì fino al tramonto una giornata fatta di cibo vino danze orge e duelli senza fine una possente collina di terra era stata eretta tra i palazzi di giunchi storti nella pianura sulla sua cima daenerys sedette al fianco di caldrogo dominando il ribollente mare di dothraki mai nella sua breve vita dania aveva visto così tanta gente radunata tutta nello stesso luogo né tantomeno gente così strana così spaventosa quando visitavano le città libere i signori dothraki si addobbavano con abiti fastosi e usavano profumi intensi ma al cospetto del grande cielo mantenevano le antiche tradizioni uomini e donne indossavano gilet di cuoio dipinto sul petto nudo e brache di crine di cavallo trattenute da catene fatte di dischi di bronzo i guerrieri intingevano le lunghe trecce nella morchia che trasudava dai braceri per l'intera durata dell'orgia matrimoniale gli uomini e le donne del calasar di drogo si rimpinzarono di carne di cavallo arrostita con miele e peperoni si ubriacarono fino all'incoscienza di latte fermentato di giumenta e dei vili pregiati di illirio si derisero pesantemente l'un l'altro al di sopra delle migliaia di fuochi accesi nella pianura le loro voci risuonavano rauche aliene alle orecchie di Dani miseris era seduto poco sotto di lei splendido in tunica di lana nera con un drago scarlatto ricamato sul torace affiancato da illirio e ser giora erano i posti d'onore appena più in basso dei cavalieri di sangue del cal eppure negli occhi violetti del fratello Dani vedeva lampi d'ira miseris detestava essere seduto a un livello inferiore rispetto a lei si inferociva nel vedere gli schiavi che offrivano ogni portata al cal e alla sua sposa per primi servendo poi a lui ciò che loro avevano rifiutato tuttavia l'unica cosa che poteva fare era ingoiare il proprio risentimento e lo ingoiò mentre il suo umore diventava sempre più velenoso a ogni insulto inferto al suo rango reale seduta nel fulcro di quell'orda sterminata Daenerys non si era mai sentita tanto sola suo fratello le aveva ordinato di sorridere e lei aveva obbedito aveva continuato a sorridere finché il volto non aveva cominciato a farle male e aveva dovuto lottare per impedire alle lacrime di sgorgare sapeva quanto Viserys si sarebbe infuriato se l'avesse vista piangere ed era terrorizzata alla sola idea di come avrebbe potuto reagire caldrogo le vennero offerte montagne di cibo tranci di carne fumante corpose salsicce nere tradizionali sanguinacci d'otrachi e poi frutta esotica erbe dolci stufate elaborati pasticcini dei forni di pentos daniele spinse ogni cosa il suo stomaco era contratto e sapeva che non sarebbe riuscita a inghiottire nulla attorno a lei non c'era nessuno con cui parlare caldrogo dava ordini e scambiava battute con i suoi cavalieri di sangue e rideva alle loro risposte ma l'aveva a malapena guardata daniele e lui stentavano a comunicare la lingua d'otrachi era incomprensibile e quanto alcal conosceva soltanto qualche parola del valeriano imbastardito che si parlava nelle città libere e nemmeno una parola della lingua comune dei sette regni in quel momento a Daenerys sarebbe andata bene perfino qualche frase con Illyrio o con suo fratello ma erano entrambi troppo più in basso rispetto a lei perché potessero udirla così rimase seduta avvolta nel suo suntuoso abito nunziale di seta tentando di bere a piccolissimi sorsi una coppa di vino al miele provò a parlare con se stessa io sono sangue di drago io sono Daenerys Targaryen principessa della roccia del drago nata dal sangue e dal seme di Aegon il conquistatore il sole era solo a un quarto del suo cammino lungo il cielo quando Dany vide morire il primo uomo i tamburi battevano alcune donne danzavano per il cal drogo stervava privo di espressione ma i suoi occhi seguivano i loro movimenti sinuosi di quando in quanto gettava loro un medaglione di bronzo che le ragazze si contendevano a un viate anche i suoi guerrieri si godevano lo spettacolo alla fine uno di loro avanzò nel cerchio afferrò una danzatrice per il braccio la gettò a terra e la possedette lì davanti a tutti come uno stallone all'assalto di una giumenta i dothraki si accoppiano come branchi di cavalli il lirio aveva avvertito Dany che cose del genere sarebbero potute accadere non esiste nulla di privato in un calasar e non hanno il senso del peccato o della vergogna come noi impaurita Daenerys distolse lo sguardo dall'amplesso inutile inutile un secondo guerriero si lanciò verso un'altra danzatrice poi un terzo in breve non ci fu più una direzione sicura nella quale guardare a un certo punto due uomini cominciarono a contendersi la stessa donna Dany odìo un brontolio di minaccia vide uno spingere l'altro in un battere d'occhio di Yarak le letali affilatissime lame d'otrachi metà spade e metà falci luccicarono ai raggi del sole ebbe inizio una danza di morte con i due guerrieri che si giravano uno attorno all'altro attaccando menando fendenti urlando le lame che mulinavano alte sopra le loro teste nessuno alzò un dito per fermarli il duello ebbe fine con la medesima rapidità con la quale era cominciato Yarak si vilarono a distanza ravvicinata uno dei due uomini fece un passo falso e l'altro sferò un fendente su un corto arco traverso l'acciaio morse la carne appena sopra la vita dell'uomo il suo ventre si squarciò dall'ombelico fino alla colonna vertebrale e ruttando nella polvere viscere pulsanti mentre il perdente dava gli ultimi sussulti dell'agonia il vincitore afferrò una donna nemmeno la stessa per la quale aveva combattuto e la penetrò da dietro gli schiavi portarono via il cadavere e le danze ripresero qualcos'altro di cui Illyrio l'aveva avvertita un matrimonio d'Otrachi senza almeno tre sventramenti è considerato decisamente noioso il matrimonio di Daenerys Targaryen fu un successo smagliante prima del tramonto sulla pianura era corso il sangue di almeno una dozzina di uomini col passare delle ore il suo terrore cresceva l'unica cosa che rimase nella mente di Dany fu lo sforzo per non mettersi a urlare aveva paura di Dothraki della loro ferocia animalesca dei loro usi mostruosi aveva paura di suo fratello di ciò che avrebbe potuto fare se l'avesse deluso ma più di ogni cosa aveva paura di ciò che sarebbe accaduto con il calare delle tenebre dopo che Viserys l'avesse definitivamente gettata in pasto al gigante guerriero che beveva vino seduto accanto a lei il volto inespressivo e crudele come una maschera di bronzo io sono il sangue di Drago si ripetè quando il sole fu basso all'orizzonte Cal Drogo batte più volte le mani i tamburi cessarono di rullare le danze si arrestarono un silenzio improvviso scese sulla sterminata orgia Drogo si alzò in piedi facendo alzare Daenerys al suo fianco era arrivato il momento della consegna dei regali della sposa e dopo i regali lei lo sapeva dopo che il sole fosse scomparso sarebbe venuto il momento della prima cavalcata come marito e moglie e della consumazione del matrimonio Dani cercò di allontanare il pensiero ma senza riuscirci si strinse le braccia attorno al corpo per fermare il tremito suo fratello le donò tre ancelle Dani era certa che non gli erano costate nulla ilirio aveva senza dubbio provveduto a far saltare fuori le ragazze irri e jiqui erano dotracchi capelli corvini pelle colore del rame e occhi a mandorla dorea carnagione chiara e occhi azzurri veniva da lì non sono comuni servette dolce sarella dichiarò viseris mentre le ragazze venivano portate una per una al cospetto della sposa ilirio e io le abbiamo scelte di persona apposta per te irri ti insegnerà a cavalcare jiqui ti istruirà nella lingua dei dotracchi e e dorea ecco dorea ti renderà edotta nelle arti dell'amore è molto esperta in materia ebbe un sorriso appena accennato il magistro e io te lo possiamo garantire ser giora mormont si scusò per i propri doni è poca cosa mia principessa ma è tutto quanto si può permettere un povero esiliato depose di fronte a lei una piccola pila di antichi testi erano storie e canti dei sette regni scritti nella lingua comune ed anni ringraziò il cavaliere con tutto il cuore a bassa voce magistro Illirio diede un ordine quattro schiavi muscolosi vennero avanti trasportando un grosso baule di legno di cedro rinforzato in bronzo Daenerys lo aprì conteneva velluti damaschi e sete una selezione di stoffe tra le più raffinate prodotte nelle nove città libere conteneva anche qualcos'altro tre pesanti uova tre perfette forme convesse dai colori talmente prodigiosi da dare l'impressione che la loro superficie fosse ricoperta di pietre preziose Dani rimase senza fiato erano gli oggetti più belli che mai avesse visto con estrema delicatezza daenerys sollevò un uovo le civollero entrambe le mani per riuscirci sulle prime pensò che fosse di fine porcellana o di smalto delicato o forse di vetro soffiato ma era troppo pesante pariva solida pietra l'esterno era coperto di minuscole scaglie e nel ruotare l'uovo tra le dita alla luce del sole morente Dani le vide scintillare come metallo lucidato un uovo era di un verde profondo con sfumature bronze che apparivano e sbanivano a seconda di come la luce investiva il guscio il secondo sembrava avorio pallido striato di oro l'ultimo era nero impenetrabile come l'oceano a mezzanotte eppure cosparso di tracce di vortici scarlatti ma che cosa sono la voce di Dani era un sussurro pieno di meraviglia uova di drago magistro illirio ne era giustamente orgoglioso vengono dalla terra delle ombre molto oltre assai il trascorrere degli eoni le ha trasformate in pietra eppure la loro bellezza continua a risplendere le conserverò per sempre daenerys aveva udito molte leggende sulle uova di drago ma non ne aveva mai viste né aveva mai pensato di poterne vedere era davvero un dono magnifico anche se Dani sapeva che illirio poteva permettersi di fare il grandioso dalla vendita dell'ultima principessa Targaryen a Khal Drogo aveva ricavato una fortuna in cavalli e schiavi come voleva la tradizione i cavalieri del sangue del Khal le offrirono le tre armi tradizionali d'Otrachi Haggo le presentò una frusta di cuoio dall'impugnatura d'argento Koholo un magnifico harak decorato in oro e Koto un arco di osso di drago addirittura più alto di lei come parimenti voleva la tradizione magistro Illirio e Ser Jor le avevano insegnato a rifiutarle secondo il protocollo questi sono i doni degni di un grande guerriero o sangue del mio sangue io sono una donna che sia il mio signore e marito a portare queste armi in mia vece e così anche Khal Drogo ricevette i doni della sposa vennero anche altri regali tanti da parte di molti d'Otrachi sandali gioielli e fermacapelli d'argento cinture composte da medaglioni gilè dipinti a mano e soffici pellicce aromi e profumi aghi e pene d'uccello piccole ampolle di vetro rosso una gonna fatta cucendo le pelli di mille e mille topi selvatici un bellissimo regalo Calise commentò maestro Illirio dopo averle spiegato di che cosa si trattava un augurio di buona fortuna tutto attorno a Dani le pile di regali crebbero e crebbero molti più doni di quanti avrebbe mai immaginato di quanti avrebbe mai potuto desiderare o adoperare Caldrogo fu l'ultimo a presentare il proprio dono mentre il cal si allontanava da lei una corrente di attesa eccitata si dilatò dal centro del campo simile a un'invisibile onda di marea che arrivò a percorrere tutto il calasar e quando ritornò la folla di coloro che avevano portato i regali si aprì permettendogli di offrire a Dani un cavallo era una splendida puledra dalla muscolatura guizzante come una prorompente energia vitale di cavalli Daenerys capiva quanto bastava per rendersi conto che quell'animale era del tutto fuori dal comune dalla puledra irradiava qualcosa che le tolse il fiato sul manto grigio come il mare d'inverno andava a ricadere una lunga criniera argentea simile a un vapore caldo esitante Daenerys allungò una mano e le accaricciò il collo Caldrogo disse poche parole indotrachi argento come l'argento dei tuoi capelli tradusse magistro Illyrio così dice il cal è bellissima mormorò Daenerys è l'orgoglio del calasar ribadì Illyrio l'usanza impone che la calisi cavalchi un animale degno del suo rango a fianco del cal Drogo fece un passo avanti pose le mani sui fianchi di Daenerys la sollevò come se fosse stata priva di peso e la accompagnò sulla sella d'otrachi molto più stretta delle selle alle quali lei era stata abituata fino a quel momento per un attimo Dani rimase immobile incerta sul da farsi nessuno le aveva accennato a quell'aspetto della cerimonia e adesso che faccio chiese a Illyrio prendi le redini e cavalca principessa fu Ser Mormont a risponderle non è necessario che tu vada lontano nervosamente Daenerys afferrò le briglie e infilò i piedi nelle corte staffe era una cavallerizza appena passabile perché la maggior parte dei suoi viaggi avevano avuto luogo per nave carro o portantina non a cavallo pregò di non cadere di sella finendo incompleta disgrazia quindi diede alla puledra un lievissimo sprone con le ginocchia e per la prima volta da molte ore cessò di avere paura forse per la prima volta cessò di avere paura in assoluto la folla si aprì di fronte a lei migliaia di occhi non la persero di vista neppure per un attimo la puledra aveva un passo agile levigato come seta Daenerys si ritrovò a muoversi più rapidamente di quanto avesse voluto ma non si spaventò provò eccitazione la cavalla accelerò al trotto strappando a Dani un sorriso per lasciare del passo i dotrachi si ammucchiarono gli uni sugli altri bastava la minima pressione delle ginocchia il più lieve tocco alle redini a far rispondere il puro sangue Daenerys si lanciò al galoppo e adesso i dotrachi nel togliersi di mezzo ridevano inneggiavano e urlavano in suo onore quando cominciò a manovrare per tornare indietro si ritrovò davanti a un grosso bracere con ali compatte di folla su entrambi i lati nessun modo per aggirarlo nessuno spazio per fermarsi in tempo dal profondo di lei sorse una temerarietà che non aveva mai saputo di avere i suoi talloni si serrarono contro i fianchi della puledra le sue mani le mandarono a briglia sciolta e il puro sangue dalla criniera argentea volò al di sopra delle fiamme come un ippogrifo Daenerys ritornò sulla collina dalla quale tutto aveva avuto inizio e si rivolse a magistro Illyrio dia Caldrogo che mi ha fatto il dono del vento il grasso mercante tradusse accarezzandosi la lunga barba grigia e per la prima volta Daenerys vide il marito sorridere mentre l'ultimo raggio di sole scompariva dietro le lontane mura della città libera di Pentos che si alzava a occidente Dani si rese conto di aver perduto qualsiasi senso del trascorrere del tempo Caldrogo impartì un secondo ordine ai cavalieri di sangue e loro gli portarono il suo cavallo uno stallone muscoloso dalla criniera fulva il Cal lo sellò personalmente mentre lo faceva Viserys si avvicinò a sua sorella ancora in sella al puro sangue argenteo le sue dita affondarono nella gamba di lei dagli piacere dolce sorella disse in un soffio altrimenti vedrai il drago risvegliarsi come mai si è risvegliato prima è una promessa la paura tornò ad attanagliarla con le parole del fratello di nuovo si sentì come una bambina una piccola di soli tredici anni molto sola tutt'altro che pronta ad affrontare ciò che stava per accadere si avvearono insieme a cavallo sotto le prime stelle che cominciavano ad apparire lasciandosi alle spalle il calasar e i castelli di giunchi intrecciati caldrogo non disse una parola limitandosi a condurre il suo stallone a un rapido trotto verso le tenebre incombenti davanti a loro le campanelle d'argento che gli adornavano la treccia tintinnavano al ritmo della cavalcata io sono il sangue di drago questa volta Daenerys sussurò le parole in modo da farsi coraggio io sono il sangue di drago io sono il sangue di drago e i draghi non conoscono la paura in seguito non fu mai in grado di dire quanto a lungo quanto lontano cavalcarono era buio fitto quando si fermarono su un prato dall'erba alta in riva a un torrente drogo smontò per primo e con la medesima facilità con la quale ce l'aveva messa sollevò Daenerys e la depositò a terra nelle sue mani lei si sentì fragile come cristallo le membra deboli come l'acqua di quel druscello rimase immobile nell'oscurità indifesa e tremante nel suo abito nonziale mentre lui legava i cavalli quando gli occhi di lui incontrarono i suoi scoppiò a piangere caldrogo osservò stupito le sue lacrime il volto stranamente privo di espressione no fu tutto quello che disse allungò una mano con il pollice massiccio e calloso asciugò rudemente le lacrime sul viso di lei tu parli la lingua comune disse Daenerys in sorpresa no ripete lui forse quella era la sola parola che conosceva eppure era una parola in più di quanto lei aveva pensato che conoscesse in qualche modo questo la fece sentire meglio drogo le accarezzò leggermente i capelli facendo scorrere le lunghe ciocche argente tra le dita sussurrandole qualcosa in Dothraki Daenerys non capì che cosa le disse ma c'era calore nella voce di lui e una tenerezza che non aveva mai creduto potesse esistere in quell'uomo le pose un dito sotto il mento e le sollevò il viso di nuovo i loro occhi si incontrarono drogo torreggiava su di lei come su qualsiasi altro uomo o donna delicatamente le prese sotto le ascelle e la fece sedere su una roccia arrotondata in riva al torrente poi sedette a terra di fronte a lei gambe incrociate e i loro volti finalmente alla medesima altezza no disse di nuovo è l'unica parola che conosci gli chiese Daenerys drogo non rispose l'estremità della sua lunga treccia giaceva a terra a fianco a lui lui la ferrò se la mise di traverso su una spalla e cominciò a togliere le campanelle una per una dopo un attimo Dani si protese per aiutarlo quando ebbero finito drogo fece un cenno e lei capì lentamente con cautela cominciò a sciogliere la treccia ci volle molto tempo rimase seduto immobile a guardarla in silenzio quando lei ebbe finito lui scosse il capo e i capelli si allargarono sulla schiena come un'ondata di pure tenebre liscia e scintillante di olio Daenerys non aveva mai visto capelli così lunghi così folti così neri venne il suo turno cal drogo cominciò a spogliarla le sue dita erano attente sorprendentemente delicate uno dopo l'altro senza fretta rimosse i veli di seta che la avvolgevano Dani rimase immobile in silenzio lo sguardo in quello di lui drogo svelò i suoi piccoli seni e Daenerys non riuscì a vincersi alzò le mani e si coprì no gentilmente ma con fermezza lui le allontanò le mani dai seni di nuovo le sollevò il viso costringendola a guardarlo no ripete no gli fece eco Dani lui la fece alzare per togliere gli ultimi veli che ancora la coprivano l'aria notturna era fredda sul suo corpo umido Daenerys rabbrividì pelle d'oca le apparve sulle braccia e sulle gambe aveva nuovamente paura di quello che stava per succedere ma per un po' non successe nulla Cal Drogo sedeva a gambe incrociate e la guardava bevendo con gli occhi ogni parte di lei cominciò a toccarla all'inizio leggermente poi in modo sempre più deciso Dani poteva percepire la possente forza delle mani di lui ma mai neppure per un istante le fecero male le prese la destra tra le sue e le accarezzò le dita una dopo l'altra delicatamente le fece scivolare una mano lungo la gamba esplorò il suo viso seguendo la curva dell'orecchio facendo scorrere un polpastrello sulle sue labbra affondò le dita nei suoi capelli argentei spingendogli l'indietro la fece voltare le accarezzò il capo e la curva delle spalle facendo scivolare le nocchi lungo la sua colonna vertebrale parve parve passare un'eternità prima che le sue dita giungessero infine ai seni di Daenerys titillò la pelle soffice sotto di essi finché lei non la sentia avvampare percorse con le dita il contorno dei suoi capezzoli li prese tra il pollice e l'indice poi iniziò a tirarli al principio molto leggermente poi con decisione sempre maggiore finché Daenerys non sentì i capezzoli inturgidirsi quasi al punto di farle male allora Caldrogo si fermò la prese tra le braccia e se la pose in grembo Daenerys era senza fiato percorsa da correnti calde il cuore che le martellava in petto lui le prese il viso tra le mani enormi i suoi occhi esplorarono quelli di lei no questa era una domanda lei lo capì lo sentì gli prese una mano lo guidò verso il proprio ventre si disse in un sussurro poi spinse con decisione il dito di lui nella profondità liquida pulsante del proprio alveo il trono di spade primo libro delle cronache del ghiaccio e del fuoco un gioco di troni se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo mi invito a mettere mi piace commentare condividere il video e seguirmi sui miei canali social tra cui spotify instagram e spreaker se volete contattarmi per un lavoro su commissione trovate i link utili in descrizione un grazie speciale agli abbonati che mi sostengono ogni mese con un piccolo contributo e mi permettono di andare avanti grazie buon ascolto eddard vennero da lui prima dell'alba quando il mondo è ancora immobile plumbeo alin lo scosse rudemente per la spalla trappandolo a sogni inquieti ned stark ancora intontito dal sonno si trascinò nel gelo della notte che cominciava a svanire fino al proprio cavallo già sellato e al suo re già in sella robert indossava spessi guanti marroni e un pesante mantello di pelliccia il capuccio sollevato a proteggere le orecchie sembrava in tutto e per tutto un orso bruno che fosse riuscito a scalare il dorso di un cavallo forza stark esclamò forza forza abbiamo importanti affari di stato da discutere senz'altro maestro ned fece un cenno ad alin che sollevò il lembo d'ingresso della tenda perché non ti accomodi no 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 a ogni parola il fiato del re condensava in nuvolette l'accampamento è pieno di orecchie inoltre voglio farmi una buona cavalcata in questo tuo vasto nord ser boros e ser merin della guardia reale erano a loro volta a cavallo in attesa poco dietro di lui con una dozzina di armigeri pronti alle loro spalle nessun modo di cavarsela ned poteva soltanto stropicciarsi gli occhi vestirsi e montare in sella fu robert a stabilire l'andatura spornando al galoppo l'enorme destriero nero e costringendo ned a tenere il passo accanto a lui gridò una domanda ma le sue parole si dispersero nel vento senza che il re le udisse dopo quel tentativo di comunicazione ned continuò a cavalcare in silenzio ben presto abbandonarono la strada del re e si inoltrarono nella pianura ancora avvolta dalla nebbia notturna la scorta era rimasta indietro decisamente fuori portata d'udito ma neppure allora robert rallentò incontrarono l'alba quando superarono una bassa altura a quel punto a svariate miglia dal grosso della carovana il re decise finalmente di fermarsi era affannato ma anche esilarato quando ned tirò le redini arrestandosi accanto a lui per gli dèi rise fa bene partire al galoppo e cavalcare come si deve questa avanzata a passo di lumaca mi fa diventare matto ned non era mai stato un uomo paziente robert baratheon e quella maledetta casa su ruote poi scricchiola e mugula e si adatta su ogni pietra della strada come se dovesse superare una montagna questa cosa infame si rompe un altro asse le do fuoco e se si può farsela a piedi è una promessa ned rise ti accenderò volentieri la torcia molto bene il re gli assestò una sonora manata sulla spalla continuo ad accarezzare l'idea di lasciare tutti indietro e andare avanti non stento a crederlo un sorriso fiorò sul volto di ned e fai bene allora ned che dici tu e io nessun altro due cavalieri erranti sulla strada del re una spada al fianco e chissà e chissà che cosa davanti a noi magari una contadinella o una baldrecca da taverna per riscaldarci il letto la prossima notte vorrei potessimo farlo ned ispirò a fondo ma abbiamo dei doveri mio signore verso il regno e i nostri figli io verso la lady mia moglie e tu verso la tua regina non siamo più ragazzi ned tu non lo sei mai stato ragazzo commentò robert purtroppo eppure mi ricordo di quella tua ragazza quella quella popolana com'è che si chiamava becca no quella era una delle mie che gli dèi l'abbiano in gloria capelli neri e grandi occhi azzurri nei quali potevi perderti la tua la tua si chiamava alina no non alina e si che me l'avevi detto il suo nome merrill forse no lo sai di chi parlo no ned la madre del la madre del tuo ragazzino bastardo will rispose ned con glaciale cortesia e preferisco non parlare di lei will giusto il re fece una smorfia e continuò imperterrito deve essere stata davvero una monta di quelle rare se perfino l'inflessibile lord stark dimenticò il suo onore anche soltanto per un'ora non mi hai mai detto che tipo era ned ne ho intenzione di farlo ora le labbra di ned erano contratte in una piega airata lascia perdere robert fallo il nome dell'affetto che dici di avere per me agli occhi degli uomini e degli dei ho disonorato me stesso e caitlin dei siate generosi con quest'uomo il re alzò lo sguardo al cielo ma se la conoscevi a stento caitlin l'avevo appena presa in moglie e portava in grembo il mio primo figlio ned sei troppo severo con te stesso lo sei sempre stato dannazione quale donna vorrebbe baylor il benedetto nel proprio talamo robert si diede una pacchia sul ginocchio e va bene visto che la metti giù così dura non insisterò ma ti giuro ned certe volte sei un bigotto tale che per emblema non dovresti avere il metalupo ma l'istrice il sole allungò le dita di luce tra le nebbie lividi dell'alba c'era un'ampia pianura davanti a loro la terra nuda e scura la sua prospettiva interrotta qua e là da tozzi tumuli allungati ned le indicò al suo re le tombe dei primi uomini robert corrugò la fronte vuoi dire che abbiamo cavalcato su un cimitero il nord è pieno di tumuli vostra maestà questa è una terra antica antica e fredda robert si strinse nella cappa e girò lo sguardo dietro di loro la scorta le aveva raggiunti fermandosi ai piedi dell'altura in ogni caso riprese non ti ho fatto venire fin qui per parlare di tombe o per litigare sul tuo figlio bastardo è arrivata una staffetta a cavallo questa notte da parte di lord varis giù ad approdo del re robert si tolse un messaggio dalla cintura e lo tese a ned varis leunuco chiamato il ragno tessitore era il capo delle spie della fortezza rossa un tempo aveva servito eris targaryen ora serviva robert baratheon ned ricordò il doppio fondo della scatola con la lente e il messaggio di lisa contenente quella terribile accusa nello srotolare la pergamena si sentì a salire dall'ansia ma il nuovo messaggio non riguardava lady arryn qual è la fonte di questa informazione chiese ricordi ser jorah mormont vorrei poterlo dimenticare rispose ned asciutto i mormont dell'isola dell'orso erano un'antica casata orgogliosa e onorevole ma le loro terre erano fredde remote e povere ser jorah aveva tentato di rimpinguare le casse di famiglia vendendo alcuni cacciatori di frodo a un trafficante di schiavi della città libera di tirosh ma i mormont erano anche i vassali degli stark e quel crimine aveva recato disonore a tutto il nord ned in persona aveva compiuto il lungo viaggio fino all'isola dell'orso solamente per scoprire che ser jorah era salito di corsa su una nave ed era andato in esilio molto lontano dalla portata di ghiaccio e dalla giustizia del re da allora erano passati cinque anni ser jorah in questo momento si trova a pentos spiegò robert è ansioso di ottenere il perdono della corona e di tornare dall'esilio lord varis ne fa buon uso ah magnifico adesso il mercante di schiavi è diventato una spia ned restituì la lettera disgustato preferirei che diventasse un cadavere secondo varis le spie sono molto più utili dei cadaveri giora a parte cosa pensi di questa notizia daenerys targaryen che si sposa un signore dothraki e allora dovremmo mandarli un dono di nozze perché no un pugnale per esempio ribatte robert è un uomo abile nel maneggerlo ned evitò di fingersi sorpreso l'odio di robert verso i targaryen rasentava l'ossessione non aveva dimenticato le parole rabbiose che si erano scambiati quando time in lannister aveva presentato a robert i cadaveri della moglie e dei figli di regar targaryen come pegno di lealtà al nuovo re eddard stark aveva definito senza giri di parole quel gesto assassino anche la definizione di robert baratio era stata chiara guerra e quando eddard aveva rilevato che il principe e la principessa targaryen erano bambini il suo nuovo re aveva replicato non vedo bambini qui vedo solo la genia del drago neppure john harren padre acquisito di entrambi era stato in grado di placare la tempesta scoppiata tra loro eddard stark pieno di sordo furore se n'era andato quello stesso giorno diretto a sud a combattere da solo le ultime battaglie della guerra c'era valuta un'altra morte per riconciliarli la morte di lianna e il dolore che avevano condiviso per quel lutto maestà questa volta ned era deciso a non perdere il controllo la giovane targaryen è poco più di una bambina e tu non sei tywin lannister che stermina innocenti anche rhenys targaryen era poco più di una bambina quando l'avevano fatta uscire in lacrime da sotto il letto dove si era nascosta per passarla a fil di spada e il piccolo era un infante i soldati di lord lannister l'avevano strappato al seno della madre per poi fracassargli il cranio contro una parete per quanto tempo pensi che questa bambina continuerà a rimanere innocente stark la bocca del re si contrasse quanto tempo pensi che passerà prima che l'innocente apra le gambe e cominci a sputare fuori altra genia di drago per tormentare me sia come sia obiettò ned l'assassinio di bambini rimane un atto innominabile innominabile si infuriò a robert quello che eris il folle ha fatto a tuo fratello brandon è stato innominabile il modo in cui lord tuo padre ha incontrato la morte è stato innominabile e regar quante volte pensi che l'abbia stuprata tua sorella quante centinaia di volte ned la sua voce si era alzata al punto che il suo cavallo nitrì nervosamente il re diede un duro colpo di redini troncando le proteste dell'animale e puntò un indice accusatore verso eddard stark le ucciderò stark tutti scompariranno dalla faccia della terra come i loro draghi e io piscerò sulle loro tombe ned sapeva che era inutile combattere quando l'ira travolgeva robert se gli anni non avevano placato la sua sete di vendetta non c'era una parola in grado di farlo ma non puoi mettere le mani su questa vero? disse perciò con voce pacata molto difficile e maledetti siano gli dei la bocca del re si contorse ancora di più un qualche viscido trafficante di formaggi puzzolenti di pentos ha sistemato lei e suo fratello in una specie di villa dalle mura troppo alte circondati dai troppi castrati con codino unto e adesso li ha scaricati ai dotracchi avrei dovuto farli uccidere anni fa ed era più facile ma John Arryn è stato contrario quanto te è stupido io a dargli retta John Arryn era un saggio uomo d'onore e un valido primo cavaliere certo intanto però si dice che questo caldrogo comandi un'orda di centomila guerrieri delle pianure disse Robert mentre l'accesso di Fudia si disperdeva con la rapidità con la quale era montato cosa direbbe John Arryn di questo eh? direbbe che fino a quando resta nelle pianure nemmeno un'orda di un milione di dotracchi rappresenta una minaccia per i sette regni ribatte Ned con la medesima calma i barbari non hanno navi e odiano e temono il mare aperto forse è davvero così il re si agitò sulla sella chiaramente scomodo a causa della sua mole ma nelle città libere ci sono navi e io ti dico Ned che questo matrimonio non mi va giù nei sette regni sono molti coloro che ancora mi chiamano l'usurpatore hai dimenticato quante nobili casate combatterono al fianco dei Targaryen per ora stanno tutti fermi ma tu dagli anche solo una minima opportunità e verranno a tagliarmi la gola nel letto la mia è quella dei miei figli se il re mendicante dovesse attraversare il mare stretto alla testa di un'orda d'otracchi tutti quei traditori si schiereranno con lui il re mendicante non lo attraverserà se per qualche assurdità del fato dovesse farlo penseremo noi a ributtarlo in acqua e nel momento in cui tu sceglierai un nuovo protettore dell'oriente per l'ultima volta Ned brontolò il re non investirò il ragazzo Arryn di quella carica lo so che è tuo nipote ma con i Targaryen che vanno a letto con i deotracchi sarei completamente pazzo a scaricare il peso di un quarto del mio regno sulle spalle di un ragazzo malaticcio Ned era preparato a quella risposta comunque sia Robert dobbiamo avere un protettore dell'oriente se Robert Arryn non va bene allora nomina uno di tuoi fratelli durante l'assedio di Capotempesta Stannis ha dato chiara prova del suo valore il nome alleggiò tra loro il re corrugò la fronte e non rispose visibilmente a disagio a meno che riprese Ned senza staccargli lo sguardo di dosso tu non abbia promesso l'investitura a qualcun altro Robert si concesse un'espressione sorpresa che divenne irritata molto in fretta e se anche fosse? Jamie Lannister non è così? Robert spronò il cavallo e cominciò a scendere lungo il pendio dell'altura dirigendosi verso gli antichi tumuli Ned gli si portò accanto ma il re tenne gli occhi fissi avanti a sé esatto ammise chiudendo il discorso lo sterminatore di re ora Eddard Stark sapeva di muoversi su un terreno molto infido e pericoloso un uomo abile e coraggioso nessun dubbio riprese con cautela ma la realtà Robert è che suo padre è lord protettore dell'occidente verrà il tempo in cui i gemi gli succederà anche in quella carica nessuno dovrebbe dominare contemporaneamente sull'oriente e l'occidente dei sette regni non espresse però il suo vero timore l'investitura avrebbe consegnato a metà degli eserciti dei sette regni nelle mani dei Lannister affronterò questo scontro quando il nemico mi si presenterà sul campo si ostinò in re al momento lord Tywin appare eterno e inamovibile quanto Castelgranito per cui dubito che gemi arriverà a succedergli in un prossimo futuro non tormentarti per questo Ned quello che ha fatto è fatto ma esta posso parlare con franchezza come se fossi in grado di impedirtelo mugugnò Robert continuando a cavalcare fianco a fianco attraverso l'alta erba scura quanto puoi fidarti di gemi Lannister è il gemello di mia moglie ed è un confratello investito della guardia reale la sua vita la sua fortuna e il suo onore sono tutti legati a me nello stesso modo in cui erano legati ad Aerys Targaryen sottolineò Ned che ragione ho di non fidarmi di lui gemi ha fatto qualsiasi cosa io gli abbia chiesto non solo è la sua spada che mi ha aiutato a ottenere il trono la sua spada ti ha aiutato a lordare il trono parole che Eddard Stark non premise lasciassero le sue labbra gemi aveva giurato solennemente di difendere la vita del re con la propria disse Ned poi con quella stessa spada quello stesso re ha tagliato la gola per i sette inferi Ned il re tirò l'eredine d'improvviso costringendo il suo cavallo a fermarsi accanto a una delle antiche tolle qualcuno doveva pur uccidere Aerys fosse stato Jamie sarebbe toccato a me o a te né tu né io eravamo confratelli investiti della guardia reale Ned sapeva che il momento in cui Robert Baratheon avrebbe ascoltato l'intera verità prima o poi doveva arrivare e decise che quel momento era giunto ricordi la battaglia del tridente è con quella battaglia che ho conquistato la corona come potrei dimenticarla tu ricevesti una ferita durante il tuo duello con Rhaegar continuò Ned così quando l'armata Targaryen cominciò a ritirarsi tu fosti costretto a lasciare me all'inseguimento i resti dell'esercito di Rhaegar fuggirono verso approdo del re e noi andammo loro dietro Eris il folle si era seragliato nella fortezza rossa assieme a svariate migliaia di lealisti ed io ero sicuro di trovarmi di fronte alle porte della città sprangate e a un sanguinoso assedio invece ti trovasti di fronte a un'intera città già conquistata dai nostri uomini Robert scosse la testa con impazienza e con questo? e allora non erano stati i nostri uomini a conquistare a prodo del re rispose Ned in tono controllato erano stati gli uomini dei Lannister non era il cervo incoronato dei barati uno sventolare sui merli era il leone dei Lannister e la città l'avevano presa con il tradimento la guerra era divampata per oltre un anno signori grandi e piccoli erano corsi a combattere sotto i vessilli dei Baratheon altri erano rimasti con i Targaryen i potentissimi Lannister di Castelgranito protettori dell'occidente dei sette regni sordi a tutte le invocazioni sia dei ribelli sia dei lealisti avevano scelto di tenersi fuori dalla mischia Eris Targaryen dovette pensare che tutti i sette dei avevano accolto le sue preghiere nel vedere Lord Tywin Lannister comparire sotto le mura di approdo del re con un'armata di 12.000 soldati tutti quanti spergiuranti lealtà alla dinastia del drago così il re folle aveva dato il suo ultimo folle ordine spalancare le porte ai leoni il tradimento era merce che i Targaryen conoscevano fin troppo bene l'ira aveva ripreso a crescere in Robert Lannister li ha ripagati con la loro moneta non è stato niente di più né niente di meno di quanto meritavano non ho la minima intenzione di perderci il sonno Ned tu non eri là Robert la voce di Eddard Stark era venata di amarezza per 14 anni era stato costretto a coesistere con le sue stesse menzogne e ancora adesso tornavano nei suoi incubi non c'è stato alcun onore in quella conquista che gli estranei se lo portino alla dannazione il tuo stramaledetto onore Ned imprecò il re quando mai un Targaryen ha saputo cos'è l'onore scendi nella tua cripta chiedi a tua sorella Lianna dell'onore del drago Lianna è stata vendicata Robert Ned si arrestò accanto al suo re tu l'hai vendicata al tridente promettimi Ned gli aveva sussurrato Lianna prima di andare per sempre non è servito a riportarla indietro lo sguardo di Robert vagò sull'immensità grigiastra della pianura maledetti siano gli dèi che vittoria amara hanno voluto concedermi perché io avevo pregato che fosse la ragazza la mia vittoria tua sorella al sicuro e è di nuovo mia come era destinata a essere e ora io chiedo a te Ned ma che cosa serve sedere su un trono quando gli dèi si fanno beffe tanto delle preghiere dei re quanto di quelle dei pastori non ho risposte per gli dèi maestà ma soltanto per ciò che trovai quel giorno nella sala del trono di spade Eris morto annegato nel suo stesso sangue i teschi di drago che continuavano a osservare dalle pareti i uomini dei Lannister dappertutto sopra l'armatura dorata Jaime Lannister portava il mantello bianco della guardia reale ce l'ho ancora davanti agli occhi Robert non si era nemmeno preso il disturbo di rinfoderare la spada ed era seduto sul trono di spade ben più in alto di tutti i suoi cavalieri con in testa un elmo a forma di muso di leone e come gongolava Robert come godeva per dove era arrivato niente che non sappia già borbottò Robert forse c'è qualcosa che ancora non sai io ero in sella al mio cavallo e rimasi in sella nel percorrere l'intera sala in silenzio a due file di teschi di drago in qualche modo era come se quei teschi mi stessero fissando mi fermai di fronte al trono e lo guardai aveva la spada di traverso sulle ginocchia ancora sporca del sangue del suo re i miei uomini invasero la sala dietro di me e i lannister si ritirarono non dissi una parola aspettai e basta rimasi a guardarlo mentre lui continuava a stare seduto sul trono di spade e aspettai alla fine Jaime rise si alzò e si tolse l'elmo nessun timore Stark mi disse stavo solo tenendolo in caldo per il tuo caro amico Robert ma temo che non lo troverà un sedile particolarmente comodo il re gettò indietro il capo e scoppiò in una roboante risata spaventato dall'improvviso rumore un nugulo di corvi si alzò in volo dall'erba alta scura le ali che sbattevano caoticamente contro i resti della nebbia e tu pensi che non dovrei fidarmi di Jaime Lannister perché si è stravaccato sul mio trono per qualche minuto continuò a ridere ma andiamo Ned quel giorno Jaime Lannister aveva solo 17 anni poco più che un ragazzo ragazzo o uomo non aveva alcun diritto di sedersi sul trono di spade forse era stanco commentò Robert tagliare la gola a un re è un duro lavoro e in quella maledetta sala non esiste altro posto per riposarsi se non quello ancora più maledetto trono inoltre Jaime disse il vero il trono di spade è un sedile mostruosamente scomodo in tutti i sensi e va bene ora che sono al corrente dello scuro peccato commesso da Jaime Lannister possiamo perdonare e dimenticare ho la nausea di segreti cospirazioni e affari di stato Ned è una noia anche peggiore del contar monete forza facciamoci una bella cavalcata tu ricordi ancora come si fa a cavalcare non è vero Ned voglio tornare a sentire il vento tra i capelli diede nuovamente disperoni spingendo il cavallo al galoppo al suo fianco dell'antica sepoltura gli zoccoli che sollevavano fontane di terriccio frantumato per un lungo momento Ned non lo seguì la sua vena di parole si era disseccata e cominciava a dubitare che ci fosse qualche altra cosa al di là delle parole che sarebbe servita e così se lo domandò di nuovo perché si trovava lì perché aveva accettato di trovarsi lì lui non era John Arryn in grado di arginare con la sua saggezza l'indole selvaggia del re Robert avrebbe fatto ciò che voleva come sempre nulla di quanto Ned avrebbe potuto dire o fare sarebbe riuscito a cambiare quella realtà lui apparteneva a grande inverno a Caitlyn nel suo dolore al piccolo Bran tuttavia non sempre un uomo può trovarsi nel luogo in cui appartiene un fare rassegnato Eddard the Stark spronò il cavallo e seguì il suo re Tyrion il nord si dilatava senza fine Tyrion Lannister aveva visto le mappe ma i giorni di marcia lungo le piste selvagge che dalla strada del re gli avevano condotti in quella desolazione raggelante gli avevano insegnato una dura lezione le mappe sono una cosa la terra è una cosa brutalmente diversa avevano lasciato grande inverno lo stesso giorno del re fendendo il caos del convoglio reale in partenza avevano varcato i portali della prima fortezza in mezzo a esili vortici di neve mentre attorno a loro eccheggiavano le grida dei cavalieri e lo sbuffare dei cavalli lo scricchiolare dei carri e il cigolare lamentoso delle ruote della mastodontica casa su ruote della regina la strada del re si dipanava poco fuori i limiti del castello e della città gli alfieri i carri i cavalieri e gli armigeri si erano diretti a sud portandosi via il clamore Tyrion era andato a nord assieme a Benjen Stark e a suo nipote oltre quel punto il freddo era aumentato e il silenzio si era fatto profondo a ovest della strada si innalzavano colline di silice grigie e aspre con alte torri di guardia sulle cime rocciose a est il territorio si allargava in una pianura estesa fino agli estremi limiti dell'orizzonte ponti di pietra scavalcavano fiumi stretti dalla corrente impetuosa anelli di piccole fattorie circondavano fortini protetti da mura di pietra e di legno massiccio la via rimaneva ben trafficata durante la notte Tyrion Benjen e gli altri sostavano in austere taverne ma a tre giorni di marcia da grande inverno fitti boschi presero il posto delle coltivazioni e la strada del re si fece solitaria miglio dopo miglio le colline di silice si facevano più alte e desolate il quinto giorno erano diventate montagne freddi giganti di roccia di un colore grigio metallico con la neve che assediava i frastagliati acro cori di granito sulle cime e quando soffiava il vento del nord lunghi pennacchi di cristalli di ghiaccio si gonfiavano come vessilli da quelle sommità avendo la muraglia delle montagne a occidente la strada del re era costretta a continuare verso nord deviando a nord-est il suo tracciato si snodava nel cuore di una foresta di querce abeti e rovi il più vecchio e tenebroso labirinto di alberi che Tyrion avesse mai avuto occasione di vedere foresta del lupo l'aveva chiamata Benjen Stark e i lupi erano là fuori la notte vibrava dei loro ululati alcuni branchi lontani altri molto vicini le orecchie di spettro il metalupo albino di Jon Snow si rizzavano alle voci ancestrali della notte ma neppure una volta il suo ululato si levò in risposta c'era qualcosa di inquietante in quell'animale pensava Tyrion erano in otto senza contare il lupo Tyrion come si confaceva a un Lannister viaggiava con due uomini di scorta Benjen Stark aveva con sé solamente il nipote bastardo più alcuni nuovi adepti per i guardiani della notte quando si fermarono ai margini della foresta del lupo per passare la notte nella protezione delle mura di un fortino tra gli alberi venne a unirsi a loro Yoren un altro membro della confraternita in nero era un uomo curvo sinistro i lineamenti celati dietro una barba nera come i suoi abiti dava l'impressione di essere resistente come una vecchia radice e duro come il basalto con lui c'erano un paio di giovani straccioni provenienti dalle dita i promontori rocciosi che si protendevano nell'oceano orientale stupratori si era limitato a definirli Yoren gettando loro uno sguardo freddo Tyrion si era reso conto dei sottintesi la vita sulla barriera era molto dura ma certamente preferibile alla castrazione cinque uomini tre ragazzi un metalupo venti cavalli una gabbia di corvi data a Benjen Stark da maestro Lewin decisamente una bizzarra compagnia per un viaggio sulla strada del re o su qualsiasi altra strada Tyrion si accorse che Jon Snow continuava a osservare Yoren e i suoi cupi compagni con un'espressione che assomigliava in modo preoccupante all'angoscia Yoren aveva una spalla storta e si portava addosso un tanfo malsano i suoi capelli e la sua barba erano appiccicosi di sporco rancido pieni di pidocchi indossava abiti vecchi ma ridotti puzzolenti le sue due reclute entrambe dall'aria idiota e crudele puzzavano in modo anche peggiore forse il giovane Snow cominciava a capire di aver commesso un madornale errore credendo che la confraternita dei guardiani della notte fosse composta da uomini come suo zio se così era stato la vista di Yoren e dei suoi due brutti ceffi era un duro richiamo alla realtà Tyrion si dispiacque per lui aveva scelto una vita aspra o forse sarebbe stato più opportuno dire che una vita aspra era stata scelta per lui per contro Tyrion aveva molta meno simpatia per lo zio in nero Vengeance Stark sembrava condividere la versione di suo fratello Eddard per i Lannister era stato tutt'altro che compiaciuto quando Tyrion gli aveva confermato la sua decisione di andare con lui a nord a visitare la barriera un avvertimento Lannister aveva detto guardandolo dall'alto in basso letteralmente non troverai traverne alla barriera ma non dubito che riuscirete comunque a trovare un posto in cui mettermi aveva ribattuto Tyrion come vedi non occupo molto spazio nessuno avrebbe detto di no al fratello della regina questo era chiaro per cui Tyrion avrebbe compiuto il viaggio non credo che apprezzerai la cavalcata aveva concluso Stark seccamente puoi considerarla una promessa e aveva fatto di tutto per mantenerla al termine della prima settimana Tyrion aveva le cosce piegate dalle lunghe ore di sella un inferno di crampi nelle gambette deformi e tutto il suo essere era gelato fino al midollo ma non si lasciò sfuggire un solo lamento sarebbe andato all'inferno piuttosto che dare a Benjen Stark una simile soddisfazione era riuscito comunque a prendersi una piccola rivalsa con un gesto della galanteria propria dei guardiani della notte Benjen gli aveva offerto una pelliccia per il viaggio certo che Tyrion con altrettanta galanteria l'avrebbe rifiutata invece con un grazioso sorriso il folletto aveva accettato la vecchia pelle d'orso spellacchiata e maleodorante e aveva fatto bene partendo da grande inverno aveva portato con sé gli indumenti più caldi che aveva ma non ci aveva messo molto a rendersi conto che nessuno di quegli abiti era in grado di fornire adeguata protezione faceva freddo là fuori e non avrebbe fatto che aumentare le notti erano ormai sotto il limite di congelamento e quando il vento soffiava era come una lama che scendesse a squarciare i più spessi strati di lana forse Benjen Stark si stava pentendo amaramente del suo impulso cavalieresco gli sarebbe servito di lezione un Lannister non rifiuta mai niente con o senza buona grazia un Lannister prende quanto gli viene offerto sempre più a nord sempre più in profondità nella foresta del lupo fortini e taverne divennero sempre più rari e alla fine qualsiasi tipo di struttura scomparve del tutto e i cavalieri dovettero fare conto sulle loro sole forze Tyrion non era mai stato un asso nel preparare o smantellare accampamenti troppo basso troppo goffo troppo impacciato così mentre Benjen Yoren e gli altri erigevano rifugi spartani si occupavano dei cavalli e accendevano il fuoco il folletto prese l'abitudine di avvolgersi nella sua pelliccia muirsi di un otre di vino e mettersi in un angolo a leggere diciottesima notte di viaggio il suo vino era un raro liquore ambrato delle isole dell'estate che aveva portato con sé da Castelgranito e il libro era un ponderoso tomo sulla storia e le caratteristiche dei draghi proprio in vista dell'escursione verso nord e con il permesso di Lord Eddard Stark il folletto aveva preso a prestito alcuni rari testi della biblioteca di grande inverno trovò un angolo confortevole appena al di là della portata dei rumori del campo sulla riva di un torrente dal corso rapido e dalle gelide acque cristalline una quercia ancestrale il tronco contorto in modo grottesco gli fornì un provvidenziale riparo contro il vento si avvolse nella pelliccia appoggiò la schiena contro il tronco beve una sorsata di vino e cominciò a leggere le proprietà delle ossa di drago l'osso di drago è di colore nero a causa del suo elevato contenuto di ferro spiegava al libro è anche resistente come l'acciaio ma al tempo stesso leggero e flessibile e naturalmente del tutto inattaccabile dal fuoco gli archi di osso di drago sono grandemente apprezzati dai guerrieri dothrachi e sono anche delle piccole meraviglie un arciere con un arco di osso di drago può colpire più sicuramente e più lontano che con qualsiasi arco di legno per Tyrion i draghi avevano un fascino sinistro quando era giunto ad approdo del re per la prima volta in occasione del matrimonio di sua sorella con Robert Baratheon aveva assolutamente voluto vedere i teschi di drago che ornavano le pareti della sala del trono dei Targaryen re Robert li aveva fatti rimuovere mettendo al loro posto bandiere e tappezzerie ma Tyrion aveva insistito finché non era riuscito a scovarli ammucchiati in uno scantinato umido si era aspettato di esserne impressionato forse anche spaventato non avrebbe mai pensato di trovarli bellissimi e invece lo erano le loro ossa nere come l'onice incredibilmente lisce parevano scintillare alla luce della torcia volevano il fuoco amavano il fuoco lui questo l'aveva percepito aveva spinto la torcia nelle mandibole di uno di quei teschi più grossi osservando le ombre balenare contro le pareti del sotterraneo le loro zanne erano lunghe lame ricurve di diamante nero il calore della torcia era nulla per quelle zanne erano state immerse in fuochi ben più imponenti quando si era allontanato Tyrion era stato certo che le buie occhiaie vuote l'avevano osservato c'erano 19 teschi i più vecchi avevano oltre 3.000 anni i più recenti solo un secolo e mezzo questi erano anche i più piccoli due crani identici stranamente deformati i quali messi assieme non raggiungevano neppure la dimensione di quelli dei loro antenati erano tutto quello che rimaneva delle creature emerse dalle ultime due uova dischiusesi sulla roccia del drago gli ultimi draghi dei Targaryen forse gli ultimi in assoluto non erano vissuti a lungo risalendo nel tempo i teschi diventavano via via più grossi fino ad arrivare ai tre grandi mostri dei quali parlavano le ballate e le leggende ai draghi che Aegon Targaryen e le sue sorelle avevano scatenato sui sette regni dei primordi i trovatori avevano dato loro i nomi di dei Balerion Meraxes e Vhagar senza parole senza fiato Tyrion era rimasto immobile tra le loro fauci spalancate un uomo a cavallo sarebbe potuto entrare nella gola di Vhagar ma non ne sarebbe più uscito Meraxes era ancora più grosso e Balerion il terrore nero il più immane di tutti i draghi avrebbe potuto inghiottire un intero bisonte o addirittura uno dei pelosi mammut che si diceva avessero dominato nelle fredde pianure oltre il porto di Iben Tyrion era rimasto per molto tempo nel sotterraneo umido lo sguardo fisso nelle tenebre che dominavano all'interno del gigantesco teschio di Balerion aveva cercato di immaginare le dimensioni dell'intero mostro quando era in vita il suo aspetto nel momento in cui dispiegava le membranose ali nere per lanciarsi nei cieli vomitando fuoco e fiamme era rimasto finché la sua torcia non si era consumata uno dei suoi remoti antenati re Loren di Castel Granito aveva tentato di opporsi al fuoco e alla conquista dei Targaryen alleandosi con re Mern dell'Alto Piano era accaduto tre secoli prima quando i sette regni erano ancora separati e non provincia di un unico più vasto reame le forze congiunte dei due re erano composte da 600 vessilli 5.000 cavalieri in armatura e 10 volte tanti tra cavalieri e fanti l'esercito di Aegon il signore del drago raggiungeva a stento un quinto di quel numero dissero gli estensori delle cronache e la maggior parte erano conscritti di incerta lealtà che Aegon aveva incorporato dai ranghi del re precedente sgozzato da lui in persona le due annate si erano affrontate nella vastità dell'Alto Piano in mezzo a campi di grano dorato pronto per il raccolto sotto la carica combinata dei due re l'esercito dei Targaryen si era frantumato ed era fuggito in disordine la guerra di conquista della casa Targaryen parve giunta alla fine scrissero i cronisti ma si trattò soltanto di pochi momenti poi Aegon e le sue sorelle scesero in campo la battaglia dell'Alto Piano fu l'unica nella quale Meraxes Vagare e Valerion vennero scatenati tutti assieme in seguito i Cantastoria chiamarono quella battaglia campo di fuoco quasi quattromila uomini bruciarono vivi tra loro anche il re Mern dell'Alto Piano re Lorraine di Lannister riuscì a scappare e a vivere abbastanza a lungo dal rendersi giurare fedeltà alla casa Targaryen e infine generare un figlio cosa della quale Tyrion Lannister gli era immensamente grato perché legge così tanto Tyrion alzò lo sguardo Jon Snow era in piedi a qualche passo dalla vecchia quercia contorta e lo osservava pieno di curiosità guardami ragazzo Tyrion richiuse il volume infilando l'indice tra le pagine per tenere il segno guardami e dimmi cosa vedi cosa sarebbe una specie di trucco lo sguardo di Jon era sospettoso vedo te Tyrion Lannister sei sorprendentemente ben educato per un bastardo Snow sospirò il folletto quello che vedi è un nano quanti anni hai dodici quattordici quattordici anni e sei già più alto di quanto io potrò mai sperare di essere le mie gambe sono corte e storte cammino con difficoltà per evitare di cadere da cavallo sono costretto a usare una sella speciale che io stesso ho ideato forse ti interesserà sapere l'alternativa era di andare in giro in groppa a un pony le mie braccia sono abbastanza forti ma di nuovo troppo corte perciò non potrò mai essere uno spadaccino se fossi nato tra i bifolchi mi avrebbero lasciato morire oppure venduto a un baraccone di fenomeni viventi eh purtroppo sono un Lannister di Castelgranito e dove sono nato i fenomeni viventi sono di altro genere da me ci si aspettano grandi imprese mio padre Tywin è stato per vent'anni il primo cavaliere del re più tardi mio fratello Gemì ha ucciso quel medesimo re le grandi imprese delle case nobili si sa sono sempre piene di piccole errorie mia sorella Cersei ha sposato il nuovo re e quel mio repellente nipotino Geoffrey sarà re dopo di lui devo fare anch'io la mia parte a maggior gloria della mia casata non sei d'accordo John Snow? giusto molto giusto ma fare la mia parte in che modo? mettiamola così ho le gambe troppo corte rispetto al corpo e la testa certamente troppo grossa io però preferisco pensare che è appena sufficiente per il mio cervello ho una visione quanto mai realistica sia delle mie debolezze sia dei miei punti di forza come arma mio fratello ha la spada e re Robert ha la mazza da combattimento io ho la mente e per continuare a essere un'arma valida la mente ha bisogno di libri quanto una spada ha bisogno della pietra per affilarla il corto pollice di Tyrion picchiò ritmicamente sulla rilegatura di cuoio per questo Jon Snow io leggo così tanto il ragazzo assorbì con attenzione le sue parole rimanendo in silenzio non ne portava il nome ma il suo volto era quello degli Stark lungo solenne guardingo un volto che non lasciava trasparire nulla chiunque fosse stata la madre assai poco di lei era passato al figlio che cosa leggi chiese Jon draghi a che scopo non esistono più i draghi disse Jon con la sicurezza propria dell'adolescenza questo è quanto si dice ribatte Tyrion triste non trovi quando avevo la tua età sognavo di avere un drago tutto per me sul serio il tono di Jon era sospettoso forse temeva che Tyrion stesse prendendosi gioco di lui molto sul serio ingroppa un drago perfino un ragazzino tutto storto e molto brutto può guardare il mondo dall'alto in basso Tyrion spinse da parte la pelle d'orso e si alzò accendevo dei fuochi nei sotterranei di Castel Granito e rimanevo a guardare le fiamme per ore facendo finta che fossero l'alito di un drago certe volte immaginavo che potessero incenerire mio padre altre volte mia sorella Jon Snow continuava a fissarlo e negli occhi aveva un misto di repulsione ed incantamento non guardarmi a quel modo bastardo sogginò il folletto io conosco il tuo segreto non dirmi che non hai mai avuto visioni simili no Jon era inorridito io non no mai Tyrion inarcò un sopracciglio ma certo che no non c'è dubbio alcuno che gli Stark con te siano sempre stati incredibilmente buoni e non c'è dubbio alcuno che Lady Stark ti tratti proprio come uno dei suoi altri pargoletti e anche tuo fratello Rob sempre così gentile giusto e perché non dovrebbe a lui grande inverno e a te la barriera non dimentichiamo tuo padre deve certamente avere le sue ragioni per imballarti ben bene e spedirti ai guardiani della notte basta i lineamenti di Jon erano alterati dall'ira quello dei guardiani della notte è un nobile dovere sei un tipo troppo sveglio per credere a una frottola del genere rise Tyrion i guardiani della notte sono il ricettacolo per la peggior feccia del regno credi che non abbia visto le occhiate che lancia Yoren e ai suoi due baldi nuovi acquisti eccoli lì tuoi confratelli Jon Snow che te ne pare eh cafoni debitori bracconieri stupratori ladri e e bastardi come te tutti finiscono sulla barriera a fare la guardia agli elfi maligni e ai mostri talpa dei quali ti ha riempito il cranio o la tua balia solo che non esistono né elfi maligni né mostri talpa ma peccato è vero la notizia buona è che i pericoli sulla barriera sono rari quella cattiva è che ti si ghiacciano le palle alla grande ma visto che nella confraternita non è concesso figliare non è che avere o non avere le palle efficienti faccia poi tanta differenza o sbaglio ho detto basta il ragazzo mani strette a pugno gola chiusa dalle lacrime sembrava sul punto di saltargli addosso ed un tratto assurdamente Tyrion si sentì in colpa fece un passo verso John intenzionato a dargli una pacca rassicurante sulla spalla e a dire qualche parola di scusa nemmeno si rese conto di ciò che gli arrivò addosso un momento stava muovendosi verso John Snow il momento dopo si ritrovò con la schiena contro le radici sporgenti della quercia il libro sui draghi che volava chissà dove senza fiato a causa del duro improvviso impatto la bocca piena di terriccio gelido e foglie marce ed al sapore acre del sangue il metalupo albino incondeva su di lui gli occhi rossi fiammeggianti il fiato rovente di cose ancestrali selvagge letali non l'aveva visto muoversi non sapeva da dove fosse spuntato cercò di raddrizzarsi mentre fitte di dolore gli percorrevano la schiena doveva averla picchiata malamente nella caduta digrignò i denti pieno di frustrazione afferrò una radice e si mise seduto tese una mano verso Jon aiutami e di nuovo il pallido lupo fu in mezzo al loro non ringhiò quel maledetto animale non emetteva mai il benché minimo suono i suoi occhi simili a braci ardenti tornarono a scintillare nell'oscurità e con essi le arcuate zanne messe a nudo più che sufficiente per Tyrion della nobile casa Lannister come non detto non aiutarmi abbandonò la schiena dolorante contro le radici vorrà dire che me ne starò qui finché finché non te ne andrai adesso Jon Snow stava sorridendo accarezzò il pelo candido del metalupo chiedimelo con gentilezza Tyrion della nobile casa Lannister sentì la rabbia aggrovigliarsi dentro di lui ma la controllò con la forza della volontà non era la prima volta che subiva un'umiliazione e non sarebbe stata l'ultima forse in questo caso però se l'era meritata ti sarò molto grato per la tua assistenza Jon disse in tono conciliante spettro riposo ordinò il ragazzo il metalupo sedette sulle zampe posteriori ma gli occhi rossi non lasciarono mai Tyrion Jon aggirò i grovigli di radici prese il folletto sotto le ascelle e lo mise in piedi facilmente poi raccolse il libro dal punto in cui era caduto e glielo diede con il dorso della mano Tyrion si ripulì le labbra dal terriccio ghiacciato e dal sangue scoccando al lupo un'occhiata timorosa perché mi ha attaccato forse ti ha preso per uno di quegli elfi maligni Tyrion scrutò il ragazzo poi scoppiò a ridere una risata nasale che gli venne fuori come per volontà propria per gli dei quasi si strocciò per la sua stessa risata scuotendo il capo vero potrei essere scambiato per uno di quegli elfi maligni e ai mostri talpa il tuo lupo cosa farebbe Jon raccolse l'otre divino e gli ridiede anche quello quanto ci tieni a saperlo per tutta risposta Tyrion tolse il tappo inclinò la testa e si lanciò un lungo sorso in bocca fu un fresco fuoco che gli colò lungo la gola e gli riscaldò il ventre tese la sacca a Jon Snow ne vuoi un po' il ragazzo accettò e beve un breve sorso però è tutto vero non è così Jon restituì la sacca quanto hai detto riguardo alla confraternita dei guardiani della notte intendo Tyrion annui se così è le labbra di Jon assunsero una piega amara significa che così deve essere molto bene bastardo Tyrion gli sorrise scoprendo i denti piuttosto che accettare una dura verità la maggior parte degli uomini la negherebbe la maggior parte degli uomini sottolineò il ragazzo ma non tu no amise Tyrion non io ormai sogno i draghi molto di rado come dice qualcuno non esistono più i draghi raccattò la pelle d'orso coraggio ragazzo sarà meglio che rientriamo prima che tuo zio chiami a raccolta i vessilli di guerra non era una lunga distanza quella che dovevano coprire ma il terreno era accidentato e quando furono a destinazione le arcuate gambe di Tyrion erano tormentate da crampi Jon Snow gli offrì una mano per superare un altro spesso groviglio di radici ma Tyrion rifiutò ce l'avrebbe fatta da solo come sempre tuttavia si sentì sollevato alla vista dell'accampamento i rifugi erano stati eretti contro la muraglia crollata di un fortino abbandonato da molto tempo in modo da essere al riparo dal vento i cavalieri erano stati nutriti e un fuoco ardeva nel buio seduto su una roccia Yoren era intento a scuoiare uno scoiattolo l'odore seducente della carne stufata riempì le narici di Tyrion caracollò fino a Morrek uno dei due uomini della sua scorta che si stava occupando della pentola senza dire una parola l'uomo gli offrì il mestolo Tyrion assaggiò e gli restituì l'attreccio altro pepe disse eccovi finalmente Benjen Stark emerse dal rifugio che condivideva con il nipote dannazione Jon non te ne devi andare in giro da solo ho temuto che ti avessero preso gli estranei e invece sono stati gli elfi maligni rise Tyrion Jon Snow sorrise e Benjen scambiò un'occhiata perplessa con Joren l'anziano guardiano della notte si strinse nelle spalle e tornò a dedicarsi al suo sanguinoso compito lo scoiattolo fornì altra carne per lo stufato lo mangiarono più tardi attorno al fuoco con pane nero e formaggio stagionato Tyrion condivise il vino della sua sacca con tutti e perfino Joren divenne meno acido uno a uno gli uomini si ritirarono nei loro rifugi tranne Jon Snow al quale era toccato il primo turno di guardia Tyrion fu l'ultimo a ritirarsi come sempre quando raggiunse il rifugio che i suoi uomini gli avevano costruito si girò per guardare Jon Snow il ragazzo era immobile in piedi accanto al fuoco e scrutava le fiamme con i lineamenti tesi Tyrion Lannister ebbe un sorriso triste e andò a dormire Caitlin credo che tu voglia sapere quanto ci è costata la visita reale mia signora disse maestro Lewin è da tempo che dovremo esaminare queste cifre erano trascorsi otto giorni dalla partenza di Ned e delle ragazze per il sud quella sera maestro Lewin era salito nella stanza di Bran portando con sé una lampada da lettura e i libri contabili di grande inverno Caitlin guardò il figlio e gli liberò la fronte dai capelli erano cresciuti molto ben presto avrebbe dovuto tagliarli non ho alcun bisogno di esaminare le cifre maestro Lewin i suoi occhi non si staccarono dalla forma contorta che giaceva nel letto so quanto ci è costata puoi pure portarli via quei libri mia signora la corte era dotata di notevole appetito dobbiamo rifornire i magazzini prima che ho detto di portare via i libri lo interruppe lei penserà l'attendente a soddisfare le nostre necessità non abbiamo più un attendente le ricordò maestro Lewin un piccolo fastidioso topo grigio pensò Caitlin e quando morde non lascia la presa vai un pool è andato al sud continuò Lewin per allestire i quartieri di lord stark ad approdo del re certo certo Caitlin annui in modo assente ora ricordo e vai un pool è andato al sud come era pallido Bran forse avrebbe dovuto fare spostare il letto più vicino alla finestra in modo che ricevesse il sole del mattino ci sono parecchi impegni che richiedono la tua immediata attenzione mia signora maestro Lewin collocò la lampada in una nicchia accanto alla porta e giocherilò con lo stoppino oltre a un attendente serve un nuovo comandante della guardia al porto di Jory Cassel più un nuovo maestro dei cavalli gli occhi di Caitlin si girarono di scatto per piantarsi in quelli di lui e la sua voce fu come lo schioccare di una frusta un nuovo maestro dei cavalli sì mia signora il maestro era scosso anche Allen è andato a sud assieme a lord Eddard per cui mio figlio giace in questo letto con la schiena spezzata Lewin mio figlio è in fin di vita e tu e tu vieni qui a discutere di un nuovo maestro dei cavalli pensi davvero che mi importi qualcosa di ciò che accade nelle stalle pensi davvero che questo abbia per me il benché minimo peso andrei a tagliare la gola a ogni cavallo di grande inverno con le mie mani se sapessi che aiuterebbe Bran a riaprire gli occhi capisci ciò che dico Lewin lo capisci sì mia signora maestro Lewin chienò rispettosamente il capo però questi impegni mi occuperò io di nominare queste persone maestro Lewin Robb Stark era in piedi sulla soglia e la guardava Caitlyn non l'aveva neppure udito arrivare perché stava urlando quando se ne rese conto una vampata di vergogna percorse ogni sua fibra cosa le stava accadendo era talmente stanca che la testa le doleva senza sosta da lei lo sguardo di maestro Lewin si spostò sul figlio mi sono permesso di preparare un elenco di coloro che potrebbero essere presi in considerazione per queste cariche gli disse fece apparire un documento da una delle sue ampie maniche e lo tese a Rob rapidamente lui studiò i nomi Caitlyn vide che aveva le guance rosse per il freddo capelli ispidi scompigliati dal vento ti ringrazio maestro Lewin sono tutti ottimi uomini Robb restituì la lista prenderemo una decisione domani molto bene mio signore il documento tornò a svanire nella manica ora lasciaci concluse Robb maestro Lewin si inchinò brevemente e se ne andò Robb chiuse la porta alle sue spalle e si girò verso Caitlyn madre che stai facendo? Caitlyn era sempre stata certa che Robb avesse l'aspetto dei tagli di Delta delle Acque capelli corvini colorito acceso occhi azzurri l'aspetto che lei stessa e Sansa e Bran e Recon avevano ma adesso per la prima volta vide in lui nel suo volto qualcosa di Eddard Stark qualcosa di duro e aspro quanto il Nord cosa sto facendo? gli chiese stupefatta come puoi chiedermelo Robb? non lo vedi da te cosa sto facendo? mi prendo cura di tuo fratello mi prendo cura mi prendo cura di Bran è così che chiami tutto questo non sei uscita da qui da quando Bran è caduto non sei nemmeno venuta al portale del castello quando papà e le ragazze sono andate al sud ho detto loro addio stando qui e li ho guardati andare dalla finestra aveva implorato Ned di non lasciarla non adesso dopo quanto era successo tutto era cambiato come poteva Ned non rendersene conto non era servito a nulla non ho scelta gli aveva risposto suo marito e poi se n'era andato era stata quella la sua scelta non posso lasciare Bran riprese Caitlyn nemmeno per un momento non quando ogni momento potrebbe essere l'ultimo io devo essere qui con lui se se prese la mano del figlio tra le sue il suo piccolo Bran così fragile così sciupato quella mano così priva di forza eppure sotto la pelle lei sentiva ancora il calore della vita Bran non morirà madre la voce di Rob si addolcì maestro Luin è sicuro che il momento di maggiore pericolo è ormai passato se maestro Luin si sbagliasse se Bran avesse bisogno di me e io non fossi qui Rikon ha bisogno di te madre rispose Rob con determinazione ha soltanto tre anni non capisce cosa gli sta accadendo pensa che tutti lo abbiano abbandonato così viene dietro di me tutto il giorno si aggrappa la mia gamba e piange ma io non so come comportarmi con lui si interruppe mordendosi il labbro inferiore come faceva quando era lui ad avere l'età di Rikon madre anch'io ho bisogno di te tento ma non posso ma non posso fare tutto da solo la sua voce si spezzò e Caitlyn ricordò che aveva solo quattordici anni voleva alzarsi andare da lui ma Bran teneva ancora la sua mano così non si mosse da qualche parte un lupo ululò Caitlyn ebbe un tremito durò solo un attimo è il lupo di Bran Rob aprì la finestra e la fredda aria notturna entrò a sopraffare l'atmosfera stantia della stanza l'ululato crebbe d'intensità un richiamo freddo solitario nutrito da una disperazione ancestrale chiudi Rob Bran deve stare al caldo Bran deve udire il loro canto chissà dove nel labirinto della prima fortezza un secondo lupo si mise a ululare poi un terzo più vicino questo è Cagnaccio e questo è Vento Grigio ascolta con attenzione Rob seguì gli ululati che crescevano e tornavano a sceamare il coro dei lupi nelle tenebre se ascolti riesci a distinguere le loro voci Catelyn ora stava tremando per la sofferenza il freddo l'ululato dei metalupi notte dopo notte quegli ululati quel vento gelito quell'immane castello diventato troppo vuoto tutto questo non avrebbe avuto mai fine il suo piccolo faceva come un oggetto frantumato più caro il più delicato dei bambini Bran che amava ridere e scalare fino al cielo che sognava il mantello bianco della guardia reale tutto finito tutto perduto non avrebbe mai più udito il suo piccolo ridere strappò la propria mano alla stretta di lui e si inghiozzando si coprì le orecchie non voleva più udire quegli ululati incessanti spaventose falli smettere gridò non li sopporto più falli smettere falli smettere se non c'è altro modo uccidili basta che tacciano non ricordò di essere caduta sulle pietre del pavimento ma fu là che si rese conto di giacere non avere paura madre le forti braccia di Rob la sollevarono la guidarono verso il tettino nell'angolo della stanza non gli farebbero mai del male chiudi gli occhi cerca cerca di riposare le disse con dolcezza maestro Louis mi ha detto che dalla caduta di Bran praticamente non hai dormito non posso dormire Katrin piangeva disperata lei mi perdoni la roba posso farlo capisci che cosa accadrebbe se lui morisse mentre io dormo se lui morisse se lui i metalupi continuavano ad ululare Katrin gridò e si coprì nuovamente le orecchie in nome degli dèi Rob chiudi quella finestra solo se mi prometti che cercherai di dormire Rob andò alla finestra e allungò una mano verso le imposte improvvisamente si fermò i cani disse ascoltando attento un suono diverso era andato a sovrapporsi al cupo ululare dei lupi cani di grande inverno Rob tese le orecchie stanno abbaiando tutti assieme non l'hanno mai fatto Katrin percepì le parole che si strozzavano nella gola del figlio al solo sguardo il debole chiarore della lampada il volto del ragazzo era terreo vuoco disse in un sussulto c'è un incendio un incendio pensò lei e subito dopo Bran Rob aiutami esclamò Katrin alzandosi di colpo a sedere aiutami a portare via Bran la biblioteca nella torre Rob parve non averla udita sta bruciando e ora fuori della finestra aperta anche Katrin poteva vedere il baluginare il rossastro delle fiamme e mise un respiro di sollievo la biblioteca si trovava sul lato opposto del fossato nessun incendio sarebbe mai stato in grado di raggiungerli Bran era al sicuro siano lodati gli dei gli sbigliò tu rimani qui madre Rob la guardò con lo stesso sguardo con il quale si compatisce un folle tornerò da te appena avremo domato l'incendio un attimo dopo era andato lo udì gridare alle guardie fuori dalla stanza udì tutti quanti precipitarsi giù per le scale tre gradini alla volta all'esterno molte voci nel cortile urlavano al fuoco al fuoco al fuoco poi altri urla passi in corsa il nitrire dei cavalli spaventati l'abbaiare frenetico dei cani gli urlati però erano cessati Caitlin se ne rese conto nell'ascoltare quella cacofonia i metalupi adesso tacevano si diresse alla finestra ringraziando i sette volti del dio al di là del fossato lingue di fiamma si contorcevano uscendo dalla finestra della biblioteca volute di fumo salivano ad attorcigliarsi nel cielo scuro tutti quei preziosi antichi testi che gli Stark avevano acquisito e conservato nei secoli tristemente Caitlin chiuse le imposte su tutto quel sapere che finiva incennere te non devi essere qua c'era un uomo con lei nella stanza nessuno dovrebbe essere qua la voce era un mugugnare acido raschiante l'ometto era sporco vestito di luridi cenci che puzzavano di stalla di sterco di cavalli Caitlin conosceva tutti quelli che lavoravano nelle stalle questo individuo non era uno di loro un uometto da niente ossuto capelli biondastri occhi pallidi infossati in una faccia scavata stringeva nel pugno una daga Caitlin guardò la daga oi bran no quell'unica parola le uscì a stento dalla gola simile a un sussurro rauco è misericordia in qualche modo lui pareva averla udita è come se fosse già morto no Caitlin ritrovò la voce non lo farai roteò su se stessa e spalancò la finestra per urlare aiuto l'uomo le fu addosso si era mosso in modo rapido molto rapido per un uometto così da niente il puzzo che emanava toglieva il fiato la sua mano sinistra si chiuse nella bocca di lei soffocando l'urlo le tirò indietro la testa esponendone la gola poi l'uomo alzò la daga con tutte le sue forze Caitlin afferrò la lama con entrambe le mani e la allontanò dalla propria gola lo udì bestemmiare vicinissimo all'orecchio sentì le dita viscile di sangue eppure non lasciò la presa attorno all'arma la mano che le copriva la bocca si contraste mozzandole il respiro Caitlin ruotò la testa e riuscì a mordere con forza tra il palmo e l'articolazione del pollice l'uomo gemette di dolore Caitlin digrignò i denti e mosse la testa da una parte all'altra dilaneando la carne l'uomo balzò indietro lasciandola andare Caitlin aveva la bocca piena del sapore del sangue ispirò a fondo e urlò l'assassino la prese per i capelli e la scaraventò attraverso la stanza Caitlin inciampò e cadde lui le fu nuovamente addosso respirando forte tremando la daga grondante sangue stretta nella destra in un punto indefinito alle spalle di lui Caitlin vide un'ombra scivolare attraverso la porta aperta e non devi essere qua ripetè l'ometto ottusamente ci fu una specie di basso volontorio meno di un rugito eppure una minaccia soltanto l'accenno di una minaccia ma l'ometto la percepì e alzò la testa proprio mentre il lupo fendeva l'aria piombarono insieme a terra addosso a Caitlin il lupo azzannò sotto la mascella l'urlo dell'uomo durò meno di un secondo poi il metalupo diede la strappata verso l'alto staccandogli metà gola spruzzi di sangue arrivarono fino sul volto di Caitlin simili a una pioggia calda il lupo la stava osservando le fauci rosse e gocciolanti gli occhi che brillavano come diamanti nella stanza immersa di tenebre Caitlin capì che era il metalupo di Bran non poteva essere che lui ringrazio la sua voce era un sussurro appena percettibile sollevò verso l'animale una mano tremante e il metalupo le si avvicinò la muso poi la sua lingua umida ruvida cominciò a leccarle il sangue che la copriva una volta che lo ebbe leccato tutto si girò senza fare rumore saltò sul letto di Bran e si sdraiò accanto a lui Caitlin cominciò a ridere istericamente stava ancora ridendo quando la trovarono quando Rob maestro Lewin e Sir Rodrik fecero irruzione assieme a metà degli armati di grande inverno e dopo che finalmente la sua risata fu cessata la avvolsero in coperte calde e la trasportarono nelle sue camere la vecchia Nan la spogliò l'aiutò a entrare in una vasca piena d'acqua calda e ripulì il suo corpo dal sangue raggrumato maestro Lewin venne a medicarle le ferite quelli alle dita erano profonde l'avevano scavata fin quasi all'osso nei punti in cui l'ometto le aveva strappato i capelli e la cute era scorticata e bruciante il maestro l'avvertì che ora sarebbe cominciato il dolore perciò le diede una bevanda di latte di papavero per aiutarla a diminuire e finalmente Caitlin chiuse gli occhi quando li riaprì le dissero che aveva dormito per quattro giorni si limitò ad annuire restando seduta sul letto un incubo questo era adesso la sua percezione degli ultimi eventi un incubo iniziato con la caduta di Bran un sogno orribile pieno di sofferenza e di sangue ma il dolore alle mani le ricordava che invece era tutto vero si sentiva debole con la testa vuota eppure allo stesso tempo piena di determinazione come se un peso enorme le fosse stato tolto dalle spalle portatemi pane e miele ordinò ai servi e dite a maestro Luin che è necessario cambiare la medicazione per un momento la guardarono sorpresi poi obbedirono di corsa nella mente di Caitlin la memoria di come si era ridotta continuava a essere ben presente così come la vergogna di essersi ridotta in quel modo aveva voltato le spalle a tutti i figli il marito la sua nobile casa non avrebbe permesso che accadesse di nuovo mai più avrebbe mostrato a questa gente del nord come si comporta una talli di delta delle acque Rob arrivò prima del pane e del miele assieme a lui c'erano Roderick Cassel Theon Greyjoy il protetto di suo marito infine Alice Mullen un muscoloso uomo della guardia dalla corta barba castana il nuovo comandante della guardia del castello lo presentò a Rob suo figlio vestiva cuoio scuro e cotta di maglia di ferro e ancora portava la spada fu Caitlyn a porre la prima inevitabile domanda chi era? nessuno conosce il suo nome le rispose Alice Mullen non era un uomo di grande inverno mia signora ma alcuni affermano di averlo visto girarsi nel castello in queste settimane uno degli uomini del re quindi incluse Caitlyn o dei Lannister qualcuno è rimasto indietro quando gli altri se ne sono andati può darsi disse Alice con tutti i forestieri che sono passati per il castello è arduo dire al solto di chi fosse si è nascosto nelle stalle affermò Greyjoy ne aveva ancora addosso il puzzo com'è possibile che nessuno si sia accorto di lui esclamò Caitlyn in tono secco Lord Stark ha preso con sé molti cavalli e altri ne abbiamo inviati a nord con i guardiani della notte spiegò Alice Mullen con un'espressione desolata le stalle sono rimaste mezzo vuote non deve essere stato difficile per lui tenersi lontano dagli stallieri Odor forse l'ha visto dicono che quel ragazzo si è comportato in modo diverso dal solito ma via di testa come è Mullen scosse il capo abbiamo scoperto dove dormiva aggiunse Rob in una borsa di cuoio nascosta sotto la paglia c'erano 90 corone d'argento sono lieta di constatare la vita di mio figlio è venduta a caro prezzo commentò amaramente Caitlyn Mullen la guardò con un'espressione confusa mio signora stai forse dicendo che quell'uomo voleva uccidere il tuo bambino anche Greyjoy aveva i suoi dubbi è pura follia è venuto per Bran affermò con decisione Caitlyn ha continuato a borbottare qualcosa sul fatto che nessuno avrebbe dovuto trovarsi nella stanza ha peccato il fuoco alla biblioteca pensando che io sarei a corsa portando con me tutte le guardie e se non fossi stata come impazzita dal dolore il tranello avrebbe funzionato madre perché qualcuno vorrebbe uccidere Bran - chiese Rob per gli dei uccidere un bambino inerme che giace tra la vita e la morte Caitlyn lanciò al primo genito un'occhiata quasi di sfida se sei destinato a regnare sul nord è bene che tu ci pensi con lucidità Rob rispondi tu stesso a questa domanda chi ha interesse a uccidere un bambino che giace tra la vita e la morte prima che Rob potesse rispondere i servi tornarono con un piatto di cibo molto più di quanto lei avesse chiesto pane appena sfornato burro miele marmellata di mirtilli pancetta affumicata un uovo bollito formaggio e tea alla menta e assieme a tutto questo giunse anche maestro Lewin Caitlyn guardò il cibo tutto un tratto non aveva più fame come sta mio figlio maestro Lewin abbassò gli occhi e disse sotto voce nessun cambiamento mia signora era la risposta che Caitlyn si aspettava nulla di più nulla di meno sentiva il dolore pulsare nelle sue mani come se la lama stesse continuando a scavare in profondità nella sua carne liquidò i servi e spostò nuovamente lo sguardo su Rob hai trovato la risposta qualcuno teme che Bran possa svegliarsi rispose lui teme che potrebbe dire o fare teme qualcosa che lui sa molto bene figlio Caitlyn era orgogliosa di lui Bran deve essere protetto si girò verso il nuovo comandante delle guardie come c'è stato un assassino potrebbero essercene altri quanto guardio vuoi mia signora chiese Mullen fino a quando Lord Eddard resterà lontano è mio figlio Rob il signore di grande inverno gli rispose metti un uomo nella stanza di mio fratello Alice giorno e notte Rob parve aumentare di statura un altro fuori dalla porta e due in fondo alle scale nessuno vedrà Bran senza il permesso mio o della lei di mia madre l'ora fatto mio signore che si è fatto subito puntualizzò Caitlyn e il suo lupo rimarrà nella stanza con lui aggiunse Rob si concordò Caitlyn e ripetei con forza si Alice Mullen si inchinò e uscì Sir Roderick attese che se ne fossero andati prima di intervenire Lady Stark hai osservato in qualche modo la daga usata dall'assassino non in queste circostanze Roderick gli rispose lei con un sorriso amaro ma posso dire di aver certamente notato quanto fosse affilata perché me lo domandi l'aveva ancora in pugno ho subito avuto l'impressione che si trattasse di un'arma troppo costosa per un individuo semile così l'ho esaminata a lungo e con attenzione lama d'acciaio di Valeria Elsa di osso di drago è davvero improbabile trovare un uomo del genere con un'arma di tanto valore troppo raffinata è stato qualcuno a dargliela Caitlyn annui lentamente riflettendo poi disse Rob chiudi la porta lui la guardò perplesso ma fece come gli aveva chiesto ciò che sto per dirvi non deve uscire da questa stanza riprese Caitlyn giurate se anche soltanto una parte di quanto sospetto ha un fondo di verità né delle mie ragazze si sono avviati verso pericoli letali una sola parola nelle orecchie sbagliate e per loro sarebbe la fine lord Eddard è come un secondo padre per me dichiarò Theon Greyjoy lo giuro hai il mio giuramento fece ecco maestro Luin anche il mio signora affermò Sir Roderick lo sguardo di Caitlyn si posò sul suo figlio Rob lui annui mia sorella lisa ritiene che i Lannister abbiano assassinato suo marito lord Jon Arryn primo cavaliere del re Caitlyn li scrutò uno a uno ricordo che il giorno della caduta di Bran Jaime Lannister non si unì alla battuta di caccia ma rimase a grande inverno un profondo silenzio era calato nella stanza io non credo che Bran sia caduto dalla torre spezzata credo che sia stato spinto l'affermazione gli sconvolse tutti mia signora è un'ipotesi mostruosa esclamò Roderick Cassel alfino lo sterminatore di re esiterebbe di fronte all'omicidio di un bambino innocente sul serio chiese Fion Greyjoy serrando le labbra io non ne sarei così certo non c'è limite all'orgoglio dei Lannister affermò Caitlyn né alla loro ambizione il bambino era molto abile nelle scalote disse il pensieroso maestro Illuin conosceva ogni pietra di grande inverno dei onnipotenti i giovani gli innamenti di Rob si deformarono nell'ira se è vero la pagherà sguainò la spada e la sollevò al di sopra della testa lo ucciderò con le mie mani metti via quell'acciaio tuon ossa e Roderick i Lannister sono a centinaia di leghe da qui e mai mai sfoderare la spada a meno che tu non sia pronto ad usarla sciocco ragazzo quante volte te l'ho ripetuto Rob colto in fallo tornò di colpo a essere un ragazzo di 14 anni e rivise la spada nel fodero così mio figlio ora porta la spada commentò Caitlyn rivolta a Sir Roderick ho ritenuto che fosse giunto il momento osservò l'anziano maestro d'armi Rob guardò la madre pieno di aspettativa è giunto da tempo confermò Caitlyn ben presto grande inverno potrebbe aver bisogno di tutte le spade ed è molto meglio che non siano di legno mia signora Theon Greyjoy mise la mano sull'impugnatura della propria spada se si arriverà a tanto grande il debito che la mia casa ha nei confronti della nobile casa Stark ma ciò che realmente abbiamo obbiatò maestro Lewyn allentando la catena del suo ordine nel punto in cui lo stringeva al collo sono congetture è il fratello della nostra amata regina che stiamo accusando e lei non accetterà graziosamente una cosa simile dobbiamo avere delle prove o in caso contrario dovremo mantenere eterno silenzio la prova è quella d'aga affermò Sir Roderick una lama così raffinata non può non essere stata notata Caitlyn si rese conto che la verità poteva trovarsi in un unico luogo qualcuno deve andare ad approdo del re disse io si offrì immediatamente a Rob no il tuo posto è qui le tornarono in mente le parole di Ned deve esserci sempre uno Stark grande inverno il suo sguardo passò a Sir Roderick nei suoi poderosi baffoni bianchi a maestro Lewyn nel suo saio grigio al giovane Theon Greyjoy ai tante bruno impetuoso chi mandare chi sarebbe stato creduto forse conosceva la risposta fin dal primo istante e non si trovava in nessuno di quegli uomini con uno sforzo doloroso si liberò delle coperte e scese dal letto le dita bendate erano rigide e insensibili come pietre devo andare io stessa ma mia signora protestò maestro Lewyn è davvero una decisione saggia certo che i Lannister accoglieranno il tuo arrivo con estremo sospetto e che ne sarà di Bran esclamò Rob il povero ragazzo era completamente disorientato non vorrai lasciarlo proprio ora ho fatto tutto quello che potevo per Bran Catelyn appoggiò una mano bendata sul braccio del figlio la sua vita è nelle mani degli dèi e di maestro Lewyn e come tu stesso mi hai ricordato Rob ho anche altri figli ai quali pensare mia signora ti servirà una nutrita scorta intervenne Theon Alice è uno squadrone di armigeri propose Rob no un gruppo numeroso attira attenzioni indesiderate obiettò Catelyn non voglio che i Lannister sappiano che sto arrivando permetti almeno che io ti accompagni mia signora protestò Sir Roderick la strada del re può essere pericolosa per una donna priva di scorta non prenderò la strada del re rispose Catelyn riflette per un lungo momento e poi annui due cavalieri si muovono alla stessa velocità di uno solo e a una velocità molto maggiore di un'intera colonna rallentata da carri e case su ruote sarò lieta della tua compagnia Sir Roderick seguiremo il corso del fiume coltello bianco fino al mare e a porto bianco noleggeremo una nave cavalli robusti e forti venti ci porteranno ad approdo del re ben prima di Ned e dei Lannister e a quel punto vedremo quello che c'è da vedere pensò Sansa Eddard Stark se n'era andato prima dell'alba Sansa Eddard Stark se n'era andato prima dell'alba l'ha mandato a chiamare il re Septamordain informò Sansa mentre faceva colazione un'altra battuta di caccia credo mi è stato detto che ci sono ancora dei bisonti selvaggi in queste regioni non ho mai visto un bisonte selvaggio Sansa allungò un pezzo di pancetta affumicata a Lady accucciata sotto il tavolo e la metalupa la prese dalle sue dita con la delicatezza di una regina Septamordain arricciò il naso mostrando il suo disappunto mentre faceva colare del miele su una fetta di pane una nobile signora non dovrebbe nutrire i cani dal proprio desco non è un cane è un metalupo la corresse Sansa mentre la lingua ruvida di Lady continuava a leccarle gentilmente le dita e poi mio padre dice che possiamo tenerli sempre con noi se vogliamo tu sei una brava ragazza Sansa tagliò corto Septamordain per nulla ammorbidita ma quando si parla di quella creatura diventi testarda come tua sorella Aria a proposito arricciò di nuovo il naso dove sarebbe questa mattina la nostra Aria non aveva appetito rispose Sansa ma sapeva perfettamente che sua sorella doveva aver fatto un'incursione nelle cucine ore prima scroccando la colazione da uno dei ragazzi al lavoro ai fornelli ricordare che deve essere ben vestita oggi insiste la septa l'abito di velluto grigio per esempio siamo tutte invitate a viaggiare nella reale casa su ruote assieme alla regina e alla principessa Mircella è necessario che ci presentiamo eleganti come si conviene Sansa era già elegante come si conviene si era spazzolata ai lunghi capelli neri fino a farli risplendere e aveva indossato il suo più bel vestito di seta azzurra da una settimana contava i giorni che la separavano da oggi era un grande onore viaggiare assieme alla regina inoltre avrebbe potuto esserci anche il principe Joffrey suo promesso sposo non si sarebbero sposati per anni ma quel semplice pensiero le suscitava sensazioni sconosciute Sansa non conosceva il principe Joffrey eppure era già innamorata di lui era proprio come aveva sempre sognato che dovesse essere un principe alto bello forte con i capelli d'oro e lei non aveva intenzione di perdere la benché minima opportunità di passare del tempo con lui per quanto raramente queste potessero presentarsi un'unica cosa la spaventava in quel momento aria sua sorella aveva una specie di dono per rovinare tutto impossibile dire quale altra diavoleria avrebbe scogitato quel giorno va bene Septa le dirò del vestito la voce di Sansa era di colpo venata di incertezza ma temo che si vestirà come sempre si augurò che non mettesse tutte loro in imbarazzo posso andare? si Septa Mordain passò alla fetta successiva di pane e miele e Sansa scivolò giù dalla panca Lady la seguì da vicino mentre usciva a gran velocità dalla sala comune della locanda fuori c'era l'inevitabile rumoroso caos di ogni mattina per un lungo momento Sansa rimase immobile in mezzo alle grida alle imprecazioni e al cigolare delle ruote di legno mentre gli uomini smontavano tende grandi e piccole e caricavano i carri per la nuova giornata di viaggio la locanda nella quale avevano fatto sosta la più grande che Sansa avesse mai visto era una monumentale struttura a tre piani di pietra pallida ma dispetto della sua mole era riuscita ad accomodare solamente un terzo della carovana reale con la giunta del gruppo di Grande Inverno e degli altri cavalieri che si erano uniti lungo la strada il convoglio era cresciuto a oltre 400 unità a Sansa ci volle un po' per trovare la sorella era seduta sulla riva del tridente e cercava di tenere ferma Nimeria mentre le toglieva dal pelo grumi di fango disseccato la metalupa non appariva particolarmente contenta di subire quell'operazione quanto ad aria indossava gli stessi indumenti di cuoio con i quali era andata a cavallo il giorno precedente e quello prima ancora è meglio che tu vada a metterti qualcosa di carino esordì Sansa così dice Septamordain oggi viaggeremo insieme alla principessa Mircella nella casa su ruote della regina non io aria dovete tirare con forza per staccare un grumo di fango più ostinato degli altri dalla ruffata pelliccia grigia di Nimeria io oggi andrò con Maika fino alla diga a monte alla ricerca dei rubini rubini Sansa non aveva la minima idea di che cosa sua sorella stesse parlando quali rubini ma quelli di Rhaegar no aria le scoccò l'occhiata che si riserva ai completi imbecilli è qui che è stata combattuta la grande battaglia del tridente è qui che Robert Varate non ha ucciso Rhaegar Targaryen e ha conquistato la corona cosa tu oggi non puoi andare alla ricerca proprio di nessun rubino Sansa fissò trasecolata la sua magrissima sorella la principessa Mircella ci aspetta la regina Cersei ci ha invitate tutte e due non mi importa la casa su ruota non ha nemmeno una finestra da là dentro non si vede niente ma che cosa ti aspetti di vedere Sansa cominciava a irritarsi quell'invito era molto importante per lei e adesso proprio come aveva temuto e come sempre succedeva quella sciocca di sua sorella stava per rovinare tutto ci sono soltanto campi e fattorie e fortini ti sbagli la contraddisse Aria e di grosso se ogni tanto venissi anche tu fuori a cavallo con noi te ne accorgeresti io odio andare a cavallo protestò Sansa la sola cosa che ottieni dopo aver finito essere sporca coperta di polvere e con i dolori da tutte le parti Aria si strinse nelle spalle e sta ferma esclamò rivolta a Nymeria non ti sto facendo male poi tornò a rivolgersi a Sansa mentre stavamo superando l'incollatura ho incontrato 36 dipi diversi di fiori che nemmeno sapevo esistessero e Maika mi ha mostrato una lucertola leone Sansa represse un brivido c'erano voluti 12 giorni per superare l'incollatura il restreggimento nel continente che formava una specie di divisione naturale tra il sud e il nord dei sette regni il convoglio reale era stato costretto ad avanzare su un percorso contorto che si snodava tra nere paludi infette che parevano non avere né inizio né fine Sansa aveva odiato ogni istante di quella traversata l'atmosfera era opaca graveolente la pista talmente stretta che di notte non erano stati neppure in grado di allestire un accampamento decente finendo con il fermarsi lungo la strada del re erano premuti tutto attorno da fitti boschetti di alberi dalle radici sommerse dai cui rami pendevano frastagliati tendaggi di muschi e licheni fiori enormi emergevano dal fango e fluttuavano sulla superficie delle acque stagnanti chi fosse stato così stupido da tentare di lasciare il sentiero per cogerli sarebbe stato risucchiato dalle sabbie mobili stritolato da serpenti raggomitolati sui rami bassi attaccato da letali lucertole e leone in agguato appena sotto la superficie dell'acqua simili a neri tronchi dotati di occhi e di zanne naturalmente nulla di tutto questo aveva fermato aria un giorno era rientrata sorridendo a tutta dentatura come un cavallo con i capelli e i vestiti ridotti a un pastone di fango tra le braccia stringeva un caotico mazzo di fiori verdi e purpurei che aveva strappato di persona dalla palude per farne dono al loro padre Sansa aveva sperato che almeno lui le dicesse di comportarsi come la lady di nobile famiglia che si supponeva lei fosse ma lui non l'aveva fatto anzi l'aveva addirittura abbracciata e ringraziata per i fiori e questo aveva fatto sentire Sansa anche peggio poi era stata la volta di quei fiori rossastri chiamati baci velenosi dai quali aria aveva ricavato una pruriginosa irritazione alle braccia Sansa era convinta che quello le sarebbe servito di lezione ma niente da fare sua sorella si era fatta una sonora risata e il giorno seguente si era spermata a fango fango proprio così sugli arrossamenti della pelle esattamente come avrebbe fatto una qualsiasi ignorante paesana delle paludi e questo solo perché quel suo amichetto Maika le aveva detto che il fango avrebbe fermato il prurito ultimamente aria aveva dei libidi sulle braccia sulle spalle strane chiazze alcune rossastre altre tendenti al giallastro Sansa le aveva notate quando aveva visto sua sorella spogliarsi per andare a dormire come aria si fosse procurata quelle chiazze i sette dei erano i soli a saperlo e la settimana scorsa abbiamo trovato la torre di guardia stregata aria continuava a ripulire il pelo di Nymeria e a parlare tutta entusiasta delle cose che aveva scoperto durante il viaggio verso sud e il giorno prima abbiamo inseguito un branco di cavalli selvaggi avresti dovuto vedere come se la sono data a gambe nel momento in cui hanno sentito l'odore di Nymeria forse perché aveva udito il proprio nome la metalupa si agitò di nuovo ti ho detto di stare ferma le comandò aria devo pulirti dall'altro lato sei ancora tutta sporca di fango aria non dovresti allontanarti dalla colonna le ricordò Sansa non te l'ha forse detto nostro padre non mi so da allontanata così tanto aria scrollò le spalle e poi con me c'è sempre stata Nymeria non è che vado via tutti i giorni certe volte è bello anche solo cavalcare a fianco dei carri e parlare con la gente Sansa sapeva tutto quello che c'era da sapere sul genere di gente con la quale ad aria piaceva parlare signorotti di basso rango staglieri servette uomini anziani bambini mezzi nudi mercenari di dubbia nascita aria era capace di fare amicizia con chiunque poi quel maica lui era il peggiore di tutti un selvaggio garzone di macellaio di 13 anni che dormiva nel carro della carne e si portava sempre addosso il puzzo del tagliere di macellazione solo a guardarlo a Sansa si rovesciava lo stomaco mentre aria sembrava preferire la sua compagnia a quella di chiunque altro inclusa la sorella maggiore devi venire con me adesso Sansa cominciava a perdere la pazienza non puoi respingere l'invito della regina septa mordenti sta aspettando disse con fermezza aria fece finta di non sentire e diede una strappata dura con il pettine Nimeria irritata ebbe un sussulto e sfuggì alla sua presa Nimeria torna qui subito ci saranno torta al limone e tè continuò Sansa con fare da adulta tutta compresa delle responsabilità del protocollo Lady le si strofinò contro la gamba e Sansa la grattò dietro le orecchie proprio come le piaceva Lady sedette sulle zampe posteriori e guardò aria che correva dietro a Nimeria e poi mi spieghi per quale ragione vuoi andartene in giro su un vecchio cavallo puzzolente quando potresti startene comodamente sdraiata sui cuscini di piume a mangiare torta al limone assieme alla regina Cersei la ragione le rispose aria con non curanza è che a me la regina non piace a Sansa mancò il respiro aria sua sorella osava dire una cosa simile ma quella continuò imperterrita non mi permette nemmeno di portare Nimeria si infilò il pettine nella cintola e si avvicinò cautamente alla sua metalupa che la guardava con diffidenza la casa su ruote di corte non è un posto adatto ad un lupo dichiarò Sansa e poi lo sai benissimo che la principessa Mircella ne ha paura la principessa Mircella non è che una bamboletta molle aria andò all'assalto e riuscì ad agguantare Nimeria attorno al collo ma nel momento in cui sfoderò il nuovo pettine Nimeria riuscì a divincolarsi dalla sua stretta e se la diete a gambe lupo cattivo gridò aria frustrata e le tirò dietro il pettine cattivo Sansa non poter reprimere un sorriso il mastro del canile di grande inverno una volta le aveva detto che i cani tendono ad assomigliare ai loro padroni abbracciò con dolcezza Lady che le leccò la guancia Sansa ridacchiò ma non fu una brillante idea aria laudì e si girò di scatto verso di lei fulminandola con lo sguardo non mi importa niente di quello che dici tu va pure dalla regina c'era un'espressione inflessibile sulla faccia allungata ossuta di aria io vado a cavalcare per gli dèi aria certe volte ti comporti come come una bambinetta capricciosa e va bene ci andrò da sola molto meglio così Lady e io ci mangeremo tutta quella buona torta al limone e ci divertiremo un sacco senza di te si voltò per andarsene non penso proprio le gridò dietro aria Lady non ti permetteranno di portarla Sansa non fece in tempo a mettere assieme una risposta che aria era già partita di corso lungo la sponda del tridente all'inseguimento di Nimeria sola umiliata Sansa si incamminò per la lunga strada del ritorno sapeva che ad aspettarla alla locanda c'era Septanordain Lady Lady le trotterellava al fianco Sansa era sulla soglia del pianto in fondo tutto ciò che voleva era che le cose fossero belle e delicate come dicevano le rime delle ballate perché aria non poteva essere dolce e carina come la principessa Mircella quanto le sarebbe piaciuto avere una sorella come lei non sarebbe mai riuscita a capire come fosse possibile che due sorelle nate solamente a due anni di distanza potessero essere così diverse l'una dall'altra sarebbe stato tutto più semplice se anche aria fosse stata bastarda come il loro fratellastro Jon Snow somigliava addirittura a lui la faccia allungata e capelli castani degli Stark proprio l'opposto della Lady loro madre inoltre la madre di Jon era stata una popolana o almeno questo si sussurrava una volta quando era ancora molto piccola aveva chiesto a sua madre se non ci fosse stato qualche sbaglio se gli elfi maligni non avessero portato via la sua vera sorella ma Lady Caitlyn ridendo aveva assicurato che no non c'era stato nessuno sbaglio Aria era sua figlia la vera sorella di Sansa sangue del loro sangue Sansa rifiutava di credere che la mamma le avrebbe mentito su una cosa simile per cui doveva essere la verità via via che Sansa si avvicinava al centro dell'accampamento quei dispiaceri furono rapidamente dimenticati un folto gruppo di gente si era raccolto attorno alla casa su ruote della regina Sansa udì tante voci eccitate come ronzi di un grande alveare i portelli della casa erano spalancati la regina in persona era in piedi in cima ai gradini di legno e sorrideva a qualcuno ai piedi della scala miei bravi cavalieri la udì dire Sansa il concilio mi rende un grande onore Sansa prese da parte un signorotto che conosceva che succede? gli chiese il concilio ristretto della corona ci ha mandato incontro alcuni cavalieri da approdo del re le rispose lui una guardia d'onore per re robert ansiosa di vedere Sansa lasciò che Lady le aprisse un barco tra la folla perché quando appariva un metalupo tutti si facevano prontamente da parte c'erano due cavalieri genuflessi al cospetto della regina con armature così raffinate e splendide che Sansa ammiccò ai loro riflessi uno di essi indossava una cotta di maglia smaltata di bianco brillante come un campo innevato di fresco con guarnizioni d'argento che si accendevano alla luce del sole quando si tolse l'elmo Sansa vide che si trattava di un uomo anziano con i capelli bianchi come la sua armatura tuttavia ancora forte e asciutto con le spalle portava l'ampio mantello candido della guardia reale il suo compagno era un giovane sulla ventina con armatura d'acciaio color verde foglia era l'uomo più bello che Sansa avesse mai visto alto atletico vigoroso lunghi capelli neri come la notte gli ricadevano fin sulle spalle incorniciando un volto perfettamente rasato nel quale scintillavano due occhi verdi come il metallo che lo proteggeva sotto il braccio raggeva un elmo munito di corno di cervo in una splendida fusione ornata d'oro sulle prime Sansa non notò il terzo uomo non era genuflesso come gli altri ma stava in piedi in disparte accanto ai cavalli un uomo magro austero che si limitava a osservare il suo volto senza barba era butterato con occhi infossati e guance scavate non era vecchio ma gli rimanevano solamente pochi ciuffi di capelli dietro le orecchie che aveva lasciato crescere lunghi come quelli di una donna come armatura indossava una cotta di maglia sopra strati di duro cuoio senza il minimo ornamento il tutto segnalava molti anni di scontri da dietro la sua spalla destra sporgeva il fodero di una spada di pelle sbiadita usurata una grande spada da impugnarsi a due mani con la lama troppo lunga perché l'arma potesse essere portata al fianco il re è andato a caccia stava dicendo la regina ai due cavalieri inginocchiati ma sono certa che al suo ritorno sarà molto lieto di vedervi Sansa non riusciva a staccare gli occhi dal terzo uomo lui parve percepire di essere osservato e lentamente ruotò il capo verso di lei lei diringhiò e Sansa si sentì invadere dal terrore più cieco che avesse mai provato distinto arretrò finendo addosso a qualcuno mani forti la ferrarono per le spalle per un attimo Sansa credette che si trattasse di suo padre ma quando si girò vide la maschera sfigurata dal fuoco di Sandor Clegane il mastino con la bocca atteggiata alla smorfia grottesca che era il suo sorriso stai tremando ragazzino la sua voce era una specie di rantolo ti faccio davvero così paura le faceva paura certo tanta lei aveva fatto paura fin dalla prima occhiata che aveva gettato al suo volto devastante eppure quella paura sbiadiva al confronto di quanta gliene instillava il volto del cavaliere senza nome Sansa si svicolò dalla sua presa mentre il mastino si lasciava sfuggire una risata rauca Lady si frappose fra loro ringhiando un avvertimento e Sansa cadde in ginocchio le braccia strette attorno alla sua lupa adesso l'attenzione e gli sguardi di tutti erano su di lei Sansa poteva udire i loro commenti a bassa voce il loro ridacchiare un lupo disse qualcuno per i sette inferi esclamò qualcun altro quello è un metalupo che ci fa all'accampamento roba degli Stark ribatte la voce rauca del mastino li usano come balie asciutte Sansa vide che i due cavalieri di fronte alla regina non erano più inginocchiati avevano sguainato le spade e stavano guardando lei e Lady senti di nuovo il morso della paura della vergogna e i suoi occhi si riempirono di lacrime Gioffri disse la regina va da lei e il suo principe le fu al fianco lasciatela stare disse Gioffri torreggiò su di lei splendido in lana azzurra e cuoio nero i riccioli dorati che scintillavano ai raggi del sole come una corona le porse la mano e l'aiutò ad alzarsi che succede mia dolce signora perché hai paura nessuno qui ti farà del male mettete via le spade tutti quanti il lupo è il suo cucciolo nient'altro si voltò verso Sandor Clegane e tu mastino levati di torno stai spaventando la mia promessa sposa il mastino cane fedele e obbediente si inchinò e si fece strada tra la gente ammucchiata Sansa ebbe qualche difficoltà a raddrizzarsi che stupida era stata era una Stark di grande inverno una nobile lady e un giorno sarebbe stata una regina non era Clegane a spaventarmi mio dolce principe spiegò a Gioffri era quell'altro i due cavalieri appena arrivati dal sud si scambiarono un'occhiata vuoi dire Pain ridacchiò il più giovane quello nell'armatura color verde foresta il cavaliere dai capelli bianchi parlò a Sansa con grande gentilezza a volte mia dolce lady Serling Pain fa paura anche a me in effetti ha un aspetto terribile così come deve essere la regina Cersei scese dalla casa su ruote e la folla le fece largo se i malvagi non temono la giustizia del re ebbene vorrebbe dire che a tutelarla è stato messo l'uomo sbagliato maestà finalmente Sansa ritrovò la voce hai senza dubbio alcuno scelto quello giusto una liberatoria risata generale eruppe dalla folla ben detto figliola commentò il vecchio dal mantello bianco e non c'era da aspettarsi altro dalla figlia di Lord Eddard Stark a dispetto di quanto fuori dalle regole sia stato il nostro incontro sono onorato di fare la tua conoscenza fece un inchino Sanosser Barristan Selmy della Guardia Reale Sansa lo conosceva di fama e adesso tutta l'educazione formale che Septamordain le aveva insegnato così diligentemente nel corso degli anni pote fare bella mostra di sé Lord Comandante della Guardia disse consigliere di Robert nostro re e di Eris Targaryen prima di lui l'onore è tutto mio prode cavaliere perfino nel remoto nord i trovatori cantano le lodi di Barristan il Valoroso vorrei dire Barristan il Vecchioso il cavaliere in armatura verde rise di nuovo non adularlo troppo è già fin troppo pieno di sé le sorrise e ora ragazza lupo puoi dare anche a me un nome dopodiché accetterò che tu sia la degna figlia del primo cavaliere del re accanto a Sansa Joffrey si irrigidì ti pare questo il modo di rivolgerti alla mia promessa sposa esclamò posso rispondere Sansa acquietò in fretta la rabbia del principe e sorrise al cavaliere il tuo elmo mio signore è addornato di corna dorate il cervo è l'emblema della casa reale re Robert ha due fratelli per la tua giovane età non puoi essere altro che re Leibarathion lord di capo tempesta e consigliere del re questo è quindi il nome che io ti do per la sua giovane età sintromise Sir Barristan scherzando non può essere altri che un fatuo bell'imbusto questo è quindi il nome che gli do io ci fu un'altra risata generale iniziata dallo stesso Lott Renly la tensione iniziale si era definitivamente dissipata e Sansa cominciava a sentirsi a proprio agio non durò Sir Lee il pain si fece largo tra i due uomini e le andò di fronte senza sorridere non disse una sola parola Lady digrignò le zan e cominciò a ringhiare un suono basso carico di minaccia Sansa calmò la metalupa con una lieve carezza sul collo mi dispiace di averti offeso Sir Lee gli disse attese una risposta che non venne Sir Lee pain il boia del regno la guardò con gli occhi che sembravano privi di colore e parve strapparle di dosso le vesti e la pelle mettendo a nudo la sua anima sempre in silenzio Sir Lee si girò e se ne andò Sansa non capì guardò Joffrey chiese ho detto qualcosa che non avrei dovuto mio principe per quale ragione non mi ha parlato Sir Lee non è particolarmente loquace in questi ultimi quattordici anni commentò Lord Renly con un sorriso ambiguo Joffrey folgorò lo zio con uno sguardo carico di odio allo stato puro poi prese la mano di Sansa tra le sue Eris Targaryen mi fece strappare la lingua con tenaglie arroventate spiegò la vera eloquenza di Sir Lee sta nella sua spada intervenne la regina e la sua devozione alla corona è fuori di ogni dubbio poi aggiunse con un grazioso sorriso Sansa i miei bravi consiglieri e io abbiamo cose da discutere fino al ritorno del re e del lord tuo padre temo che saremo costretti a rinviare la tua giornata con Mircella ti prego di estendere le mie scuse anche alla tua dolce sorellina Joffrey forse tu sarai così gentile da intrattenere la nostra ospite quest'oggi con grande piacere madre rispose in tono formale Joffrey poi presse Sansa per il braccio e la guidò lontano dalla casa su ruote l'umore di Sansa volò istantaneamente fino al più alto dei cieli l'intera giornata assieme al suo principe guardò Joffrey con adorazione ed era sempre così galante il modo in cui l'aveva salvata da Ser Lin e dal mastino oh dei era quasi come nelle ballate d'amore dei menestrelli come la volta in cui Serwin dallo scudo a specchio aveva salvato la principessa d'Arissa dai giganti o come il principe Aemon cavaliere del drago che aveva difeso l'onore della regina Nerys contro le infamanti insinuazioni di Ser Morgil il tocco della mano di Joffrey sulla sua manica e il suo cuore battè più in fretta che cosa ti piacerebbe fare Sansa stare con te pensò a lei ma disse qualsiasi cosa ti allieti mio principe Joffrey ci pensò su un momento poi propose potremmo fare una cavalcata io adoro andare a cavallo esclamò Sansa Joffrey gettò un rapido sguardo alle loro spalle a Lady che li seguiva da vicino il tuo lupo potrebbe spaventare i cavalli e sembra che il mio cane spaventi te che ne dici se lasciamo indietro qui entrambi e procediamo solo tu e Dio se così desideri Sansa esitò suppongo di poter legare Lady da qualche parte ma continuò a non capire la considerazione del principe non sapevo che avessi un cane è il cane di mia madre in realtà rise Joffrey è lei che me l'ha messo alle costole perché mi faccia da guardia ah vuoi dire Sandor Clegane il mastino Sansa si sarebbe presa a schiaffi per essere stata così lenta a capire ma il suo principe l'avrebbe amata se lei fosse sembrata stupida ma è prudente per te lasciarlo indietro il principe parve irritato dalla domanda non aver paura mia Lady sono quasi un uomo adulto e per combattere non uso certo spade di legno come i tuoi fratelli l'unica cosa che mi serve è questa sfoderò la spada e gliela mostrò era una spada lunga da combattimento scintillante acciaio azzurro forgiata al castello a doppio taglio in pugnatura rivestita di cuoio pomello a testa di leone una spada lunga certo ma anche opportunamente adatta alle dimensioni di un ragazzo di 12 anni Sansa emise un gridolino pieno di ammirazione io la chiamo Dente di Leone dichiarò Geoffrey e fu Dente di Leone la loro sola compagna lasciarono all'accampamento il metalupo e il mastino e cavalcarono verso est seguendo la sponda settentrionale del tridente era una giornata radiosa magica l'aria era calda satura del profumo dei fiori e i boschi avevano una bellezza delicata che nel nord Sansa non aveva mai visto il cavallo del principe Geoffrey era un puro sangue veloce come il vento lui lo lanciava con temerario abbandono costringendo Sansa a spronare al massimo per tenergli dietro era una giornata da dedicare alle avventure esplorarono le caverne che si aprivano sulla riva rocciosa seguirono le tracce di una pantera ombra fino alla sua tana quando ebbero fame Geoffrey arrivò a un fortino che aveva individuato dal pennacchio di fumo e ordinò ai soldati di procurare cibo e vino per sé e per la sua signora pranzarono con trote appena pescate e Sansa beve più vino di quanto non ne avesse mai bevuto prima mio padre ci permette solo una coppa confessò al suo principe e solo nei giorni di festa la mia promessa sposa può bere tutto il vino che vuole Geoffrey le riempì la coppa cavalcarono più lentamente dopo il pasto Geoffrey cantò per lei con voce alta sua dente pura Sansa si sentiva leggermente stordita per il troppo vino non dovremmo rientrare provò a suggerire non ancora ribatte Geoffrey il campo di battaglia è poco più avanti la lanza del fiume è là che mio padre ha ucciso il duello Rhaegar Targaryen gli ha sfondato il petto crack proprio al centro dell'armatura face mulinare un'immaginaria mazza afferrata mostrandole come aveva fatto Robert e poi mio zio Jamie ha ucciso il vecchio Eris e mio padre è diventato re e cos'è questo rumore anche Sansa lo udiva colpi irregolari che parevano fluttuare tra i rami del bosco lungo il fiume non saprei mio principe pareva un suono di legni picchiati l'uno contro l'altro un suono che rendeva Sansa nervosa Geoffrey torniamo indietro voglio vedere cos'è Geoffrey diresse il cavallo verso il punto da cui provenivano i suoni Sansa non ebbe altra scelta che seguirlo i colpi si fecero più forti più definiti erano proprio legni picchiati l'uno contro l'altro oltre ai colpi gli ansiti di qualcuno che respirava pesantemente e ogni tanto un gemito c'è qualcuno Sansa era preoccupata Lady perché mai l'aveva lasciata all'accampamento con me sei al sicuro Geoffrey sguainò dente di leone e il rumore dell'acciaio che usciva dal fodoro di cuoio mandò un brivido gelido giù per la schiena di Sansa da questa parte Geoffrey avanzò in mezzo a un gruppo di alberi c'era una radura in riva al fiume e nella radura c'erano un ragazzo e una ragazza giocavano ai cavalieri andando all'attacco una dell'altro nell'erba folta le loro spade erano pezzi di legno manici di scopa a giudicare dall'aspetto il ragazzo aveva qualche anno più della ragazza la passava di tutta la testa era decisamente più forte e aggressivo la ragazza ha un affarino tuttossa e muscoli con indosso un gilet di cuoio lurido riusciva a parare molti dei colpi di lui con il proprio bastone ma non tutti quando lei tentò un assalto lui intercettò con il suo bastone lo deviò e picchiò duro sulle dita dell'avversaria la ragazza gridò di dolore e lasciò cadere la spada il principe Geoffrey rise il ragazzo si girò di scatto gli occhi spalancati pieni di paura immediatamente lasciò cadere il bastone nell'erba la ragazza fulminò con un'occhiata le due figure a cavallo continuando a succhiarsi le nocche malamente pestate Sansa inorridita incredula esclamò Aria andate via Aria aveva gli occhi pieni di lacrime di rabbia che cosa ci fate qui lasciatevi in pace quella sarebbe tua sorella Geoffrey ugualmente incredulo continuò a spostare lo sguardo da Sansa ad Aria Sansa arrossendo fu costretta ad annuire Geoffrey esaminò il ragazzo era chiaramente un plebeo faccia lentigginosa capelli rossi arruffati e tu ragazzo chi saresti? lo disse con tono di comando non curante del fatto che l'altro aveva chiaramente più anni di lui Moika borbottò il ragazzo poi riconobbe il principe e aggiunse mio signore è il garzone del macellaio spiegò Sansa è un mio amico ribatté Aria con tono deciso lasciatelo stare un garzone da macellaio che vuole essere un cavaliere giusto? Geoffrey volteggiò a terra spada in pugno coraggio garzone del macellaio raccogli la tua lama di legno gli occhi del principe scintillavano di eccitazione vediamo come ti batti da cavaliere Maika rimase immobile paralizzato dalla paura ti ho detto di raccogliere la spada Geoffrey continuò ad avanzare verso di lui o forse è solo con le ragazzine che preferisci misurarti mi mi ha chiesto lei di farlo mio signore è stata lei si difese Maika la Sansa bastò un'occhiata a sua sorella al suo viso congestionato per sapere che il garzone da macellaio stava dicendo il vero ma Geoffrey non era in condizione di ascoltare niente il troppo vino l'aveva reso sfrenato e allora la raccogli la tua spada oppure no non è una spada mio signore è solo solo un bastone Maika scosse il capo nient'altro che un bastone di legno e tu non sei nient'altro che un garzone di macellaia non certo un cavaliere Geoffrey sollevò dente di leone ne appoggiò la punta accuminata appena sotto l'occhio di Maika il garzone tremava perché è la sorella della mia signora quella che tu stavi colpendo lo sai questo la punta affondò nella carne di Maika e uno scintillante rigagnolo di sangue corse lungo la sua guancia fermati Aria aveva urlato con furore poi si chinò ad afferrare il suo bastone di legno caduto nell'erba il Sansa tornò la paura Aria no stanne fuori non gli farò male ragazzina Geoffrey parlava ad Aria ma non tolse mai lo sguardo di dosso al gargione non tanto Aria andò all'attacco Sansa saltò giù dal cavallo per bloccarla ma fu troppo lenta Aria mulinò il pezzo di legno impugnandolo a due mani il bastone si abbatté contro la nuca del principe e si spezzò in due e dopo questo di fronte agli occhi inorriditi di Sansa Stark le immagini si mescolarono le une dietro alle altre in una specie di vortice Geoffrey barcollò e rotteò su se stesso bestemmiando alla massima velocità che le sue gambe gli consentivano Maika partì di corsa in direzione degli alberi Aria andò nuovamente all'attacco mulinando il bastone ma questa volta Geoffrey la testa grondante sangue e gli occhi che mandavano lampi di furore intercettò con dente di leone il bastone volò via dalle mani di Aria Sansa urlava no no fermi state rovinando tutto fermatevi ma nessuno l'ascoltò Aria raccolse un sasso e lo lanciò mirando alla faccia di Geoffrey mancò il bersaglio la pietra picchiò contro il cavallo del principe che nitrì di dolore e partì al galoppo sulla scia di Maika fermatevi fermatevi gridava Sansa Geoffrey emulinò la spada contro Aria urlando parole terribili oscene Aria arretrò dal letale pericolo ma Geoffrey continuò a incalzarla a farla indietreggiare verso il bosco finché Aria non fu inchiodata con la schiena contro un albero accecata dalle lacrime sconvolta dal terrore Sansa non sapeva cosa fare poi un lampo grigio le passò accanto la superò Mimeria arrivò addosso a Geoffrey e le sue fauci si chiusero attorno al braccio armato del principe costringendolo a lasciare la presa Geoffrey andò a terra la metalupa che rotolava sopra di lui nell'erba le zanne che scavavano nel suo braccio richiamala adesso era il principe a urlare di dolore richiama questa belva Mimeria la voce di Aria schioccò come una frusta Mimeria aprì le fauci si allontanò da Geoffrey e andò a fermarsi al fianco di Aria il principe rimase prostrato nell'erba gemendo pregendosi il braccio che era stato azzannato la manica della sua tuta era fradicia di sangue non ti ha fatto male Aria andò a raccogliere dall'erba dente di leone e torreggio su di lui con la spada impugnata a due mani non tanto no Geoffrey emise una specie di gemito terrorizzato quando alzò lo sguardo su di lei no non farmi male lo dico alla mamma non toccarlo urlò Sansa a sua sorella Aria roteò su se stessa e lanciò la spada nell'aria con tutte le sue forze l'acciaio azzurro scintillò nei raggi del sole mentre la spada girava e girava sopra il fiume un ultimo riflesso poi dente di leone svanì nell'acqua con un tonfo Geoffrey si lasciò sfuggire un ultimo gemito Aria corse al proprio cavallo saltò in sella e diede di sprone con Nimeria che la tirano da perso una volta che furono lontane Sansa corse dal suo principe si inginocchiò accanto a lui Geoffrey si inghiuzzò lui aveva gli occhi chiusi e il respiro affannoso che cosa ti hanno fatto? che cosa ti hanno fatto mio povero principe? non avere paura Sansa allungò una mano torno a quel fortino vado a cercare aiuto teneramente le sue dita accarezzarono i soffici capelli biondi di lui gli occhi di Geoffrey si spalancarono di colpo e allora vai! vai! le disse con rabbia nel suo sguardo Sansa Stark non vide nient'altro che odio nient'altro che il più totale disprezzo e non mi toccare! Hathard l'hanno trovata mio signore! Ned si alzò rapidamente uomini nostri o dei Lannister? chiese è stato Jory Cassel rispose Vajun Poole il suo attendente la bambina sta bene si hanno ringraziati gli dèi erano giorni che Lord Eddard Stark aveva mandato i suoi uomini alla ricerca di Arya ma anche quelli della regina lo cercavano dov'è? riprese di a Jory di portarla da me subito sono spiacente mio signore rispose Poole gli uomini alla porta erano guardie dei Lannister quando Jory l'ha riportata indietro hanno informato la regina e Arya è stata condotta direttamente al cospetto del re maledetta donna Ned si mise in movimento a passo di carica trova Sansa e portala nelle sale delle udienze potremmo aver bisogno anche della sua parola Eddard Stark sentì crescere dentro di sé un furore cieco mentre scendeva agli scalini della torre i primi tre giorni aveva condotto le ricerche di persona dal momento della scomparsa di Arya non aveva pressoché chiuso occhio e quel mattino si era sentito così angosciato e indebolito da riuscire a reggersi in piedi estento Adesso il furore gli ridava forza Mentre attraversava il cortile della fortezza molti uomini lo chiamarono ma lui li ignorò tutti quanti Avrebbe voluto mettersi a correre come un pazzo ma era il primo cavaliere del re e il primo cavaliere del re deve conservare la dignità Questo non gli impedì di percepire gli occhi che lo seguivano le voci soffocate che si chiedevano che cosa avrebbe fatto Avevano interrotto il viaggio con una sosta forzata in un castello modesto a mezza giornata di cavallo a sud del tridente I membri del convoglio reale vi si erano installati quali ospiti non invitati del signore locale Sir Raymond Derry mentre la ricerca di aria e del garzone del macellaio continuava su entrambe le sponde del fiume Non erano ospiti graditi Sir Raymond viveva sotto i vessilli di pace del re ma nella battaglia del tridente la casa Derry si era schierata con il drago di Rhaegar Targaryen e questo né Robert né Sir Raymond l'avevano dimenticato uomini del re uomini di Derry uomini dei Lannister e uomini di Stark tutti ammucchiati tra le mura di una fortezza decisamente troppo piccola le tensioni stavano avvicinandosi al punto di ebollizione il re aveva requisito la sala delle udienze di Sir Raymond e fu là che Ned trovò tutti quanti la stanza era affollata fin troppo a quattro occhi Robert e lui sarebbero stati in grado di risolvere la situazione in termini amichevoli ma non era questo il caso Robert espressione contratta corrucciata era verso il fondo della sala stravaccato sull'alto scranno di Sir Raymond Cersei Lannister e il loro figlio Joffrey erano in piedi al suo fianco la regina teneva la mano su una spalla di Joffrey il cui braccio era avvolto da una spessa fasciatura di bende di seta Arya era immobile al centro della sala assieme al solo Jory Cassel tutti gli occhi erano puntati su di lei Arya disse Ned a voce alta poi andò da lei gli stivali cheicheggiavano sonori sul pavimento di pietra nell'istante in cui lo vide lei mandò un grido e scoppiò in singhiozzi Ned mise un ginocchio a terra di fronte a lei e la prese tra le braccia padre mi dispiace Ned sentì che sua figlia stava tremando mi dispiace mi dispiace mi dispiace lo so era così minuta tra le sue braccia una ragazzina tutta pelle e ossa chi poteva credere che fosse stata in grado di creare tanti e così gravi problemi sei ferita no il viso di aria era coperto di sporco e le lacrime vi avevano tracciato sinuose e linee rosa fame un po' ho mangiato bacche ma non c'era altro là fuori molto presto sarai nutrita Eddard Stark si raddrizzò e fronteggiò il re qual è il significato di tutto questo? il suo sguardo spaziò per la sala alla ricerca di facce amiche ma con le sole eccezioni di quelle dei suoi uomini non ne trovò Sir Raymond Harry non lasciava trasparire nulla il mezzo sorriso di Lord Renly Baratheon poteva significare qualsiasi cosa il vecchio Sir Barristan comandante della guardia reale appariva giustamente austero gli altri erano tutti uomini Lannister tutti ostili l'unico aspetto positivo di quel cupo consenso era che mancava sia Sandor Clegane sia Jamie Lannister entrambi impegnati nelle ricerche a nord del tridente per quale ragione non mi è stato subito riferito che mia figlia era stata ritrovata la voce di Ned era decisa perché non sono stato immediatamente convocato qui si era rivolto a Robert Baratheon ma fu Cersei Lannister a rispondere come osi rivolgerti al tuo re con un simile tono quietati donna in qualche modo re Robert riemerse alla realtà mi dispiace Ned non è mai stato mio intento spaventare la ragazzina ma portarla qui a risolvere la questione al più presto mi è parsa la cosa migliore da fare e di quale questione stiamo parlando la voce di Ned era glaciale come tu ben sai Stark si fece avanti la regina questa tua figlioletta ha attaccato mio figlio lei è quel suo garzone di macellaio e quella specie di belva feroce che la tua figlioletta si porta sempre dietro ha cercato di strappargli via un braccio non è vero esclamò aria ad alta voce gli è solo dato un morso uno piccolo lui stava facendo del male a Maika Joff ci ha detto come sono andate le cose replicò la regina tu e il tuo macellaio l'avete percosso con dei bastoni mentre tu gli aizzavi contro il lupo le cose non sono andate per niente così aria era di nuovo sulla soglia del pianto Ned le mise una mano sulla spalla invece si sbraitò con tono petulante il principe Joffri mi sono venuti contro tutti assieme e lei ha gettato dente di leone nel fiume mentre parlava il principe non degnò mai aria di uno sguardo a Ned questo non sfuggì bugiardo stai zitta le urlò il principe basta così e questo era l'ordine del re la voce resa rauca dalla rabbia Robert Baratheon si alzò dallo scranno nella sala il silenzio era assoluto Robert folgorò aria da dietro la muraglia della sua monumentale barba nera tu mi dirai ciò che è accaduto bambina mi dirai tutto e mi dirai il vero e ricorda mentire al tuo re è una grave offesa si girò verso suo figlio e quando lei avrà finito verrà il tuo turno ma fino a quel momento joff morditi la lingua quando aria cominciò a raccontare la sua versione ned udì una porta a aprirsi da qualche parte alle sue spalle si girò e vide Vaion Pool entrare nella sala delle udienze assieme a Sansa tutti e due si tennero discretamente sul fondo della sala quando aria arrivò alla parte in cui la spada di joffrey era finita nel tridente Rally Baratheon scoppiò in una risata sonora Sir Barristan fece il re seccato scorta mio fratello fuori di qui prima che si strozzi da ridere mio fratello mio fratello mi onora di eccessiva gentilezza Rally controllò un altro accesso di risa la porta per andarmene la trovo da solo grazie fece un salamelecco all'indirizzo di joffrey e poi forse più tardi mio valoroso principe tu riuscirai a spiegarmi come abbia fatto una ragazzina di nove anni della stessa minacciosa mole di un topolino bagnato prima a disarmarti con un manico di scopa spezzato e poi a gettare il tuo temibile gladio nel fiume la porta cominciò a richiudersi dietro di lui dente di leone lo chiamava quel suo spiedino lo udì sghignazzare Ned venne il turno del principe joffrey pallido in volto di dare una ben diversa versione degli eventi una volta che anche lui ebbe finito il re si alzò di nuovo ma per i sette inferi robert era l'immagine perfetta di uno che avrebbe preferito trovarsi in qualsiasi altro posto all'infuori di quello lei dice una cosa lui un'altra che cosa dovrei fare a questo punto aria e joffrey non erano soli sulla riva del tridente Ned Stark si girò verso il fondo della sala Sansa vieni avanti lui sapeva esattamente cos'era accaduto lo sapeva dalla notte stessa in cui aria era scomparsa di al tuo re cosa è successo piena di esitazione l'altra figlia venne avanti indossava velluto azzurro con decorazioni bianche una collana ad argento attorno al collo i lunghi capelli scuri scintillavano dopo un lungo attento lavoro di spazzola amicò alla sorella poi al suo principe padre io ecco io non lo so anche lei era sulla soglia delle lacrime anche lei avrebbe voluto trovarsi mille miglia lontana non ricordo è successo tutto totalmente in fretta e io schifosa aria piombò addosso alla sorella come un ariete inferocito la batté sul pavimento si mise a tempestarla di pugni bugiarda 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 aria urlò ned fermati ma ci volle tutta la forza di jory cassel per strapparla dalla sorella e impedirle di continuare a colpirla ned rimise in piedi sansa stai bene ti ha fatto male sansa lo sguardo fisso su aria nemmeno parve udirlo la ragazzina è anche più selvatica di quella lurida bestia che si porta dietro sentenziò cersei lannister robert voglio che venga punita per i sette inferi imprecò robert ma guardala cersei è una bambina che cosa ti aspetti che faccia una fustigazione in pubblica piazza alla malora le liti dei marmocchi basta finisce qui nessuno si è fatto niente niente la regina era furibonda joff si porterà queste cicatrici addosso per il resto dei suoi giorni proprio così robert barathion guardò il maggiore dei suoi figli chissà che non gli servano di lezione ned provvedi che tua figlia sia più disciplinata con piacere maestà rispose ned con immenso sollievo e io farò lo stesso con mio figlio concluse robert cominciando ad andarsene e che ne sarà del metalupo la regina non aveva ancora finito farai in modo che anche la bestia feroce che ha sbranato tuo figlio sia più disciplinata il dannato metalupo il re si fermò e tornò a girarsi la fronte corrugata me ne ero completamente dimenticato ned vide aria inrigidirsi tra le braccia di jory non abbiamo trovato traccia del metalupo maestà si affrettò a dire jory cassel no robert non parve particolarmente contrariato e allora addio anche lui la voce di cersei si levò alta cento dragoni d'oro all'uomo che mi porterà la sua pelle pelle costosa commentò robert io non ci voglio avere nulla a che fare donna se proprio la vuoi quella pelle la pagherai con l'oro dei lannister non immaginavo che fossi diventato così avaro ribatte freddamente la regina il re che avevo creduto di sposare mi avrebbe portato la pelle di quell'animale ai piedi del letto prima del tramonto l'espressione di robert si incubì per l'ira niente male come giochetto di magia senza il lupo in questione ma noi ce l'abbiamo un lupo la voce di cersei lannister era calma misurata solamente nei suoi occhi verdi brillava la luce del trionfo a tutti occorsero alcuni momenti per capire come vuoi il re scrollò le spalle irritato sarà ser healing pain a occuparsene robert protestò ned non stai parlando sul serio ne ho abbastanza di questa storia ned il re non era in vena di ulteriori discussioni un metalupo è una bestia selvaggia presto tardi finirà con il rivoltarsi contro tua figlia nello stesso modo in cui ha fatto con giochi dalle un cagnolino sarà più contenta solo in quel momento anche sansa arrivò alla verità non stava parlando di lady vero nel rivolgersi a ned i suoi occhi erano di nuovo pieni di paura oh no non lady lady non ha fatto niente di male a nessuno è buona lady lady nemmeno c'era gridò aria lasciatela stare padre non permettere che la uccidano supplicò sansa ti prego padre non è stata lady è stata animeria e aria non lady padre non lasciare che le facciano del male lady sarà buona padre te lo giuro te lo prometto te lo giuro edard stark poteva solamente prendere sua figlia tra le braccia guardò robert il suo vecchio amico il suo fratello di sangue ti prego robert il nome dell'affetto che hai per me dell'amore che avevi per mia sorella ti prego il re li guardò tutti quanti per un lungo momento infine si girò verso la sua regina che tu sia maledetta Cersei disse con profondo disgusto Ned si raddrizzò sciogliendosi delicatamente dalla stretta di Sansa tutta la stanchezza di quegli ultimi quattro giorni e era tornata addosso in questo caso robert sia tu a farlo c'era di nuovo il gelo nella voce di lord stark abbia almeno questo coraggio robert lo guardò con occhi freddi inespersivi non disse una parola alla fine si girò e se ne andò i passi pesanti come piombo la sala era piena di silenzio il metalupo disse Cersei Lannister non appena il re se ne fu andato dov'è quel metalupo accanto a lei il principe Geoffrey stava sorridendo serba Ariston Selmy rispose con riluttanza l'animale è incatenato fuori dal campo di guardia maesta chiamate Healing Pain non chiamate nessun boy l'affermò Eddard Stark Giori conduci le mie figlie nelle loro stanze e e portami ghiaccio le parole avevano il sapore del fiele ma si costrinse a farle uscire se è da fare ci penserò io tu Stark Cersei Lannister l'osservò piena di sospetto che cos'è un trucco perché proprio tu vuoi fare una cosa del genere perché quella creatura viene dalle terre del nord tutti gli sguardi erano fissi su di lui ma era quello di Sansa il solo a scavarlo dentro merita di meglio del macellaio di corte il cucciolo di metalupo era dove gli avevano detto Ned le rimase seduto accanto per molto tempo gli occhi continuavano a bruciargli il pianto disperato di sua figlia non cessava di martellargli nella mente Lady il nome faceva fatica a lasciare le sue labbra non aveva mai prestato troppa attenzione ai nomi che i suoi figli avevano scelto ma ora guardando la lupa di Sansa si rese conto di quanto lei avesse scelto bene Lady era la più piccola della cucciolata la più graziosa la più gentile e fiduciosa anche lei lo guardò gli occhi dorati nel fitto pelo fulvo alla fine Jory Cassel gli portò ghiaccio quando tutto fu finito disse a Jory scegli quattro uomini voglio che riportino il corpo al nord e che la seppelliscano al grande inverno tutta quella strada Jory non riusciva a crederci tutta quella strada confermò Ned la donna Lannister non avrà mai questa pelle di lupo Ned si avviò verso la torre con la speranza di riuscire finalmente a riposare un poco in quel momento Sandro Clegane e il suo gruppo di cavalieri barcarono il portale del castello di ritorno dalla loro caccia c'era qualcosa gettato di traverso sul dorso del destriero di Clegane una forma avvolta in una cappa resa scura dal sangue nessuna traccia di tua figlia primo cavaliere esordì il mastino ma la giornata non è andata del tutto sprecata abbiamo preso il suo cuccioletto Clegane si sbarazzò del suo macabro carico mandandolo a cadere sul selciato di fronte a Ned lui si piegò in avanti e allungò una mano per scostare la cappa ora avrebbe dovuto trovare le parole da dire ad aria ma non era Nimeria era Maika il garzone del macellaio il suo cadavere incrostato di sangue secco era stato pressoché tagliato in due in diagonale dalla spalla alla cintola in un unico colpo micidiale terribile sferrato dall'alto verso il basso questo ragazzo era a piedi e disarmato Clegane disse Ned e tu l'hai colpito dal tuo cavallo dietro la celata del suo repellente elmo a muso di cane gli occhi del mastino mandarono lampi si è messo a correre Sandor Clegane risa in faccia a Ned non è stato abbastanza veloce Bran una voce gli sussurrava dalle tenebre la caduta pareva non avere fine vola ma Bran non sapeva volare poteva solo continuare a cadere maestro Luin aveva fatto una bambola di creta una volta l'aveva messa nel forno finché la creta non era diventata scura e dura gli aveva messo addosso i vestiti di Bran e poi l'aveva gettato dall'alto delle mura Bran ricordava il modo in cui era esploso in mille pezzi ma io non cado aveva detto a maestro Luin invece continuava a cadere fendeva turbinanti nebbie e grigiastre tendaggi spessi opachi la terra era talmente lontana che riusciva a vederla stento ma sentiva quale folle velocità stava cadendo e sapeva sapeva che cosa l'aspettava là sotto perfino nei sogni nessuno cade per l'eternità e si risveglia sempre una frazione di secondo prima di colpire il suolo anche questo sapeva una frazione di secondo prima di colpire il suolo e se non succedesse chiese di nuovo la voce adesso la terra era più vicina ancora lontanissima ma era nettamente più vicina prima o poi l'avrebbe colpita lassù nelle tenebre il freddo era raggelante niente sole niente stelle solo il terreno che saliva inesorabilmente per frantumarlo le nebbie grigiastre e la voce che sussurrava voleva piangere no non piangere vola non so volare non posso volare non posso disse Bran come fai a esserne certo hai mai provato Bran gettò uno sguardo attorno a sé cercando di capire da dove proveniva un corvo scendeva a spirale assieme a lui lo seguiva nella caduta appena fuori dalla portata delle sue braccia aiutami disse Bran ci sto provando di un po' hai del grano rispose il corvo le tenebre si capovolsero rotearono si rovesciarono Bran riuscì comunque a frugarsi nelle tasche a tirar fuori una manciata di chicchi le tenebre si contorsero i piccoli chicchi dorati gli scivolarono tra le dita e caddero nel vuoto caddero con lui il corvo gli atterrò sulla mano e cominciò a mangiare ma tu sei davvero un corvo chiese Bran e tu stai davvero cadendo chiese a sua volta il corvo sto sognando ne sei certo quando colpirò il suolo mi sveglierò disse Bran all'uccello quando colpirà il suolo morirai detto questo il corvo riprese a mangiare chicchi di grano Bran guardò in basso adesso vedeva le montagne le cime innevate vedeva gli argenti i percorsi dei fiumi che solcavano le foreste chiuse gli occhi e cominciò a piangere le lacrime non ti serviranno a niente disse il corvo te l'ho già detto la risposta non è piangere è volare ma quanto difficile sarà mai il corvo lasciò la mano di Bran e volteggiò attorno ad essa io lo faccio no? tu hai le ali protestò Bran forse anche tu le hai Bran si tastò le spalle alla ricerca di lunghe penne remiganti non trovò niente le sue dita incontrarono soltanto pelle secca tesa esistono diversi tipi di ali insistè il corvo Bran Bran osservò le proprie gambe le braccia vide un corpo scarno dalle ossa sporgenti come rostri era sempre stato così scheletrico non riusciva a ricordare dalle nebbie emerse un volto amore amore lineamenti illuminati di una luce dorata quali altri secondi che mi hanno brann urlò no no il corvo volò via a spirale attorno a lui gracchiando in modo ossessivo quasi furibondo non pensare a quello non ora metti da parte quella cosa dimenticala falla svanire atterrò sulla spalla di brann lo beccò e il volto dorato svanì brann continuava a cadere a una velocità accecante adesso le nebbie cinere gli sibilavano attorno mentre precipitava verso la terra ma che cosa mi stai facendo chiese al corvo aveva la gola contratta dalle lacrime ti sto insegnando a volare non posso volare adesso stai volando no sto cadendo ogni volo inizia con una caluta sentenziò il corvo guarda giù ho paura guarda giù brann guardò sentì le piscere diventare gli acqua il suolo gli stava precipitando addosso l'intero mondo si dilatava sotto di lui una gigantesca scacchiera di bianco marrone verde poteva vedere ogni dettaglio di tale cristallina chiarezza che per un momento dimenticò la paura poteva vedere tutti i sette regni e tutti gli esseri dei sette regni vide grande inverno come solamente le aquile potevano vederlo da quell'altezza le sue altissime torri non erano che bassi tozzi moncherini e le sue imponenti mura nient'altro che rilievi appena accennati nella terra vide maestro Lewin nella sua terrazza intento a studiare il cielo attraverso un lucido tubo di bronzo la fronte aggrottata mentre prendeva alcune note in un libro vide suo fratello Rob più alto e forte di come lo ricordava che si allenava con la spada nel cortile del castello una spada d'acciaio vide Odor il gigante dalla mente semplice dirigersi alla forgia di Mikken con un incudine sulla spalla la trasportava con la medesima facilità con cui un altro uomo avrebbe trasportato una balla di fieno vide il cuore stesso del parco degli dei il volto scolpito nel grande pallido albero di Iga si rifletteva nelle acque scure dello stagno le foglie frusciavano nel vento gelido il volto percepì lo sguardo di Bran i suoi occhi immobili da millenni si distolsero nell'immagine riflessa della superficie delle acque impenetrabili e guardarono in alto verso di lui pieni di coscienza antica guardò verso Est vide un grande vascello sfrecciare sulle acque del morso sua madre era sola in una cabina lo sguardo fisso su una daga macchiata di sangue che teneva davanti a sé vide i rematori con i muscoli tesi ritmicamente sui remi di Sir Roderick Cassel chiuso su una murata scosso da tremiti e sussulti e poi vide una spaventosa tempesta avanzare verso di loro venti impetuosi e lampi accecanti che squarciavano l'orizzonte nero ma nessuno sul vascello sembrava in grado di vedere la minaccia in avvicinamento guardò verso sud verso la maestosa corrente blu verde del tridente vide suo padre il volto scavato dalla sofferenza implorare re Robert e sua sorella Sansa passare le notti a piangere disperata mentre aria osservava in silenzio tenendo cupi segreti sigillati nel cuore attorno a loro si affollavano ombre sinistre una era scura come la cenere e il suo volto era il muso di un mastino di grignante un'altra indossava un'armatura del colore dei raggi del sole dorata e bellissima su entrambe incombeva l'ombra di un gigante in armatura fatto di pietra ma quando il gigante sollevò la celata non c'era nulla dietro di essa in quel nulla solo tenebre e orrido sangue nero Bran alzò lo sguardo e scrutò attraverso il mare stretto verso le città libere il verde mare Dothraki e oltre fino a Vaes Dothrak ai piedi della sua immane montagna fino ai paesi fiabeschi del mare di Giada fino ad Assai presso la terra delle ombre dove i draghi si muovevano nella luce dell'alba guardò infine verso nord vide la barriera che scintillava come il cristallo azzurro Jon Snow il suo fratello bastardo dormiva in un letto gelido e la sua pelle si faceva livida e dura al ricordo del calore perduto per sempre dopo aver visto tutto questo Brandon Stark scrutò oltre la barriera oltre le foreste senza fine ammantate di neve oltre la costa congelata ai giganteschi fiumi di ghiaccio azzurrino oltre le morte ed esolazioni nelle quali nulla cresceva e nulla viveva scrutò a nord ancora più a nord fino ai tendaggi di luce nei cieli vuoti e allora urlò di terrore e il calore delle lacrime cavò sentieri di fuoco nel suo volto ora stai sussurrò il corvo appollaiato sulla sua spalla ora capisci perché devi vivere perché? chiese Bran che non capiva mentre cadeva e cadeva e cadeva perché l'inverno sta arrivando Bran guardò il corvo sulla sua spalla il corvo sostenne il suo sguardo aveva tre occhi e il terzo era pieno di una conoscenza terribile Bran tornò a guardare giù adesso non c'era più niente solamente neve gelo e morte un abisso in fondo al quale rostre di ghiaccio erano in attesa di germirlo lance accuminate che correvano verso di lui tanti altri sognatori giacevano là sotto impalati su quelle gelide punte la paura una paura disperata tornò a invaderlo è possibile che un uomo che ha paura possa essere anche coraggioso era la sua voce a parlare ma lontanissima e flebile possibile fu la voce di suo padre a rispondergli è quello il solo momento in cui un uomo può essere coraggioso adesso bran dichiarò il corvo decidi o voli o muori la morte di ghiaccio salì verso di lui urlando e sibilando brandon stark allargò le braccia e cominciò a volare ali invisibili si riempirono di vento e lo portarono in alto sotto di lui quelle spaventose lance di ghiaccio si allontanarono sopra di lui il cielo si spalancò bran salì e salì era incredibile meraviglioso meglio di qualsiasi scalata di qualsiasi altra cosa potesse esistere il mondo divenne nuovamente piccolo e distante sto volando bran era estatico lo vedo poi di colpo il corvo con tre occhi si staccò dalla sua spalla e si mise a svolazzargli in faccia sbattendo le ali accecandolo bran barcollò mentre il corvo lo artigliava lo beccava nel centro della fronte in mezzo agli occhi no che fai gridò le nebbie grigie si squarciarono come un velo opaco il corvo con tre occhi spalancò il becco e gracchiò un rauco suono di paura che parve arrivare fino al più alto dei cieli non era un corvo era una donna dai lunghi capelli neri bran ricordava di averla già vista ma certo una domestica di grande inverno allora bran si rese conto di essere in un letto alto in una fredda stanza di una delle torri della prima fortezza la donna dei capelli neri lasciò cadere il bacile di terracotta che reggeva mandandolo a frantumarsi sul pavimento cominciò a urlare e si lanciò di corsa lungo i gradini di pietra si è svegliato si è svegliato si è svegliato bran si tastò la fronte in mezzo agli occhi il punto in cui il corvo l'aveva beccato continuava a dolere ma non c'era nessun segno nessuna ferita nessuna traccia di sangue non c'era niente di niente cercò di scendere dal letto ma non ci riuscì si sentiva debole intontito intorpidito accanto a lui qualcosa si mosse saltò atterrando sulle sue gambe lui non sentì nulla due occhi gialli splendenti come soli si fissarono nei suoi la finestra era aperta e ventate d'aria fredda invadevano la stanza ma il calore che emanava il metalupo lo avviluppava come quello generato da un bagno caldo il suo cucciolo ma come poteva essere diventato così grosso Bran cercò di accarezzarlo la sua mano tremava come una foglia al vento Rob Starkey ruppe nella stanza senza fiato per la corsa fino alla cima della torre il metalupo senza nome stava leccando il viso di suo fratello estate Bran lo guardò serio il suo nome è estate Caitlyn saremo ad approdo del re entro un'ora i tuoi sono stati validi rematori capitano Caitlyn si voltò verso di lui dalla murata del vascello costringendosi a sorridere come segno della mia gratitudine ciascuno di loro riceverà un cervo d'argento sei fin troppo generosa Lady Stark il capitano Moreo Tumitis le indirizzò un lieve inchino l'onore di aver avuto a bordo una grande lady come te è l'unica ricompensa della quale i miei uomini hanno bisogno desidero comunque che abbiano in premio quell'argento insiste Caitlyn come tu desideri sorrise Moreo parlava fluentemente la lingua comune dei sette regni con appena una traccia dell'accento delle città libera di Tyrosh le aveva detto che ormai da trent'anni solcava il mare stretto prima come rematore poi come nostromo e infine come capitano di una sua flotta mercantile la danzatrice delle tempeste era la sua quarta nave due alberi e 60 remi ed era la più veloce quando Caitlyn e Sir Roderick erano arrivati a Porto Bianco al termine di una lunga galoppata lungo il fiume tra le navi disponibili la danzatrice si era dimostrata effettivamente la più rapida la gente di Tyrosh era nota per la sua avidità e Sir Roderick aveva insistito perché affittassero un peschereccio nell'arciperego delle tre sorelle ma Caitlyn aveva deciso per il vascello a remi e si era rivelata la scelta migliore avevano avuto venti contrari per la maggior parte della traversata e senza i buoni muscoli dei rematori del capitano Tunitis in quel momento non avrebbero ancora doppiato i promontori delle dita invece erano ormai in vista di approdo del re e della fine del viaggio vicino quel pensiero continuava a rimbalzare nella mente di Caitlyn così vicino sotto le bende di lino nel punto in cui la daga dell'assassino era affondata nella sua carne le dita continuavano a pulsare un dolore sordo ossessionante quasi il preannuncio di altro dolore non sarebbe più riuscita a piegare le ultime due dita della mano sinistra e le altre avrebbero sempre funzionato male eppure era stato un prezzo infimo da pagare per la vita di Bran Sir Roderick apparve sulla tolla mio buon amico lo salutò Moreo da dietro la barba biforcuta tinta di verde quelli di Tyrosh amavano i colori sgargianti perfino per quanto riguardava la barba sono lieto di vedere che ti senti meglio ti ringrazio capitano gli rispose Sir Roderick sono due giorni che non desidero più essere morto si inchinò a Caitlin mia signora in effetti era vero Sir Roderick Cassel si sentiva meglio era un po' dimagrito rispetto a quando avevano lasciato Porto Bianco ma aveva quasi riguadagnato il suo aspetto normale i venti brutali del morso e la rabbia del mare stretto erano stati per lui un autentico tormento durante una tempesta improvvisa a largo della roccia del drago c'era mancato poco che non finisse fuori bordo svanendo negli abissi era riuscito chissà come a rimanere aggrappato a una fune finché tre marinai di Moreo non l'avevano recuperato e portato sotto coperta il capitano mi stava dicendo che il nostro viaggio volge al termine disse Caitlin ma come Sir Roderick tirò fuori un sorrisetto ironico così presto senza più i suoi formidabili baffoni bianchi il valido maestro d'armi di grande inverno aveva un aspetto strano appariva più piccolo meno impetuoso e più vecchio di dieci anni nel corso della sussultante traversata del morso non aveva avuto altra scelta se non sottomettersi ai rasoi del barbiere di bordo il mal di mare aveva continuato a costringerlo piegato in due sulla murata a vomitare nel vento turbinante rendendo disgustosi i suoi magnifici baffi vi lascio discutere i vostri affari in privato Moreo fece un altro lieve inchino e si dileguò la danzatrice delle tempeste filava sull'acqua come una libellula le sue ali composite formate da vari ordini di remi si alzavano e tornavano a immergersi in un ritmo perfetto temo mia signora disse Sir Roderick mantenendo la presa sul parapetto gli occhi fissi sulla costa in rapido movimento di non essere stato per te quello che si direbbe un valido protettore durante questa crociera siamo qui e in Columy Sir Roderick lei gli toccò un braccio è l'unica cosa che conta la mano di Caitlin scivolò sotto la cappa le sue dita rigide incerte incontrarono la daga che portava al fianco l'arma dell'assassino voleva toccarla sapere che era sempre al suo posto in qualche modo questo le dava sicurezza ora dobbiamo raggiungere il maestro d'armi di re Robert riprese con la speranza che ci si possa fidare di lui se è raro un santo che è un uomo vanesio ma anche onesto per antica abitudine Sir Roderick alzò la mano per arricciarsi i baffi che avevano cessato di esistere e reagi inevitabilmente con un'espressione perplessa forse riconoscerà la lama questo si tuttavia mia signora nell'attimo in cui scenderemo a terra saremo in pericolo a corte c'è chi riconoscerà il tuo volto dito corto disse Caitlin a labbra serrate un'immagine salì fluttuando dalla sua memoria la faccia di un ragazzo anche se ormai non lo era più da parecchio suo padre era morto molti anni prima e il ragazzo era diventato Lord Baelish ma quel nomignolo dito corto gli era rimasto appiccicato addosso era stato Edmure fratello di Caitlin a darglielo tanto tempo prima a Delta delle Acque i modesti possedimenti della famiglia Baelish si trovavano su una delle penisole delle dita e per la sua età il giovane Petir Baelish era corto di corporatura e di statura dito corto quindi Ser Rodrik tossicchiò una volta Lord Baelish beh ecco la frase andò alla deriva mentre cercava le parole adatte con fare diplomatico era il protetto di mio padre Caitlin aveva superato la diplomazia da un pezzo siamo cresciuti assieme a Delta delle Acque lui ed io io lo vedevo come un fratello ma i suoi sentimenti verso di me andavano ben oltre quando venne annunciato che sarei andata sposa a Brandon Stark Petir lo sfidò a duello per ottenere la mia mano Brandon aveva vent'anni Petir solamente quindici implorai Brandon di risparmiarlo cosa che lui fece ma non senza avergli lasciato una cicatrice poco dopo mio padre lo mandò lontano ed allora non l'ho più rivisto Caitlin sollevò il viso nel pulviscolo marino quasi che il vento potesse portare via quei ricordi dopo l'uccisione di Brandon Petir mi scrisse a Delta delle Acque ma bruciai quella lettera senza nemmeno leggerla perché sapevo già che sarei andata sposa a Ned al posto di suo fratello di nuovo le dita di Sir Roderick andarono alla ricerca dei baffi che non c'erano più dito corto è un membro del concilio ristretto adesso ero sicura che sarebbe salito ai livelli più alti disse Caitlin è sempre stato molto abile perfino da ragazzo però l'abilità è una cosa la saggezza è un'altra mi chiedo come sia cambiato in tanti anni dall'alberatura del vascello i mozzi lanciarono grida e il capitano riapparve sulla tolda correndo dando ordini tutto attorno a Caitlin e a Sir Roderick cominciò a fervere un'attività quasi frenetica la danzatrice delle tempeste era giunta in vista da Prodo del Re che dominava dalle cime delle tre alture a sud tre secoli prima quelle alture erano coperte di fitte foreste e solamente un pugno di pescatori viveva a sud del fiume delle rapide nere nel punto in cui la sua corrente profonda e impetuosa andava a gettarsi nel mare poi Aegon Targaryen il conquistatore aveva compiuto la traversata partendo dall'isola della roccia del drago qui era prodato con la sua armata e sulla più alta delle tre colline Aegon aveva eretto le prime rozze costruzioni di legno e terra adesso quell'antico insediamento si era dilatato in una città che copriva la costa e la spiaggia a perdita d'occhio magazzini porti secolari e granai case di pietra locante di legno e mercati taverne cimiteri e bortelli una massa di edifici ammucchiati uno sopra l'altro uno dentro l'altro i clamori che si levavano dal mercato del pesce erano udibili fin da quella distanza nel labirinto di costruzioni si snodavano strade tortuose bordate di alberi strane vie serpeggianti e vicoli talmente stretti da impedire il passaggio a due uomini affiancati sulla sommità della collina di Visenia torreggiava il grande tempio di Baelor con le sue sette torri di cristallo dal lato opposto della città sulla collina di Renis si alzavano le mura anerite della fossa del drago la mastodontica cupola ridotta a un mucchio di rovine le porte di bronzo chiuse da centinaia di anni le strade delle sorelle dritte come frecce attraversavano il dedalo urbano molto più lontano alte e possenti si ergevano le mura della città c'erano oltre cento moli lungo la costa di approdo del re nel porto brulicante di vascelli pescherecci per fondali profondi andavano e venivano assieme a chiatte fluviali i traghettatori lavoravano con lunghi pali per far avanzare i loro battelli da una sponda all'altra del fiume delle rapide nere mercantili e remi provenienti dalle città libere di bravos pentos e lis scaricavano scaricavano senza sosta le loro merci ormeggiata accanto a una tozza baleniera del porto di iben caitlin individuò l'elaborata lancia della regina lo scafo che pareva nero a causa delle acque torbide una dozzina di navi da guerra le vele arrotolate i rostri d'acciaio di speronamento accarezzati dalla corrente si allineavano in attesa minacciosa più a monte lungo il fiume al di sopra al di là di tutto questo quasi scurtando dalla parte più alta delle tre colline di Egon si elevavano le sette gigantesche torri cilindriche protette da bastioni di ferro che componevano la fortezza rossa un enorme sinistro labirinto fatto di barriere difensive sale dai soffitti avvolta ponti coperti baraccamenti prigioni sotterranee muraglie traforate da nidi per arcieri un labirinto interamente realizzato in una pallida pietra rossastra era stato Egon il conquistatore a ordinarne la costruzione e Maegor il crudele suo figlio ne aveva visto il completamento dopo aveva fatto decapitare ogni architetto ogni operaio ogni falegname che ci aveva lavorato solo la stirpe del drago conoscerà i segreti della fortezza costruita dal signore dei draghi aveva dichiarato ma i vessilli che ora sventolavano sulle mura non erano neri erano dorati al posto del drago a tre teste che sputava fuoco emblema della casa Targaryen ora garriva nel vento il cervo incoronato della casa Baratheon mia signora mentre ero costretto a letto disse Sir Roderick ho pensato alla nostra migliore linea di condotta non puoi entrare tu stessa alla fortezza andrò io e porterò Aaron da te in un posto sicuro Caitlyn fissava il suo anziano cavaliere sagoma immobile contro l'alveare della città che continuava a scorrere alle sue spalle la danzatrice delle tempeste era prossima alla riva e Moreo gridava ordini nel valeriano involgarito delle città libere passarono a poppa di un maestoso due alberi delle isole dell'estate in manovra per uscire dal porto le immani vele gonfiate dal vento dell'oceano saresti a rischio quanto me non credo proprio Sir Roderick sorrise prima guardando la mia immagine riflessa nell'acqua ha ostentato a riconoscermi l'unica persona a vedermi senza baffi è stata mia madre che è morta da 40 anni ritengo mia signora di essere ragionevolmente il sicuro Moreo gridò un altro ordine con un unico movimento 60 remi si sollevarono dall'acqua le pale ruotarono in posizione rovesciata e i remi tornarono a immergersi invertendo la spinta il vascello iniziò a rallentare in vista dell'ultima fase della manovra di attacco un ultimo ordine e i 60 remi si alzarono e svanirono all'interno dello scafo la nave urtò contro il modo e i marinai della città libera di Tyrosh saltarono a terra e corsero alle funi di ormeggio a prodo del remi mia signora come tu hai comandato il capitano Moreo venne da loro tutto sorrisi mai altra nave ha compiuto una traversata più veloce e sicura della mia danzatrice delle tempeste ti occorre un qualsiasi genere di assistenza per trasportare le tue cose al castello non vado al castello capitano rispose Catherine ma forse puoi suggerirci una locanda un posto pulito e confortevole non troppo lontano dal fiume senza dubbio Moreo si arricciò la verde barba biforcuta conosco diversi posti in grado di soddisfare le tue necessità ma prima mia signora e consentimi di essere temerario ci sarebbe la piccola questione della seconda metà del pagamento che avevamo pattuito più naturalmente quell'argento supplementare che sei stata così generosa da promettere 60 cervi se non vado errato non vai errato capitano 60 cervi per i tuoi rematori confermò caitley per i rematori certamente al tempo stesso mia signora forse sarebbe opportuno che fossi io a conservarli per loro fino al rientro a tirosh per il bene delle loro moglie e dei loro figli è chiaro a dare loro l'argento qui finirebbero con lo sprecarlo tutto in bagordi esistono cose molto peggiori per le quali spendere il proprio denaro si intromise il ser rodrick e l'inverno sta arrivando inoltre ogni uomo ha diritto alle proprie scelte aggiunse caitlin i tuoi rematori si sono ampiamente meritati l'argento e il modo in cui lo spendono è a fare loro come tu desideri mia signora moreo fece un altro sorriso e un altro inchino così caitlin pagò ciascun rematore di persona aggiunse due monete di rame come per gli uomini che trasportarono i suoi bauli su per i viottoli ripidi della collina di visenia fino alla locanda suggerita da moreo la proprietaria era un'arcigna matrona dallo sguardo malfidente quadrò caitlin e ser rodrick con sospetto arrivando addirittura a assaggiare con i denti la moneta che caitlin le offrì giusto per essere sicura che fosse buona le stanze però erano ampie e arieggiate inoltre moreo aveva garantito che nelle cucine della matrona veniva fatta la zuppa di pesce più saporita dei sette regni ma la cosa migliore fu il suo totale disinteresse per la loro identità è meglio che tu stia lontano dalla sala comune raccomandò ser rodrick una volta che si furono sistemati perfino in un posto come questo non si può mai dire chi può vederti ser rodrick indossò una lunga cappa con cappuccio comprendo con essa la cotta di maglia di ferro daga e spada lunga da combattimento sarò di ritorno prima che scenda la notte assicurò assieme a ser aron ora mia signora cerca di riposare un po' caitlin era stanca avevano compiuto un viaggio lungo ed estenuante e gli anni erano passati anche per lei le finestre della stanza si aprivano su per uno scenario di tetti e vicoli con il fiume delle rapide nere sullo sfondo osservò ser rodrick allontanarsi a passo veloce nelle strade affollate restò a osservarlo finché non venne inghiottito dalla folla solo allora si decise seguire il suo suggerimento il materasso era imbottito di paglia non di piume ma non ebbe alcun problema a scivolare nel sonno la svegliarono colpi decisi perentori caitlin si rizzò a sedere sul letto all'esterno i tetti di approdo del re erano immersi nella luminosità purpurea del tramonto aveva dormito più a lungo di quanto avrebbe voluto di nuovo un pugno picchiò duramente contro la porta e una voce disse aprite in nome del re un momento rispose caitlin si avvolse nella cappa la daga si trovava sul tavolino accanto al letto prima di togliere il chiavistello alla porta di legno massiccio la impugnò con determinazione gli uomini che quasi fecero eruzione nella stanza indossavano le armature nere e i mantelli dorati della guardia cittadina il comandante vide la lama nella mano di lei e non represse un sorriso non c'è alcun bisogno di armi mia signora siamo qui per scortarti al castello per ordine di chi le mostrò una pergamena arrotolata nel sigillo di lacca grigia era impresso un usignolo dalle labbra di caitlin sfuggì un sussurro petir aveva fatto molto presto qualcosa doveva essere accaduto a ser rodrick caitlin tenne lo sguardo fisso sul comandante delle guardie voi sapete chi sono no mia signora lord dito corto ha semplicemente ordinato di condurti da lui e di trattarti con il massimo riguardo caitlin a noi aspettate fuori mentre mi preparo si lavò le mani con l'acqua del bacile e le fasciò in bende pulite le sue dita ferite e ancora doloranti erano goffe maldestra nell'allacciare il corpetto nell'annodare al collo la stringa della lunga cappa marrone come aveva fatto dito corto a scoprire che era da prodo del re ser rodrick non gliel'avrebbe mai rivelato era vecchio certo ma anche ostinato come un mulo e fedele fino all'estremo forse erano arrivati troppo tardi forse i lannister avevano raggiunto a prodo del re prima di loro no non poteva essere in quel caso sarebbe stato Ned a venire da lei non quel manipolo di scimmioni ma allora moreo tumitis ecco la risposta moreo sapeva chi erano e dove alloggiavano caitlin si augurò che si strozzasse con i denari avuti per avere passato l'informazione gli uomini della guardia cittadina avevano portato un cavallo anche per lei mentre i lampioni stradali venivano accesi caitlin circondata da guardie che indossavano mantelli dorati sentì su di sé gli occhi della città quando arrivarono la grata della fortezza rossa era serrata e il grande portale principale era sbarrato per la notte ma in tutta l'immane struttura luci scintillavano dietro le molte finestre gli uomini della guardia lasciarono le loro cavalcature fuori dalle mura escoltarono caitlin attraverso la stretta porta di una garitta poi lungo un'interminabile scala a spirale che saliva dietro una delle sette torri l'uomo sedeva da solo a un massiccio tavolo di legno un lume a olio accanto a sé mentre scriveva le sue mani posarono la penna e i suoi occhi si fissarono su di lei quando le guardie la introdussero nella stanza spoglia cut disse l'uomo lentamente per quale ragione mi hai fatta condurre qui in questo modo lui si alzò facendo un secco gesto alle guardie lasciateci gli armati si dileguarono confido che tu non sia stata maltrattata riprese dopo che i loro passi si furono persi nel silenzio della torre ho dato istruzioni molto precise in merito notò le bende le tue mani non sono avvezza a venire requisita come una donna da postribolo Caitlyn con voce gelida ignorò la domanda da ragazzo conoscevi il valore della cortesia col tempo è forse cambiato qualcosa Petir ho provocato la tua ira mia signora Lord Baelish apparve contrito mai è stata questa la mia intenzione l'espressione del suo viso fece riemergere in Caitlyn ricordi lontani ma vividi durante la sua adolescenza Petir era stato un ragazzo mellifluo in modo accattivante dopo ognuna delle sue discolate appariva sempre contrito era una specie di dono no il tempo non lo aveva cambiato molto quel ragazzo minuto era diventato un uomo minuto di qualche centimetro più basso di lei un uomo snello rapido nei movimenti con i medesimi lineamenti affilati di allora gli stessi occhi irridenti tra il grigio e il verde adesso anche se non aveva ancora trent'anni il suo mento era ornato di un pizzetto a punta e qualche filo d'argento aveva fatto la sua comparsa sulle tempie un argento che si intonava alla fibbia a forma di usignolo che chiudeva il suo mantello aveva sempre amato l'argento fin da ragazzino come hai fatto a sapere che ero in città gli chiese lord varis sa sempre tutto un nuovo sorriso melliflu apparve sul volto di lui sarà con noi a breve ma prima ho voluto vederti da solo troppi anni kat quanti ci pensi ma guarda di nuovo caitlin ignorò il suo tentativo alla familiarità è stato il ragno tessitore a trovarmi meglio che tu non lo chiami a quel modo dito corto strinse gli occhi è un tipo molto sensibile immagino sia dovuto al fatto che è un eunuco nulla accade in questa città senza che varis lo sappia certe volte sa addirittura le cose prima che accadano a spie dappertutto i suoi uccelletti li chiama è stato uno di loro a udire della tua venuta fortunatamente varis è venuto da me per primo e perché proprio da te perché no si strinse nelle spalle sono maestro del conio e consigliere personale del re ser baristan lord relli sono andati al nord incontro a robert lord stanni si è salpato per la roccia del drago oltre a me c'è solo il gran maestro paesel per cui sono stato io la scelta più ovvia in fondo ero amico di tua sorella lisa varis questo lo sa e cos'altro sa varis tutto quanto eccetto la ragione che ti ha portata fin qui Petir innercò un sopracciglio quale ragione ti ha portata fin qui caitlin a una moglie è consentito sentire nostalgia del proprio marito e se una madre vuole essere vicina alle proprie figlie chi le direbbe di no superbo mia delicata signora assolutamente splendido dito corto rise ma non ti aspettare che mi beva una storiella del genere ti conosco troppo bene quelle belle parole dei talli com'è che fanno famiglia dovere onore caitlin le recitò meccanicamente sentendo la gola diventarle secca di colpo dito corto aveva ragione la conosceva troppo bene ma certo famiglia dovere onore le fece ecco lui questi richiedevano che tu rimanessi dove il primo cavaliere del re ti ha lasciata a grande inverno invece mia signora deve essere successo qualcosa di grave questo tuo viaggio così inaspettato e improvviso indica urgenza ora ti prego permettimi di aiutarti i vecchi cari amici non dovrebbero esitare ad appoggiarsi l'uno all'altro ci fu un cauto bussare alla porta entra disse dito corto l'uomo che entrò era calvo come un uovo e di corportura abbondante azimato profumato incipriato sopra una veste di seta color porpora lunga fino ai piedi indossava un gilet filigranato d'oro ai piedi calzava pantofole di soffice velluto lady stark le prese una mano tra le sue quale ineguagliata gioia rivederti dopo così tanti anni il suo tocco era molle e umido il suo alito sapeva di lilla oh le tue povere mani ti sei forse bruciata mia dolce signora le dita sono talmente delicate il nostro buon maestro paeselsa a preparare unguenti miracolosi vuoi che te ne faccia portare un vasetto ti ringrazio mio signore caitlin ritirò la mano dalle sue il nostro maestro lewin si è già occupato delle mie ferite quale ferale notizia quella riguardante tuo figlio lord varis fece oscillare il cranio lucido e in tale tenera età crudeli sono gli dei in questo lord varis mi trovi perfettamente d'accordo rispose caitlin molto crudeli sono gli dei il titolo nobiliare era una cortesia estesa a tutti i membri del concilio del re la sola cosa della quale varis era signore erano le sue ragnatele sotterranee i suoi soli sudditi le spie che lavoravano nell'ombra voglio credere mia dolce lady disse leonuco facendo volteggiare le dita grassocce che tu e io ci troveremo d'accordo su molto più che la crudeltà degli dei ho profonda stima del lord tuo marito il nostro nuovo primo cavaliere e so che entrambi amiamo il re certo si costrinse a dire caitlin naturalmente mai un re è stato più amato del nostro re robert dito corto ebbe un altro dei suoi sorrisi perlomeno stando a ciò che ode lord varis e anche un'altra cosa mia signora riprese leonuco ci sono uomini nelle città libere dotati di stupefacenti poteri di guarigione di solamente una parola e io invierò uno di loro al tuo amato bran maestro luin continua a fare tutto il possibile per bran caitlin non avrebbe parlato di bran non lì con quegli uomini si fidava poco di dito corto e nulla di varis non avrebbe permesso loro di vedere la sua sofferenza mi dice lord bailish continuò rivolta a varis che è a te che devo il piacere di trovarmi alla fortezza rossa oh sì lord varis ridacchiò come una ragazzina confesso la mia colpa tuttavia spero che vorrai perdonarmi gentile signora si accomodò su una sedia e intracciò le dita poi disse mi chiedo ora se possiamo incomodarti con la richiesta di mostrarci la daga caitlin lo osservò incredula ragno tessitore lo era veramente solo molto più temibile molto più letale sapeva cose che nessuno poteva neppure immaginare a meno che ser rodrick disse lentamente che cosa gli avete fatto un momento un momento dito corto appariva anche più stupefatto di lei mi sento come il cavaliere è arrivato su un campo di battaglia senza lancia di quale daga stiamo parlando e chi sarebbe ser rodrick ser rodrick cassell maestro d'armi di grande inverno lo informò varis ti assicuro lady stark che al tuo valente cavaliere nessuno ha fatto nulla si è presentato alla fortezza nel primo pomeriggio per fare visita a ser aaron santagar giù all'arsenale hanno parlato di una certa daga poi verso il tramonto sono andati via insieme diretti a quel sudicio alloggio nel quale tu stavi sono ancora là tutti e due intenti a bere nella sala comune in attesa del tuo ritorno ser rodrick è stato molto in ansia nello scoprire che te n'eri andata come sai tutto questo cinghettii di uccellini rispose varis sorridendo io so molte cose dolce signora è la natura stessa del mio servizio per il re scrollò le spalle tu hai con te quella daga si eccola caitlin la tolce da sotto il mantello e la gettò sul tavolo proprio davanti a lui forse altri cinghettii ti diranno il nome dell'uomo a cui appartiene con esagerata delicatezza lord varis sollevò il pugnale e fece scorrere il polpastrello del pollice lungo il filo della lama il sangue sgorgò d'improvviso rosso scintillante leunuco strillò e lasciò cadere l'arma attento lo avvertì caitlin è estremamente affilata acciaio di valyria riconobbe dito corto nulla tiene il filo come l'acciaio di valyria varis si succhiò il dito lanciando a caitlin un opaco sguardo di ammonimento eccellente bilanciamento dito corto soppresò la daga nel palmo della mano tu vuoi dunque scoprire a chi appartiene è questo lo scopo della tua venuta non hai alcun bisogno di ser aaron per avere informazioni mia signora avresti potuto venire direttamente da me se l'avessi fatto petir che cosa mi avresti detto gli chiese caitlin che esisteva un solo pugnale del genere ad approdo del re dito corto afferrò la lama tra il pollice e l'indice esegui una secca torsione del polso e lanciò la daga dietro le proprie spalle non ebbe bisogno di osservarla conficcarsi in profondità nel rivestimento di quercia della parete l'acciaio che vibrava rapido dopo l'impatto e che apparteneva a me a te non aveva alcun senso petir non era venuto a grande inverno in realtà dito corto attraversò il locale a passi immisurati mi è appartenuta fino al torneo svoltosi in onore del compleanno del principe gioffri staccò la lama dal legno io avevo scommesso su ser jamie lannister io e metà della corte la sua espressione mite e indifesa lo fece apparire di nuovo l'adolescente pronto a tutto di delta delle acque così quando ser lora styrel lo disarcionò molti di noi si ritrovarono con le tasche vuote ser jamie venne alleggerito di cento dragoni d'oro la regina si giocò un pendente di smeraldi e io persi il mio coltello sua grazia sersi riebbe il pendente di smeraldi ma colui che aveva vinto la scommessa si tenne tutto il resto chi fu il vincitore la voce di catherine era di nuovo secca per la paura e per il furore il dolore alle dita aveva ripreso a fiammeggiare chi Tyrion Lannister rispose dito corto mentre Lord Varys non staccava gli occhi e dal viso di caitlin il folletto John il cozzare delle spade eccheggiava per tutto il cortile dilatandosi nell'aria gelida John andò nuovamente all'attacco mentre il sudore gli scendeva lungo il torace protetto dalla lana nera uoio spesso e maglia di ferro Gren barcolò all'indietro e cercò di difendersi alla meglio sollevando la spada John penetrò nella sua guardia con un fendente basso e picchiò con forza contro la gamba dell'avversario facendolo barcollare ancora di più Gren tentò un fendente dall'alto in basso ma John parò e rispose con una falciata rovesciata che ammaccò l'elmo dell'avversario nel momento in cui Gren tentò un fendente laterale John deviò la lama e con il gomito avvolto nella maglia di ferro colpì con forza dritto al centro del torace dell'avversario che crollò pesantemente nella neve John gli fece volare via la spada con un fendente al polso che strappò a Gren un grido di dolore basta così la voce di Sir Alistair Thorn era affilata quanto una lama d'acciaio di Valeria Gren si afferrò la mano colpita gemendo il bastardo mi ha spezzato il polso il bastardo ti ha tagliato i tendini paccato in due quella ciucca vuota che hai al posto del cranio e infine mozzato la mano o meglio avrebbe fatto se queste spade fossero state affilate per fortuna ai guardiani della notte servono anche stallieri oltre che il ranger Sir Alistair fece un cenno a Yeren e al rospo voi due rimettete in piedi questo bue ad organizzare un funerale il suo John si tolse l'elmo e intanto osservava gli altri due ragazzi che tiravano su granda terra la fredda aria del mattino era piacevole sul viso si appoggiò sulla spada e respirò a pieni polmoni concedendosi un momento per assaporare la vittoria quella è una spada lunga da combattimento non il bastone di un vecchio cadente commentò Sir Alistair acido gli fanno forse male le ginocchia Lord Snow John odiava quell'appellativo un soprannome che Sir Alistair gli aveva appiopato fin dal primo giorno di addestramento gli altri ragazzi l'avevano adottato all'istante e così adesso ovunque andasse John non udiva altro rimise la spada nel fodero no replicò Thorne andò verso di lui a passi rapidi accompagnato solo da un lieve fruscio di cuoio nero era sulla cinquantina corporatura massiccia molto grigio di capelli gli occhi come scheggi di ossidiana fuori la verità gli comandò sono stanco ammise John aveva il braccio destro intorpidito per il peso della spada e adesso che lo scontro era finito cominciava a sentire il dolore dei colpi degli avversari stanco no sei debole ho vinto non sei tu ad avere vinto è quel bue ad avere perso uno degli altri ragazzi ridecchiò ma John evitò di ribattere ormai aveva imparato le sue lezioni aveva abbattuto tutti quelli che Sir Alistair gli aveva mandato contro dal maestro d'armi aveva ottenuto solo derisione Thorne lo odiava su questo non aveva più dubbi ma naturalmente odiava gli altri ragazzi anche più di lui chiudiamo qui gli apostrofò Thorne c'è un limite all'inettitudine che riesco a mandar giù in un solo giorno semmai gli estranei ci verranno incontro mi auguro proprio che abbiano arcierie carne da freccia questa è la maggior parte di voi John seguì il resto delle reclute verso l'armeria camminava da solo come quasi sempre accadeva c'erano una ventina di giovani nel gruppo con il quale si stava addestrando ma non uno che potesse definire un amico la maggior parte aveva due tre anni più di lui però nessuno riusciva sia pure remotamente a eguagliarlo in duello Darion era svelto ma aveva troppa paura di essere colpito Pip maneggiava la spada come se fosse stata una daga Yaren era delicato come una ragazza grand lento e impacciato Alderman aveva colpi carichi di forza bruta ma finiva dritto in tutti gli attacchi dell'avversario più aveva a che fare con loro più il suo disprezzo aumentava una volta dentro John appese la spada a un gancio che sporgeva dalla parete di pietra grezza ignorando gli altri metodicamente cominciò a togliersi la maglia di ferro la tunica di cuoio le maglie insuppate di sudore blocchi di carbone ardevano in un bracere di ferro collegato verso il fondo della stazione allungato non serviva a niente quel bracere John si ritrovò a tremare il gelo non lo abbandonava mai nel giro di pochi anni perfino la memoria del calore sarebbe svanita la stanchezza gli crollò addosso di colpo mentre tornava a indossare i rozzi indumenti neri che costituivano la tenuta di ogni giorno sedette su una panca e lottò per chiudere il mantello con le dita interezzite retto maledetto pensò ricordando grande inverno con le sue acque bollenti che scorrevano nelle pareti simili a sangue nelle vene di un corpo umano al castello nero le sorgenti di calore erano cosa rara qui i muri erano gelidi e le persone anche di più nessuno gli aveva detto che entrare nella confraternita avrebbe significato tutto questo nessuno tranne il folletto nella lunga strada verso l'estremo nord il nano era stato l'unico a dirgli la verità ma a quel punto era troppo tardi e suo padre sapeva cosa avrebbe trovato sulla barriera doveva saperlo e questa consapevolezza contribuiva solo a rendere la sofferenza più acuta in quel luogo freddo ai confini del mondo perfino suo zio l'aveva abbandonato lassù l'affabile Benjen Stark che aveva conosciuto si era tramutato in un individuo completamente diverso qual è primo ranger Benjen passava le sue serate assieme al lord comandante Mormont a maestro Aemon e agli altri ufficiali dei guardiani John era stato scaricato senza troppi complimenti alle cure non proprio cordiali di Sir Alistair Storn tre giorni dopo il loro arrivo a John era giunta voce che Benjen Stark avrebbe guidato una mezza dozzina di uomini in un pattugliamento nella foresta stregata molto a settentrione della barriera la notte prima della spedizione nella grande sala comune dalle pareti foderate di legno scuro John avrebbe implorato lo zio di lasciarlo andare con lui non siamo a grande inverno Benjen aveva continuato a tagliare la carne con forchetta e pugnale sulla barriera un uomo ottiene solo ciò che si guadagna tu non sei un ranger John è un ragazzo inesperto che puzza ancora d'estate avrò 15 anni il prossimo compleanno aveva ribattuto John solidamente quasi un uomo fatto sei un ragazzo John la fronte di Benjen si era grottata e tale resterai finché Ser Alistair non dirà che sei pronto a diventare un uomo dei guardiani della notte se hai pensato che avere il sangue degli Stark ti avrebbe fruttato un trattamento diverso toglitelo dalla testa nel momento in cui prestiamo giuramento alla confraternita le nostre famiglie passano in seconda linea tuo padre avrà sempre un posto nel mio cuore ma adesso questi sono i miei fratelli con la punta del pugnale aveva indicato gli uomini attorno a loro duri uomini vestiti di nero John si era alzato all'alba del giorno seguente per vedere lo zio partire uno dei componenti della pattuglia un uomo grosso e brutto cantava una canzone oscena nel sellare il cavallo e il suo fiato condensava nell'aria glaciale del mattino Benjen Stark aveva sorriso ma non aveva avuto nessun sorriso per sua nipote quante volte dovrò ancora dirtelo John la risposta è no parleremo al mio ritorno osservando lo zio e gli altri allontanarsi lungo il tunnel d'uscita a John erano tornate in mente le parole che il folletto gli aveva detto sulla strada del re e poi un'immagine aveva attraversato la sua mente Ben Stark cadavere nella neve arrossata dal suo stesso sangue aveva provato un'orrida repulsione cosa stava diventando più tardi nella solitudine della sua cella alloggio aveva affondato il volto nel caldo pelo bianco di spettro solo certo ebbene se quello era il suo destino la solitudine sarebbe diventata la sua corazza non c'era nessun parco degli dèi a Castello Nero solo un piccolo tempio accudito da un septum quasi sempre ubriaco John riuscì a trovare la forza di non pregare nessuno degli dèi antichi o recenti che fossero che se gli dèi esistevano dovevano essere crudeli e implacabili al pari dell'inverno aveva nostalgia dei suoi veri fratelli Rickon il più piccolo gli occhi che brillavano quando voleva farsi dare un dolcetto Rob suo rivale e migliore amico suo eterno compagno Bran ostinato e curioso pronto ad accodarsi a John e a Rob qualsiasi cosa volessero fare in qualsiasi posto volessero avventurarsi aveva nostalgia anche delle ragazze perfino di Sansa che l'aveva chiamato sempre e solamente il mio fratellastro da quando aveva imparato il significato della parola bastardo e poi Aria quella cosina a pelle e ossa con le ginocchia e i gomiti perennemente scorticati e i capelli sempre arruffati e i vestiti sempre mal ridotti ma al tempo stesso così fiera così forte dentro Aria gli mancava addirittura più di Rob perché come lui sembrava trovarsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato lei riusciva sempre a farlo sorridere e adesso avrebbe dato qualsiasi cosa per averla lì per scompigliarle ai capelli e guardarla fare una smorfia per sentirla concludere una frase con lui mi hai spezzato il polso razza di bastardo John alzò gli occhi nel udire la voce sgradevole carica di minaccia Gren collo spesso e faccia congestionata torreggiava su di lui alle sue spalle si ammucchiavano tre dei suoi amici uno era Toddler un ragazzo basso dalla voce raschiante che tutti chiamavano Rospo gli altri due erano i reietti che Yoren aveva portato con sé al nord stupratori delle penisole delle dita John ne aveva dimenticato i nomi a meno che non fosse assolutamente necessario e evitava di rivolgere loro la parola erano dei prepotenti dei bruti senza nemmeno la parvenza dell'onore John si alzò in piedi se me lo chiedi con gentilezza ti spezzo anche l'altro Gren aveva 16 anni e lo dominava di tutta la testa erano in quattro e più grossi di lui ma nessuno gli faceva paura nel cortile li aveva battuti uno dopo l'altro magari invece siamo noi a spezzare te disse uno degli stupratori perché non ci provi John fece per prendere la spada ma uno di loro glielo impedì torcendogli il braccio dietro la schiena ti hai fatto fare una figura schifosa sbraitò il rospo facevate schifo già prima lo rimbeccò John il ragazzo che gli teneva il braccio aumentò con violenza la torsione e il dolore fiammeggiò dietro di lui ma John incassò stoicamente senza emettere un lamento il rospo si avvicinò hai la lingua pronta signorino aveva occhietti ravvicinati porcini l'hai forse presa da tua madre bastardo cos'è la tua madre una puttana prova a dirci come si chiamava sghignazzò magari un paio di botte glielo date anche io John si contorse come un'anguilla il tacco del suo stivale calò come un maglio sul piede del ragazzo che lo tratteneva un urlo e il braccio fu libero John si avventò contro il rospo e lo scaraventò su una panca in un batter d'occhio gli fu addosso le mani serrate sulla gola e cominciò a sbattergli la nuca contro il pavimento di terra battuta i due reietti delle dita lo strapparono via e lo scaraventarono lontano Grant cominciò a prenderlo a calci e John stava rotolando lontano dai colpi quando una voce rimbombò nell'oscurità dell'armeria piantatela immediatamente John fu subito in piedi Donald Noy incombeva su di loro c'è il cortile per i combattimenti disse l'armaiolo tenete le vostre risse fuori dalla mia armeria se non volete che diventino le mie risse la qualcosa non vi piacerebbe per niente il rospo era ancora con il sedere a terra e si massaggiava la nuca con circospezione quando ritirò le dita lo trovò umide di sangue ha cercato di uccidermi vero confermò uno degli stupratori l'ho visto anch'io mi ha spezzato il polso Grant lo protese verso Noy perché potesse esaminarlo una botta l'armaiolo sprecò meno di un decimo di occhiata forse una slogatura maestro Aemon ti darà un unguento Toddler va con lui una testa come quella è meglio che non stia da sola e voi altri tornate nelle vostre celle non tu Snow tu rimani John si lasciò cadere pesantemente su una lunga panca con il braccio pulsante per il dolore ignorando le occhiate piene di silenziose promesse che gli altri gli lanciarono andandosene alla confraternita serve ogni uomo disponibile disse Noy dopo che il manipolo si fu dileguato perfino uomini come il rospo non ricaverai molto onore uccidendolo ha detto che mia madre era una puttana l'ho sentito e con ciò Lord Eddard Stark non è un uomo da farsi le puttane esclamò John il suo onore non gli ha certo impedito di mettere al mondo un bastardo lo sbaglio l'ira di John era divorante posso andare te ne andrai quando te lo dirò io John distorse lo sguardo e si mise a fissare con aria cupa il fumo che si levava dal bracere le grosse dita di noi gli afferrarono il mento e lo costrinsero a voltare il capo guardami quando ti parlo ragazzo John lo guardò l'armaiolo della confraternita naso largo e piatto barba ispida non rasata aveva il torace simile a un barile di birra e il ventre non era da meno la manica sinistra della sua tunica di lana nera vuota era ripiegata all'altezza della spalla e trattenuta da una spilla d'argento a forma di spada da combattimento non sono le parole a fare di tua madre una puttana tua madre era ciò che era e nulla di ciò che il rospo può dire cambierà quel passato qui sulla barriera ci sono uomini le cui madri erano per davvero puttana nulla mia quel pensiero continuava a rimbalzare instabile e ostinato nella mente di John ma la realtà era che lui di sua madre non sapeva nulla Eddard Stark non aveva mai detto una parola su di lei eppure John la sognava tanto spesso da riuscire quasi a vederne il viso e nei suoi sogni sua madre era bellissima di origini nobili con occhi pieni di gentilezza tu credi di aver avuto un'esistenza grama perché sei il figlio bastardo di un grande signore riprese l'armaiolo quel ragazzo Yeren è stato lasciato sulla soglia di una casa di un Septon e Cotterpike è nato in una cantina dalla serva di una taverna adesso è il comandante del forte orientale non me ne importa ribatte John non mi importa di loro né di te di Thor né di Benjen Stark o di chiunque altro io lo odio questo posto è troppo è troppo freddo lo è freddo duro crudo così è la barriera e così sono gli uomini che la sorvegliano un posto ben diverso da le favolette che ti ha raccontato la tua valia lo sai che ti dicono Snow che mi faccio una pisciata su quelle sue favolette e sulla tua balia la realtà della barriera rimane e tu ora ne fai parte a vita vita ripetè John il volto pieno di amarezza della vita l'armaiolo Donald Noy sapeva molto l'aveva vissuta l'aveva prestato giuramento solo dopo aver perduto il braccio nell'assedio di Capotempesta prima era stato fabbro di Stannis Baratheon il fratello del re aveva visto i sette regni da cima a fondo era andato a puttane e si era obbriacato in mille taverre aveva combattuto mille battaglie si diceva che fosse stato lui a forgiare la mazza afferrata con la quale il re Robert aveva spezzato la vita di Rhaegar Targaryen nella battaglia del tridente aveva fatto cose che John non sarebbe mai stato in grado neppure di immaginare e quando ormai era diventato vecchio ben oltre i trent'anni era stato colpito in profondità da un'ascia la ferita aveva continuato a suppurare finché non c'era stata altra via che amputargli il braccio solo allora Moncom ancora ben lontano dalla fine dei suoi giorni era salito fino alla barriera esatto vita riprese donna a noi sarà breve o lunga la scelta la scelta sarà tua se vai avanti lungo la strada sulla quale ti sei incamminato è solo questione di tempo prima che uno dei tuoi fratelli venga a farti visita nel mezzo della notte per tagliarti la gola non sono miei fratelli replicò John con rabbia mi odiano perché sono migliore di loro no ti odiano perché ti comporti come se lo fossi ti guardano e quello che vedono è un bastardo tirato su in un castello di grandi signori che crede di essere anche lui un grande signore l'armaiolo si protese verso di lui ebbene non lo sei ricordatelo sei uno Snow non uno Stark sei un bastardo e non un prepotente prepotente John quasi si strozzò nel ripetere la parola un'accusa talmente infamante da mozzargli il fiato in gola sono stati loro ad aggredirmi quattro contro uno quattro che là fuori nel cortile tu avevi umiliato e che probabilmente di te hanno paura ho guardato come combatti Snow addestrarsi con te è uno spreco di tempo e di forze a darti una spada che taglia quei quattro sarebbero carne da macello tu lo sai io lo so e anche loro lo sanno tu non lasci loro scampo li copri di vergogna di un po' questo ti ha forse fatto sentire orgoglioso John esitò si era sentito orgoglioso nel batterli tutti e perché non avrebbe dovuto ma adesso da come l'armaiolo la stava mettendo era come se avesse fatto qualcosa di sbagliato sono tutti più vecchi di me disse sulla difensiva più anni più muscoli più forza è vero non scommetto che è stato il maestro d'armi di grande inverno insegnarti come ci si batte con avversari più grossi chi era? un vecchio cavaliere? Sir Roderick Cassel rispose John cauto c'era una trappola qui poteva sentirla stringersi attorno a lui ora tu ascolta a me ragazzo e ascoltami bene Donald Noy tornò a protendersi verso di lui faccia a faccia nessuno di questi quattro che ti hanno aggredito ha mai avuto un maestro d'armi finché non è apparso Sir Alistair i loro padri erano contadini carrettieri bracconieri fabbri minatori e rematori su un mercantile quello che sanno del duello l'hanno imparato tra i magazzini del porto nei vicoli fetidi di vecchia città e di Lannisport nelle taverne e nei bordelli lungo la strada del re forse prima di venire alla barriera avranno anche tentato di duellare con dei bastoni ma credi alle mie parole neppure uno su venti è mai stato abbastanza ricco da potersi comprare una vera spada adesso era il volto duro di Donald Noy a essere pieno di amarezza quanto sei orgoglioso delle tue vittorie ora Lord Snow non chiamarmi a quel modo esclamò John ma la carica che nutriva la sua rabbia si era esaurita di colpo si sentì pieno di vergogna io non ho mai ecco pensato che meglio che cominci a farlo pensa Snow lo amonì noi oppure cominci ad andare a dormire con un pugnale accanto al letto ora puoi andare era quasi mezzogiorno il sole si era aperto la strada tra le nubi quando John si fermò fuori dall'armeria e alzò lo sguardo alla barriera torreggiante dilatazione di sfumature azzurre cristalline sotto i raggi accecanti era arrivato al cristallo nero settimane prima oppure quella visione continuava a mettergli il gelo nelle ossa secoli e secoli di polvere pietrisco detriti portati dal vento l'avevano butterata scavata coperta di strati opachi spesso appariva di un grigio plumbeo il colore del cielo nuvoloso ma quando il sole la illuminava scintillava come se contenesse una sua interna luce vivente la più grande struttura mai eretta da mano d'uomo erano state queste le parole di Benjen Stark aveva detto a Jon quando l'avevano avvistata la prima volta in lontananza risalendo la strada del re e di certo anche la più inutile questo invece era stato il giudizio di Tyrion Lannister un giudizio pronunciato con una smorfia ironica ma continuando ad avvicinarsi i giudizi erano cessati e anche la smorfia ironica la barriera era visibile da miglia di distanza una linea azzurro pallido estesa da un estremo all'altro dell'orizzonte settentrionale gigantesca ininterrotta questo è l'ultimo confine del mondo pareva essere il suo silenzioso messaggio quando finalmente erano arrivati in vista del castello nero le torri di pietra e i fortini di tronchi erano sembrati nient'altro che una manciata di giocattoli gettati nella neve frammenti insignificanti al cospetto della mastodontica muraglia di ghiaccio l'antica piazzaforte dei confratelli nero non somigliava neppure remotamente a grande inverno non era nemmeno un castello vero e proprio non c'erano mura attorno al castello nero non poteva essere difeso né da sud né da est né da ovest ma non aveva importanza per i guardiani della notte esisteva un'unica direzione dalla quale poteva arrivare il pericolo nord e a nord si ergeva la barriera era alta 250 metri il triplo del più alto dei castelli che proteggeva Vengeance Stark aveva detto che la sua sommità era larga abbastanza da permettere il passaggio di 12 uomini a cavallo in armatura pesante e affiancati mastodontiche catapulte e ciclopiche gru di legno parevano montare in sentinella su di essa simili a vestigia scheletriche di uccelli leggendari e tra quegli scheletri piccoli come formiche camminavano gli uomini in nero in quel momento osservando la barriera dalla soglia dell'armeria John si sentiva schiacciato come quando l'aveva vista per la prima volta era la natura profonda della barriera ci si dimenticava della sua esistenza come ci si dimentica del suolo dell'aria del cielo ma c'erano delle volte in cui pareva che al mondo non esistesse nient'altro qualcosa di molto più antico dei sette regni solamente a osservarla a John venivano le vertigini poteva percepire su di sé il peso titanico di tutto quel ghiaccio come se stesse per crollargli addosso e capì che se fosse crollata l'intero universo sarebbe stato travolto ti spinge a domandarti cosa c'è al di là John sussultò e si guardò attorno poi guardò giù Lannister non ti avevo visto voglio dire pensavo di essere solo è sempre interessante cogliere la gente di sorpresa Tyrion Lannister era talmente infagottato di pellicce da sembrare un orso in miniatura non si sa mai quello che si può imparare non imparerai niente da me dichiarò John dopo la conclusione del viaggio non aveva visto molto spesso il nano quale fratello della regina Tyrion Lannister era considerato un onorevole ospite dei guardiani della notte George Mormont il comandante gli aveva dato i propri quartieri della torre del re chiamata a quel modo anche se nessun re ci alloggiava da oltre un secolo inoltre Tyrion cenava al tavolo di Lord Mormont passava i giorni cavalcando sulla barriera e le notti giocando a dadi e bevendo assieme a Ser Alistair a Bowen Marsh e agli altri ufficiali della confraternita oh io imparo dappertutto il piccolo uomo indicò la barriera con un nodoso contorto bastone di legno scuro per quale ragione quando erige un muro qualcun altro immediatamente si domanda cosa c'è dall'altra parte inclinò la testa di lato e scrutò Jon con quei suoi curiosi occhi dai colori diversi perché tu vuoi sapere cosa c'è dall'altra parte non è così non particolarmente rispose Jon invece avrebbe voluto andare in pattuglia con Benjen Stark ed esplorare le profondità della foresta stregata pronto a combattere i bruti di Mance Raider il re oltre la barriera pronto a difendere il reame contro gli stranei tuttavia decise che era meglio non parlare di ciò che voleva i ranger dicono che ci sono solamente boschi montagne e laghi ghiacciati poi tanta neve tantissimo ghiaccio non dimenticarti degli elfi maligni e delle creature della notte aggiunse Tyrion non commettere l'errore di farlo Lord Snow a che altro servirebbe quella cosa enorme non chiamarmi Lord Snow preferiresti essere chiamato il folletto Tyrion Lannister inarcò un sopracciglio mostra che le loro parole possono ferirti e non sarai più libero dalla derisione se proprio vogliono darti un nome accettalo fallo tuo in modo che poi non possono mai più usarlo per farti del male Tyrion fece un altro movimento con il bastone porza vieni con me a quest'ora nella sala comune stanno probabilmente distribuendo qualche infame zuppa e non mi dispiacerebbe proprio mandare giù una ciotola di roba calda nemmeno a John sarebbe dispiaciuto così si affiancò al folletto rallentando in modo da tenere il passo con il movimento incerto e vacillante del nano stava alzandosi il vento tutto attorno le vecchie costruzioni di legno scricchiolavano sotto la sua sferza da qualche parte un'imposta dimenticata aperta sbatteva senza sosta ci fu un tonfo soffocato un cumulo di neve si era staccato da un tetto atterrato dalle loro spalle non vedo il tuo lupo rilevò Tyrion durante gli addestrimenti lo lascio incatenato alla vecchia stalla in questa stagione chiudono gli assi di alloggiamento dei cavalli così nessuno va a dare fastidio a spettro il resto del tempo lo tengo con me la mia cella è nella torre di Ardyn quella con gli spalti a pezzi macerie nel cortile e un puntello per tenerla in piedi proprio come il nostro nobile re Robert dopo una bevuta pensavo che tutti quegli edifici fossero abbandonati ma nessuno importa niente di dove dormi John si strinse nelle spalle la maggior parte delle vecchie torri è vuota e ti puoi scegliere la cella che ti pare c'era stato un tempo in cui il castello nero era servito di base per oltre 5.000 uomini più i loro serventi i cavalli e le armi quel tempo era finito ora si arrivava a malapena a un decimo di quel numero e molte parti della piazza forte stavano andando in rovina mi farò un punto d'onore di dire a tuo padre di mandare un bel po' di spaccapietra ai lavori forzati prima che questa torre finisca definitivamente a pezzi la risata di Tyrion condensò nell'aria gelida John non sfuggì il sarcasmo ma neppure l'innegabile verità lungo tutta l'estensione della barriera la confraternita in nero aveva costruito 19 fortini ma solamente tre erano ancora occupati uno era il forte occidentale sulla grande costa rocciosa sferzata dai venti del mare l'altro era la torre delle ombre sulle impervie montagne a occidente dove la barriera stessa aveva fine tra qui due estremi nel punto in cui terminava o iniziava la strada del re si ergeva il castello nero tutte le altre piazze forti vuote da molto tempo erano luoghi solitari desolati abitati da fantasmi dove il vento raggelante ululava attraverso finestre ridotte a occhiaie cieche le torrette sorvegliate dagli spiriti dei morti sta meglio da solo disse John con ostinazione tutti hanno paura di spettro ragazzi prudenti commentò Tyrion ma poi cambiò argomento corre voce che tuo zio sia fuori da troppo tempo nella mente di John tornò al ricordo del selvaggio desiderio che aveva provato Benjen Stark morto nella neve arrossata guardò altrove perché il folletto aveva un'acuta percezione degli stati d'animo e non voleva che gli leggesse la colpa negli occhi ha detto che sarebbe tornato per il mio compleanno ammise ma quel giorno era venuto e andato ignorato da tutti da almeno una settimana Benjen è uscito a cercare Sir Wayman Royce suo padre è uno degli alfiari di Lord Arryn ha detto che si sarebbero spinti fino alla torre delle ombre che è molto lontana e molto in alto nelle montagne ho anche sentito che parecchi vali di ranger sono scomparsi di recente insistè Tyrion mentre salivano ai gradini che portavano alla sala comune fece una smorfia e aprì la porta dicendo gli elfi maligni devono essere affamati quest'anno la sala era enorme e percorsa da correnti d'aria gelida il grande fuoco che ardeva nel vasto camino di pietra serviva a poco alcuni corvi avevano fatto il nido tra le travature della volta John Lee di gracchiare accettò una ciotola di cibo caldo e alcune fette di pane nero dai cuochi di turno quel giorno Grann il rospo e altri suoi compagni erano seduti su una panca vicino al fuoco ridevano e si insultavano l'un l'altro con voci rauke John li osservò pensieroso per un lungo momento e alla fine risolse di andare a sedere all'estremo opposto della sala da solo non rimase solo per molto Tyrion Lannister venne a sedersi di fronte a lui orzo cipolle carote il folletto annusò con espressione diffidente qualcuno dovrebbe ricordare al cuoco che le rape non sono bistecche stufato di montone John si tolse i guanti e si riscaldò le mani nel flusso di vapore che saliva dalla ciotola mentre il profumo gli faceva venire l'acquolina in bocca Snow quella voce è simile ad acciaio di valeria questa volta nel tono di Ser Alistair Thorn c'era una nota sconosciuta a John si girò verso di lui il lord comandante vuole vederti subito per qualche attimo John fu troppo spaventato perfino per muoversi perché il lord comandante voleva vederlo avevano saputo qualcosa di Benjen si tratta di mio zio mormorò forse era morto forse la sua visione era diventata realtà è tornato sano e salvo il lord comandante non apprezza che lo si faccia aspettare fu la risposta di Ser Alistair e io non apprezzo che un bastardo discuta i miei ordini falla finita torna Tyrion Lannister spinse indietro la panca e si alzò lo stai spaventando tieniti fuori da faccende che non ti riguardano Lannister questo non è il tuo posto in compenso lo è la corte del re il folletto sorrise una sola parola nell'orecchio giusto e tu finirai i tuoi giorni da vecchio inacidito quale sei senza più avere la possibilità di addestrare anche solo un ragazzo ora dia Snow per quale ragione il vecchio orso vuole vederlo riguarda suo zio no è una cosa completamente diversa è arrivato un uccello messaggero da grande inverno con qualcosa che riguarda suo fratello si corresse fratellastro Bran Jon si alzò in piedi è accaduto qualcosa a Bran è accaduto qualcosa a Bran Jon Tyrion Lannister gli pose una mano sul braccio mi dispiace ragazzo tanto Jon lo udì a malapena allontanò la mano di Tyrion e attraversò la sala a passi rapidi che divennero una corsa ancora più rapida prima di arrivare all'uscita corsi al maniero del comandante aprendosi la strada attraverso cumuli di neve perenne superate le guardie salì i gradini a due alla volta e quando finalmente fu al cospetto del lord comandante i suoi stivali erano fradici e lui aveva il fiato grosso e gli occhi sbarrati Bran Ansimo che cosa dice di Bran Geor Mormont lord comandante dei guardiani della notte era un vecchio ruvido con un enorme cranio calvo e una ruffata barba grigia sull'avambraccio raggeva un corvo al quale stava dando chicchi di grano mi si dice che sai leggere Snow si sbarazzò del corvo che sbatte le ali e andò a posarsi sul davanzare della finestra da dove osservò Mormont togliersi dalla cintola una pergamena arrotolata e porgerla a John grano gracchiò l'uccello grano grano il dito di John seguì il contorno del metalupo nel sigillo spezzato di cera lacca bianca riconobbe la caligrafia di Rob mentre cercava di leggere le parole provero confondersi mescolarsi le une nelle altre si rese conto che stava piangendo qualche modo in mezzo alle lacrime trovò il nesso tra quelle parole confuse Brant è svegliato disse alla fine chi dei hanno voluto ridarcelo sì ma è uno storpio commentò Mormont mi dispiace ragazzo leggi il resto della lettera John lesse ma non aveva importanza nessuna importanza Brant sarebbe vissuto questo solo contava che un fratello vivrà Lord Mormont scosse il capo prese una manciata di grano ed emise un fischio il corvo tornò sul suo avambraccio vivrà vivrà gracchiò John scese le scale a tutta velocità un sorriso in faccia e la lettera di Rob stretta nel pugno mio fratello vivrà disse alle guardie che si scambiarono un'occhiata tornò di corsa alla sala comune da Tyrion Lannister che stava finendo di mangiare afferrò lo metto sotto le ascelle lo fece volteggiare nell'aria lo fece girare come una trottola Brant vivrà Brant vivrà Tyrion parvedrà secollato John lo rimise a terra e gli cacciò la pergamena tra le dita ecco leggi altri uomini in nero stavano raccogliendosi attorno a loro incuriositi a qualche passo di distanza John notò Gran la sua mano era avvolta in una spessa fasciatura di lana appariva in ansia a disagio niente affatto minaccioso John gli si avvicinò e subito Gran indietraggiò alzando le mani stammi lontano bastardo mi dispiace per il tuo polso sorrise John mio fratello Rob usò lo stesso trucco con me una volta ma con una lama di legno male da sette inferi il tuo deve essere anche peggio se vuoi ti posso mostrare come ci si difende da quel tipo di attacco Aliser Thorn lo udì e così e così Lord Snow adesso vuole prendere il mio posto ebbe una smorfia dovrai più facile insegnare a un lupo a fare le capriole che a destrare questi buoi accetto la scommessa Ser Alistair ribatté John mi piacerebbe proprio vedere Spettro fare le capriole John udì Gran trattenere il fiato sconvolto da una simile temerarietà nella sala si fece silenzio poi Tyrion Lannister sdignezzò tre confratelli nero ridacchiarono da un tavolo vicino infine non ci fu alcun modo di arginare la risata generale che si dilatò alle panche ai tavoli ai fuochi ai cuochi i corvi annidati sopra di loro si agitarono infine anche Gran cominciò a ridacchiare giochi di Ser Alistair Thorna non si staccarono mai da John Snow via via che la risata si estendeva la sua espressione divenne più cupa la sua mano si chiuse a pugno hai commesso un errore Lord Snow il suo tono era velenoso come quello di un nemico un grave errore Eddard Eddard Stark superò a cavallo i torreggianti portali di bronzo della fortezza rossa si sentiva indolenzito sfinito affamato e irritato era ancora in sella e sognava una vasca d'acqua calda un piatto di arrosto e un materasso imbottito di piume quando l'attendente del re gli si avvicinò per dirgli che il gran maestro Paisel aveva convocato una riunione urgente del consiglio ristretto era richiesto anche l'onore della presenza del primo cavaliere non appena per lui fosse stato conveniente era chiaro per me sarebbe conveniente domattina rispose seccamente Ned smontando da cavallo l'attendente si esibì in un profondo inchino andrò a porgere al concilio il tuo rincrescimento Lord Stark non andare a porgere niente relazione Ned non avrebbe offeso il concilio ancora prima di cominciare li vedrò prega loro solo di darmi il tempo per rendermi impresentabile sì mio signore assentì l'attendente se ti aggrada ci siamo permessi di riservarti i quartieri che erano stati di Lord Arryn nella torre del primo cavaliere farò portare lassù le tue cose oh i miei ringraziamenti Ned si tolse i grossi guanti di cuoio per cavalcare e li infilò nella cintura alle sue spalle il resto della colonna reale cominciò a fluire attraverso il portale individuò Vaion Poole il suo attendente e gli fece cenno di avvicinarsi sembra che il concilio ristretto abbia immediato bisogno di me assicurati che le mie figlie arrivino ai rispettivi alloggi e ah e di a Jory Cassel di tenerle là che Aria non si imbarchi nelle sue solite esplorazioni Poole si inchinò mentre Ned tornava a rivolgersi all'attendente i miei carri stanno ancora arrancando nelle vie della città mi serviranno gli indumenti adatti provvederò con grande piacere mio signore e così Lord Edvard stanco morto e con indosso abiti non suoi arrivò nella sala del concilio per il suo incontro d'esordio con quattro dei maggiorenti della corte del re tutti in attesa di lui la sala era arredata riccamente al posto delle usuali stuoie di canapa il pavimento era coperto da tappeti pregiati provenienti dalla città Libra di Mir in un angolo cento animali mitici dipinti a colori sgargianti si protendevano da un basso rilievo delle isole dell'estate alle pareti pendevano arazzi da Norvos Cor Lys ai lati della porta torneggiavano due sfingi di valeria con gli occhi di scintillanti granati nelle facce di marmo nero fu il consigliere che a Ned piaceva meno ad accostarsi a lui non appena entrò Lord Varys Leunuco Lord Stark sono stato tremendamente rattristato nell'apprendere dei problemi da te incontrati lungo la strada del re il tocco del Leunuco lasciò tracce di cipria sulla manica di Ned tutti noi abbiamo visitato il tempio accendendo candele per il principe Joffrey e tutti noi continuiamo a pregare per una sua pronta guarigione i vostri dei vi hanno ascoltato rispose Ned con fredda cortesia il principe recupera le sue forze di giorno in giorno si sganciò dalla sua stretta e dalla penetrante nube di profumo che circondava Leunuco Varys emanava l'odore dolciastro di fiori che sono stati lasciati su un sarcofago troppo a lungo Ned attraversò la sala dirigendosi verso il basso rilievo e Renley Baratheon che era immerso in una conversazione sussurrata con un individuo basso poteva trattarsi solamente di dito corto quando Robert aveva preso il trono Renley era un ragazzino di otto anni crescendo aveva assunto una somiglianza con il fratello maggiore che Ned trova sconcertante nel guardarlo ebbe la sensazione che il tempo avesse invertito il proprio flusso mi parve di essere di nuovo con il Robert Baratheon appena uscito vittorioso dalla battaglia del tridente vedo Lord Stark che sei felicemente arrivato esordì Renley lo stesso vale per te devi perdonarmi ma a volte sei davvero l'immagine di tuo fratello solo una brutta copia commentò Renley stringendosi nelle spalle molto più elegante dell'originale tuttavia si intromise dito corto Lord Renley spende in vestiario più della metà delle dame di corte messe assieme il che non era troppo lontano dalla verità Lord Renley indossava velluto verde scuro con una dozzina di cervi d'oro ricamati sopra tunica attorno a una spalla trappeggiata con studiata non curanza c'era una mezza cappa trattenuta al collo da una fibbia in cui era incastonato un solo smeraldo ci sono crimini ben peggiori prise Renley il modo in cui tu ti vesti tanto per citarne uno dito corto ignorò la battuta sono anni che mi auguro di incontrarti Lord Stark il sorriso che scoccò a Ned era al limite dell'insolenza non dubito che Lady Caitlyn ti abbia parlato di me l'ha fatto rispose Ned in tono freddo la maliziosa arroganza delle sue parole l'aveva appunto sul vivo so che hai avuto il piacere di conoscere anche mio fratello Brandon Renley Baratheon rise Lord Varys si accostò per sentire meglio fin troppo bene ribatté dito corto portò ancora addosso un pegno della sua stima Brandon ti ha parimenti parlato di me? spesso e con un certo calore Ned sperò che ciò concludesse il battibecco non aveva né il tempo né la pazienza per i duelli verbali che piacevano a loro e io che pensavo che voi Star che il calore non andaste d'accordo proseguì dito corto imperterrito qui nel sud si dice che siate fatti di ghiaccio e che solo nel momento in cui superate l'incollatura cominciate a sciogliervi ah non ho intenzione di sciogliermi in tempi brevi lord Baelish su questo ci puoi contare Ned gli voltò alle spalle e andò verso il tavolo del concilio maestro Paesel confido che tu stia bene quanto basta per un uomo della mia età mio signore il gran maestro gli rivolse un sorriso dall'alto scranno sul quale sedeva a un capo del tavolo ma mi stanco con facilità temo ciuffi di capelli candidi spuntavano qua e là alla base della cupola calva che sovrastava la sua faccia gentile il collare del suo ordine culturale non era un semplice anello di metallo come quello di maestro Lewin era composto da due dozzine di pesanti catene attorcigliate a formarne una più grossa e tintinnante che scendeva dalla gola al petto gli anelli erano una mescolanza di pressoché tutti i metalli conosciuti ferro nero e oro rosso rame lucido e piombo opaco e poi acciaio alluminio argento ottone bronzo platino tomaline e ametiste ornavano un elaborato vortice metallico con rubini e smeraldi incastonati in vari punti strategici suggerisco di cominciare disse il gran maestro ad aspettare un altro po' ho timore di addormentarmi come desideri all'altro capo del tavolo lo scranno del re con un cuscino su cui era ricamato in oro il cervo incoronato dei baratheon era vuoto Ned sedette accanto a esso sulla destra il primo cavaliere era la mano destra del re miei lord esordì formalmente vi chiedo scusa per avervi fatto aspettare tu sei il primo cavaliere rispose Varys noi siamo al tuo servizio gli altri presero posto e a quel punto la verità tornò a colpire Eddard Stark come una mazza ferrata non apparteneva a quel posto alla compagnia di quegli uomini gli tornarono in mente le parole che Robert gli aveva detto nel sepolcro sotterraneo di grande inverno sono circondato da adulatori da imbecilli Ned passò lo sguardo sulle facce attorno al tavolo e si domandò quali fossero gli adulatori e quali gli imbecilli ma si disse che sapeva già la risposta siamo solamente in cinque osservò lord Stannis è andato alla roccia del drago poco dopo la partenza del re per il nord spiegò lord Varys e il nostro valoroso Ser Barristan senza dubbio cavalca a fianco del re nell'attraversare la città come si conviene al lord comandante della guardia reale forse dovremmo attendere che anche il re e Ser Barristan siano presenti disse Ned attendere che mio fratello ci faccia la grazia della sua regale presenza Rennie Baratheon scoppiò in una sonora risata sarà una lunga attesa il nostro amato re Robert porta molti fardelli rispose Varys per alcune piccole questioni si fida di noi in modo da alleggerirne il peso ciò che lord Varys intende dire spiegò Rennie è che tutte le faccende che riguardano bilanci economia e giustizia annoiano a morte mio fratello il governo del reame aspetta quindi a noi lui impartisce qualche ordine di tanto in tanto si tolse dalla manica una pergamena stretta arrotolata e la depose sul tavolo per esempio proprio questa mattina mi ha ordinato di precedere la colonna reale al galoppo e di venire a chiedere al gran maestro Paisel di convocare questo concilio al più presto ha un importante compito da affidarci dito corto sorrise e passò la pergamena a Ned recavato il sigillo reale Ned spezzò la ceralacca con il pollice e scorse il documento per rendersi conto di quale fosse l'ordine così urgente impartito dal re in persona via via che leggeva la sua incredulità aumentava sembrava non esserci un limite alla bizzarria di Robert e che a lui Ned Stark venisse imposto di mandare avanti quella bizzarria in suo nome era come versare sale su una ferita aperta dei pietosi imprecò ciò che il lord eddard vuole dire annunciò Renly è che la sua grazia ci comanda di allestire un grande torneo in onore della nomina del nuovo primo cavaliere quanto chiese subito dito corto 40.000 dragoni d'oro al vincitore rispose Ned leggendo ad alta voce il testo della pergamena 20.000 al cavaliere che arriverà secondo e altri 20.000 al vincitore della grande mischia 10.000 al vincitore della competizione degli arcieri in tutto 90.000 pezzi d'oro dito corto respirò a fondo e non dobbiamo trascurare le altre spese robert vorrà una festa formidabile questo significa cuochi carpentieri serve cantanti giocolieri buffoni da queste parti intervenne Renly di buffoni ne abbiamo in abbondanza il gran maestro paesel guardò dito corto e sarà il tesoro a sostenere questi oneri di quale tesoro parli ribatté dito corto con una smorfia risparmiami l'imbecillità gran maestro sai bene quanto me che i forzieri della colonna sono vuoti da anni sarò costretto a chiedere un ennesimo prestito e i lannester saranno compiacenti nessun dubbio in merito al momento dobbiamo al lord tywin qualcosa come tre milioni di dragoni che differenza potranno mai fare altri centomila un momento lord balish ned era sconvolto stai dicendo che la corona è indebitata per tre milioni di pezzi d'oro no lord stark ti sto dicendo che la corona è indebitata per oltre sei milioni di pezzi d'oro la fetta più grossa la dobbiamo ai lannister ma abbiamo chiesto prestiti anche a lord tyrell alla banca di ferro di bravos e svariati consorzi commerciali di tyrosh di recente ci siamo rivolti pure al credo e il sommo septon tira su il prezzo peggio di un pescivendolo di dorne eris targaryen aveva lasciato il tesoro traboccante d'oro ned rifiutava di accettare la realtà come avete potuto permettere che accadesse una cosa simile il maestro del conio si limita a trovare i fondi necessari dito corto si strinse nelle spalle il re e il primo cavaliere li spendono non posso credere che lord harryn abbia permesso a robert di ridurre il reame a mendicare il gran maestro paesel scosse il testone calvo lord harryn era un uomo prudente ma temo che sua maestà non sempre presti orecchio ai saggi consigli il mio reale fratello adora tornei e festini precisò Renly Baratheon e detesta tutto ciò che lui definisce contare monete parlerò io con sua maestà affermò ned questo torneo è una stravaganza assurda qualcosa che il reame non può permettersi parla pure con lui ribatté lord Renly noi dovremo comunque pianificare questa stravaganza assurda lo faremo un altro giorno rispose ned aveva parlato con tono brusco forse troppo a giudicare dalle occhiate degli astanti non era più a grande inverno questo doveva ricordarlo in ogni istante a grande inverno solamente il re era un'autorità superiore alla sua qui ad approdo del re lui era solo il primo tra i uguali perdonatemi miei lord disse in tono più conciliante sono molto stanco per il viaggio sospendiamo la seduta per oggi e riprendiamo quando tutti saremo in forma migliore non chiese e non attese il loro consenso si alzò senza aggiungere altro fece un cenno di commiato con il capo e uscì cavalieri cavalli e carri continuavano a riversarsi attraverso il portale della fortezza rossa il cortile era un caos di fango sudore e grida il re non era ancora arrivato venne detto a Hedard dopo la brutta storia del tridente gli starchi e il loro gruppo avevano viaggiato molto più avanti del grosso della colonna reale in modo da separarsi dai Lannister e dalle tensioni crescenti tra loro Robert si era visto poco si diceva chi viaggiasse nell'immane casa su ruote della regina ubriaco la maggior parte del tempo se era vero potevano passare molte ore prima che arrivasse per quanto riguardava Ned sarebbe arrivato sempre troppo presto un'occhiata al viso di Sans era sufficiente per risvegliare il furore che gli covava dentro l'ultimo tratto di quel viaggio era stato un vero tormento Sansa se la prendeva con aria perché riteneva che avrebbe dovuto essere inimeria essere sgozzata non Lady e aria dopo aver appreso la fine che aveva fatto il suo piccolo amico garzone del macellaio si era chiusa in un cupo isolamento quanto ad Eddard Stark continuava ad avere sinistre visioni dell'inferno congelato al quale gli erano destinati gli Stark di grande inverno attraversò il cortile esterno e superò una grata aperta che conduceva a un ponte coperto dirigendosi verso quello che riteneva essere la torre del primo cavaliere stai andando dalla parte sbagliata Stark dito corto si materializzò fuori dalle ombre vieni con me guardingo Ned lo seguì dito corto lo guidò dentro un torione giù per una scala oltre un piccolo cortile racchiuso da muri lungo un corridoio deserto nel quale armature vuote montavano la guardia simili a sentinelle spettrali reliquie dei targari and acciaio nero con scaglie di drago sugli elmi ora abbandonate e dimenticate non è questa la strada per arrivare ai miei quartieri Baelish ho forse detto che lo era in realtà sì ti sto portando a una segreta dove ti taglierò la gola e farò sparire la tua carcassa dietro un muro gli rispose dito corto la voce che grondava sarcasmo non ho tempo per i tuoi sospetti Stark tua moglie ti sta aspettando e io non ho tempo per i tuoi giochetti dito corto Caitlyn è a grande inverno a mille miglia da qui sul serio gli occhi grigio verdi di dito corto scintillavano divertiti allora deve essere spuntata fuori una sua incredibile sosia decidi Stark o vieni adesso o io terrò Caitlyn per me dito corto si avviò giù per altri gradini Ned gli andò dietro ancora più guardingo chiedendosi se quella giornata maledetta avrebbe avuto mai fine non era proprio agio negli intrighi ma cominciava a comprendere che per un uomo come dito corto erano invece come l'aria che respirava c'era una pesante porta di quercia e ferro alla base della scala Peter Baelish sollevò la trave che la sbarrava e fece un cenno a Ned di passare uscirono nella luce purpurea del tramonto sulla sommità di uno strapiombo sospeso sopra il fiume ma qui siamo fuori dalla fortezza rossa rilevò Ned brillante osservazione lord Stark rispose dito corto con sarcasmo come l'hai notato il sole o forse il cielo seguimi e guarda dove metti i piedi nella roccia sono stati scavati ad arte degli appoggi per i piedi cerca di non cadere ti spezzeresti l'osso del collo e non credo che Caitlin capirebbe detto questo agile come una scimmia cominciò a scendere lungo la parete dello strapiombo Ned studiò la pietra per un lungo momento e poi si mosse ma più lentamente gli appoggi c'erano come aveva promesso dito corto leggere depressioni invisibili dal basso a meno di non sapere che esistevano il fiume scorreva in fondo al baratro talmente in basso da dare le vertigini Ned tenne il volto girato verso la roccia e cercò di guardare giù il meno possibile quando finalmente arrivò in fondo su uno stretto sentiero fangoso che costeggiava il fiume trovò dito corto pegramente appoggiato a una roccia intento a maneggiare una mela era quasi arrivato al torsolo sei diventato un vecchio imbolsito Stark Baelish lasciò il torsolo nella corrente nessun problema il resto della strada lo copriremo a cavallo aveva lasciato due destrieri ad aspettarli Ned montò in sella e lo seguì al trotto lungo la pista lontano dalla fortezza rossa e verso il ventre della città dito corto tirò le redini di fronte a un edificio di legno a tre piani che cadeva a pezzi alcune lanterne ne illuminavano le finestre nel crepuscolo incombente dall'interno uscivano musica e risate sbracate che parevano andare a fluttuare sulla corrente del fiume sopra l'ingresso un'ornata lanterna a olio chiusa in un globo di vetro rosso piombato oscillava nel vento appesa una pesante catena Ned Stark smontò di sella con rabbia questo è un bordello afferrò dito corto per la spalla e lo costrinse a voltarsi tutta questa strada per portarmi a un bordello c'è tua moglie qui dentro quello fu l'insulto conclusivo Brandon Brandon è stato troppo tenero con te esclamò Ned sbattendo dito corto contro il muro mentre la punta della daga salivo fino a sfiorare il pizzetto appuntito mio signore no gridò una voce angosciata alle spalle di Ned lord Baelish dice il vero si udirono dei passi affrettati alle loro spalle Ned ruotò su se stesso lama in pugno pronto a fronteggiare la minaccia l'uomo dai capelli bianchi continuò ad avanzare verso di loro indossava una rozza tunica marrone e la pappagorgia tremolava nella corsa niente che ti riguardi vecchio iniziò a dire Ned poi strinse le palpebre e abbassò la daga non credeva ai propri occhi Sir Rodrik Rodrik Cassel annui con decisione la tua lady ti attende di sopra Caitlin è davvero qui Ned rinfoderò il pugnale sbalordito non è una beffa di Dito Corto vorrei anch'io che lo fosse ma non è così disse Dito Corto raddrizzandosi forza Stark seguimi e una volta tanto sforzati di apparire un po' più fetente e un po' meno primo cavaliere cerca di non farti riconoscere passando potresti palpeggiare una tetta magari due entrarono e attraversarono una follata sala comune una donna grassa cantava canzoni laide mentre ragazze molto meno grasse e molto più sensuali vestite di fluttuanti veli di seta multicolore si strusciavano addosso ai loro amanti vedute sulle loro ginocchia nessuno degnò Ned di un'occhiata Sir Rodrik rimase al piano terra Dito Corto fece strada al terzo piano per un corridoio fino a una porta oltre quella porta c'era Caitlin gettò un grido nel vederlo corse tra le sue braccia lo strinse con tutte le sue forze mia signora la voce di Ned era un sussurro meno male commentò a Dito Corto chiudendo la porta la riconosce temevo che non saresti mai arrivato mio signore disse Caitlin in un soffio il viso affondato nel petto di lui Peter mi ha tenuta informata mi ha detto dei guai tra Aria e il giovane principe come stanno le mie ragazze? ah tutte e due piene di dolore e di rabbia Kat non capisco che ci fai ad approdo del re? cos'è accaduto? Bran? si tratta di Bran e forse la parola che stava per pronunciare era morto ma non uscì dalle sue labbra si tratta di Bran disse Caitlin ma non è quello che pensi? e allora che altro? perché questo viaggio amore mio? Ned si guardò attorno e che significa questo posto? significa esattamente ciò che è Ditto Corto si accomodò sulla panca nel rientro della finestra un bordello riesce a pensare a un luogo meno probabile nel quale trovare la nobile Caitlin Tully? sorrise inoltre guarda caso questo raffinato esercizio commerciale è di mia proprietà così è stato tutto molto più facile da organizzare da parte mia sono deciso a fare l'impossibile per evitare che i Lannister vengano a sapere della presenza di Caitlin da proto del re e per quale motivo? chiese Ned in quel momento notò le mani di sua moglie il modo incerto in cui le muoveva le cicatrici recenti la rigidezza delle ultime due dita della sinistra Caitlin ti sei ferita prese le mani tra le sue le girò e le esaminò per gli dei sono tagli profondi fatti da una lama come è potuta succedere una cosa simile mia signora Caitlin afferrò la daga che teneva sotto la cappa e gliela consigliò un uomo aveva questa lama in pugno un uomo mandato a tagliare la gola al nostro figlio Bran a far scorrere il suo sangue lo sguardo di Ned prese fuoco mandato da chi lascia che ti dica tutto amore mio Caitlin pose un dito sulle labbra di lui occorrerà meno tempo ascolta e così ascoltò mentre lei gli raccontava tutto dall'incendio della biblioteca della torre alle guardie di approdo del re all'incontro con Varys e dito corto quando ebbe finito Eddard Stark era che sedette al tavolo la mente offuscata la daga stretta nel pugno il lupo di Bran aveva salvato la vita del ragazzo e suo figlio Jon Snow le parole che aveva pronunciato quando avevano trovato la cucciolata dei metalupi nella neve i tuoi figli erano destinati ad avere questi cuccioli mio signore lui aveva ucciso quello di Sansa e in nome di che cosa era colpa quella che gli si contorceva dentro o forse era paura se gli dei avevano veramente mandato loro quei lupi quale distruttiva follia aveva commesso lui si costrinse a riportare la mente sulla daga e sul suo significato la daga del folletto ripete non aveva senso la sua mano si serrò attorno alla liscia impugnatura di osso di drago con un movimento improvviso meno di un fendente verso il basso l'acciaio si conficcò in profondità nel legno del tavolo la daga rimase eretta su di esso quasi ad eriderlo perché Tyrion Lannister vorrebbe Bran morto il bambino non gli ha fatto nulla ma voi Stark che altro avete dentro il cranio oltre alla neve intervenne dito corto da solo Tyrion Lannister non avrebbe mai compiuto un gesto del genere se la regina ha avuto parte in questo delitto o peggio gli dei non vogliano se se l'ha avuta il re Ned si alzò e passeggiò avanti e indietro nella stanza simile a un animale in gabbia no rifiuto di crederlo eppure nel momento stesso in cui pronunciò quelle parole altre parole gli tornarono alla memoria lui e Robert in quel gelido mattino nella terra delle tombe dei primi uomini Robert che parla di assoldare l'ame per far sgozzare l'ultima principessa Targaryen dal passato tornarono anche le immagini rivide la piccola testa del figlio infante di Rhaegar Targaryen ridotta a una massa rossastra ricordò il modo in cui il re aveva girato le spalle allora come le aveva girate poco prima nella sala dei Dari risentì le suppliche di Sansa e quelle remote di Liana è più verosimile che il re non ne sapesse nulla disse Dito Corto non sarebbe la prima volta il nostro buon Robert si è allenato a chiudere gli occhi davanti alle cose che non vuole vedere a questo Ned non trovò nulla da obiettare un'ultima immagine Maika il piccolo garzone di macellaio povero corpo sventrato quasi tagliato in due nemmeno allora il re aveva detto una sola parola la testa gli pulsava che sapesse o no l'accusa rimane tradimento Dito Corto si accostò al tavolo e tolse la daga dal legno tenta pure di lanciare una simile accusa al re Stark ti ritroverai a fare un balletto con Eileen Payne prima ancora di aver finito di parlare quanto alla regina se tu riuscissi a trovare una prova e se riuscissi a farti ascoltare da Robert allora forse può darsi che noi abbiamo una prova dichiarò Ned la daga questa Dito Corto giocherilò con la lama ottimo acciaio ma come vedi mio signore è a doppio taglio il folletto spergiurerà di averla perduta o che gli è stata rubata mentre si trovava a grande inverno e con quella sua testa matta chi oserà dubitarne con non curanza gettò l'arma a Ned il mio consiglio è buttarla nel fiume e dimenticare che è stata forgiata Lord Baelish ribattì Ned freddamente io sono uno Stark di grande inverno mio figlio giace in una torre ridotto a uno storpio potrebbe essere morto e Caitlyn con lui se un cucciolo di lupo trovato nella neve non avesse salvato la vita a entrambi se tu credi davvero che io possa dimenticare tutto questo significa che oggi sei un idiota ancora peggiore di quando mettesti mano alla spada per affrontare mio fratello io sarò anche un idiota Stark ma cammino ancora respiro parlo mentre tuo fratello ha trascorso gli ultimi quattordici anni a decomporsi in un sepolcro nei sotterranei di grande inverno tu sembri molto ansioso di andare a tenergli compagnia e non sarò certo io a dissuaderti ma per quanto mi riguarda preferirei non entrare a far parte della vostra allegra brigata proprio no grazie tante sei l'ultimo che chiamerei a far parte di qualsiasi brigata lord Baelish oh mio signore non sai quanto mi ferisci dicendo ciò dito corto si pose una mano sul cuore in un gesto melodrammatico ho sempre considerato voi Stark dei soggetti di rara pesantezza tuttavia per ragioni che mi sfuggono nel modo più totale Caitlyn sembra avere sviluppato per te una qualche forma di attaccamento quindi è per lei che compirò lo sforzo di tenerti in vita tipica crociata dell'idiota lo ammetto ma a tua moglie non potrai mai rifiutare niente Ned ascolta Caitlyn intervenne prima che lui potesse ribattere ho detto a Peter dei nostri sospetti sulla morte di John Arryn e mi ha promesso di aiutarci a scoprire la verità non era una buona notizia per Eddard Stark eppure su un punto dito corto aveva ragione da vendere avevano bisogno di aiuto e un tempo Peter Baelish era stato come un fratello per Caitlyn questa non sarebbe certamente stata la prima volta in cui lui si trovava costretto a fare lega con qualcuno che disprezzava e sia Ned fece scivolare la daga nella cintola prima hai parlato di Varys anche lui sa tutto non è da me che l'ha appreso rispose Caitlyn non hai sposato una sprovveduta Eddard Stark Varys ha sistemi per scoprire cose che nessun altro potrebbe mai scoprire o sapere è una qualche arte oscura la sua Ned te lo giuro ha spie Ned non si lasciò impressionare lo sanno tutti la cosa va ben al di là delle spie insiste Caitlyn Ser Roderick ha parlato con Ser Aaron Santagar in completa segretezza eppure il ragno tessitore era al corrente della loro conversazione quell'uomo mi fa paura Ned lascia Lord Varys a me dolce lady si intromise dito corto e prego che tu voglia perdonarmi per la piccola oscenità che sto per dire in fondo quale posto migliore di questo per le oscenità dito corto sorrise sollevando una mano le dita incurvate ad artiglio io tengo in pugno i coglioni di quell'uomo o meglio li terrei se li avesse nel momento in cui le tende venissero aperte tanti uccelletti si metterebbero a cantare e questo a Varys non piace affatto se fossi in te Caitlyn avrei molta più paura dei Lannister che dell'Eunuco nulla che Ned non sapesse non riusciva ad allontanare dalla mente il giorno in cui Aria era stata trovata l'espressione sul viso di Cersei Lannister mentre diceva che loro ce l'avevano un lupo con quel tono così morbido così distante e non riusciva ad allontanare dalla mente nemmeno Maika la morte improvvisa di Jon Arryn la caduta di Bran e infine il vecchio folle Aerys Targaryen che muore ai piedi del trono mentre il suo sangue si secca su una spada dorata Mia signora disse a Caitlyn non c'è molto di più che tu possa fare qui ti chiedo di tornare a grande inverno al più presto come c'è stato un assassino possono essercene altri chiunque abbia decretato la morte di Bran non impiegherà molto tempo per scoprire che il piccolo vive ancora Io speravo di vedere le ragazze Non è la migliore delle idee intervenne dito corto La fortezza rossa è piena di occhi curiosi e i bambini parlano Lord Baelish ha ragione amore mio Ned l'abbracciò Prendi Sir Rodrik e tornate a cavallo a grande inverno veglierò io sulle ragazze tu va a casa dai nostri figli a vegliare su di loro Come desideri mio signore Caitlyn sollevò il volto e Ned la baciò sentì le dita ferite di lei aggrapparsi alla sua schiena una stretta quasi disperata come se volesse proteggerlo forse il Lord e la Lady gradirebbero l'uso di una delle stanze suggerì Dito Corto ma è meglio che ti avverta Stark da queste parti è un servizio che costa vorrei un momento da sola con mio marito disse Caitlyn nient'altro molto bene Dito Corto si avviò alla porta ma che non sia troppo lungo primo cavaliere e io faremo bene a rientrare a castello prima che la nostra assenza venga notata Caitlyn gli si accostò e gli prese le mani non dimenticherò l'aiuto che mi hai dato Peter quando i tuoi uomini sono venuti a prendermi non sapevo se mi stavano portando da un amico o da un nemico ora credo di aver trovato più di un amico ho trovato il fratello che credevo di avere perduto sono un inguaribile sentimentale dolce lady Peter Baelish sorrise meglio non dirlo a nessuno però ho impiegato anni a convincere la corte che sono infido e crudele detesterei vedere tutti i miei tenaci sforzi andare sprecati Ned non credette a una sola parola di quell'affermazione ma fu in tono garbato e gentile che disse ah anche i miei ringraziamenti lord Baelish per gli dèi adesso il forciere è proprio pieno commentò dito corto avviandosi Ned attese che la porta si fosse chiusa alle sue spalle prima di tornare a rivolgersi alla moglie una volta che sarai arrivata a casa il mio sigillo manda messaggi a Helmand Allard a Galbar Glover che mettano assieme cento arcieri ciascuno e costruiscano fortificazioni difensive al Moth Kaelin duecento arcieri ben decisi schierati sull'incollatura sono in grado di inchiodare qualsiasi armata inoltre manda Lord Manderly a riparare e rinforzare tutte le difese di Porto Bianco e che le faccia sorvegliare da uomini valiti a questo momento in poi voglio Theon Greyjoy sotto stretta sorveglianza in caso di guerra avremo un dannato bisogno della flotta di suo padre guerra la paura era evidente sul volto di Caitlyn non arriveremo a tanto la rassicurò Ned prendendola di nuovo tra le braccia e pregando che quanto aveva detto fosse vero i Lannister non conoscono pietà verso i deboli Eris Targaryen l'ha imparato pagando con il suo stesso sangue ma non useranno attaccare il Nord senza avere le forze dell'intero reame alle spalle e non le avranno ora tocca a me e farà la parte dell'idiota come se tutto fosse a posto non dimentichiamo amore mio perché ho accettato di venire qui per avere la prova che sono stati gli Lannister a uccidere Jon Arryn le mani di lei lo artigliarono di nuovo se davvero l'hanno ucciso loro disse che cosa accadrà aveva messo il dito nella piaga la giustizia del reame emanata dal re le rispose quando avrò la verità dovrò andare da Robert pregando tutti gli dèi che sia ancora l'uomo che ebbe al fianco sul nido dell'aquila e non l'uomo che temo sia diventato quando avrò la verità dovrò andare da Robert pregando gli dèi che sia ancora l'uomo che ebbe al fianco sul nido dell'aquila e non l'uomo che temo sia diventato ma questo Lord Eddard Stark non lo disse Tyrion sei certo di volerci già lasciare fin troppo Lord Mormont mio fratello Jaime si starà domandando che ne è stato di me potrebbe addirittura pensare che mi hai convinto a indossare il nero vorrei poterci riuscire Mormont afferrò una chela di granchio e la spezzò con una semplice stretta del pugno aveva i suoi anni il Lord Comandante ma conservava ancora la forza di un urso sei un uomo astuto Tyrion sulla barriera c'è bisogno di uomini della tua stoffa il folletto fece una smorfia ironica visto che la metti così Lord Mormont solcherò i sette regni per mare e per terra alla ricerca di altri nani e te li manderò tutti quassù entrambi risero Tyrion succhiava la polpa di una zampa di crostaceo e andava quindi all'assalto della successiva i granchi erano arrivati quella mattina stessa dal forte orientale in un barile pieno di neve ed erano ottimi tra tutti gli uomini nero seduti al tavolo Ser Alistair Thorne fu il solo a non associarsi al generale buon umore Lannister si prende gioco di noi disse solo di te Ser Alistair ribatte il folletto questa volta la risata degli uomini attorno al tavolo fu incerta hai una lingua temeraria per essere nemmeno metà di un uomo gli occhi scuri di Thorne pieni di disprezzo si fissarono in quelli di Tyrion forse tu ed io dovremmo continuare questa conversazione nel cortile degli addestramenti a che scopo i granchi sono qui non nel cortile la battuta provocò altre risate e Rallister si alzò la bocca ridotta a una fessura vieni a ripetere le tue spiritosaggini con l'acciaio in pugno Tyrion si concentrò sulla propria mano destra io ho dell'acciaio in pugno Ser Alistair ma all'aspetto di una forchettina da granchi non importa il folletto saltò in piedi sulla sedia e cominciò a punzecchiare il torace di Thorne con la piccola posata che ne dici di un duello senza quartiere una risata generale e cheggiò nella sala per poco il lord comandante non si strozzò frammenti i mezzi masticati di cibo gli sfuggirono dalle labbra da sopra al davanzale della finestra perfino il suo corvo volle girare il coltello nella piaga duello 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 Ser Alistair uscì dalla sala camminando come se qualcuno gli avesse infilato una daga nel di dietro Mormont stava ancora cercando di riprendere fiato Tyrion gli assestò una sonora pacca sulla schiena al vincitore la preda di guerra proclamò i granchi di Thorne spettano a me il lord comandante ritrovò l'uso della parola sei stato perfido a provocare Ser Alistair a quel modo lo ridargui Tyrion tornò a sedersi e mandò giù un sorso divino se un uomo si dipinge un bersaglio sul petto deve aspettarsi che prima o poi qualcuno lanci una freccia ho visto cadaveri dotati di più senso dell'umorismo del vostro Ser Alistair non sono d'accordo obiettò Bowen Marsh lord attendente dei guardiani della notte un uomo tondo e rosso come un melograno dovresti sentire gli appellativi che appioppa ai ragazzi che a destra Tyrion ne aveva uditi alcuni con le proprie orecchie mi sono fatto l'idea che quei ragazzi hanno qualche soprannome anche per lui ribatté toglietevi le incrustazioni di ghiaccio dagli occhi i miei bravi lord Ser Alistair Thorne dovrebbe spalare sterco nelle vostre stalle non addestrare i vostri giovani guerrieri non c'è penuria di stallieri e la confraternita è nero Lannister borbottò lord Mormont di questi tempi sembra che non ci mandino altro stallieri ladruncoli stupratori prima di prendere l'abito nero Ser Alistair era un cavaliere investito e combatté valorosamente ad approdo del re dalla parte sbagliata intervenne Serg e Remy Riker in tono secco so di cosa parlo c'ero anch'io dalla parte sbagliata proprio accanto a lui spalti della fortezza rossa Eivill Lannister ci offrì una scelta davvero splendida rara a far parte dell'ordine in nero oppure ritrovarci con la testa infilata su una picca prima del calar del sole senza offesa Sergermy mio padre ha una predilizione per le teste infilate sulle picche soprattutto per quelle di coloro che l'hanno in qualche modo infastidito e una faccia nobile quanto la tua avrebbe senza dubbio fatto un figurone sulle mura della città sopra la porta del re saresti stato davvero splendido lassù apprezzo molto Lannister rispose Sergermy con un sorriso sardonico il lord comandante Mormont si schiarì la voce e commentò certe volte ho il sospetto che Ser Alistair abbia ragione su di te Tyrion tu ci deridi per davvero sia noi sia la nostra nobile missione qui sulla barriera e chi non viene deriso di tanto in tanto Tyrion si strinse nelle spalle cerchiamo di non prenderci troppo sul serio alzò la coppa altro vino per cortesia fu Riker a riempirla per essere così piccolo commentò Bowen Marsh sei dotato di una sete molto grande io penso che lord Tyrion sia un uomo molto grande disse maestro Aemon dall'estremo opposto del tavolo aveva parlato con voce calma controllata tuttavia il silenzio scese sui cavalieri in nero perché quando quella voce parlava tutti ascoltavano penso che sia un gigante venuto tra di noi a questo nostro ultimo confine del mondo sono stato definito in molti modi mio signore ma mai un gigante rispose cortesemente Tyrion ciò non di meno gli occhi opachi lattiginosi di maestro Aemon si spostarono su Tyrion ritengo che sia la verità per una volta fu Tyrion Lannister a non avere l'ultima parola poter solo chinare il capo in segno di rispetto sei troppo gentile nei miei confronti maestro Aemon il cieco sorrise era minuto pieno di rughe senza capelli rinsecchito dagli anni il collare del suo ordine culturale formato di molti metalli diversi pendeva afflosciato dal suo collo scarno anch'io sono stato definito in tanti modi lord Tyrion disse l'anziano sapiente gentile è sempre stato uno dei più rari stavolta fu Tyrion a iniziare la risata generale la cena era finita e tutti se ne erano andati tranne Tyrion e Mormont il lord comandante fece accomodare il folletto su una sedia accanto al fuoco e gli offrì una coppa di liquore ed erbe talmente forte da far venire le lacrime agli occhi la strada del re può essere pericolosa anche qui tanto a nord rilevò Mormont o come Ike e Morrek rispose Tyrion e so che anche Yoren sta tornando a sud Yoren è uno solo la confraternita ti scorterà fino a grande inverno il torno di Mormont non ammetteva repliche tre uomini dovrebbero bastare se proprio insisti mio lord potresti mandare anche il giovane Snow sarebbe lieto di rivedere i suoi fratelli Snow l'espressione di Mormont si aggrottò sotto la spessa barba grigia oh vuoi dire lo Stark bastardo meglio di no è bene che i giovani dimentichino la vita che si sono lasciati alle spalle fratelli madri e tutto il resto una visita a casa non farebbe che risvegliare sentimenti che meglio rimangano in letargo conosco queste cose il mio stesso sangue dopo il disonore arrecato da mio figlio Jorah la mia sorella Mage che domina sull'isola degli Orsi ho nipoti che non ho mai incontrato beve una breve sorsata inoltre Jon Snow è soltanto un ragazzo avrai tre valide spade a proteggerti Lord Tyrion sono toccato dalla tua sollecitudine Lord Mormont la forte bevanda gli stava facendo salire la testa leggera ma non al punto da non rendersi conto che il vecchio orso voleva qualcosa da lui mi auguro di poter ripagare la tua gentilezza puoi dichiarò apertamente Mormont tua sorella siede a fianco del re tuo fratello è un grande cavaliere e tuo padre è uno dei lord più potenti dei sette regni parla loro in nostro favore informali delle nostre necessità qui all'estremo nord hai visto la realtà coi tuoi occhi la realtà è che la confraternita dei guardiani della notte sta morendo la nostra forza è ormai scesa al di sotto di mille uomini seicento qui al castello nero duecento alla torre delle ombre ancora meno al forte orientale solo un terzo sono guerrieri la guerriera si estende per centinaia di leghe pensa a questo Tyrion centinaia di leghe e tre uomini soltanto per difendere ogni miglio in caso di attacco tre e un terzo precisò Tyrion soffocando uno sbadiglio Mormont neppure parve udirlo ho mandato Benjen Stark alla ricerca del figlio di Jon Royce disperso al suo primo pattugliamento il vecchio orso si riscaldò le mani protendendole verso le fiamme il giovane Royce era esperto e immaturo quanto l'erba della primavera eppure ha insistito per avere l'onore del comando dicendo che gli spettava in quanto cavaliere ho voluto offendere suo padre così ho ceduto dato il giovane Sir Weimar là fuori assieme a due confratelli in nero tra i migliori quanto sono stato sciocco sciocco concordò il corvo Tyrion alzò lo sguardo l'uccello li stava fissando dalle travature con i scintillanti occhi d'ossidiana sciocco sciocco ripetè non c'era da dubitare che se gli avesse tirato il collo a Lord Mormont sarebbe dispiaciuto non poco Jared era vecchio quasi quanto me continuò il Lord Comandante ignorando del tutto l'irritante creatura alata stava sulla barriera addirittura da più anni eppure sembra che abbia tradito il suo giuramento e sia fuggito non avrei mai creduto possibile è stato catturato e condannato per diserzione Lord Stark mi ha fatto avere la sua testa da grandino di un'altra di un'altra Sono troppo vecchio, troppo provato per continuare a reggere questo fardello. Se io lo depongo, chi lo raccoglierà? Alistair Thorn o Wemmarsh? Ah, devi essere cieco quanto Maestro Eamon per non vedere cosa sono veramente quegli uomini. I guardiani della notte sono diventati esercito di ragazzi tetri e vecchi stanchi. Oltre agli uomini che questa sera hai visto seduti al mio tavolo, ho forse altri venti che sanno leggere, ancora meno che sanno pensare, significare o comandare. Tempo, i guardiani della notte passavano l'estate a potenziare le difese e ogni lord comandante elevava la barriera oltre il livello in cui l'aveva trovata. Adesso, mica cosa che possiamo fare è restare in vita. Mormont era mortalmente sincero. Tyrion lo capì al di là di ogni dubbio e si sentì in qualche modo colpevole verso quel vecchio. Lord Mormont aveva trascorso sulla barriera la maggior parte della sua vita e aveva bisogno di credere che tutti quegli anni non erano stati gettati al vento. Il re sarà informato delle vostre necessità e ne parleremo anche a mio padre e a mio fratello Jaime, disse Tyrion. È una promessa. Lo era. Tyrion Lannister manteneva la parola. Ma il resto lo lasciò nel silenzio. Il resto era che il re Robert l'avrebbe ignorato. Suo fratello Jaime si sarebbe fatto una risata e Lord Tywin gli avrebbe chiesto se aveva perduto il lume della ragione. Tu sei un uomo ancora giovane, Tyrion. Riprese Mormont. Quanti inverni hai visto? Otto. Nove. Il folletto si strinse nelle spalle. Non ricordo. E sono stati tutti brevi. Come tu dici, mio signore. Tyrion era nato nel cuore dell'inverno. Un terribile, crudele inverno che i maestri dicevano fosse durato più di tre anni. Ma le sue prime memorie riguardavano comunque la primavera. Quando ero ragazzo, riprese Mormont, potevo dire che una lunga estate significava sempre che un lungo inverno sta arrivando. Questa estate è durata più di nove anni, Tyrion. Il decimo sarà qui presto. Pensa a tutto questo. Quando io ero ragazzo, la mia paglia mi disse che se gli uomini fossero stati buoni, gli dèi avrebbero concesso loro un'estate senza fine. Forse siamo stati migliori di quanto pensiamo. Tyrion soggignò. Forse la grande estate è a portata di mano. Non sei così stupido a credere a una simile fandonia, mio signore. Lord Mormont non era affatto divertito. Le giornate hanno cominciato ad accorciarsi. Non può sussistere alcuno sbaglio. Maestro Aemon ha ricevuto lettere dalla cittadella. Rilevazioni, accordano con le sue. È la fine dell'estate. Andiamo di fronte. Il vecchio orso strinse con forza la mano di Tyrion. Tu devi fare in modo che loro capiscono, mio signore. Le tenebre si stanno avvicinando. Sono cose selvagge, i boschi. Talupi, e mammut, e orsi grossi come bisonti. Sogno. Ho visto forme ancora più tenebrose. Insogno. Gli fece ecco Tyrion, che aveva maledettamente bisogno di un'altra coppa di quelli cuore d'erbe. Mormont non si rese conto del sarcasmo nel tono del folletto. Pescatori vicino al forte orientale hanno visto esseri bianchi a girarsi sulla spiaggia. Ah, sì? Questa volta Tyrion non riuscì a tenere a freno la lingua. I pescatori di Lannisport spesso vedono sirene a girarsi sulla spiaggia. Dennis Malister scrive che le genti delle montagne hanno cominciato a spostarsi verso sud, preparando la torre delle ombre in grande lunga. «Più grande di quanto si riesca a ricordare. Stanno fuggendo, Tyrion. Ma fuggendo da che cosa?» Lord Mormont andò alla finestra e scrutò nel buio insondabile del nord. «Le mie sono vecchie ossa, Lannister. Ma mai ti sono sentite dentro un gelo come questo. Riferisci al re ciò che ti ho detto. Ti prego. Riferisci al re che l'inverno sta arrivando. E quando sarà arrivato? Quando la lunga notte sarà giunta? Solamente i guardiani della notte si ergeranno tra il reame e le tenebre che caleranno dal nord. E gli dèi ci aiutino. Non saremo pronti quando quel momento verrà. Che gli dèi aiutino me. Se non dormo per qualche ora. Yoren è deciso a partire all'alba. Tyrion si alzò, assonnato dal vino, sfinito da tutti quei discorsi di catastrofi imminenti. Ti sono grato per i riguardi che hai avuto nei miei confronti, lord Mormont. Diglielo, Tyrion. Diglielo. Fai in modo che ti credano. Solamente questa è la gratitudine della quale ho bisogno. Mormont emise un fischio e il corvo volò via ad appolaiarsi sulla sua spalla. Sorrise e diede all'uccello qualche chicco di grano che tirò fuori dalla tasca. Fu quella l'immagine di commiato che Tyrion Lannister ebbe del lord comandante dei guardiani della notte. Fuori il freddo era paralizzante. Avvolto nelle sue spesse pellicce, Tyrion si infilò ai guanti e rivolse un vacuo cenno di saluto ai poveri disgraziati intirizziti che montavano la guardia sulla porta del maniero del comandante. Camminando quanto più in fretta gli consentivano le sue gambe deformi, attraversò il cortile diretto ai suoi quartieri nella torre del re. Gli stivali spezzavano la crosta notturna che si era formata al suolo, facendo scricchiolare a ogni passo la neve indurita. Il suo fiato condensava davanti a lui simile a un vessillo spettrale. Si infilò le mani sotto le ascelle, pregando che Morrek si fosse ricordato di riscaldargli il letto con i carboni ardenti del focolare. Al di là della torre del re incombeva la barriera, immensa e misteriosa, scintillante alla luce della luna. Per un momento si fermò e restò ad osservarla. Le gambe gli dolevano per il freddo e per la velocità con la quale si era mosso. Un tratto si sentì pervadere di un'ondata di follia. Un ultimo sguardo, questo voleva. Un'ultima occhiata oltre l'estremo confine del mondo. Non avrebbe avuto altre occasioni. Indomani cominciava il suo viaggio verso sud e non riusciva nemmeno lontanamente a immaginare per quale motivo avrebbe voluto mai fare ritorno a quella desolazione congelata. Davanti a lui c'era la torre del re, con le sue promesse. Calore, un letto soffice, solo e quieto. Eppure Tyrion Lannister la superò, dirigendosi verso l'immane muraglia. Una scalinata di legno saliva lungo il lato sud. Massicce travi erano state inserite nel ghiaccio dove erano congelate, ancorando i gradini direttamente nella massa cristallizzata. Salendo, la scala si ripanava zigzagante, con un percorso simile a quello di una folgore. I confratelli in nero gli avevano assicurato che quella scala era molto più robusta di quanto non apparisse. Ma le gambe gli dolevano al punto da fargli respingere anche solo l'ipotesi di servirsene per salire. Si infilò quindi nella gabbia di ferro ai piedi della scala e diede una decisa tirata alla corda della campana d'avvertimento. Tre rapidi colpi uno dopo l'altro. Rimase ad aspettare per quella che gli parve un'eternità, chiuso tra le sbarre, la barriera alle spalle. Così a lungo da avere il tempo di domandarsi perché si imbarcava in una simile impresa. Stava quasi per rinunciare quando la gabbia di ferro cominciò a salire con un sussulto. All'inizio salì in modo ineguale, incerto, che divenne via via sempre più regolare. Sotto di lui il suolo cominciò ad allontanarsi e la gabbia a oscillare nel vuoto. Tyrion serrò le mani attorno alle sbarre. Gelo del ferro filtrò attraverso i guanti fino alle sue corte dita. Morrek aveva acceso il fuoco nella sua stanza nella torre del re. Notò il folletto con soddisfazione. Per contro, il maniero del comandante appariva immerso nel buio. Chiaramente il vecchio orso aveva più buonsenso di lui. Fu al di sopra delle torri e continuava a salire. Sotto di lui, nel chiarore della luna, si dilatava il castello nero. Da quella prospettiva, Tyrion poteva vedere quanto tutto apparisse vuoto, abbandonato. Torrioni privi di finestre, mura che crollavano, fortili assediati da macerie. Più oltre, le luci fioche della città della Talpa, il piccolo villaggio che sorgeva lungo la strada del re, a mezza lega dal quartier generale dei guardiani della notte. Più oltre ancora, la luce si rifletteva sui torrenti gelidi che dalle montagne scendevano verso la pianura. Tutto attorno, il mondo era una cupa estensione di colline desolate, di campi pieni di pietre punteggiati di chiazze di neve. Per i sette inferi. La voce gutturale risuonò dietro di lui, poco sopra di lui. È il nano! La gabbia si arrestò con un ultimo sussulto e rimase sospesa sull'abisso, oscillando lentamente avanti e indietro. Le funi che scricchiolavano. Recuperalo, dannazione! Un'imprecazione, un rumore di legno che gemeva sotto sforzo mentre la gabbia veniva incrinata e finalmente la sommità della barriera fu sotto di lui. Attese che l'oscillazione cessasse prima di aprire lo sportello e saltare sul ghiaccio. Una massiccia sagoma in nero era curva sull'argano. Una seconda tratteneva la gabbia con una mano guantata. Le loro teste, le loro facce, erano completamente avvolte in sciarpe di lana nera che lasciavano solo una fessura per gli occhi. I loro corpi apparivano goffi e tozzi sotto strati e strati di lana e cuoio nero sovrapposto a nero. E cosa vorresti a quest'ora della notte? Chiese quello che manovrava l'argano. Un ultimo sguardo! Gli uomini in nero si scambiarono occhiate acide. Guarda pure tutto quello che vuoi. Fece l'altro. Cerca solo di non cadere di sotto, piccolo uomo. O il vecchio orso vorrà la nostra pelle. C'era un basso capanno di assi appena sotto la grande gru di sollevamento. Quando i due confratelli ne aprirono la porta ed entrarono, il folletto intravide il debole lucrore rossastro di un bracere ed ebbe una fugace sensazione di calore. La porta del capanno si richiuse. Tyrion Lannister rimase solo al cospetto del nord. Faceva un freddo ancora più raggelante là in alto. Il vento, simile a un amante brutale, sembrava volergli strappare i vestiti di dosso. La strada che correva lungo la sommità della barriera era addirittura più larga di quanto non fosse per la maggior parte del suo tracciato la strada del re. Tyrion non aveva paura di cadere, anche se appoggiare i piedi sul ghiaccio era un'impresa infida. I confratelli in nero spargevano ghiaia su due camminamenti laterali, ma l'andirivieni di centinaia di piedi finiva con lo sciogliere la crosta gelata sottostante e lentamente, inesorabilmente, la ghiaia sprofondava nel ghiaccio fino a essere inghiottita. Questo costringeva i confratelli a triturare altre pietre e a spargere altra ghiaia in un ciclo che pareva senza inizio e senza fine. Ma Tyrion era pronto ad affrontare sia il vento, sia il ghiaccio. Guardò a est, poi a ovest, scrutando la dilatazione della barriera. Guardò quella strada bianca che pareva estendersi all'infinito, assediata da due neri abissi. Ovest decise. Per nessuna ragione definibile. Cominciò a camminare, seguendo il sentiero prospicente e il versante nord, dove la ghiaia sembrava essere stata sparsa più di recente. Aveva le guance brucianti per il freddo intenso e le gambe gli dolevano a ogni passo. Ma ignorò il dolore e continuò ad avanzare nel vento che gli vorticava attorno con la ghiaia che scricchiolava sotto le suole degli stivali. Davanti a lui, il nastro congelato si ripanava seguendo il profilo delle colline, sempre più in alto, sempre più lontano, fino a svanire oltre l'orizzonte occidentale. Il folletto superò una mastodontica catapulta, alta quanto le mura di una città, struttura d'appoggio affondata nel ghiaccio ancestrale della barriera. Il braccio di lancio, smontato per lavori di ripristino e poi semplicemente dimenticato, giaceva sulla superficie congelata, simile a un giocattolo abbandonato, simile a un giocattolo abbandonato, parzialmente risucchiato nel ghiaccio. «Alto là! Chi va là?» «Se sto fermo troppo a lungo, John rimarrò qui per sempre a fare la bella statuina nel ghiaccio!» Tyrion continuò però a non muoversi. Dal buio, una pallida forma sinuosa scivolò verso di lui e annusò le sue pellicce. «Che si dice, Spettro?» John gli si avvicinò. Sotto gli strati di lana e cuoio, il cappuccio della cappa calato sul volto, il ragazzo appariva più massiccio, più poderoso. «Lannister!» Si abbassò la pesante sciarpa che gli proteggeva la bocca. «Questo è l'ultimo posto al mondo in cui mi sarei aspettato di vederti!» John era armato di una grossa picca col rostro d'acciaio più alta di lui. Al fianco, in un fodero di cuoio rigido, portava la spada. Un liscio corno da guerra, nero, con ornamenti d'argento, quasi scintillava di traverso il suo petto. «E questo è l'ultimo posto al mondo in cui mi sarei aspettato di essere visto!» Ammise Tyrion. «Ho seguito un impulso capriccioso. Se do una grattata a spettro dietro le orecchie, dici che mi stacca una mano?» «No, non con me qui», lo assicurò John. Il folletto affondò le dita guantate nella folta pelliccia del lupo albino. Gli occhi rossi lo fissarono, primordiali, impassibili. Spettro ormai gli arrivava all'altezza del torace. Un altro nano, forse meno di quello... Un altro anno, forse meno. Di questo Tyrion cominciava a essere dolorosamente certo e sarebbe stata la belva guardare lui dall'alto in basso. «Che ci fai quassù, John? Oltre a ghiacciarti quello che hai in mezzo alle gambe?» «Mi hanno assegnato un turno di guardia notturno. Di nuovo. Ser Alistair ha gentilmente provveduto a far sì che il comandante della vigilanza avesse per me un occhio di riguardo. È convinto che se sto in piedi per metà della notte finirò con l'addormentarmi durante gli addestramenti di giorno. Finora si è sbagliato, comunque». «E Spettro?» soghignò Tyrion. «Ha già imparato a fare le capriole?» «Ah, un'altra delusione per Ser Alistair. In compenso, questa mattina Gren si è difeso bene contro Alder e Pip non lascia più cadere la spada con la stessa frequenza di prima. «Pip?» «Il suo vero nome è Piper». «Precisò John». «È il ragazzo piccolo con le orecchie grandi. Mi ha notato mentre facevo vedere certe cose a Gren e mi ha chiesto farle vedere anche a lui. Thorne non gli aveva neppure insegnato come impugnare correttamente una spada. Lo sguardo di John si spostò verso nord. «Ho un miglio di barriera da sorvegliare. Vieni con me». «Se non vai troppo di fretta». «Il comandante della vigilanza mi ha detto di muovermi in modo da evitare che mi si geli il sangue nelle vene. Ma... ma non mi ha detto a quale velocità». Avanzarono nel buio, spettro di fianco a John come un'ombra candida. «Domani parto», disse Tyrion. «Lo so». C'era una velata tristezza nella voce di John. «Tornando al sud, voglio fare sosta a grande inverno. Se hai qualche messaggio...» «Di a Rob che... arriverò a comandare i guardiani della notte. In modo da tenerlo al sicuro. Digli che può pure mettersi a ricamare con le ragazze e dare la sua spada a Mastro Mikken, perché la fonda per farci ferri di cavallo». «Tuo fratello è più grosso di me!» Rise Tyrion. «Rifiuto di essere elatore di messaggi che potrebbero costarmi la pelle». «Rikon ti chiederà quando torno a casa. Cerca di spiegargli che non tornerò, se ci riesci. Ah, digli anche che può avere tutte le mie cose. Gli farà piacere». «Ma quante richieste! Da quanta gente!» Pensò il folletto, che disse «Potresti mandargli una lettera?» «Eh, Rikon non sa leggere. E Bran...» John si fermò all'improvviso. «Io non so che messaggio mandare a Bran. Aiutalo tu, Tyrion». «Quale aiuto potrei dargli? Non sono un maestro come lui, come Eamon. Non so come alleviare la sua sofferenza. Non ho incantesimi per ridargli le gambe». «Beh, hai dato aiuto a me quando ne avevo bisogno», disse John. «Parole! Questo ti ho dato! Nient'altro che parole!» «E allora, dà le tue parole anche a Bran, per favore». «Uff, tu stai chiedendo a uno cioppo di insegnare a uno storpio come si fa a ballare». Tyrion scossa il capo. «Per quanto onesto possa essere quell'insegnamento, il risultato sarebbe solamente una cosa grottesca. Tuttavia, Lord Snow, io so cosa significa amare il proprio fratello. darò a Bran tutto l'aiuto che sarò in grado di dargli». «Ti ringrazio, mio Lord Lannister». John si tolse il guanto e gli offrì la destra. «Amico mio». Tyrion si sentì stranamente commosso. «Oh, la maggior parte di quelli della mia Arisma sono dei bastardi», disse con un lieve sorriso. «Ma tu sei il primo bastardo che ho per amico». Si tolse il guanto con i denti e afferrò la mano di John, carne a contatto di carne. La stretta del ragazzo era forte e sicura. John Snow tornò a infilarsi il guanto. Di colpo si girò e raggiunse il basso, congelato parapetto sul lato nord della barriera. Più oltre c'era il baratro e più oltre ancora solamente tenebre insondabili e selvagge nelle terre ignote. Tyrion lo seguì. Rimasero uno accanto all'altro, immobili di fronte all'estremo confine del mondo. I guardiani della notte impedivano alla foresta di avanzare oltre il mezzo miglio di versante settentrionale della grande muraglia. Le fitte macchie di alberi di legno ferro, alberi sentinella e querce erano state abbattute secoli prima e al loro posto rimanevano una vasta striscia di terra di nessuno completamente allo scoperto che correva lungo tutto il tracciato della barriera. Nessun nemico poteva sperare di riuscire ad attaccare senza essere visto. Tyrion però aveva sentito dire che col tempo, in altri punti della barriera, nelle tante zone lontane dai tre forti che fungevano da capisaldi, la natura era tornata ad avanzare. Le grigie radici degli alberi sentinella e quelle pallide degli alberi diga avevano invaso la terra, lungendo fino all'ombra stessa del gigantesco muro. Il castello nero, però, era un divoratore di legno da ardere. Perciò lì le asce dei confratelli nero continuavano a respingere l'assalto della foresta. Tuttavia, la foresta non era mai troppo lontana. Da quell'altezza, Tyrion era in grado di vedere gli alberi scuri incombere appena al di là della terra di nessuno. Parevano una seconda barriera, una specie di immagine speculare della prima, fatta di pura oscurità. Erano state ben poche le asce che avevano sfidato quelle ombre. Quel labirinto di rami, radici e rovi nel quale neppure la luce della luna riusciva a penetrare. Gli alberi vi crescevano colossali e i ranger parlavano di una loro vita segreta, sotterranea, visibile. Non a caso i guardiani della notte chiamavano foresta stregata quel labirinto. Tyrion Lannister restò a osservare le tenebre compatte, nessun fuoco che spezzasse la loro densità, investito dal vento che pareva una lama glaciale nelle viscere. Lì, sull'estremo confine del mondo, tutte le sue facezie sugli elfi maligni non sembravano più tanto divertenti e le leggende che parlavano degli strani, gli oscuri nemici in agguato nella notte, assumevano una loro letale realtà. «L'ozio è da qualche parte là fuori!» disse Johnny in un sussurro, appoggiandosi alla picca, lo sguardo che esplorava il fitto buio. «La prima volta che mi mandarono qui, ti unavo a pensare che Zio Benjen sarebbe tornato proprio quella notte. Mi misi in testa di essere io, il primo ad avvistarlo, ad avvertire tutti suonando il corno. Ma non è tornato, né quella notte né nessun'altra. «Dagli tempo!» lo incoraggiò Tyrion. Molto lontano, verso nord, un lupo si mise a ululare. Un altro gli fece eco, poi un altro ancora. Spettro inclinò il capo, restando in ascolto. «Se non tornerà, Spettro e io andremo a cercarlo!» Questo promise John Snow mettendo una mano sul collo del suo metalupo. «Ti credo, amico!» espose Tyrion Lannister, rabbrividendo. «Ti credo!» «Ma pensò!» «E poi?» «Chi verrà a cercare te?» A pensò! «E poi?» «Se non tornerà, compagnia il cristio». Ho i vostriirti! Ho i vostriirti! «Suva la fine对 ecstora!» «Suva la fine wanna saacyjati» Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.